Harry Potter e l'Ordine della Fenice di J.K. Rowling narrato da Francesco Pannofino un audiolibro offerto da Pottermore from J.K. Rowling Dudley dissennato Il giorno più caldo dell'estate, almeno fino a quel momento, volgeva al termine e un silenzio sonnacchioso gravava sulle grandi case quadrate di Privet Drive. Le automobili di solito scintillanti sostavano impolverate nei vialetti e i prati, un tempo verde smeraldo, si stendevano in carta pecoriti e giallognoli perché l'irrigazione era stata proibita a causa della siccità. In mancanza delle loro consuete occupazioni, lavare l'auto e falciare il prato, gli abitanti di Privet Drive si erano rintanati nella penombra delle loro case fresche, con le finestre spalancate, nella speranza di indurre una brezza inesistente a entrare. La sola persona rimasta all'aperto era un adolescente che giaceva lungo disteso sulla schiena in una iuola fuori dal numero quattro. Era un ragazzo magro, occhialuto, dai capelli neri, con l'aria sciupata e un po' malsana di chi è cresciuto molto in poco tempo. I suoi jeans erano laceri e sporchi, la sua t-shirt larga e sbiadita, e le suole delle scarpe da tennis si stavano scollando. L'aspetto di Harry Potter non lo rendeva caro ai vicini, persone convinte che la trascuratezza dovrebbe essere punita per legge. Ma poiché quella sera si era nascosto dietro un grosso cespuglio di hortensie, era del tutto invisibile ai passanti. In effetti avrebbe potuto essere individuato solo se suo zio Vernon o sua zia Petunia avessero ficcato la testa fuori dalla finestra del salotto e guardato diritto dentro l'aiuola. Nel complesso Harry era convinto di aver avuto un'ottima idea a nascondersi lì. Forse non stava molto comodo, disteso sulla dura terra calda, ma d'altra parte nessuno lo guardava storto, né digrignava i denti così forte da impedirgli di ascoltare il notiziario, né gli sparava domande perfide, come era successo tutte le volte che aveva tentato di sedersi in salotto a guardare la televisione con gli zii. Come se questo pensiero fosse entrato fluttuando dalla finestra aperta, Vernon Darsley, lo zio di Harry, parlò all'improvviso. «Sono lieto di vedere che il ragazzo ha smesso di girarci fra i piedi. Dov'è, comunque?» «Non so», disse zia Petunia indifferente. «Non è in casa», zio Vernon grugnì. «Guardare il telegiornale», disse sprezzante. «Vorrei sapere che cosa ha davvero in testa, come se un ragazzo normale potesse importare di quello che dicono al telegiornale. Dardley non ha idea di quello che succede. Credo che non sappia nemmeno chi è il primo ministro. Comunque non ci può essere qualcosa che riguarda i suoi simili nel nostro telegiornale». «Fernon, sssst», disse zia Petunia. «La finestra è aperta». «Oh, sì, scusa, tesoro». I Darsley tacquero. Harry ascoltò uno spot sui cereali Fruit and Bran, mentre osservava la signora Fig, una vecchia matta amante dei gatti, che abitava nella vicina Wisteria Walk, passare l'MLM. Era accigliata e borbottava tra sé. Harry fu molto contento di essere nascosto dietro il cespuglio, perché la signora Fig, di recente, aveva preso l'abitudine di invitarlo a bere il tè tutte le volte che lo incontrava per la strada. Aveva svoltato l'angolo ed era scomparsa quando la voce di zio Vernon uscì di nuovo dalla finestra. «Dad è fuori per la merenda?» «Dai Polkis», disse zia Petunia affettuosa. «Ha tanti amichetti, li vogliono tutti così bene!» Harry soffocò a fatica uno sbuffo. I Darsley erano straordinariamente stupidi quando si trattava del figlio Dudley. Si erano bevuti tutti le sue ottuse bugie sul fatto di essere invitato a merenda da un membro diverso della sua banda ogni sera delle vacanze estive. Harry sapeva benissimo che Dudley non era invitato da nessuna parte a merenda. Lui e la sua banda passavano tutte le sere a fare a pezzi il parco giochi, fumare agli angoli delle strade e tirar sasse alle auto e ai bambini di passaggio. Harry li aveva visti all'opera durante le sue passeggiate serali per Little Winging. Aveva trascorso gran parte dell'estate vagando per le strade a recuperare giornali dai cestini. L'attacco della sigla del notiziario delle sette raggiunse le orecchie di Harry e il suo stomaco si contrasse. Forse quella, dopo un mese di attesa, sarebbe stata la sera giusta. Un numero record di vacanzieri bloccati affolla agli aeroporti, mentre lo sciopero degli addetti spagnoli ai bagagli entra nella seconda settimana. «Gli affibbierei una bella siesta eterna io a quelli là», ringhiò Tio Vernon in coda alla frase del giornalista. Ma fuori, dentro l'aiuola, lo stomaco di Harry si rilassò. Se fosse successo qualcosa, certo sarebbe stata la prima notizia. Morte e distruzione erano più importanti dei vacanzieri bloccati. Emise un lungo lento respiro e scrutò il cielo di un azzurro luminoso. Tutti i giorni di quell'estate erano uguali. La tensione, l'attesa, il temporaneo sollievo e poi la tensione che saliva di nuovo e la domanda si faceva sempre più insistente. Perché non era ancora successo nulla? Rimase in ascolto, nel caso ci fosse qualche piccolo indizio, non riconosciuto dai babbani per quello che era davvero, una scomparsa inspiegabile, forse, o qualche strano incidente. Ma lo sciopero degli addetti ai bagagli fu seguito dalla siccità nel sud-est. «Spero che il vicino stia ascoltando», borbottò zio Vernon. «Lui e i suoi irrigatori accesi alle tre del mattino». Poi un elicottero che aveva rischiato di precipitare in un campo nel Sarri, poi il divorzio di una celebre attrice dal suo celebre marito. «Come se a noi interessassero le loro sordi destorielle», disse tirando su col naso zia Petunia, che aveva seguito il caso morbosamente in tutte le riviste su cui era riuscita a mettere le mani ossute. Harry chiuse di nuovo gli occhi contro il cielo ormai fiammeggiante, mentre il giornalista leggeva. «E infine Bungie, il pappagallino, ha trovato un nuovo modo per passare una fresca estate. Bungie, che vive alle cinque piume di Barnsley, ha imparato a fare lo sci d'acqua. Mary Dorkins ci è andata per noi». Harry aprì gli occhi. «Se erano arrivati ai pappagallini dediti allo sci d'acqua, non ci sarebbe stato nient'altro che valesse la pena di ascoltare. Rotolò cauto sulla pancia e si alzò su gomiti e ginocchia, pronto a strisciar via da sotto la finestra. Si era spostato forse di cinque centimetri quando successero parecchie cose in rapida sequenza. Un forte e cheggiante crack infranse il silenzio sonnacchioso come un colpo di fucile. Un gatto sgattaiolò fuori da sotto un'auto parcheggiata e filò via. Uno strillo, un'imprecazione sorda e un rumore di porcellana infranta uscirono dal salotto dei Dursley. E quasi fosse il segnale che aspettava, Harry balzò in piedi, sfilando dalla vita dei pantaloni una sottile bacchetta di legno, come se sfoderasse una spada. Ma prima che potesse raddrizzarsi del tutto, la sua testa urtò contro la finestra aperta dei Dursley. Il frastuono che seguì fece strillare zia Petunia ancora più forte. Harry si sentì la testa come spaccata in due. Con gli occhi lacrimanti, barcollò, tentando di mettere a fuoco la strada per individuare la fonte del rumore, ma si era a stento rimesso in piedi quando due manone violacee si protesero dalla finestra per serrarsi attorno alla sua gola. «Mettila via!» ringhiozio Vernon nell'orecchio di Harry. «Adesso, prima che qualcuno la veda!» «Lasciami andare!» bocceggiò Harry. Per qualche istante lottarono. Harry tirava le dita a salsiccia dello zio con la mano sinistra e con la destra manteneva una salda presa sulla bacchetta alzata. Poi Harry sentì una fitta acuta alla sommità della testa. Zio Vernon guai e lo lasciò andare come se avesse ricevuto una scarica elettrica. Una forza invisibile sembrava aver attraversato suo nipote, rendendo impossibile trattenerlo. Anzante, Harry cadde in avanti sul cespuglio di Hortensie, si rialzò e si guardò intorno. Non c'era traccia di ciò che aveva provocato la forte esplosione, ma c'erano molte facce che sbucavano dalle tante finestre vicine. Harry infilò in fretta la bacchetta al suo posto, nei jeans, e cercò di assumere un'aria innocente. «Serata deliziosa!» urlò zio Vernon salutando con la mano la dirimpettaia del numero sette, che lo guardava torva da dietro le tende a rete. «Sentito che ritorno di fiamma? Io e Petunia ci siamo presi un colpo!» Continuò a sorridere in un modo orribile, maniacale, finché tutti i vicini curiosi non furono scomparsi dalle varie finestre. Poi mutò il sorriso in una smorfia di rabbia e fece a Harry di avvicinarsi. Harry mosse qualche passo avanti, badando a fermarsi appena prima del punto in cui le mani tese di zio Vernon avrebbero potuto riprendere a strangolarlo. «Che cosa diavolo intendevi fare, ragazzo?» chiese zio Vernon con voce rasposa, tremante di furia. «Che cosa intendevo fare e in che senso?» ribatté Harry gelido. Continuava a guardare a destra e sinistra lungo la strada, nella speranza di vedere il responsabile dell'esplosione. «Quel fracasso da pistola, proprio fuori dalla nostra, non sono stato io!» disse Harry con decisione. La faccia magra, cavallina di zia Petunia, comparve accanto al faccione largo e violetto di zio Vernon. Era furiosa. «Perché stavi appostato sotto la finestra?» «Sì, sì, hai ragione, Petunia. Che cosa ci facevi sotto la nostra finestra, ragazzo?» «Ascoltavo il telegiornale», rispose Harry con voce rassegnata. Zio e zia si scambiarono uno sguardo indignato. «Ascoltavi il telegiornale?» «Ancora?» «Beh, sapete, tutti i giorni è diverso», disse Harry. «Non fare il furbo con me, ragazzo. Voglio sapere che cosa hai davvero in mente e non rifilarmi più queste sciocchezze sul fatto che vuoi ascoltare il telegiornale. Sai perfettamente che i tuoi simili...» «Attento, Vernon!» sussurrò zia Petunia, e zio Vernon abbassò la voce, tanto che Harry lo sentì a fatica. «Che i tuoi simili non finiscono nel nostro telegiornale!» «Questo lo dite voi», replicò Harry. I Darsley lo guardarono con gli occhi sbarrati per qualche istante. Poi zia Petunia disse «Sei un perfido piccolo bugiardo. Che cosa fanno?» E anche lei abbassò la voce, tanto che Harry dovette leggerle le labbra per il resto della frase. «Tutti quei gufi se non portarti notizie!» «Ha!» esclamò zio Vernon in un sussurro trionfante. «Vediamo come te la cavi adesso, ragazzo! Come se non lo sapessimo, che tutte le notizie ti arrivano con quegli uccelli pestilenziali!» Harry esitò un momento. Gli costava dire la verità questa volta, anche se gli zii non potevano sapere quanto soffriva ad ammetterlo. «I gufi non mi stanno portando nessuna notizia», confessò con voce piatta. «Non ci credo», disse subito zia Petunia. «Nemmeno io», aggiunse zio Vernon con energia. «Sappiamo che hai in mente qualcosa di strano», disse zia Petunia. «Non siamo stupidi, sai?» aggiunse zio Vernon. «Beh, questa sì che è una notizia», rispose Harry, «che si stava arrabbiando e prima che i Darsley potessero richiamarlo indietro, si voltò, attraversò il prato, scavalcò il muretto del giardino e marciò su per la strada. Era nei guai, e lo sapeva. Avrebbe dovuto affrontare gli zii più tardi e pagare il prezzo della sua insolenza, ma al momento non gli importava granché, aveva questioni molto più gravi per la testa. Era sicuro che l'esplosione fosse stata provocata da qualcuno che si materializzava, o si smaterializzava. Era esattamente il rumore che faceva Dobby, l'elfo domestico, quando svaniva nel nulla. Possibile che Dobby fosse lì in Privet Drive, che lo stesse seguendo proprio in quell'istante. Nel pensarlo, Harry si voltò a guardare Privet Drive, che però appariva completamente deserta, ed era certo che Dobby non sapesse rendersi invisibile. Continuò a camminare, senza nemmeno pensare a che strada stava facendo, perché di recente aveva battuto quelle vie così spesso che i piedi lo portavano automaticamente verso i suoi rifugi preferiti. Ogni due o tre passi si guardava alle spalle. Un essere magico era vicino a lui mentre era disteso tra le ortenzie morenti di zia Petunia. Ne era certo. Perché non gli aveva rivolto la parola? Perché non aveva cercato un contatto? Perché ora si nascondeva? E poi, proprio quando la frustrazione era al culmine, la sua sicurezza svanì. Forse non era un rumore magico, dopo tutto. Forse lui era così avido del minimo segno di contatto da parte del suo mondo che aveva solo una reazione eccessiva a rumori perfettamente ordinari. Poteva essere certo che non fosse stato il fragore di qualcosa che si rompeva in casa di un vicino? Provò la sorda sensazione che lo stomaco gli sprofondasse, e prima che se ne rendesse conto la disperazione che lo aveva afflitto tutta l'estate, gli fu di nuovo addosso. L'indomani mattina avrebbe messo la sveglia alle cinque, in modo da poter pagare il gufo che consegnava la gazzetta del profeta, ma aveva senso continuare a comprarla? Harry dava appena un'occhiata alla prima pagina, e poi la gettava via. Quando quegli idioti del giornale avessero finalmente capito che Voldemort era tornato, sarebbe stata una notizia da titoloni, ed era l'unico genere di notizie che gli interessava. Se avesse avuto fortuna, ci sarebbero stati anche i gufi dei suoi migliori amici, Ron e Hermione, anche se la speranza che le loro lettere gli portassero notizie si era infranta da tempo. «Non possiamo dire molto di tu sai chi, ovviamente. Ci è stato raccomandato di non scrivere niente di importante, nel caso che le lettere vadano perse. Abbiamo parecchio da fare, ma non posso spiegarti i dettagli. Stanno succedendo un sacco di cose. Ti diremo tutto quando ci vedremo». Ma quando si sarebbero visti? Nessuno pareva preoccuparsi di indicare una data precisa. Hermione aveva scribacchiato «Spero che ci vedremo presto», in fondo al suo biglietto di auguri di compleanno. Ma quanto presto era presto! Per quello che poteva dedurre Henry, dalle vaghe allusioni nelle loro lettere, Hermione e Ron si trovavano nello stesso posto, presumibilmente a casa di Ron. Riusciva a stento a sopportare il pensiero di quei due che si divertivano alla tana mentre lui era bloccato in private drive. In effetti era così arrabbiato con loro che aveva gettato via senza aprirle le due scatole di cioccolatini di Mielandia che gli avevano mandato per il suo compleanno. Più tardi se n'era pentito, dopo l'insalata appassita che zia Petunia aveva proposto a cena quella sera. Cosa teneva Ron e Hermione tanto impegnati? Perché lui, Henry, non era impegnato? Non si era dimostrato capace di affrontare molte più cose di loro? Si erano dimenticati tutti di quello che aveva fatto? Non era stato lui a entrare nel cimitero, ad assistere all'assassinio di Cedric, a venire legato a quella lapide e a rischiare di essere ucciso? Non pensarci, si disse Henry con fermezza per la centesima volta. Era già abbastanza brutto continuare a rivisitare il cimitero negli incubi senza indugiare in quei pensieri anche nelle ore di veglia. Svoltò l'angolo in Magnolia Crescent. A metà della via passò davanti allo stretto vicolo sul lato di un garage dove per la prima volta aveva scorto il suo padrino. Sirius almeno sembrava capire quello che Henry provava. Bisognava ammetterlo. Le sue lettere erano prive di vere notizie quanto quelle di Ron e Ermione, ma se non altro, invece di tormentarlo con vaghe allusioni, cercavano di metterlo in guardia e di consolarlo. So che deve essere frustrante per te. Sta alla larga dei pasticci e andrà tutto bene. Sta attento e non agire d'impulso. Beh, pensò Henry mentre attraversava Magnolia Crescent svoltava in Magnolia Road e puntava verso il parco giochi sempre più buio, si era comportato più o meno secondo i consigli di Sirius. Almeno aveva resistito alla tentazione di legare il baule alla scopa e partire da solo per la tana. In fondo si era comportato anche troppo bene, considerato come si sentiva deluso e arrabbiato per essere bloccato in private drive da tanto tempo, ridotto a nascondersi tra le aiuole nella speranza di scoprire qualcosa sul Lord Voldemort. Tuttavia era piuttosto irritante sentirsi dire di non agire d'impulso da uno che aveva trascorso dodici anni ad Azkaban, la prigione dei maghi. Era evaso, aveva cercato di commettere l'omicidio per il quale era stato condannato in origine e poi era fuggito con un ipogrifo rubato. Harry scavalcò con un salto il cancello chiuso del parco e si incamminò nell'erba rinsecchita. Il parco era vuoto come le strade attorno. Quando fu alle altalene si lasciò cadere sull'unica che Dudley e i suoi amici non erano ancora riusciti a distruggere, attorcigliò un braccio attorno alla catena e rimase lì a fissare ingrugnito il terreno. Non poteva più nascondersi nella juola dei Dursley. L'indomani avrebbe dovuto pensare a un nuovo modo per ascoltare il telegiornale. Nel frattempo l'unica sua prospettiva era un'altra notte di sonno disturbato, perché anche quando sfuggiva agli incubi su Cedric faceva sogni sconvolgenti di lunghi corridoi ciechi o che finivano contro porte chiuse a chiave, cosa che attribuiva alla sensazione di prigionia che provava da sveglio. Spesso la vecchia cicatrice sulla fronte prudeva fastidiosa, ma Harry non si illudeva più che Ron o Hermione o Sirius l'avrebbero trovato interessante. In passato il dolore alla cicatrice era stato il segnale d'avvertimento che Voldemort stava ridiventando forte, ma adesso che lui era tornato probabilmente gli avrebbero detto che era ovvio che fosse sempre irritata, niente di cui preoccuparsi, roba vecchia. L'ingiustizia di tutto questo gli fece montare una rabbia quasi da urlare. Se non fosse stato per lui nessuno avrebbe nemmeno saputo che Voldemort era tornato e la sua ricompensa era restare prigioniero a Little Wingin per ben quattro settimane, completamente isolato dal mondo magico, ridotto ad accucciarsi tra le ortenzie moribonde per sentir parlare di pappagallini che facevano sci d'acqua. Com'era possibile che Silente si fosse dimenticato così in fretta di lui? Perché Ron e Hermione erano in vacanza insieme e non lo avevano invitato? Quanto ancora doveva sopportare che Sirius gli dicesse di star calmo e fare il bravo, o resistere alla tentazione di scrivere a quella stupida gazzetta del profeta per far notare che Voldemort era tornato? Questi pensieri furibondi vorticavano nella testa di Harry e le sue viscere si contorcevano per la rabbia nella fosa notte di velluto che calava attorno a lui, l'aria carica dell'odore di erba calda e secca, unico rumore il sordo brontolio del traffico sulla strada oltre le inferriate del parco. Non sapeva quanto fosse rimasto seduto sull'altalena prima che un rumore di voci interrompesse le sue riflessioni. Alzò lo sguardo, i lampioni delle strade attorno gettavano un bagliore nebuloso, abbastanza intenso da delineare un gruppo di persone che avanzavano nel parco. Uno cantava a gran voce una canzone volgare, gli altri ridevano. Un lieve ticchettio si alzava dalle costose bici da corsa che spingevano. Harry sapeva chi erano. La sagoma in testa era senza ombra di dubbio quella di suo cugino, Dudley Dursley, che si avviava verso casa, accompagnato dalla sua fedele banda. Dudley era enorme come sempre, ma un anno di dieta ferrea e la scoperta di un nuovo talento avevano sortito un certo cambiamento nel suo fisico. Come zio Vernon raccontava deliziato a chiunque lo ascoltasse, Dudley di recente aveva vinto il campionato scolastico di pesi medi juniores del sud-est. La nobile arte, come la definiva zio Vernon, aveva reso Dudley ancora più temibile di quanto fosse apparso a Harry ai tempi della scuola elementare, quando gli faceva da punching ball. Harry non era più neanche lontanamente intimorito dal cugino, ma non pensava che il fatto che Dudley imparasse a prendere a pugni gli altri, con crescente precisione, fosse qualcosa di cui rallegrarsi. I bambini del vicinato erano terrorizzati da lui, ancora più che da quel Potter che li avevano avvertiti era un teppista incallito e frequentava il centro di massima sicurezza San Bruto per giovani criminali irrecuperabili. Harry osservò le sagome scure solcare l'erba e si chiese chi avessero picchiato quella sera. Guardatevi attorno, si scoprì a pensare mentre li studiava. Andiamo? Guardatevi attorno. Sono qui, tutto solo. Dai, fatevi avanti. Se gli amici di Dudley l'avessero visto lì seduto, certo si sarebbero precipitati su di lui. E allora come si sarebbe comportato Dudley? Non avrebbe voluto perdere la faccia davanti alla banda, ma sarebbe stato terrorizzato all'idea di provocare Harry. Sarebbe stato proprio divertente assistere al dilemma di Dudley, schernirlo, osservarlo, incapace di reagire. E se uno degli altri avesse tentato di colpire Harry, lui era pronto. Aveva la sua bacchetta. Dovevano solo provarci. Avrebbe adorato sfogare un po' della sua frustrazione sui ragazzi che un tempo avevano reso la sua vita un inferno. Ma non si voltarono, non lo videro. Erano quasi al cancello. Harry dominò l'impulso di chiamarli. Cercare lo scontro non era una mossa astuta. Non doveva usare la magia. Avrebbe rischiato di nuovo l'espulsione. Le voci della banda di Dudley si spensero. I ragazzi erano fuori dalla sua vista e puntavano verso Magnolia Rudd. «Ecco fatto, Sirius», pensò Harry debolmente. «Niente di impulsivo. Sono stato alla larga dai guai. Proprio il contrario di quello che avresti fatto tu». Si alzò e si stiracchiò. Zia Petunia e Zio Vernon sembravano convinti che quando Dudley si faceva vivo era l'ora giusta per rientrare a casa. E qualunque orario successivo era troppo tardi. Zio Vernon aveva minacciato di chiudere Harry nel capanno, se fosse tornato a casa dopo Dudley. E così, soffocando uno sbadiglio e ancora rabbuiato, Harry puntò verso il cancello del parco. Magnolia Road, come Privet Drive, era piena di grandi case quadrate, comprati perfettamente curati, tutte appartenenti a grandi proprietari quadrati che guidavano auto molto pulite, simile a quella di Zio Vernon. Harry preferiva Little Whinging di notte, quando le tende abbassate disegnavano macchie di colore come gioielli nell'oscurità, e lui non correva il rischio di sentire borbottii di disapprovazione per il suo aspetto da delinquente. Camminava in fretta, tanto che a metà di Magnolia Road la banda di Dudley fu di nuovo in vista. Si stavano congedando all'imbocco di Magnolia Crescent. Harry entrò nell'ombra di un grande albero di lilla e attese. «Strillava come un maiale, vero?» stava dicendo Malcolm, tra le risate chiocce degli altri. «Bel gancio destro, Big D!» disse Pierce. «Domani alla stessa ora?» chiese Dudley. «Da me, i miei sono fuori!» rispose Gordon. «Ci vediamo là!» disse Dudley. «Ciao, Dad! Ci si vede, Big D!» Harry attese che il resto della banda si allontanasse, prima di muoversi. Quando le loro voci si furono spente di nuovo, girò all'angolo di Magnolia Crescent e, procedendo molto rapido, si ritrovò ben presto a tiro di voce da Dudley, che passeggiava tranquillo, canticchiando un motivo stonato. «Ehi, Big D!» Dudley si voltò. «Oh!» borbottò, «sei tu! Quando è che sei diventato Big D, eh?» chiese Harry. «Piantala!» ringhiò Dudley rivoltandosi. «Bel nome!» disse Harry, sorridendo e accordando il passo a quello del cugino. «Ma per me sarai sempre Didino Piccino!» «Ho detto piantala!» ripetè Dudley, con le mani grosse come prosciutti strette a pugno. «I ragazzi non lo sanno che la tua mamma ti chiama così? Chiudi quella bocca! A lei non lo dici di chiudere la bocca? E vogliamo parlare di patatino e di duccio? Questi almeno li posso usare?» Dudley non disse niente. Lo sforzo di trattenersi dal picchiare Harry sembrava richiedere tutto il suo autocontrollo. «Allora, a chi l'avete date stasera?» chiese Harry col sorriso che svaniva. «A un altro bambino di dieci anni?» «Lo so che due sere fa avete picchiato Mark Evans.» «Andava in cerca di botte», soffiò Dudley. «Ah, sul serio? Ha fatto l'insolente.» «Davvero? Ha detto che sembri un maiale a cui hanno insegnato a camminare sulle zampe di dietro? Perché questa non è insolenza, Dud, è la verità!» Un muscolo si contrasse nella mascella di Dudley. Per Harry era un'enorme soddisfazione sapere quanto stava facendo arrabbiare Dudley. Era come se stesse dilottando la sua frustrazione sul cugino, la sola valvola di sfogo che aveva. Voltarono a destra, lungo lo stretto vicolo dove Harry aveva visto Sirius per la prima volta. Una scolciatoia tra Magnolia Crescent e Wisteria Walk. Era vuoto e molto più buio delle vie che collegava, perché non c'erano lampioni. I loro passi suonavano smorzati tra le pareti di un garage da un lato e un'alta staccionata dall'altro. «Credi di essere un grand'uomo a portare in giro quella roba, vero?» disse Dudley dopo qualche secondo. «Quale roba?» «Quella! Quella cosa che tieni nascosta!» Harry sorrise di nuovo. «Non sei stupido come sembri, eh, Dad? Ma immagino che se lo fossi non riusciresti a camminare e parlare nello stesso tempo!» Harry estrasse la bacchetta. Vide Dudley guardarla torvo. «Non hai il permesso!» disse subito il cugino. «Lo so che non ce l'hai. Verresti espulso da quella scuola di mostri dove vai!» «Come fai a sapere che non hanno cambiato le regole, Big D!» «Non è così!» borbottò Dudley, anche se non suonava del tutto convinto. Harry rise piano. «Non hai il coraggio di sfidarmi senza quella, vero?» sibilò Dudley. «E invece tu hai bisogno di quattro compari alle spalle per darle a un bambino di dieci anni. E quel titolo di box che continua a sbandierare? Quanti anni aveva il tuo avversario? Sette? Otto? Ne aveva sedici, per tua informazione!» ribatté Dudley. «Ed è rimasto secco per venti minuti dopo che l'ho steso. Ed era il doppio di te! Aspetta che dica a papà che hai tirato fuori quella cosa!» «Corri da papà adesso, eh? Il suo campioncino di box ha paura della brutta bacchetta di Harry!» «Non sei così coraggioso di notte, vero?» soghignò Dudley. «Adesso è notte, di di! Si chiama così quando diventa tutto buio. Voglio dire quando sei a letto!» aveva smesso di camminare. Anche Harry si fermò e fissò il cugino. Da quel poco che riusciva a vedere, il faccione di Dudley ostentava un'espressione di strano trionfo. «Che cosa intendi dire? Non sono coraggioso quando sono a letto?» domandò sconcertato. «Di che cosa dovrei aver paura? Del cuscino!» «Ti ho sentito ieri notte!» disse Dudley. «Che parlavi nel sonno! Che chiese di nuovo Harry, ma c'era una sensazione di gelo e di vuoto nel suo stomaco. La notte prima aveva rivisitato il cimitero in sogno. Dudley esplose in un'aspra risata canina. Poi scelse una voce acuta e lamentosa. «Non uccidere Cedric! Non uccidere Cedric!» «Chi è Cedric, il tuo amichetto?» «Io...» «Bugiardo!» disse Harry automaticamente. Ma la bocca gli si era inaridita. Sapeva che Dudley non mentiva, altrimenti come avrebbe fatto a sapere di Cedric. «Papà! Aiuto, papà! Mi ucciderà, papà!» «Zitto!» sibilò Harry piano. «Zitto, Dudley, ti avverto!» «Aiuto, papà! Mamma! Aiutami! Ha ucciso Cedric! Papà, aiuto! Mi... Non puntarmi addosso a quella cosa!» Dudley indietroggiò contro il muro del vicolo. Harry gli stava puntando la bacchetta dritto contro il cuore. Sentiva quattordici anni di odio per Dudley pulsargli nelle vene. Che cosa non avrebbe dato per colpire subito, per stregare Dudley e costringerlo a strisciare a casa come un insetto, rimbambito, con le antenne che gli spuntavano. «Non parlarmi mai più in quel modo!» ringhiò. «Mi hai capito?» «Punta quella cosa da un'altra parte!» «Ho detto! Mi hai capito!» «Puntala da un'altra parte!» «Mi hai capito!» «Togli quella cosa là!» Dudley emise uno strano sospiro tremolante, come se qualcuno l'avesse immerso nell'acqua gelata. Qualcosa era successo alla notte. Il cielo indaco, cosparso di stelle, all'improvviso era diventato nero come la pece e privo di luci. Le stelle, la luna, i lampioni nebulosi ai due capi del vicolo erano scomparsi. Il rombo lontano delle auto e il sussurro degli alberi erano spariti. La serata fragrante all'improvviso era fredda e pungente. Erano circondati da un'oscurità totale, impenetrabile, silenziosa, come se una mano gigante avesse gettato uno spesso mantello ghiacciato sull'intero vicolo, accecandoli. Per un istante Henry credette di aver praticato la magia senza volerlo, nonostante avesse resistito più che poteva. Poi la ragione ebbe la meglio. Non aveva il potere di spegnere le stelle. Voltò la testa da una parte e dall'altra, cercando di vedere qualcosa, ma l'oscurità premeva sui suoi occhi come un velo senza peso. La voce terrorizzata di Dudley esplose nell'orecchio di Henry. «Che cosa stai facendo? Fermati!» «Non sto facendo niente, zitto! E non muoverti!» «Non ci vedo! Sono diventato cieco! Io...» «Ho detto zitto!» Henry rimase immobile, spostando lo sguardo cieco a destra e sinistra. Il freddo era così intenso che tremava tutto. Sulle braccia gli era spuntata la pelle d'oca e i peli sulla nuca erano ritti. Spalancò gli occhi più che poteva, gettando intorno uno sguardo vacuo, senza vedere. Era impossibile. Non potevano essere lì. Non a Little Wingin. Tese le orecchie. Li avrebbe sentiti prima di vederli. «Lo dirò a papà!» piagnucolò Dudley. «Dove sei? Che cosa stai facendo? Vuoi star zitto?» Sibilò Henry. «Sto cercando di ascol...» Ma all'improvviso tacque. Aveva sentito proprio quello che temeva. C'era qualcosa nel vicolo, oltre a loro due. Qualcosa che faceva respiri lunghi, rocchi, sonori. Henry, tremante nell'aria gelida, avvertì un terribile fiotto di paura. «Piantala! Smettila! Te le do, eh? Giuro che te le do!» «Dadri, chiudi! Wham!» Un pugno colpì Henry alla testa, sbilanciandolo. Piccole luci bianche esplosero davanti ai suoi occhi. Per la seconda volta in un'ora, Henry si sentì la testa spaccata in due. Un attimo dopo, atterrava con un gran tonfo sul terreno e la bacchetta gli sfuggiva di mano. «Dadri, sei un idiota!» urlò, gli occhi che lacrimavano dal dolore mentre si rimetteva a fatica a quattro zampe, cercando freneticamente attentoni nell'oscurità. Sentì Dudley sferrare pugni, colpire la staccionata del vicolo, barcollare. «Dadri, torna indietro! Gli stai correndo incontro!» Ci fu un urlo orrendo, come uno squittio, e i passi di Dudley si fermarono. Nello stesso momento, Henry sentì un gelo strisciante alle spalle, che poteva voler dire solo una cosa. Ce n'era più di uno. «Dadri, tieni la bocca chiusa! Qualunque cosa tu faccia, tieni la bocca chiusa!» «La bacchetta!» borbottò Henry agitato, con le mani che zampettavano sul terreno come ragni. «Dov'è la bacchetta? Andiamo!» «Lumos!» pronunciò l'incantesimo automaticamente, avido di luce che lo aiutasse nella sua ricerca. Con suo incredulo sollievo, la luce fiottò a pochi centimetri dalla sua mano destra. La punta della bacchetta si era accesa. Henry la afferrò, si alzò barcollando e si voltò. Gli si rovesciò lo stomaco. Una sagoma incappucciata e torreggiante scivolava quieta verso di lui, incombente sul suolo, senza piedi o volto visibili sotto la veste, succhiando la notte. Barcollando all'indietro, Henry levò la bacchetta. «Expecto patronum!» Uno sbuffo argente o di vapore si sprigionò dalla punta della bacchetta e il dissenatore rallentò, ma l'incantesimo non aveva funzionato a dovere. Inciampando nei propri piedi, Henry si ritrasse ancora. Il dissenatore si chinava su di lui e il panico gli annebbiò il cervello. «Concentrati!» Un paio di mani grigie, viscide, coperte di croste, scivolarono fuori dalla veste del dissenatore, cercando di afferrarlo. Un sibilo riempì le orecchie di Henry. «Expecto patronum!» La sua voce risuonò debole e remota. Un altro sbuffo di fumo d'argento, più esile del primo, si levò dalla bacchetta. Non riusciva a far altro. L'incantesimo non funzionava. Una risata gli rimbombava in testa. Una risata penetrante, acuta. Sentiva il fiato putrido e freddo di morte del dissenatore che gli riempiva i polmoni, affogandolo. «Pensa a qualcosa di bello!» Ma non c'era felicità in lui. Le dita ghiacciate del dissenatore si stavano serrando attorno alla sua gola. Il riso acuto diventava sempre più forte e una voce parlò nella sua testa. «Inchinati alla morte, Henry. Forse non ti farà nemmeno male. Io non posso saperlo. Non sono mai morto!» Non avrebbe mai più rivisto Ron e Ermione. E mentre lottava per respirare, i loro volti esplosero nitidi nella sua mente. «Expecto patronum!» Un enorme cervo d'argento spuntò dalla punta della bacchetta di Henry. Le sue corna colpirono il dissenatore nel punto dove avrebbe dovuto esserci il cuore. L'essere fu scagliato all'indietro, privo di peso come l'oscurità, e di fronte al cervo che caricava ancora scivolò via come un pipistrello, sconfitto. «Da questa parte!» urlò Henry al cervo. Voltandosi, scattò lungo la stradina, tenendo alta la bacchetta accesa. «Dudley! Dudley!» Aveva corso forse per una decina di passi quando li raggiunse. Dudley era rannicchiato a terra, le braccia strette sul volto. Un secondo dissenatore era chino su di lui e gli stringeva i polsi nelle mani viscide, allontanandoli lentamente, quasi con affetto, curvando la testa incappucciata verso il suo viso, pronto a baciarlo. «Prendilo!» urlò Henry, e con una sorta di rumbo sibilante il cervo che aveva evocato lo superò al galoppo. Il volto senza occhi del dissenatore era appena a qualche centimetro da quello di Dudley, quando le corna d'argento lo colpirono. Volò in aria, e al pari del compagno si allontanò fluttuando e fu inghiottito dall'oscurità. Il cervo trotterellò in fondo alla stradina e si risolse in una nebbia perlacea. Luna, stelle e lampioni si riaccesero. Una calda brezza spazzò il vicolo. Gli alberi frusciarono nei giardini vicini, e il banale rombo delle auto in Magnolia Crescent riempì di nuovo l'aria. Henry rimase immobile, con tutti i sensi allerta, prendendo atto del brusco ritorno alla normalità. Dopo un momento si rese conto che la t-shirt gli si era incollata addosso. Grondava di sudore. Non riusciva a crederci. Dei dissenatori lì, a little whinging. Dudley giaceva rannicchiato a terra, piagnuculoso e tremante. Henry si chinò a vedere se era in grado di rialzarsi, ma poi udì dei sonori passi di corsa alle spalle. alzò distinto la bacchetta un'altra volta, e si voltò di scatto per affrontare il nuovo venuto. La signora Fig, la loro vicina, la vecchia matta, comparve ansimando. I capelli brizzolati le sfuggivano dalla retina. Una tintinnante borsa per la spesa le pensolava dal polso, e i suoi piedi erano mezzi fuori dalle pantofole di feltro scozzese. Henry fece per riporle in fretta la bacchetta al sicuro, ma... Non metterla via, sciocco! strillò lei. E se ce ne fossero altri in giro? Oh, lo ucciderò, quel mandangus flasher! Un sacco di gufi Che cosa? domandò Henry in tono vacuo. Se n'è andato, disse la signora Fig, torcendosi le mani. Si è allontanato, perché doveva incontrarsi con un tizio per una partita di calderoni caduti dalla coda di una scopa? Le ho detto che l'avrei spellato vivo se fosse andato via. E adesso guarda! Dissenatori! È pura fortuna che io abbia messo di guardia Lilli. Ma non abbiamo tempo di stare a cincischiare. Presto! Adesso dobbiamo portarti indietro. Oh, i guai che ne verranno! Lo ucciderò! Ma la scoperta che la vecchia vicina matta con la fissa dei gatti sapeva che cosa fossero i dissenatori fu per Henry uno shock pari quasi all'averne incontrati due nel vicolo. Lei è... Lei è una strega? Sono una maga no! Mandangus lo sa benissimo e quindi come potevo aiutarti a respingere dei dissenatori? Ti ha lasciato del tutto privo di protezione quando io lo avevo avvertito! Questo Mandangus mi seguiva. Un momento! È stato lui! Si è smaterializzato davanti a casa mia. Sì, sì, sì! Ma per fortuna avevo fatto appostare Lilli sotto una macchina, perché non si sa mai. E Lilli è venuto ad avvertirmi. Ma quando sono arrivata a casa tua te ne eri andato. E adesso? Oh! Che cosa dirà, Silente? Tu! Strillò rivolta a Dudley, ancora disteso per terra nel vicolo. Tira su quel sederone, svelto! Lei conosce Silente, disse Henry fissandola. Ma certo che conosco Silente! Chi non conosce Silente? Ma andiamo! Non sarò di nessun aiuto se quelli tornano. Non sono mai riuscita nemmeno a trasfigurare una bustina di te! Si chinò, afferrò con le mani rattrappite un braccio massiccio di Dudley e lo strattonò. Tirati su! Fagotto inutile! Tirati su! Ma Dudley non poteva o non voleva muoversi. Rimase a terra, tremante, il volto grigio, la bocca serrata. Ci penso io. Henry prese il braccio di Dudley e tirò. Con uno sforzo enorme riuscì a sollevarlo. Dudley sembrava Lilli per svenire. I suoi occhietti roteavano nelle orbite e il sudore gli imperlava il viso. Non appena Henry lo lasciò andare. Oscillò pericolosamente. Presto! esclamò la signora Fig agitata. Henry si tirò uno dei braccioni di Dudley attorno alle spalle e lo trascinò verso la strada, curvo sotto il suo peso. La signora Fig camminava barcollando davanti a loro, scrutando ansiosa, dietro l'angolo. Tieni fuori la bacchetta! disse a Henry mentre entravano in Wisteria Walk. Non badare allo statuto di segretezza adesso. Scoppierà un pandemonio comunque. Tanto vale farsi impiccare per un drago che per un uovo. Altro che ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni. Questo era precisamente ciò che temeva Silente. Che cosa c'è là in fondo alla via? Oh, è solo il signor Prentice. Non mettere via la bacchetta, ragazzo. Devo continuare a ripeterti che io sono inutile. Non era facile tenere ferma la bacchetta e trasportare Dudley allo stesso tempo. Henry inflisse al cugino un'impaziente gomitata nelle costole, ma Dudley sembrava aver perso ogni desiderio di muoversi in modo autonomo. Era affrosciato sulla spalla di Henry e i suoi piedoni si trascinavano. «Perché non mi ha detto che è una maga no, signora Fig?» chiese Henry, ansante per lo sforzo. «Tutte le volte che sono venuto a casa sua, perché non ha mai detto niente?» «Ordini di Silente. Io dovevo tenerti d'occhio senza dire niente. Eri troppo giovane. Mi dispiace di averti offerto uno svago così deprimente a Henry, ma i Dursley non ti avrebbero mai permesso di venire se avessero creduto che ti divertivi. Non è stato facile, sai? Ma... oh, parola mia!» disse in tono tragico, torcendosi le mani un'altra volta. «Quando lo saprà Silente? Come ha potuto andarsene quel mandangus? Era di guardia fino a mezzanotte. Dov'è? Come farò a dire a Silente che cosa è successo? Io non sono capace di materializzarmi. Ho una civetta. Può prenderla in prestito?» gemette Henry, chiedendosi se la sua spina dorsale si sarebbe spezzata sotto il peso di Dudley. «Harry, non capisci! Silente avrà bisogno di agire il più presto possibile. Il ministero ha i suoi modi per individuare la magia minorile. Lo sapranno già, credimi! Ma mi stavo liberando dei dissenatori. Ho dovuto usare la magia. Li preoccuperà di più sapere quello che facevano dei dissenatori a piede libero per Wisteria Walk, no?» «Oh, caro mio! Vorrei tanto che fosse così, ma temo che...» «Mandangus Fletcher! Io ti ucciderò!» Ci fu un sonoro clac e un forte odore di alcol, misto a tabacco stantio, riempì l'aria. Un uomo tarcheato con la barba lunga, avvolto in un cappotto lacero, apparve proprio davanti a loro. Aveva gambe corte e storte, lunghi capelli rossi in disordine e occhi gonfie e iniettati di sangue, che gli conferivano uno sguardo dolente da Bassetound. Reggeva un fagotto argenteo, che Harry riconobbe subito, un mantello dell'invisibilità. «Cosa succede, Fighi?» disse guardando prima la signora Fig, poi Harry e Dadrei. «Non dovevi mica stare in incognito!» «Te lo do io, l'incognito!» urlò la signora Fig. «Di senatori! Brutto essere inutile! Razza di vile! Perdi tempo!» «Di senatori?» ripetè Mandangus, sconcertato. «Di senatori qui!» «Sì, qui! Stupido mucchio di cacche e di pipistrello! Qui!» strillò la signora Fig. «Di senatori che hanno attaccato il ragazzo, mentre tu dovevi essere di guardia!» «Accidenti!» disse Mandangus debolmente, spostando lo sguardo dalla signora Fig a Harry e viceversa. «Accidenti! Io...» «E tu vai in giro a comprare calderoni rubati! Non te l'avevo detto di non andare? Eh? Io... beh, io...» Mandangus era profondamente a disagio. «Era... era un'ottima occasione, sai!» La signora Fig alzò il braccio da cui pensolava la borsa e colpì Mandangus sul volto e sul collo. A giudicare dal rumore metallico, era piena di scatole di cibo per gatti. «Aia! Pianta! Piantala! Vecchia pipistrella pazza! Qualcuno deve dirlo assilente!» «Sì, certo che sì!» urlò la signora Fig colpendo Mandangus dove poteva con la borsa piena di cibo per gatti. «E sarà meglio che lo faccia tu! E puoi anche dirgli perché non eri qui a dare una mano!» «Datti una calmata!» urlò Mandangus le braccia sopra la testa cercando di chinarsi. «Vado! Vado!» e con un altro forte crack scomparve. «Spero che Silente lo ammazzi!» esclamò furiosa la signora Fig. «Adesso andiamo, Harry! Che cosa aspetti?» Harry decise di non sprecare il fiato residuo per spiegare che sotto la mole di Dudley riusciva a stento a camminare. Diede uno strattone al cugino semisvenuto e barcollò in avanti. «Ti accompagno fino alla porta!» disse la signora Fig mentre svoltavano in private drive, nel caso che ce ne fossero in giro degli altri. «Oh, parola mia! Che catastrofe! E hai dovuto combatterli tu! E Silente aveva detto che dovevamo impedirti a tutti i costi di fare magie. Beh, non serve piangere sulla pozione versata, immagino. E adesso si smaterializzi chi può!» «E così!» boccheggiò Harry. «Silente mi ha fatto seguire!» «Ma naturale!» rispose la signora Fig impaziente. «Ti aspettavi che ti lasciasse andare in giro da solo dopo quello che è successo in giugno? Buon Dio, ragazzo! Mi avevano detto che eri intelligente! Bene, vai dentro e restaci!» disse quando raggiunsero il numero quattro. «Immagino che qualcuno si metterà in contatto con te al più presto! E lei che cosa farà?» chiese Harry in fretta. «Vado dritto a casa!» rispose la signora Fig, scrutando la via buia con un brivido. «Devo aspettare altre istruzioni! Tu rimani dentro e basta! Buonanotte!» «Aspetti! Non se ne vada ancora! Voglio sapere!» Ma la signora Fig era già partita al trotto, con le pantofole di feltro che scivolavano e la borsa che tintinnava. «Aspetti!» le urlò dietro Harry. Aveva un milione di domande da fare a chiunque fosse in contatto con Silente, ma di lì a pochi istanti la signora Fig fu inghiottita dall'oscurità. Acciliato, Harry si risistemò Dudley in spalla e risali piano, a fatica, il vialetto del numero quattro. La luce dell'ingresso era accesa. Harry infilò di nuovo la bacchetta nella cintura dei jeans, suonò il campanello e guardò la sagoma di zia Petunia diventare sempre più grande, stranamente deformata dal vetro ondulato della porta d'ingresso. «Diddy! Era ora! Cominciavo a essere... a essere... Diddy! Che cosa c'è?» Harry diede un'occhiata sghemba a Dudley e scivolò da sotto il suo braccio appena in tempo. Dudley si dondolò sul posto per un momento, la faccia verde pallido, poi aprì la bocca e vomitò sullo zerbino. «Diddy! Diddy! Che cos'hai? Vernon! Vernon!» Lo zio arrivò a passi pesanti dal salotto, coi baffoni da tricheco che svolazzavano di qua e di là, come sempre quando era agitato. Aiutò subito zia Petunia a trascinare Dudley oltre la soglia, evitando di calpestare la pozza di vomito. «Sta male, Vernon!» «Che cosa hai, figliolo? Che cosa è successo? La signora Polkis ti ha dato qualcosa di strano per merenda?» «Perché sei tutto coperto di polvere, tesoro! Ti sei steso per terra!» «Un momento! Non sei stato aggredito, vero figliolo?» Zia Petunia urlò. «Chiama la polizia, Vernon! Chiama la polizia!» «Diddy, tesoro! Di qualcosa alla tua mamma! Che cosa ti hanno fatto?» In tutta quella confusione nessuno parve notare Harry, cosa che gli andava benissimo. Riuscì a scivolare dentro appena prima che zio Vernon sbattesse la porta per chiuderla e intanto che i Dursley avanzavano rumorosamente lungo il corridoio diretti in cucina, si spostò cauto e silenzioso verso le scale. «Chi è stato, figliolo? Fuori i nomi! Li prenderemo! Non preoccuparti!» «Sst! Sta cercando di dire qualcosa, Vernon! Che cos'è, Diddy? Dillo alla tua mamma!» Il piede di Harry era sul primo gradino quando Dudley ritrovò la voce. «Lui!» Harry rimase paralizzato, il piede sulla scala, il volto contratto pronto all'esplosione. «Ragazzo, vieni qui!» Con un misto di paura e rabbia, Harry spostò lentamente il piede dalla scala e si per seguire i Dursley. La cucina, scrupolosamente pulita, emanava un singolare, irreale luccichio dopo l'oscurità dell'esterno. Zia Petunia sistemò Dudley su una sedia. Era ancora molto verde e sudaticcio. Zio Vernon era in piedi davanti allo scolapiatti e scrutava Harry con gli occhietti ridotti a fessure. «Che cosa hai fatto a mio figlio?» chiese con un ringhio minaccioso. «Niente!» rispose Harry, sapendo perfettamente che Zio Vernon non gli avrebbe creduto. «Che cosa ti ha fatto, Diddy?» domandò Zia Petunia con voce tremolante, pulendo il vomito con una spugna dal giubbotto di pelle di Dudley. «È stata... è stata... tu sai che cosa, tesoro? Ha usato la sua cosa?» Lentamente, tremando, Dudley annui. «Non è vero!» esclamò Harry secco, mentre Zia Petunia esalava un gemito e Zio Vernon alzava i pugni. «Non gli ho fatto niente! Non sono stato io! Sono stati...» Ma in quel preciso istante un allocco calò in picchiata attraverso la finestra. Mancò di poco la testa di Zio Vernon, planò in cucina, lasciò cadere ai piedi di Harry la grossa busta di pergamena che reggeva nel becco, si voltò con grazia, sfiorò appena alla cima del frigorifero con la punta delle ali, poi sfrecciò fuori di nuovo e si librò sopra il giardino. «Gufi!» Muggizio Vernon con la vena della tempia che pulsava rabbiosa, chiuse violentemente la finestra della cucina. «Ancora gufi! Non voglio più vedere gufi in casa mia!» Ma Harry stava già strappando la busta e sfilando la lettera, col cuore che batteva in un punto imprecisato dalle parti del pomo da damo. «Caro signor Potter, siamo stati informati che lei ha praticato l'incanto Patronus alle 9.23 di questa sera, in una zona abitata da babbani e in presenza di un babbano. La gravità di questa infrazione al decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni si è tradotta nella sua espulsione dalla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Rappresentanti del ministero saranno tra breve al suo domicilio per distruggere la sua bacchetta. Poiché lei aveva già ricevuto una munizione ufficiale per un precedente reato in base all'articolo 13 dello Statuto di Segretezza della Confederazione Internazionale dei Maghi, siamo spiacenti di informarla che la sua presenza è richiesta per un'udienza disciplinare al ministero della magia alle ore 9 del 12 agosto. Sperando che stia bene, cordiali saluti, Mafalda Hopkirk, ufficio per l'uso improprio delle arti magiche, ministero della magia. Henry lesse tutta la lettera due volte. Si accorgeva a malapena del fatto che zio Vernon e zia Petunia stessero parlando. Dentro la sua testa tutto era gelato e stordito. Un solo fatto era penetrato nella sua coscienza come un dardo paralizzante. Era stato espulso da Hogwarts. Era tutto finito. Non sarebbe mai tornato. Alzò lo sguardo sui Dursley. Zio Vernon era paunazzo, urlante, i pugni ancora levati. Zia di Henry, parve risvegliarsi. Rappresentanti del ministero saranno tra breve al suo domicilio per distruggere la sua bacchetta. C'era una sola cosa da fare. Doveva fuggire. E subito, dove sarebbe andato, Henry non lo sapeva, ma era sicuro di una cosa. A Hogwarts o fuori, aveva bisogno della bacchetta. In uno stato simile al sogno, la estrasse e si voltò per uscire dalla cucina. Dove credi di andare? urlò Zio Vernon. Quando Henry non rispose, attraversò a Balzi la cucina per bloccare la porta che dava nel corridoio. Non ho finito con te, ragazzo. Levati di mezzo, gli intimò Henry tranquillo. Tu adesso stai qui e mi spieghi come mai, mio figlio. Se non ti levi di mezzo, ti faccio un incantesimo, disse Henry alzando la bacchetta. Non puoi puntarla addosso a me, sibilò Zio Vernon. Lo so che non hai permesso di usarla fuori da quel manicomio che chiami scuola. Il manicomio mi ha buttato fuori, ribatte Henry. Quindi posso fare quello che voglio. Hai tre secondi. Uno. Due. Un tonforo imbombante riempì la cucina. Zia Petunia urlò. Zio Vernon gridò e si chinò, ma per la terza volta, quella notte, Henry cercò la fonte di un rumore che non aveva provocato lui. La individuò subito. Un gufo stordito e arruffato era posato sul davanzale della cucina e aveva appena cozzato contro la finestra chiusa. Ignorando l'urlo angosciato, Goofy! Dizio Vernon, Henry attraversò la stanza di corsa e spalancò la finestra. Il gufo tese la zampa, alla quale era legato un piccolo rotolo di pergamena. Scosse le piume e ripartì non appena Henry ebbe preso la lettera. Con mani tremanti, Henry srotolò il secondo messaggio, che era scritto molto in fretta, tutto macchiato, con l'inchiostro nero. «Harry, Silente è appena arrivato al ministero e sta cercando di sistemare tutto. Non uscire dalla casa dei tuoi zii! Non fare altre magie! Non consegnare la bacchetta!» Arthur Weasley. Silente stava cercando di sistemare tutto. Che cosa voleva dire? Quanto potere aveva Silente per contrastare il ministero della magia? C'era la possibilità che lui venisse riammesso a Hogwarts allora. Un piccolo barlume di speranza si accese nel petto di Henry, quasi subito soffocato dal panico. Come faceva a rifiutarsi di consegnare la bacchetta senza ricorrere alla magia. Avrebbe dovuto duellare con i rappresentanti del ministero e in quel caso sarebbe stato fortunato a sfuggire ad Azkaban per non parlare dell'espulsione. La sua mente correva. Poteva fuggire e rischiare di essere catturato dal ministero o restare dov'era e aspettare che lo trovassero lì. Era molto più tentato dalla prima ipotesi, ma sapeva che il signor Weasley aveva a cuore il suo interesse e, dopo tutto Silente, aveva sistemato cose ben peggiori in passato. «Bene», disse Henry, «ho cambiato idea. Resto». Si sedette bruscamente al tavolo della cucina, di fronte a Dudley e a Zia Petunia. I Darsley parvero spiazzati dal suo improvviso cambiamento. Zia Petunia gettò un'occhiata disperata a Zio Vernon. La vena nella tempia violacea di quest'ultimo pulsava più forte che mai. «Da dove vengono tutti questi maledetti gufi?» ringhiò. «Il primo era del ministero della magia che mi ha espulso», disse Henry calmo. Aveva le orecchie tese per cogliere i rumori di fuori, nel caso che i rappresentanti del ministero si stessero avvicinando. Ed era più facile e meno rumoroso rispondere alle domande di Zio Vernon che farlo arrabbiare e muggire. Il secondo era del papà del mio amico Ron, che lavora al ministero. «Il ministero della magia», mughiò Zio Vernon. «Gente come te al governo! Questo spiega tutto, tutto! Non c'è da stupirsi che il paese vada in malora!» Quando Henry non rispose, Zio Vernon lo guardò truce, poi sbottò. «E perché sei stato espulso?» «Perché ho usato la magia!» «Ha ha!» rugizziò Vernon, picchiando il pugno in cima al frigo, che si spalancò. Parecchie merendine ipocaloriche di Dudley si rovesciarono e caddero a terra. «Allora lo ammetti? Che cosa hai fatto a Dudley?» «Niente!» rispose Henry, un po' meno tranquillo. «Non sono stato io!» «Invece sì!» borbottò Dudley inaspettatamente, e Zio Vernon e Zia Petunia agitarono all'istante le mani verso Henry per zittirlo, mentre si chinavano su Dudley. «Vai avanti, figliolo!» disse Zio Vernon. «Che cosa ha fatto?» «Dicelo, tesoro!» sussurrò Zia Petunia. «Mi ha puntato addosso la bacchetta!» biascicò Dudley. «Sì, è vero, però non l'ho usata!» esordì Henry rabbioso. «Ma...» «Zitto!» rugirono in coro Zio Vernon e Zia Petunia. «Vai avanti, figliolo!» ripete Zio Vernon, coi baffi che svolazzavano furiosi. «È diventato tutto buio!» disse Dudley con voce roca, tremando. «Tutto buio! E poi ho sentito delle cose dentro la testa!» Sio Vernon e Zia Petunia si scambiarono sguardi di puro terrore. Se la cosa che meno amavano al mondo era la magia, seguita a ruota dai vicini che violavano più di loro il divieto di usare l'acqua in giardino, la gente che sente delle voci era decisamente tra le ultime dieci. Era chiaro che credevano che Dudley stesse perdendo la testa. «Che genere di cose hai sentito, caro?» sussurrò Zia Petunia, molto pallida, con le lacrime agli occhi. Ma Dudley sembrava incapace di spiegarlo. Rabbrividì di nuovo scuotendo il testone biondo e Henry, nonostante il senso di torpido terrore che era calato su di lui all'arrivo del primo gufo, provò una certa curiosità. I dissennatori facevano rivivere a una persona i momenti peggiori della sua vita. Che cos'era stato costretto ad ascoltare il viziato, coccolato, prepotente Dudley? «Come mai sei caduto, figliolo?» disse Zio Vernon con la voce di una calma innaturale, il genere di voce che avrebbe potuto adottare al capezzale di una persona molto malata. «S-sono inciampato!» disse Dudley tremante. «E poi...» accennò al proprio petto massiccio. Henry capì. Dudley stava ricordando il gelo umido che riempie i polmoni quando speranza e felicità ti vengono risucchiate. «Terribile!» gracchiò Dudley. «Freddo, proprio freddo!» «Va bene», disse Zio Vernon con calma forzata. Zia Petunia posò una mano ansiosa sulla fronte di Dudley per sentire se aveva la febbre. «E poi... che cosa è successo, Dud?» «Ho sentito... ho sentito... ho sentito... come se... come se...» «Come se non potessi mai più essere felice!» gli venne in soccorso Henry con voce inespressiva. «Sì!» sussurrò Dudley ancora tremante. «Allora...» esclamò Zio Vernon ergendosi diritto, la voce tornata al suo pieno notevole volume. «Tu hai scagliato qualche stupido incantesimo su mio figlio in modo che sentisse delle voci e credesse di essere... di essere condannato all'infelicità o roba del genere, eh?» «Quante volte devo dirtelo», disse Henry con malumore e voce crescenti. «Non sono stato io! Sono stati due dissennatori!» «Due... che cosa sono queste sciocchezze!» «Dissennatori!» ripetè Henry forte e chiaro. Erano due. «E che cosa diavolo sono i dissennatori?» «Fanno la guardia alla prigione dei maghi, Azkaban», disse Zia Petunia. Due secondi di sonoro silenzio seguirono queste parole prima che Zia Petunia si premesse la mano sulla bocca, come se si fosse lasciata sfuggire una parolaccia disgustosa. Zio Vernon la guardò con gli occhi sgranati. Il cervello di Henry turbinò. La signora Fig era un conto. «Ma Zia Petunia!» «Come fai a saperlo?» le chiese sterrefatto. Zia Petunia pareva piuttosto sconvolta per quello che aveva detto. Scoccò a Zio Vernon un'occhiata di timorose scuse, poi abbassò appena la mano, rivelando la dentatura cavallina. «Ho sentito quell'orribile ragazzo spiegarlo a lei tanti anni fa», disse a scatti. «Se intendi la mia mamma e il mio papà, perché non usi i loro nomi?» gridò Henry, ma Zia Petunia lo ignorò. Sembrava terribilmente confusa. Henry era stupefatto. A parte uno sfogo di alcuni anni prima, nel corso del quale aveva urlato che la mamma di Henry era una svitata, non aveva mai sentito Zia Petunia menzionare la sorella. Era sballordito che avesse serbato quell'informazione sul mondo dei maghi per tanto tempo, quando in genere cercava con tutte le forze di fingere che non esistesse. Zio Vernon aprì la bocca, la chiuse, la aprì un'altra volta, la richiuse. Poi, come sforzandosi di ricordare come si fa a parlare, la aprì per la terza volta e gracchiò. «Allora, allora, loro, eh, loro, eh, loro esistono davvero, questi, ehm, di sé che cosa?» Zia Petunia annuì. Zio Vernon spostò lo sguardo da lei ad Adley e a Henry, come nella speranza che qualcuno stesse per urlare «Pesce d'Aprile!» Poiché nessuno lo fece, aprì di nuovo la bocca, ma la fatica di trovare altre parole, gli fu risparmiata dall'arrivo del terzo gufo della serata. Filò attraverso la finestra ancora aperta, come una palla di cannone piumata, e atterrò con un acciottolio sul tavolo di cucina, facendo sobbalzare dallo spavento tutti e tre i Darsley. Henry gli sfilò dal becco una seconda busta dall'aria ufficiale e la strappò, mentre il gufo tornava a volteggiare nella notte. «Basta con questi dannati gufi!» Borbottozio Vernon distrattamente, marciando sino alla finestra per richiuderla con un colpo secco. «Caro signor Potter, in seguito alla nostra lettera di circa ventidue minuti fa, il Ministero della Magia ha rivisto la propria decisione di distruggere immediatamente la sua bacchetta. Può conservarla fino all'udienza disciplinare del 12 agosto prossimo, quando verrà presa una decisione ufficiale. In seguito a una discussione con il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, il Ministero ha convenuto che la questione della sua espulsione verrà anch'essa discussa in quell'occasione. Dovrà dunque considerarsi sospeso dalla scuola fino a ulteriori indagini. I migliori saluti. Mafalda Hopkirk, ufficio per l'uso improprio delle arti magiche, Ministero della Magia. Harry lesse la lettera tre volte di fila. Il nodo di pena nel suo petto si allentò un po' per il sollievo di sapere che non era ancora stato espulso definitivamente, anche se le sue paure non erano affatto bandite. Tutto sembrava dipendere da quell'udienza del 12 agosto. «Allora?» chiese zio Vernon, riportando Harry alla realtà. «Che cosa è successo? Ti hanno condannato a qualcosa? I tuoi simili ce l'hanno? La pena di morte?» aggiunse in un ritorno di ottimismo. «Devo andare a un'udienza», rispose Harry. «E ti giudicheranno allora?» «Immagino di sì». «Allora non smetto di sperare», commentò zio Vernon perfido. «Beh, se questo è tutto», disse Harry alzandosi. Non vedeva l'ora di trovarsi da solo, per riflettere e magari spedire una lettera a Ron, Hermione o Sirius. «No, col cavolo che è questo è tutto!» mughiò zio Vernon. «Rimettiti seduto!» «E adesso che cosa c'è?» «Dudley!» ruggi zio Vernon. «Voglio sapere esattamente che cos'è successo a mio figlio!» «Va bene!» gridò Harry, e per la rabbia scintille rosse e d'oro sprizzarono dalla punta della bacchetta che stringeva ancora in mano. Tutti e tre i Darsley si ritrassero, terrorizzati. «Io e Dudley eravamo nel vicolo tra Magnolia Crescent e Wisteria Walk», disse Harry parlando in fretta, lottando per controllarsi. Dudley credeva di fare il furbo con me, così ho tirato fuori la bacchetta, ma non l'ho usata. Poi sono comparsi due dissenatori. «Ma che cosa sono i disseccatori?» chiese zio Vernon furioso. «Che cosa fanno?» «Te l'ho detto, ti succhiano via alla felicità», rispose Harry. «E se ci riescono, ti baciano». «Ti baciano?» ripetezzi Overnon, gli occhi quasi fuori dalle orbite. «Ti baciano?» «È così che si dice quando ti risucchiano l'anima dalla bocca». Zia Petunia emise un debole urlo. «L'anima! Non gli avranno preso? Ce l'ha ancora?» afferrò Dadeley per le spalle e lo scosse, come per cercare di sentire l'anima sbatacchiare dentro di lui. «Ma certo che non gli hanno preso l'anima! ve ne accorgereste?» disse Harry esasperato. «Gli hai battuti, vero figliolo?» chiese zio Vernon forte, con l'aria di chi cerca di riportare la conversazione su un piano che può comprendere. «Gli hai sistemati col vecchio 1-2, è vero?» «Non si possono sistemare i dissenatori col vecchio 1-2», disse Harry a denti stretti. «Allora perché sta bene?» inveizzi Overnon. «Perché non è tutto vuoto allora?» «Perché ho usato l'incanto vuosh!» Con un gran chiasso, un sibilo di ali e una morbida spruzzata di fuligine, un quarto gufo schizzò fuori dal caminetto della cucina. «Per l'amor di Dio!» ruggizzi Overnon, strappandosi manciate di peli dai baffoni, cosa che non gli capitava di fare da molto tempo. «Non voglio qui questi gufi! Non lo tollero! Te lo ripeto!» Ma Harry stava già sfilando un rotolo di pergamena dalla zampa del gufo. Era così convinto che fosse una lettera di Silente che spiegava tutto. I dissenatori, la signora Fig, che cosa stava combinando il ministero, come lui Silente intendeva sistemare le cose, che per la prima volta nella vita fu deluso nel vedere la grafia di Sirius. Ignorando la tirata di Zio Vernon contro i gufi ancora in corso e strizzando gli occhi davanti a una seconda nuvola di fuligine sollevata dall'ultimo gufo che ripartiva su per il camino, Harry lesse il messaggio di Sirius. «Arthur ci ha appena detto che cosa è successo. Non uscire più di casa. Per nessun motivo!» Harry la trovò una risposta così inadeguata a tutto ciò che era accaduto quella notte che voltò la pergamena cercando il resto della lettera, ma non c'era altro. Ecco che si stava arrabbiando di nuovo. Nessuno aveva intenzione di dirgli ben fatto per aver respinto da solo due dissenatori. Sia il signor Weasley che Sirius parlavano come se lui si fosse comportato male, come se stessero risparmiando le sgridate fino a quando non avessero potuto stabilire la gravità dei fatti. «Un pacco, voglio dire, un sacco di gufi che filano dentro e fuori casa! Non lo accetto, ragazzo! Io non...» «Non posso impedire ai gufi di arrivare!» sbottò Harry, appallottolando la lettera di Sirius. «Voglio la verità su quello che è successo stanotte!» abbagliò zio Vernon. «Se sono stati i dissertatori a far del male a Dudley, come mai sei stato espulso? Hai fatto una tu sai che cosa? L'hai ammesso!» Harry trasse un profondo respiro per calmarsi. La testa cominciava a fargli male di nuovo. Voleva più di ogni altra cosa uscire dalla cucina, allontanarsi dai Dursley. «Ho fatto l'incanto patronus per liberarci dai dissennatori», disse, costringendosi a restare calmo. «È la sola cosa che funziona contro di loro!» «Ma che cosa ci facevano dei disseccatori a Little Whinging?» chiese zio Vernon in tono offeso. «Non saprei», rispose Harry stancamente. «Non ne ho idea!» La sua testa pulsava nel bagliore del Neon. La sua rabbia si sgonfiò. Si sentiva svuotato, esausto. I Dursley lo fissavano, tutti e tre. «Sei tu», disse zio Vernon con violenza. «Deve avere a che fare con te, ragazzo, lo so. Perché altrimenti avrebbero dovuto saltar fuori qui? Perché mai dovevano essere in quel vicolo? Tu devi essere l'unico! L'unico!» chiaramente non riusciva a pronunciare la parola mago. «L'unico tu sai cosa nel raggio di chilometri!» Non so perché fossero qui, ma alle parole di zio Vernon il cervello sfinito di Harry era tornato in azione. Perché i dissennatori erano venuti a Little Whinging? Come poteva essere una coincidenza il fatto che fossero arrivati nel vicolo dove si trovava Harry? Erano stati mandati da qualcuno? Il Ministero della Magia aveva perso il controllo sui dissennatori? Avevano abbandonato Azkaban e si erano uniti a Voldemort, come aveva predetto Silente? «Questi disserratori sorvegliano una prigione di pazzi?» chiese zio Vernon, spezzando di colpo il filo dei pensieri di Harry. «Sì», rispose Harry. «Se solo la testa avesse smesso di fargli male, se solo avesse potuto uscire dalla cucina e raggiungere la sua stanza buia e pensare. «Oh, sono venuti ad arrestarti!» esclamò zio Vernon con l'aria trionfante di chi raggiunge una conclusione inconfutabile. «E' così, vero, ragazzo? Sei in fuga dalla legge!» «Certo che no!» disse Harry, scuotendo il capo come per cacciare una mosca con la mente che correva. «E allora perché?» «Deve averli mandati lui!» mormorò Harry, più a se stesso che a zio Vernon. «Come sarebbe? Chi deve averli mandati?» «Lord Voldemort», rispose Harry, registrò appena quanto fosse strano che i darsley, che si ritraevano, strizzavano gli occhi, trasalivano e piagnucolavano all'udire parole come mago, magia o bacchetta, potessero ascoltare il nome del mago più malvagio di tutti i tempi senza il minimo tremore. «Lord, un momento!» disse zio Vernon, il volto contratto, un'espressione di crescente comprensione negli occhi porcini. «Ho sentito quel nome! Era quello che...» «Ha assassinato i miei genitori, sì», concluse Harry per lui. «Ma è sparito!» disse zio Vernon impaziente, senza minimamente pensare che l'assassinio dei genitori di Harry potesse essere un argomento penoso. «L'ha detto quel tipo gigante! È sparito!» «È tornato», rispose Harry gravemente. Era molto strano trovarsi lì in piedi nella cucina chirurgicamente asettica di zia Petunia, accanto al frigorifero ultimo modello e al televisore widescreen, a parlare tranquillamente di Lord Voldemort con zio Vernon. L'arrivo dei dissenatori a Little Wingin sembrava aver aperto una breccia nell'enorme muro invisibile che separava il mondo inesolabilmente non magico di Privet Drive dal mondo al di là. Le due vite di Harry si erano in un certo modo fuse e tutto era stato rovesciato. I Dursley chiedevano dettagli del mondo magico e la signora Fig conosceva Albus Silente. I dissenatori veleggiavano per Little Wingin e lui rischiava di non tornare mai più a Hogwarts. La testa di Harry pulsò in modo ancora più doloroso. «Tornato?» sussurrò zia Petunia. Stava guardando Harry come non lo aveva mai guardato prima e all'improvviso, per la primissima volta nella sua vita, Harry apprezzò a fondo il fatto che zia Petunia fosse la sorella di sua madre. Non avrebbe saputo dire perché questo lo colpisse con tanta forza in quel momento. Sapeva solo di non essere l'unica persona nella stanza ad avere una vaga idea di ciò che poteva significare il ritorno di Lord Voldemort. Zia Petunia non l'aveva mai guardato così in tutta la sua vita. I suoi grandi occhi sbiaditi, così diversi da quelli della sorella, non erano serrati per il disgusto o la rabbia. Erano spalancati e colmi di paura. La furibunda finzione che zia Petunia aveva sostenuto per tutta la vita di Harry, che non esisteva la magia e non esisteva mondo al di fuori di quello che abitava con zio Vernon, sembrava essere crollata. «Sì», disse Harry, rivolto direttamente a zia Petunia questa volta, «è tornato un mese fa, io l'ho visto». Le mani di lei trovarono le enormi spalle fasciate di pelle di Dudley e le serrarono. «Un momento», riprese zio Vernon, spostando lo sguardo dalla moglie a Harry e viceversa, chiaramente stordito e confuso dalla comprensione senza precedenti che sembrava essere scattata fra loro. «Un momento, dici che questo Lord Vold che cosa è tornato?» «Sì, quello che ha assassinato i tuoi genitori». «Sì, e adesso sta mandando i dissolutori a darti la caccia». «Pare di sì», rispose Harry. «Capisco», disse zio Vernon, spostando lo sguardo dalla pallida moglie a Harry e tirandosi su i pantaloni. Sembrava che si stesse ingrossando. Il suo faccione violetto si dilatava davanti agli occhi di Harry. «Beh, questo decide tutto», disse, e il petto della camicia si tese mentre lui si gonfiava. «Puoi andartene da questa casa, ragazzo!» «Che cosa?» chiese Harry. «Mi lo zio Vernon, e perfino zia Petunia e Dudley sussultarono. Fuori! Fuori! Avrei dovuto farlo anni fa! Gufi che trattano questo posto come un trespolo! Torte che esplodono! Mezzo salotto distrutto! La coda di Dudley! Marge che rimbalza sul soffitto! E quella Ford Anglia volante! Fuori! Fuori! È finita! Hai chiuso! Non resterai qui se un pazzo ti dà la caccia! Non metterai in pericolo mia moglie e mio figlio! Non ci procurerai altri guai! Se stai imboccando la strada dei tuoi inutili genitori! Io ne ho abbastanza! Fuori!» Harry rimase inchiodato dov'era. Le lettere del ministero, del signor Weasley e di Sirius erano tutte accartocciate nella sua mano sinistra. «Non uscire più di casa, per nessun motivo! Non uscire dalla casa dei tuoi zii! Mi hai sentito!» gridò Zio Vernon chinandosi in avanti, il faccione violetto così vicino che Harry sentì gli spruzzi di saliva colpirgli il viso. «Muoviti! Non vedevi l'ora di andartene mezz'ora fa! Ti accontento! Esci e non oscurare mai più la nostra soglia! Perché poi ti abbiamo tenuto, non lo so! Marge aveva ragione! Dovevi andare all'orfanotrofio! Siamo stati troppo deboli! Credevamo di fartela passare! Credevamo di renderti normale! Ma sei sempre stato marcio! E io ne ho abbastanza! Di gufi!» Il quinto gufo sfrecciò giù dal cammino così veloce che si schiantò a terra prima di rialzarsi per aria con un alto stridio. Harry allungò la mano per afferrare la lettera, che era dentro una busta scarlata, ma l'uccello si librò sopra la sua testa e volò dritto verso zia Petunia, che emise un urlo e si chinò, le mani sul viso. Il gufo lasciò cadere la busta rossa sulla sua testa, si voltò e volò via su per il cammino. Harry scattò in avanti per prendere la lettera, ma zia Petunia lo precedette. «Puoi aprirla se vuoi», disse Harry, «ma sentirò comunque che cosa dice, perché è una stridetta!» «Lasciala andare, Petunia!» ruggizio Vernon. «Non toccarla! Potrebbe essere pericolosa!» «È indirizzata a me», disse zia Petunia con voce tremolante. «È indirizzata a me, Vernon! Guarda, signora Petunia Dursley, cucina, private drive numero quattro!» trattenne il fiato terrorizzata. La busta rossa aveva cominciato a fumare. «Aprila!» la esortò Harry. «Falla finita! Succederà comunque!» «No!» La mano di zia Petunia tremava. Si guardò intorno disperatamente, come in cerca di una via di fuga, ma troppo tardi. La busta scoppiò in fiamme. Zia Petunia strillò e la lasciò cadere. Una voce terribile riempì la cucina rimbombando nello spazio limitato, levandosi dal foglio che ardeva sul tavolo. «Ricorda la mia ultima Petunia!» Zia Petunia sembrava sul punto di svenire. Si lasciò cadere sulla sedia vicino a Dudley, il volto tra le mani. I resti della busta si ridussero in cenere, nel silenzio. «Che cos'è?» chiese zio Vernon con voce roca. «Cosa? Io non... Petunia!» Zia Petunia non rispose. Dudley fissava con aria stolida sua madre, a bocca spalancata. Il silenzio si levava in orride spirali. Harry osservava la zia, profondamente sconvolto, la testa che pulsava, pronta a esplodere. «Petunia, cara!» disse zio Vernon timidamente. «Petunia!» Lei alzò il capo, tremava ancora, deglutì. «Il ragazzo... il ragazzo deve restare, Vernon!» mormorò debolmente. «Cosa?» «Lui rimane!» disse lei. Non stava guardando Harry. Si alzò di nuovo. «Lui! Ma Petunia!» «Se lo buttiamo fuori, i vicini parleranno!» disse. Stava riacquistando in fretta i soliti modi bruschi e stiziosi, anche se era ancora molto pallida. «Faranno domande strane! Vorranno sapere dove è andato! Dobbiamo tenerlo!» Sio Vernon si sgonfiò come una vecchia gomma. «Ma Petunia, cara!» Sia Petunia lo ignorò. Si rivolse a Harry. «Devi restare nella tua camera!» ordinò. «Non devi uscire di casa! Ora vai a dormire!» Harry non si mosse. «Di chi era quella strillettera?» «Non fare domande!» sbottò zia Petunia. «Sei in contatto con dei maghi? Ti ho detto di andare a dormire! Che cosa voleva dire? Ricorda l'ultima che cosa!» «Vai a dormire! Come mai?» «Hai sentito la zia? Adesso fila a letto!» L'Avanguardia «Sono appena stato attaccato dai dissennatori e potrei essere espulso da Hogwarts. Voglio sapere che cosa sta succedendo e quando uscirò di qui!» Harry ricopiò queste parole su tre diversi fogli di pergamena non appena fu alla sua scrivania nella camera da letto buia. Indirizzò il primo a Sirius, il secondo a Ron e il terzo a Ermione. La sua civetta, Edvige, era fuori a caccia. La gabbia era sulla scrivania, vuota. Harry fece su e giù per la stanza in attesa del suo ritorno, la testa che gli rimbombava, la mente troppo agitata per dormire, anche se gli occhi li bruciavano e gli dolevano per la stanchezza. Gli faceva male la schiena per aver trascinato Dudley fino a casa, e i due bernoccoli sulla testa, dove la finestra e Dudley lo avevano colpito, pulsavano dolorosamente. Camminò avanti e indietro, divorato dalla rabbia e dalla frustrazione, digrignando i denti e serrando i pugni, scoccando sguardi furiosi al cielo vuoto e trapunto di stelle tutte le volte che passava davanti alla finestra. Di senatori mandati a prenderlo, la signora Fig e Mandangus Fletcher che lo pedinavano, poi la sospensione da Hogwarts e un'udienza al Ministero della Magia, e ancora nessuno che gli dicesse che cosa stava succedendo. E quella strillettera, di che cosa? Di che cosa parlava? Di chi era la voce che era risuonata così orribile e minacciosa in cucina? Perché era ancora intrappolato lì, senza spiegazioni? Perché tutti lo trattavano come un bambino cattivo? Non fare altre magie, rimani in casa. Sferrò un calcio al baule della scuola quando gli passò accanto, ma lungi dallo sfogare la rabbia si sentì peggio, perché ora aveva un dolore acuto all'alluce che si sommava a quello del resto del corpo. Proprio mentre zoppicava davanti alla finestra, Edvige entrò planando con un morbido fruscio di piume, come un piccolo fantasma. «Era ora!» esclamò Harry aspro, vedendola atterrare leggera in cima alla gabbia. «Mettila giù, ho del lavoro per te!» I grandi occhi d'ambra di Edvige lo scrutarono con aria di rimprovero, al di sopra della rana morta che reggeva nel becco. «Vieni qui!» disse Harry. Prese i tre rotolini di pergamena e un laccio di cuoio e legò i cartigli alla zampa squamosa. «Portali subito a Sirius, Ron e Ermione e non tornare senza risposte lunghe. Continua a beccarli finché non hanno scritto risposte di una lunghezza dignitosa, se sei costretta. Capito?» Edvige emise un fischio soffocato, il becco ancora pieno di rana. «Allora muoviti!» disse Harry. La civetta decollò all'istante. Non appena fu partita, Harry si gettò completamente vestito sul letto e fissò il soffitto buio. In aggiunta a tutte le altre sensazioni deprimenti, si sentiva in colpa per aver trattato male Edvige. Era l'unica amica che avesse al numero quattro di Privet Drive, ma con lei avrebbe fatto la pace quando fosse tornata con le risposte di Sirius, Ron e Ermione. Avrebbero certo risposto in fretta, non potevano ignorare un attacco di dissennatori. Probabilmente l'indomani, al risveglio, avrebbe trovato ad aspettarlo tre grosse lettere, piene di comprensione e progetti per il suo immediato trasferimento alla Tana. E con quell'idea confortante, il sonno calò su di lui, scacciando tutti gli altri pensieri. Ma Edvige non tornò la mattina dopo. Harry passò la giornata in camera sua e ne uscì solo per andare in bagno. Tre volte quel giorno zia Petunia gli spinse del cibo nella stanza, attraverso la gattaiola che zio Vernon aveva installato tre estati prima. Tutte le volte che Harry la sentiva avvicinarsi, cercava di interrogarla sulla strillettera, ma avrebbe potuto interrogare la maniglia per le risposte che ottenne. Per il resto i Dursley si tennero alla larga. Harry non vedeva l'utilità di imporgli la sua compagnia. Un'altra lite non sarebbe servita a nulla, se non forse a farlo arrabbiare tanto da costringerlo a compiere altre magie illegali. Andò avanti così per tre giorni interi. Harry traboccava di un'energia irrequieta che lo rendeva incapace di concentrarsi su alcunché. In quei momenti marciava su e giù per la stanza, furioso con tutti coloro che lo lasciavano lì a dibattersi in quel pasticcio. Oppure era invaso da una sonnolenza così profonda che poteva stare disteso sul letto per un'ora di fila, a fissare inebetito il vuoto, dolorante di terrore, al pensiero dell'udienza al ministero. Se avessero votato contro di lui, se l'avessero davvero espulso e avessero spezzato la sua bacchetta, che cosa avrebbe fatto? Dove sarebbe andato? Non poteva tornare a vivere a tempo pieno con i Dursley, non ora che conosceva l'altro mondo, quello a cui apparteneva davvero. Avrebbe potuto trasferirsi a casa di Sirius, come il suo padrino aveva suggerito un anno addietro, prima di essere costretto a nascondersi dal ministero? A Harry sarebbe stato concesso di vivere là da solo, visto che era ancora minorenne? O qualcun altro avrebbe deciso per lui la sua destinazione? La violazione dello statuto internazionale di segretezza era così grave da farlo finire in una cella di Azkaman? Tutte le volte che gli si presentava questo pensiero, Harry invariabilmente scivolava fuori dal letto e ricominciava a camminare su e giù come un'anima in pena. La quarta sera, dopo la partenza di Edwige, Harry era in una delle sue fasi apatiche, disteso a fissare il soffitto. La mente esausta, quasi vuota, quando suo zio entrò nella stanza. Harry levò lentamente lo sguardo su di lui. Zio Vernon sfoggiava il suo completo migliore e un'espressione di enorme compiacimento. «Usciamo», disse. «Scusa? Noi, voglio dire tua zia Dudley e io usciamo». «Bene», rispose Harry tetro e tornò a fissare il soffitto. «Non devi uscire dalla tua stanza mentre siamo fuori». «D'accordo. Non devi toccare il televisore, lo stereo e nessuna delle cose di nostra proprietà». «Va bene». «Non devi rubare cibo dal frigo». «D'accordo. Chiudo la porta a chiave». «Fallo». Zio Vernon gli scoccò un'occhiata obliqua, chiaramente insospettito da quella mansuetudine. Poi uscì rumorosamente dalla stanza e si chiusa la porta alle spalle. Harry sentì la chiave girare nella toppa e i passi pesanti di Zio Vernon che scendevano le scale. Qualche minuto dopo udì uno sbattere di portiere, un rombo di motore e l'inconfondibile stridore dell'auto che percorreva il vialetto. Non ebbe particolari reazioni all'idea che i Darsley uscissero. Che fossero o non fossero in casa, per lui non faceva alcuna differenza. Non riusciva nemmeno a raccogliere l'energia necessaria per alzarsi e accendere la luce. La stanza divenne via via più buia attorno a lui. Giaceva ascoltando i rumori della notte, entrare dalla finestra sempre aperta, in attesa del benedetto momento in cui Edvige sarebbe tornata. La casa vuota scricchiolava attorno a lui. I tubi gorgogliavano. Harry rimase lì disteso in una sorta di torpore, senza pensare a niente, sospeso nell'infelicità. Poi udì con grande chiarezza un frastuono in cucina, di sotto. Scattò su a sedere e ascoltò attentamente. I Darsley non potevano essere di ritorno, era troppo presto e comunque non aveva sentito la loro auto. Ci fu silenzio per qualche secondo. Poi voci. Ladri, pensò, lasciandosi scivolare dal letto, ma un istante dopo gli venne in mente che i ladri avrebbero parlato a voce bassa e chiunque si aggirasse in cucina, certo non si dava la pena di farlo. Afferrò la bacchetta dal comodino e rimase lì in piedi davanti alla porta della camera, ascoltando con tutto se stesso. Un attimo dopo sussultò, mentre dalla serratura veniva il rumore di un forte scatto e la porta si spalancava. Harry rimase immobile a guardare il buio pianerottolo oltre la porta aperta, tendendo le orecchie in cerca di altri rumori, ma non ne vennero. Esitò un momento, poi uscì rapido e silenzioso dalla camera e andò in cima alle scale. Il cuore gli balzò in gola. C'erano delle persone, nell'ingresso denso d'ombre da sotto, stagliate contro la luce del lampione che filtrava dalla porta di vetro. Erano otto o nove, e tutte, per quello che poteva vedere, guardavano lui. «Giù la bacchetta, ragazzo, prima di cavare un occhio a qualcuno», disse una voce bassa e ringhiosa. Il cuore di Harry batteva incontrollabile. Conosceva quella voce, ma non abbassò la bacchetta. «Professor Moody?» disse incerto. «Professore, non saprei», brontolò la voce. «Non è che abbia insegnato molto, vero? Vieni giù, vogliamo vederti bene». Harry abbassò leggermente la bacchetta, ma non allentò la presa e non si mosse. Aveva ottime ragioni per essere sospettoso. Aveva appena trascorso nove mesi in compagnia di colui che credeva essere malocchio Moody, solo per scoprire che non era affatto Moody, ma un impostore. Di più, un impostore che aveva cercato di ucciderlo prima di essere smascherato. Non fece in tempo a decidere sul da farsi che una seconda voce un po' roca salì, fluttuando per le scale. «È tutto a posto, Harry! Siamo venuti per portarti via!» Il cuore di Harry fece un balzo. Conosceva anche quella voce, benché non la sentisse da più di un anno. «Professor Lupin!» disse incredulo. «È lei? Perché stiamo tutti al buio?» domandò una terza voce del tutto ignota, una voce di donna. «Lumos!» La punta di una bacchetta si accese, illuminando l'ingresso di luce magica. Harry batte le palpebre. Le persone di sotto si accalcavano ai piedi delle scale e guardavano in su, verso di lui. Alcune tendevano il collo per vedere meglio. Remus Lupin era il più vicino. Anche se era ancora piuttosto giovane, Lupin aveva l'aria stanca e un po' malata. Aveva più capelli grigi di quando Harry si era congedato da lui, e la sua veste era più rappezzata e frusta che mai. Tuttavia rivolse un gran sorriso a Harry, che cercò di ricambiarlo, nonostante il suo sconcerto. «Oh, è proprio come lo immaginavo!» disse la strega che teneva alta la bacchetta accesa. Sembrava la più giovane del gruppo. Aveva il viso pallido, a forma di cuore, occhi scuri scintillanti e capelli corti e irti di un'intensa sfumatura di viola. «Ciao, Harry!» «Sì, ora capisco che cosa intendi, Remus!» disse un mago di colore calvo, appena un passo indietro. Aveva una voce profonda e calma, e portava un anello d'oro a un orecchio. «E' identico a James!» «A parte gli occhi!» precisò un mago con la voce affannosa e i capelli d'argento in fondo al gruppo. «Gli occhi di Lily!» Ma l'occhio Moody, che aveva lunghi capelli brizzolati e un grosso pezzo di naso mancante, strizzò sospettoso gli occhi scompagnati. Un occhio era piccolo, scuro e lucente, l'altro grande, rotondo e blu elettrico. L'occhio magico, che poteva vedere attraverso le pareti, le porte e la parte posteriore della sua stessa testa. «Sei proprio sicuro che sia lui, Lupin?» borbottò. «Sarebbe un bel affare se portassimo via un mangiamorte con le sue sembianze. Dovremmo chiedergli qualcosa che solo il vero Potter può sapere, a meno che qualcuno non abbia con sé un po' di verità serum.» «Harry, che forma assume il tuo patronus?» gli chiese Lupin. «Un cervo!» rispose Harry nervoso. «È lui, malocchio!» disse Lupin. Sentendosi addosso gli sguardi di tutti, Harry scese le scale, infilando la bacchetta nella tasca di dietro. «Non mettere lì la bacchetta, ragazzo!» ruggì i mudi. «E se si accende? Maghi migliori di te hanno perso le chiappe, sai?» «Chi conosci che abbia perso una chiappa?» chiese la donna coi capelli viola incuriosita. «Non badarci, pensa solo a tenere la bacchetta lontana dalla tasca di dietro!» ringhiò malocchio. «Elementari norme di sicurezza per bacchette! Nessuno ci pensa più!» soppicò affaticato verso la cucina. «E comunque l'ho visto succedere!» aggiunse irritato, mentre la donna alzava gli occhi al soffitto. Lupin tese la mano e stringse quella di Harry. «Come stai?» gli chiese guardandolo da vicino. «Bene!» Harry non riusciva quasi a crederci. Quattro settimane di niente, nemmeno il più vago sentore di un piano per portarlo via da private drive, e all'improvviso una squadra intera di maghi era lì in casa, in carne e ossa, come per un accordo preso da tempo. Guardò le persone che circondavano Lupin, continuavano a fissarlo avidamente. Non si pettinava da quattro giorni, e lo sapeva bene. «Io siete davvero fortunati che i Darsley siano fuori!» borbottò. «Fortunati!» sbuffò la donna coi capelli viola. «Sono stata io ad attirarli lontano da qui. Ho spedito una lettera via posta babbana che diceva che erano in finale per la gara del giardino di periferia meglio tenuto di tutta l'Inghilterra. Stanno andando alla premiazione, o almeno è quello che credono?» Harry ebbe una fugace visione della faccia che avrebbe fatto zio Vernon, scoprendo che la gara del giardino di periferia meglio tenuto di tutta l'Inghilterra non esisteva. «Andiamo via, vero?» chiese. «Subito?» «Quasi subito», rispose Lupin. «Stiamo solo aspettando il via libera». «Dove andiamo? Alla Tana?» chiese Harry speranzoso. «Non alla Tana, no», disse Lupin, guidando Harry verso la cucina. Il gruppetto di maghi li seguì, senza smettere di scrutare Harry con curiosità. «Troppo rischioso. Abbiamo stabilito il nostro quartier generale in un luogo non reperibile. Ci è voluto un po'. Ma l'occhio Moody era seduto al tavolo della cucina e beveva assorsi da una fiaschetta tascabile, con l'occhio magico che roteava in tutte le direzioni, esaminando i molti elettrodomestici dei Darsley. «Questo è Alastor Moody, Harry», continuò Lupin indicandolo. «Sì, lo so», disse Harry a disagio. «Era strano essere presentato a qualcuno che per un anno aveva creduto di conoscere. E questa è Ninfadora». «Non chiamarmi Ninfadora, Remus», disse la giovane strega con un brivido. «Io sono Tonks». «Ninfadora Tonks, che preferisce essere nota solo col cognome», concluse Lupin. «Lo preferiresti anche tu, se quella sciocca di tua madre ti avesse chiamato Ninfadora», borbottò Tonks. «E questo è Kingsley Shacklebolt». L'alto mago di colore si inchinò. «Elphias Dogge», il mago con la voce ansante fece un cenno. «Dedalus Deagle». «Ci siamo già incontrati», squittì l'eccitabile Deagle, levandosi il cappello a cilindro viola. «Emeline Vance», una strega dall'aria nobile, con uno scialle verde smeraldo, abbassò il capo. «Stargis Podmore», un mago con la mascella quadrata e folti capelli color paglia, fece l'occhiolino. «E Estia Jones». Vicino al tostapane, una strega con le guance rosee e i capelli neri salutò con la mano. Harry chinò il capo goffamente verso ciascuno di loro, via via che venivano presentati. Avrebbe tanto voluto che guardassero qualcos'altro che non fosse lui. Era come se all'improvviso, fosse stato spinto su un palcoscenico. Si chiese anche come mai fossero così tanti. «Un numero sorprendente di persone si è offerto volontario per venire a prenderti», disse Lupin, come se gli avesse letto nel pensiero. Gli angoli della bocca gli si inculvarono appena. «Sì, sicuro. Più siamo, meglio è», grugnì mu di cupo. «Siamo la tua scorta, Harry». «Stiamo solo aspettando il segnale che ci dirà che si può partire tranquilli», disse Lupin, scoccando un'occhiata fuori dalla finestra. «Abbiamo più o meno quindici minuti». «Sono molto puliti, vero, questi babbani?» domandò la strega chiamata Tonks, guardandosi attorno con grande interesse. «Il mio papà è babbano di nascita ed è un gran sciattone. Immagino che ce ne siano di tutti i tipi, come i maghi». «Eh, sì», rispose Harry. «Senta», e si rivolse a Lupin, «che cosa sta succedendo? Non ho avuto notizie da nessuno. E vol...» Parecchi maghi e streghe emisero strani i sibili. Daedalus Deagle si sfilò di nuovo il cappello, e Moody ringhiò. «Citto!» «Che cosa?» chiese Harry. «Niente chiacchiere qui, è troppo pericoloso», disse Moody, puntando l'occhio normale su Harry. quello magico rimase concentrato sul soffitto. «Dannazione!» aggiunse rabbioso, portando una mano all'occhio. «Continua a incastrarsi, da quando se l'è messo quell'essere spregevole!» e con uno sgradevole risucchio, tipo un tappo che viene tolto da un lavandino, se lo tolse. «Ma l'occhio, lo sai che è disgustoso, vero?» buttò lì Tonks. «Prendimi un bicchiere d'acqua, ti prego, Harry», disse Moody. Harry andò alla lavastoviglie, prese un bicchiere pulito e lo riempì d'acqua al lavandino, sempre guardato con curiosità dalla banda di maghi. I loro sguardi fissi cominciavano a irritarlo. «Cin cin!» disse Moody quando Harry gli porse il bicchiere. Fece cadere il bulbo magico nell'acqua e lo spinse su e giù. L'occhio vorticò, fissandoli tutti uno dopo l'altro. «Voglio una visione a 360 gradi per il viaggio di ritorno. Come facciamo ad andare dove andiamo?» chiese Harry. «Con le scope», rispose Lupin. «È l'unico modo. Tu sei troppo giovane per materializzarti. La metro polvere sarà solvegliata e non vale la pena di allestire una passaporta non autorizzata». «Remus dice che voli bene», disse Kingsley Shacklebolt con la sua voce profonda. «È bravissimo», confermò Lupin con un'occhiata all'orologio. «Comunque è meglio che tu vada a fare le valigie, Harry. Dobbiamo essere pronti a partire quando arriva il segnale». «Vengo ad aiutarti», propose Tonks allegramente. Seguì Harry nell'ingresso e su per le scale, guardandosi attorno con gran curiosità e interesse. «Che posto bizzarro», disse. «È un po' troppo pulito. Capito che cosa intendo? Un po' innaturale». «Oh, qui va meglio», aggiunse quando entrarono nella camera di Harry e lui accese la luce. La sua stanza era decisamente molto più caotica del resto della casa. Confinato lì per quattro giorni e in più di pessimo umore, Harry non si era curato di mettere in ordine. Gran parte dei libri che possedeva erano sparsi a terra. Aveva cercato di distrarsi con ciascuno di essi e poi l'aveva gettato via. La gabbia di Edwige aveva bisogno di essere pulita e cominciava a puzzare. E il suo baule era aperto, rivelando un guazzabuglio confuso di abiti babbani e vesti da mago che si era riversato per terra tutto attorno. Harry prese a raccogliere i libri e a gettarli in fretta nel baule. Tonks si fermò davanti all'armadio aperto per studiare con aria critica il proprio riflesso nello specchio. «Sai, non credo che il viola sia proprio il mio colore», disse pensierosa, tirandosi una ciocca di capelli irti. «Non trovi che mi sbatta un po'? «Ehm», disse Harry, guardandola al di sopra di squadre di Quidditch della Gran Bretagna e dell'Irlanda. «Sì, è così», concluse Tonks. Strizzò gli occhi in un'espressione tesa, come se cercasse di ricordare qualcosa. Un attimo dopo i suoi capelli erano diventati di un rosa cicca. «Come ha fatto?», chiese Harry, guardandola sbalordito, mentre lei riapriva gli occhi. «Sono un metamorfo magus», disse lei, tornando a osservare il proprio riflesso e voltando la testa in modo da vedere i capelli da tutte le angolature. «Vol dire che posso cambiare il mio aspetto quando voglio», aggiunse, quando scorse nello specchio l'espressione perplessa di Harry alle sue spalle. «Sono nata così. Ho preso il massimo dei voti in occultamento e travestimento, al corso di addestramento per Auror, senza dover studiare affatto. È stato magnifico!» «Lei è un Auror?», domandò Harry colpito. «Essere un cacciatore di maghi oscuri era l'unica carriera a cui avesse mai pensato, dopo Hogwarts». «Sì», rispose Tonks con aria fiera. «Anche Kingsley. È un po' più avanti di me, però. Io mi sono diplomata solo un anno fa. Ho rischiato di farmi bocciare in segretezza e in seguimento. Sono goffissima. Mi hai sentito rompere quel piatto quando siamo arrivati di sotto?» «Si può imparare a essere un metamorfo magus», le chiese Harry rialzandosi, del tutto dimentico dei bagagli. Tonks ridacchiò. «Scommetto che non ti dispiacerebbe poter nascondere quella cicatrice ogni tanto, eh?» Il suo sguardo individuò la cicatrice a forma di saetta, sulla fronte di Harry. «No, non mi dispiacerebbe», borbottò Harry voltandosi. Non gli andava che la gente fissasse la sua cicatrice. «Beh, ti toccherà imparare nel modo più difficile, temo», disse Tonks. «I metamorfo magi sono davvero rari. Sono così dalla nascita, non lo diventano. Quasi tutti i maghi hanno bisogno di usare una bacchetta o delle pozioni per cambiare il proprio aspetto. Ma dobbiamo muoverci, Harry! Dovremmo essere qui a fare le valigie», aggiunse in tono colpevole, guardando il caos sul pavimento. «Oh, sì», disse Harry, afferrando qualche altro libro. «Non fare lo stupido, sarà molto più rapido se io...» «Bagaglius!», gridò Tonks, agitando la bacchetta con un lungo, ampio gesto rivolto al pavimento. Libri, abiti, telescopio e bilance si levarono tutti a mezz'aria e volarono alla rinfusa nel baule. «Non è molto ordinato», ammise Tonks, avvicinandosi al baule e guardando il caos all'interno. «Mia mamma riesce a far entrare la roba in ordine, persino a far ripiegare le calze da sole, ma io non ho mai capito come fa. È una specie di colpetto». E mosse appena la bacchetta, speranzosa. Uno dei calzini di Harry si agitò un poco e ricadde in cima al caos, nel baule. «Ah, beh», concluse Tonks, chiudendo il coperchio con un tonfo. «Almeno è tutto dentro. Anche quella ci guadagnerebbe con una bella pulita», puntò la bacchetta verso la gabbia di Edvige. «Polizio!» Un po' di piume e di cacche svanirono. «Beh, è un po' meglio. Non sono mai riuscito a padroneggiare questo genere di incantesimi casalinghi. Bene, hai tutto? Il calderone? La scopa? Wow! Una Firebolt!» I suoi occhi si dilatarono, posandosi sulla scopa che Harry reggeva nella mano destra. Era la sua gioia e il suo orgoglio. Un dono di Sirius, una scopa di livello internazionale. «E io che cavalco ancora una Comet 260?» disse Tonks invidiosa. «Ah, beh, hai ancora la bacchetta nei jeans? Tutte e due le chiappe sono ancora al loro posto? Ok, andiamo! Baule locomotor!» Il baule di Harry si alzò in aria di qualche centimetro. Tenendo la bacchetta come quella di un direttore d'orchestra, Tonks lo sollevò a mezz'aria e lo fece uscire dalla porta davanti a loro, reggendo la gabbia di Edwige nella mano sinistra. Harry la seguì giù per le scale, portando la scopa. In cucina, Moody si era rimesso a posto l'occhio. Dopo la pulizia, roteava così in fretta che a Harry venne la nausea a guardarlo. Kingsley Shacklebolt e Sturge Spodmore studiavano in microonde e Estia Jones rideva di un pela patate che aveva trovato frugando nei cassetti. Lupin stava sigillando una lettera indirizzata ai Dursley. «Ottimo!» disse, alzando lo sguardo all'ingresso di Tonks e Harry. «Abbiamo circa un minuto, credo. Probabilmente dovremmo uscire in giardino, in modo da stare pronti. Harry, ho lasciato una lettera ai tuoi zii per dir loro di non preoccuparsi.» «Non succederà», disse Harry. «Che sei al sicuro? Li deprimerà a saperlo e che le rivedrai la prossima estate. Devo proprio?» Lupin sorrise, ma non rispose. «Vieni qui, ragazzo!» Moody, burbero, gli fece segno con la bacchetta di avvicinarsi. «Devo disilluderti.» «Deve che cosa?» chiese Harry nervosamente. «Incantesimo di disillusione», spiegò Moody, levando la bacchetta. «Lupin dice che possiedi un mantello dell'invisibilità, ma non puoi portarlo mentre vogliamo. Questo ti nasconderà meglio.» «Ecco.» Lo colpì forte sulla testa e Harry provò una singolare sensazione, come se Moody avesse appena rotto un uovo in quel punto. Rivoletti freddi parvero scorrergli lungo il corpo, a partire dal punto toccato dalla bacchetta. «Ben fatto, malocchio!» approvò Tonks, fissando la vita di Harry. Harry guardò il proprio corpo, o meglio, ciò che era stato il suo corpo, perché non ne aveva più l'aspetto. Non era invisibile, aveva soltanto preso l'esatto colore e la precisa consistenza del mobile da cucina alle sue spalle. Sembrava che fosse diventato un camaleonte umano. «Andiamo», disse Moody, aprendo la porta sul retro con la bacchetta. «Uscirono tutti sul prato curatissimo», dizio Vernon. «Notte serena», borbottò Moody, mentre il suo occhio magico scrutava i cieli. «Un po' di nuvole ci sarebbero state più utili per coprirci». «Ehi tu!» abbaiò a Harry. «Voleremo informazione compatta. Tonks starà davanti a te. Stalle accanto alla coda. Lupin ti coprirà da sotto. Io starò dietro di te. Tutti gli altri si disporranno attorno a noi. Non romperemo le righe per nessun motivo, capito? Se uno di noi viene ucciso...» «Può succedere?» chiese Harry ansioso. Ma Moody lo ignorò. «Gli altri continuano il volo. Non si fermano. Non abbandonano i ranghi. Se ci abbattono tutti e tu sopravvivi, Harry, la retroguardia è pronta a prendere il nostro posto. Continua a volare verso est e ti raggiungeranno». «Smettila di essere così allegro, malocchio, o penserà che non prendiamo la faccenda sul serio». Lo rimproverò Tonks, legando il baule di Harry e la gabbia di Edwige a una briglia che pendeva dalla sua scopa. «Sto solo spiegando il piano al ragazzo», ringhiò Moody. «Il nostro compito è accompagnarlo sano e salvo al quartier generale. E se cadiamo nel tentativo...» «Non morirà nessuno», sentenziò Kingsley Shacklebolt con la sua voce profonda e tranquillizzante. «Salite sulle scope! Ecco il primo segnale», disse Lupin secco, indicando il cielo. Lontano, lontano, sopra di loro, una pioggia di scintille rosso vivo era esplosa tra le stelle. Harry le riconobbi all'istante come scintille di bacchetta. Gettò la gamba destra oltre la Firebolt, afferrò stretto il manico e la sentì vibrare appena, come se fosse desiderosa quanto lui di ritrovarsi di nuovo per aria. «Il secondo segnale! Andiamo!» disse Lupin ad alta voce. Altre scintille, questa volta verdi, erano esplose alte sopra di loro. Harry decollò con un robusto slancio. La fresca aria notturna gli sfrecciò tra i capelli, mentre gli ordinati giardini quadrati di Privet Drive si allontanavano, rimpicciolendo in fretta in un patchwork di verde scuro e di nero, e ogni pensiero dell'udienza del ministero fu spazzato via quasi che il fiotto d'aria gliel'avesse soffiato fuori dalla testa. Era come se il cuore gli stesse per esplodere di piacere. Volava di nuovo, volava via da Privet Drive, come aveva fantasticato per tutta l'estate. Stava tornando a casa, per qualche glorioso istante. Tutti i suoi problemi parvero ritirarsi nel nulla, insignificanti nel vasto cielo stellato. «Tutta manca! Tutta manca! C'è un babbano che guarda in su!» urlò Moody alle sue spalle. Tonks scartò e Harry la seguì, guardando il suo baule dondolare follemente sotto la scopa di lei. «Dobbiamo prendere quota! Altri trecento metri!» Gli occhi di Harry lacrimavano per il freddo mentre il gruppo saliva. Non vedeva niente di sotto ormai, tranne minuscoli puntolini di luce che erano fari di auto e lampioni. Due di quelle lucine potevano essere l'auto di Sio Vernon. I Darsley ormai dovevano essere diretti verso la casa vuota, gonfi di rabbia, per l'inesistente gara del giardino. Harry rise forte al pensiero, anche se la sua voce fu soffocata dal frastuono delle vesti svolazzanti degli altri, dal gemito della briglia che reggeva il suo baule e la gabbia, e dal sibilo del vento nelle orecchie. Da un mese non si sentiva così vivo e così felice. «Verso sud!» gridò Malocchio. «Città prua!» puntarono a destra per evitare di passare direttamente sopra la regnatela scintillante di luci. «Verso sud-est e continuate a salire! Davanti ci sono nuvole basse in cui possiamo nasconderci!» urlò Moody. «Non attraversiamo le nuvole!» gridò Tonks rabbiosa. «Ci inzupperemo, Malocchio!» Harry fu sollevato nel sentirglielo dire. Le sue mani stavano perdendo la sensibilità sul manico della Firebolt. Si pentì di non aver preso un cappotto. Cominciava a tremare. Ogni tanto cambiavano rotta seguendo le istruzioni di Malocchio. Harry stringeva gli occhi contro le folate di vento gelido che cominciavano a fargli dolere le orecchie. Ricordava di aver provato tanto freddo a cavallo di una scopa solo una volta prima d'allora, durante la partita di Quidditch contro Tassofrasso al terzo anno, che si era tenuta in piena tempesta. La scorta attorno a lui continuava a volteggiare come uno stormo di uccelli da preda giganti. Harry perse la nozione del tempo. Si chiese da quanto volassero. Almeno da un'ora, pareva. «Puntiamo a sud-ovest!» urlò Moody. «Dobbiamo evitare l'autostrada!» Harry ormai era così congelato che pensò con nostalgia agli accoglienti, asciutti abitacoli delle auto che scorrevano sotto di loro. Poi, con nostalgia ancora più acuta, ai viaggi via polvere volante. Poteva anche essere scomodo, vorticare dentro i camini, ma almeno tra le fiamme c'era caldo. Kingsley Shacklebolt gli volò vicino, con la pelata e l'orecchino che scintillavano appena alla luce della luna. Ora Emmeline Vance era alla sua destra, la bacchetta tesa, il capo che si voltava da destra a sinistra. Poi anche lei volò sopra di lui, per cedere il posto a Sturge's Podball. «Dobbiamo fare dietro front per un pezzo, per controllare che non ci seguano!» gridò Malocchio. «Tu sei pazzo, Malocchio!» strillò Tonks da davanti. «Siamo tutti gelati dalla testa alla scopa! Se continuiamo a deviare, arriveremo la settimana prossima, e poi ormai ci siamo quasi!» «È ora di cominciare la discesa!» disse la voce di Lupin. «Segui Tonks, Harry!» Harry seguì Tonks in picchiata. Erano diretti verso la più grande concentrazione di luci che avesse visto fino a quel momento, un'enorme, dilagante massa intrecciata che scintillava in linee e reticoli, inframezzati da macchie del nero più fondo. Volarono sempre più basso, finché Harry riuscì a distinguere i singoli fari e i lampioni, i camini e le antenne della televisione. Desiderava tantissimo toccare terra, anche se era sicuro che qualcuno avrebbe dovuto scongelarlo per staccarlo dalla scopa. «Eccoci!» gridò Tonks e qualche istante dopo era atterrata. Harry arrivò proprio dietro di lei e smontò su una macchia di erba incolta al centro di una piazzetta. Tonks stava già sbrigliando il baule. Tremante, Harry si guardò attorno. Le facciate sudice delle case circostanti non erano accoglienti. Alcune avevano i vetri rotti, che scintillavano cupi alla luce dei lampioni. La vernice di molte porte era scrostata e mucchi di immondizia giacevano davanti a parecchie scallinate d'ingresso. «Dove siamo?» chiese Harry, ma Lupin disse piano. «Tra un minuto». Moody stava frugando dentro il mantello, le mani contorte intorpidite dal freddo. «Trovato!» borbottò. Levò quello che sembrava un accendino d'argento e lo fece scattare. Il lampione più vicino si spense con uno schiocco. Moody fece scattare di nuovo lo spegnino. Il lampione successivo si oscurò. Continuò a far scattare l'attrezzo finché tutti i lampioni della piazza furono spenti e la sola luce residua veniva dalle finestre schermate e dalla falce di luna in alto. «L'ho preso in prestito da silente», ringhiò Moody, intascando lo spegnino. «Questo sistema qualunque babbano che guardi fuori dalla finestra, capito? Adesso andiamo, presto!» Prese Harry per un braccio e lo guidò dalla macchia erbosa attraverso la strada e sul marciapiede. Lupin e Tonks li seguirono, trasportando in due il baule di Harry. Il resto della scorta, tutti con le bacchette sfoderate, li affiancava. Il pulsare soffocato di uno stereo usciva da una finestra in alto nella casa più vicina. Un acre odore di immondizia marcia si levava dalla pila di sacchi neri rigonfi, appena dentro il cancello rotto. «Qui!» borbottò Moody, porgendo un pezzo di pergamena alla mano disillusa di Harry e reggendo la bacchetta accesa vicino al foglio, in modo da illuminare ciò che c'era scritto. «Leggi in fretta e impara a memoria!» Harry guardò il foglio. La grafia serrata era vagamente familiare. Diceva, «Il quartier generale dell'Ordine della Fenice si può trovare al numero dodici di Grimmauld Place, Londra». «Grimmauld Place, numero dodici». «Che cos'è l'Ordine della...» esordì Harry. «Non qui, ragazzo!» ringhiò Moody. «Aspetta che siamo dentro!» Gli sfilò la pergamena dalla mano e la incendiò con la punta della bacchetta. Mentre il messaggio si arricciava tra le fiamme e fluttuava sino a terra, Harry guardò di nuovo le case. Erano davanti al numero undici. Guardò a sinistra e vide il numero dieci. A destra, tuttavia, c'era il numero tredici. «Ma dov'è?» «Pensa a ciò che hai appena mandato a mente», disse Lupin piano. Harry pensò, e non appena ebbe raggiunto la parte che riguardava il numero dodici di Grimmauld Place, una porta malconcia affiorò dal nulla tra i numeri undici e tredici, seguita in fretta da muri sudici e finestre incrostate di sporco. Era come se una casa in più si fosse gonfiata lì in mezzo, spingendo da parte quelle ai lati. Harry la guardò a bocca aperta. Lo stereo al numero undici continuò a pulsare. A quel che pareva i babbani all'interno non si erano accorti di nulla. «Andiamo, presto!» ringhiò Moody, incolaggiando Harry con un colpetto sulla schiena. Harry salì con sunti gradini di pietra, fissando la porta che si era appena materializzata. La vernice nera era scrostata e graffiata. Il batacchio d'argento aveva la forma di un serpente intrecciato. Non c'erano serratura né cassetta delle lettere. Lupin estrasse la bacchetta e picchiò alla porta una volta. Harry udì molti rumori metallici e quello che suonava come il tintinio di una catena. La porta si aprì con un cigolio. «Entra in fretta, Harry!» sussurrò Lupin. «Ma non andare troppo in là e non toccare niente!» Harry varcò la soglia per ritrovarsi nell'oscurità quasi totale dell'ingresso. Fiutò umidità, polvere e un odore dolciastro di marcio. Il luogo dava la sensazione di un edificio abbandonato. Si guardò alle spalle e vide gli altri entrare dietro di lui, con Lupin e Tonks che trasportavano il suo baule e la gabbia di Edwiger. Moody era sul gradino più alto, intento a liberare le sfere di luce che lo spegnino aveva rubato ai lampioni. Volarono al loro posto dentro i bulbi e la piazza brillò per un istante di luce arancione, prima che Moody entrasse zoppicando e chiudesse la porta, così che l'oscurità fu completa. «Ecco!» batte forte con la bacchetta sulla testa di Harry, che si sentì scorrere lungo la schiena qualcosa di caldo questa volta e seppe che l'incantesimo di disillusione si era interrotto. «Ora tutti fermi, che procuro un po' di luce!» sussurrò Moody. Le voci soffocate degli altri infondevano in Harry un tetro presagio. Era come se fossero appena entrati nella casa di un morente. Udì un sibilo basso, e poi vecchie lampade a gas tornarono in vita, sputacchiando lungo le pareti, gettando una luce tremolante e inconsistente sulla tappezzeria scollata e sulla moquette lisa di un lungo, cupo corridoio, dove un candelabro coperto di ragnatele brillava sopra di loro, e ritratti anneriti dal tempo affollavano i muri. Harry udì qualcosa a zampettare dietro lo zoccolo della parete. Sia il candelabro appeso al soffitto che quelli posati su un tavolino traballante lì vicino avevano la forma di serpenti. Si udirono dei passi affrettati e la madre di Ron, la signora Weasley, emerse da una porta all'altro capo dell'ingresso. Sorrise in segno di benvenuto, correndo verso di loro, anche se Harry notò che era più magra e pallida dell'ultima volta in cui l'aveva vista. «Oh, Harry, che bello vederti!» sussurrò, stringendolo in un abbraccio strito la costole, prima di spingerlo indietro e osservarlo con aria critica. «Hai l'aria patita! Hai bisogno di mangiare, ma dovrai aspettare un po' per la cena, temo!» Si rivolse alla banda di maghi alle spalle di Harry e sussurrò frettolosa, e appena arrivato la riunione è cominciata. I maghi dietro Harry si produssero in mormorii di interesse ed eccitazione, e l'oltre passarono, diretti alla porta da cui la signora Weasley era appena arrivata. Harry fece perseguire Lupin, ma lei lo trattenne. «No, Harry, la riunione è riservata ai membri dell'ordine. Ron e Ermione sono di sopra. Puoi aspettare con loro finché non sarà finita. Poi ceneremo. E parla piano nell'ingresso», aggiunse con un sussurro. «Perché? Non voglio che niente si svegli. Che cosa? Ti spiegherò dopo. Adesso devo muovermi. Devo andare alla riunione. Ti mostro dove dormirai.» Premendosi un dito sulle labbra, passò in punta di piedi accanto a una coppia di tende lunghe e tarmate, oltre la quale Harry suppose ci dovesse essere un'altra porta, e dopo aver evitato un grande portaombrelli, che sembrava fatto con una zampa amputata di troll, presero a salire le scale buie, passando sotto una fila di teste rinsecchite, montate su targhe lungo la parete. Un'occhiata più da vicino svelò a Harry che le teste appartenevano a elfi domestici. Avevano tutti lo stesso naso, simile a un grugno. La meraviglia di Harry cresceva a ogni gradino. Che cosa diavolo ci facevano in una casa che sembrava appartenere al più oscuro dei maghi? «Signora Weasley, chi?» «Ron e Hermione ti spiegheranno tutto, tesoro. Devo scappar via, davvero», sussurrò la signora Weasley distrattamente. «Ecco». Avevano raggiunto il secondo pianerottolo. «La tua è la porta a destra. Vi chiamo quando è finita» e corse di nuovo giù per le scale. Harry attraversò il lugubre pianerottolo, girò la maniglia a forma di testa di serpente e aprì la porta. Corse un rapido scorso di una tetra stanza con il soffitto alto e due letti gemelli. Poi si udì un forte cinguettio, seguito da uno stridio ancora più forte, e il suo campo visivo fu completamente oscurato da una gran quantità di capelli molto cespugliosi. Hermione gli si era gettata addosso, stringendolo in un abbraccio che quasi lo stese, mentre il minuscolo gufo di Ron, leotordo, sfrecciava eccitato attorno alle loro teste. «Harry! Ron è qui! Harry è qui! Non ti abbiamo sentito arrivare! Oh, come stai? Stai bene? Sei arrabbiato con noi?» Scommetto di sì. «Lo so che le nostre lettere erano inutili, ma non potevamo dirti niente. Silente ci ha fatto giurare. Oh, abbiamo tante cose da raccontarti e anche tu hai delle cose da raccontare a noi, i dissennatori. Quando abbiamo saputo e quell'udienza al ministero è semplicemente vergognoso. Ho studiato tutto. Non possono espellerti. Non possono e basta. Nel decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni è previsto l'uso della magia in caso di pericolo di vita. «Lascialo respirare, Hermione!» disse Ron con un gran sorriso, chiudendo la porta dietro Harry. Sembrava cresciuto di paricchi centimetri durante il mese di separazione ed era più alto e dinocolato che mai, anche se il naso lungo, i capelli di un rosso acceso e le lentiggini erano gli stessi. Sempre sorridendo radiosa, Hermione lasciò andare Harry, ma prima che potesse dire un'altra parola si udì un dolce sibilo e qualcosa di bianco calò dalla cima di un cupo armadio, atterrando dolcemente sulla spalla di Harry. «Edvige!» La civetta candida come la neve fece schioccare il becco e gli mordichiò l'orecchio con affetto, mentre Harry la accarezzava. «Era arrabbiatissima!» disse Ron. «Ci ha quasi beccati a morte quando ha portato le tue ultime lettere. Guarda qui!» mostrò a Harry il dito indice della mano destra, che esibiva un taglio quasi rimarginato, ma profondo. «Oh, sì!» si scusò Harry. «Mi dispiace, ma volevo delle risposte, sapete, noi volevamo dartere, Harry!» disse Ron. Hermione era agitatissima. Continuava a dire che avresti fatto qualche stupidaggine se fossi rimasto bloccato tutto solo senza notizie. «Ma Silente ci ha fatto giurare di non dirmi niente!» terminò Harry. «Sì, l'ha già detto Hermione. Il bagliore tiepido che gli si era acceso dentro alla vista dei suoi due migliori amici si spense e qualcosa di ghiacciato gli invase la bocca dello stomaco. All'improvviso, dopo aver desiderato di vederli per un mese intero, avrebbe preferito che Ron e Hermione lo lasciassero in pace.» Calò un silenzio teso. Harry accarezzava Edvige meccanicamente, senza guardare nessuno dei due. «Sembrava convinto che fosse la cosa migliore», disse Hermione in un soffio. «Silente, intendo.» «Già», commentò Harry. Notò che anche le mani di lei recavano i segni del becco di Edvige e scoprì di non essere affatto dispiaciuto. «Probabilmente pensava che eri assolutamente al sicuro con i babbani», tentò Ron. «Davvero?», disse Harry, inarcando le sopracciglia. «Uno di voi due, per caso, è stato aggredito dai disennatori quest'estate?» «Beh, no! Ma è per questo che ha messo gente dell'Ordine della Fenice a sorvegliarti di continuo.» Harry sentì un gran balzo nelle viscere, come se avesse saltato un gradino scendendo le scale. E così tutti sapevano che era guardato a vista. Tranne lui. «Non ha funzionato tanto bene, però, vero?», chiese Harry, facendo del suo meglio per controllare il tono di voce. «Dopotutto ho dovuto badare a me stesso, no?». «Era così arrabbiato», continuò Hermione, quasi intimorita. «Silente, l'abbiamo visto, quando ha scoperto che Mandangus se n'era andato prima della fine del suo turno. Faceva paura.» «Beh, sono contento che se ne sia andato?», disse Harry freddamente. «Altrimenti non avrei fatto nessuna magia, e Silente probabilmente mi avrebbe lasciato tutta l'estate in private drive.» «Non sei... non sei preoccupato per l'udienza al ministero?», gli chiese Hermione piano. «No», mentì Harry in tono di sfida. Si allontanò da loro e si guardò intorno, con Edvige rannicchiata sulla spalla, tutta soddisfatta, ma la stanza non aveva niente che potesse risollevare il suo umore. Era umida e buia. Una tela vuota in una cornice elaborata era l'unico arredo alla nudità delle pareti scollate, e mentre Harry le passava davanti, gli parve di sentir ridacchiare qualcosa che non riusciva a vedere. «E allora perché Silente aveva tanta voglia di tenermi all'oscuro di tutto?», chiese Harry, sempre sforzandosi di mantenere un tono di voce non curante. «Per caso vi siete... presi la briga di chiederglielo?», alzò gli occhi appena in tempo per vederli scambiarsi uno sguardo. Capì che si stava comportando proprio come avevano temuto. Ciò non migliorò per nulla il suo umore. «Abbiamo detto a Silente che volevamo raccontarti che cosa stava succedendo», disse Ron. «Gliel'abbiamo detto, Harry, ma al momento è davvero molto impegnato. L'abbiamo visto solo due volte da quando siamo qui, e non aveva molto tempo. Ci ha fatto solo giurare di non dirti cose importanti nelle lettere. Ha detto che i gufi potevano essere intercettati. Però poteva tenermi informato, se voleva», ribatté Harry secco. «Non ditemi che non sa come mandare messaggi senza gufi». Hermione scoccò un'occhiata a Ron e poi disse «L'ho pensato anch'io, ma lui voleva che tu non sapessi niente». «Forse non crede di potersi fidare di me», buttò lì Harry, osservando le loro espressioni. «Non essere idiota», rispose Ron, completamente allibito. «O che non sappia badare a me stesso? Ma certo che no», esclamò Hermione agitata. «E allora come mai devo stare dai Dursley mentre voi due potete partecipare a tutto quello che succede qui?», chiese Harry, le parole che inciampavano l'una nell'altra, la voce sempre più alta. «Come mai voi due potete sapere tutto?» «Non è vero», protestò Ron. «La mamma non ci permette nemmeno di avvicinarci alle riunioni. Dice che siamo troppo giovani». Ma prima di rendersene conto, Harry prese a urlare. «E così non andate alle riunioni, bella roba! Ma almeno siete qui, no? State sempre insieme! Io sono stato bloccato un mese dai Dursley e ho affrontato cose ben più grosse di quanto non sia mai successo a voi, e Silente lo sa. Chi ha salvato la pietra filosofale? Chi si è sbarazzato di Riddle? Chi vi ha salvato la pelle a voi due dai dissennatori?» Ogni pensiero amaro e rancoroso che Harry aveva formulato nell'ultimo mese si riversò fuori. La frustrazione per la mancanza di notizie, il dolore che loro fossero insieme senza di lui, la rabbia per essere stato sotto sorveglianza senza saperlo, tutti i sentimenti di cui un po' si vergognava, infine esplosero. Edvige si spaventò per il fracasso e volò di nuovo in cima all'armadio. Leotordo cinguettò allarmato e sfrecciò ancora più rapido attorno alle loro teste. «Chi ha dovuto superare Draghi e Sfingi e tutte quelle altre schifezze l'anno scorso? Chi ha visto lui che tornava? Chi ha dovuto sfuggirli? Io!» Ron era lì con la bocca mezza aperta, evidentemente stordito e incapace di dire alcunché, mentre Ermione sembrava sull'orlo delle lacrime. «Ma perché mai dovrei sapere che cosa sta succedendo? Perché qualcuno dovrebbe prendersi la briga di dirmi che cosa succede?» «Harry, noi volevamo dirtelo, davvero?» cominciò Ermione. «Non lo volevate proprio tanto, eh? Altrimenti potevate mandarmi un gufo, ma Silente vi ha fatto giurare!» «Beh, è vero, quattro settimane sono rimasto prigioniero in private drive a pescare i giornali nei bidoni per cercare di scoprire che cosa succedeva! Noi volevamo! Immagino che vi siate fatti delle belle risate, vero? Rintanati qui tutti insieme!» «No, sul serio! Harry, ci dispiace tanto!» disse Ermione disperata, gli occhi luccicanti di lacrime. «Hai assolutamente ragione, Harry! Io sarei furibonda se fosse capitato a me!» Harry la scrutò irato, ancora ansante. Poi si voltò di nuovo e prese a misurare la stanza a grandi passi. Edvige stridette cupa dalla cima dell'armadio. Ci fu una lunga pausa, interrotta solo dal funereo scricchiolio delle assi del pavimento, sotto i piedi di Harry. «Che cos'è questo posto, comunque?» sbottò rivolto a Ron e Ermione. «Il quartier generale dell'Ordine della Fenice», rispose subito Ron. «Qualcuno si prende il disturbo di dirmi che cos'è l'Ordine della Fenice?» «È una società segreta», rispose Ermione in fretta. «La guida silente, l'ha fondata lui. Sono le persone che hanno combattuto contro tu sai chi l'ultima volta». «Chi ne fa parte?» chiese Harry fermandosi con le mani in tasca. «Un po' di gente. Ne abbiamo visti una ventina», disse Ron, «ma crediamo che ce ne siano degli altri». Harry li guardò fosco. «Allora?» chiese guardando dall'uno all'altra. «Ehm», disse Ron, «allora cosa?» «Voldemort», disse Harry furioso, e sia Ron che Ermione trasalirono. «Che cosa sta succedendo? Che cosa sta combinando? Dov'è? Che cosa stiamo facendo per fermarlo?» «Te l'abbiamo detto, l'Ordine non ci permette di partecipare alle riunioni», rispose Ermione nervosamente. «Quindi non conosciamo i dettagli, ma ci siamo fatti un'idea generale», aggiunse in fretta vedendo l'espressione di Harry. «Fred e George, sai, hanno inventato le orecchie oblunghe», disse Ron. «Sono proprio utili». «Orecchie oblunghe, sì. Solo che ultimamente abbiamo dovuto smettere di usarle, perché la mamma ci ha scoperto ed è andata su tutte le furie. Fred e George hanno dovuto nasconderle tutte per evitare che la mamma le buttasse via, ma ci sono state parecchio utili prima che la mamma ci beccasse. Sappiamo che alcuni membri dell'Ordine stanno seguendo dei noti mangiamorte, li tengono d'occhio, insomma». «Alcuni lavorano per reclutare altre persone nell'Ordine», disse Ermione, «e alcuni sorvegliano qualcosa», proseguì Ron. «Parlano sempre di turni di guardia». «Non ero io, magari?» chiese Harry sarcastico. «Oh già, certo», disse Ron con l'aria di chi capisce qualcosa all'improvviso. Harry sbuffò, riprese a marciare per la stanza, guardando ovunque tranne che verso Ron e Ermione. «Allora, che cosa fate voi due se non potete assistere alle riunioni?» chiese. «Avete detto che avete avuto da fare». «È vero», rispose Ermione in fretta. «Stiamo disinfestando la casa. È vuota da secoli e c'è un sacco di roba che si è riprodotta qui dentro. Siamo riusciti a ripulire la cucina, quasi tutte le camere da letto, e credo che domani faremo il salò». «Ahhh!» Con due schiocchi sonori, i gemelli Fred e George, i fratelli maggiori di Ron, erano comparsi dal nulla, nel centro della stanza. Leotordo cinguettò più selvaggiamente che mai e sfrecciò a raggiungere Edwige in cima all'armadio. «Smettetela!» ordinò debolmente Ermione ai gemelli, che avevano gli stessi capelli rosso vivo di Ron, ma erano più robusti e un po' più bassi. «Ciao, Harry!» disse George con un gran sorriso. «Mi pare di aver sentito i tuoi toni soavi!» «Non devi reprimere la rabbia così, Harry! Lasciala sfogare!» disse Fred, che pure sorrideva. «Forse a una quarantina di chilometri da qui ci sono due o tre persone che non ti hanno sentito!» «Allora voi due avete superato gli esami di materializzazione, eh?» chiese Harry imbronciato. «Con lode», rispose Fred, che reggeva quello che sembrava un filo molto lungo, color carne. «Ci avreste messo solo trenta secondi in più a scendere le scale!» osservò Ron. «Il tempo è galeoni, fratellino!» ribatté Fred. «Comunque, Harry, stai disturbando la ricezione!» «Orecchie oblunghe!» aggiunse in risposta alle sopracciglia inarcate di Harry e mostrò il filo che Harry, se ne accorse in quel momento, si dipanava fin sul pianerottolo. «Stiamo cercando di sentire che cosa succede di sotto!» «Dovete stare attenti!» disse Ron fissando l'orecchio. «Se la mamma ne vede un altro!» «Vale la pena di rischiare! È una riunione importante!» rispose Fred. La porta si aprì e comparve una lunga zazzera di capelli rossi. «Oh, ciao, Harry!» disse allegramente Ginny, la sorella minore di Ron. «Mi pareva di aver sentito la tua voce!» Rivolta a Fred e George aggiunse. «Niente da fare con le orecchie oblunghe!» Ha gettato un incantesimo imperturbabile sulla porta della cucina. «Come fai a saperlo?» chiese George mortificato. «Tonks mi ha spiegato come scoprirli», rispose Ginny. «Basta buttare qualcosa contro la porta e se non riesce a fare contatto vuol dire che la porta è stata imperturbata. Ho provato a gettare delle caccabombe dalla cima delle scale e non fanno che rimbalzare indietro, quindi non è possibile che le orecchie oblunghe riescano a passarci sotto». Fred trasse un profondo sospiro. «Peccato! Avevo proprio voglia di scoprire che cosa sta combinando il vecchio Piton!» «Piton!» esclamò Harry. «È qui!» «Sicuro!» disse George, che chiuse cautamente la porta e si sedette su uno dei letti. Fred e Ginny lo imitarono. «Fa rapporto, top secret!» «Idiota!» disse Fred pigramente. «È dalla nostra parte adesso!» osservò Hermione in tono di rimprovero. Ron sbuffò. «Questo non gli impedisce di essere un idiota! Le occhiate che ci tira quando ci vede!» «Non piace nemmeno a Bill!» disse Ginny, come se questo sistemasse la faccenda. Harry non era sicuro che la sua rabbia si fosse già placata, ma la sete di informazioni al momento superava il bisogno di urlare. Sprofondò nel letto di fronte agli altri. «Bill è qui?» chiese. «Credevo che fosse in Egitto!» «Ha fatto domanda per un lavoro di ufficio in modo da poter tornare a casa e collaborare con l'ordine!» disse Fred. «Dice che gli mancano le tombe, ma...» e fece una smorfia. «Ci sono dei vantaggi!» «Cioè? Ti ricordi la vecchia Fleur de la Cour?» disse George. «È stata assunta alla Gringot per migliorare il suo anglese!» «E Bill le dà un sacco di lezioni private!» ridacchiò Fred. «Anche Charlie fa parte dell'ordine!» disse George. «Ma è ancora in Romania. Silente vuole assoldare tutti i maghi stranieri che può. Così Charlie cerca di prendere contatti nei giorni liberi. Non potrebbe farlo Percy!» chiese Harry. L'ultima notizia che aveva era che il terzo fratello Weasley lavorava nell'ufficio per la cooperazione magica internazionale al Ministero della Magia. Alle parole di Harry, tutti i Weasley e Hermione si scambiarono eloquenti sguardi cupi. «Comunque vadano le cose. Non parlare di Percy davanti a mamma e papà!» gli disse Ron con voce tesa. «Perché no? Perché tutte le volte che si sente il nome di Percy, papà rompe qualunque cosa abbia in mano, e la mamma scoppia a piangere!» disse Fred. «È terribile!» mormorò Ginny, triste. «Credo che ci siamo proprio liberati di lui!» continuò George con un'espressione insolitamente tetra. «Che cosa è successo?» chiese Harry. «Persi e papà hanno litigato», disse Fred. «Non ho mai visto papà litigare così con qualcuno. Di solito è la mamma che urla. È successo la prima settimana dopo la fine della scuola», riprese Ron. «Stavamo per venire a unirci all'ordine. Percy è tornato a casa e ci ha detto che era stato promosso». «State scherzando?» disse Harry. Anche se sapeva benissimo che Percy era profondamente ambizioso, Harry aveva l'impressione che non avesse avuto un gran successo col suo primo incarico al Ministero della Magia. Aveva commesso l'incredibile leggerezza di non accorgersi che il suo capo era controllato dal Lord Voldemort. Non che il Ministero ci avesse creduto, avevano pensato tutti che il signor Crouch fosse impazzito. «Sì, ci ha stupito tutti», disse George, «perché si era ficcato in un sacco di guai per via di Crouch. C'è stata anche un'inchiesta. Hanno detto che Percy avrebbe dovuto capire che Crouch era fuori di zucca e informare un superiore. Ma lo sai com'è fatto Percy? Crouch gli aveva lasciato le redini dell'ufficio e lui, certo, non aveva intenzione di lamentarsi. E allora come mai l'hanno promosso?» «È quello che ci siamo chiesti anche noi», disse Ron, che sembrava assai desideroso di continuare con una normale conversazione, ora che Harry aveva smesso di urlare. «È tornato a casa tutto compiaciuto, anche più del solito, se riesce a figurartelo, e ha detto a papà che gli era stato offerto un posto nell'ufficio di Fudge, un posto davvero buono per uno uscito da Hogwarts da appena un anno, assistente del ministro. Si aspettava che papà fosse colpito, credo. Solo che papà non lo è stato», disse Fred Cupo. «Perché no?» chiese Harry. «Beh, a quanto pare Fudge continua a impazzare per il Ministero, controllando che nessuno abbia contatti con Silente», spiegò George. «Il nome di Silente è Fango per il Ministero in questo periodo, sai?», disse Fred. «Sono tutti convinti che provochi solo guai, andando in giro a dire che tu sai chi è tornato». «Papà ha detto che Fudge ha dichiarato che chiunque sia in combutta con Silente può anche sgombrare la scrivania», disse George. «Il guaio è che Fudge sospetta di papà. Sa che è amico di Silente e ha sempre pensato che era un po' svitato per via della sua ossessione per i babbani». «Ma che cosa c'entra questo con Percy?», chiese Harry, confuso. «Ci sto arrivando. Papà sospetta che Fudge voglia Percy nel suo ufficio solo per spiare la nostra famiglia e Silente». Harry emise un fischio sommesso. «Ma Percy è stato felicissimo». Ron rise, una risata vuota. «Ha perso completamente la testa. Ha detto un mucchio di cose terribili. Che ha dovuto lottare contro la pessima reputazione di papà fin da quando è entrato al ministero e che papà non ha ambizioni ed è per questo che siamo sempre stati, sai, che non abbiamo tanti soldi, voglio dire». «Che cosa?», chiese Harry incredulo, mentre Ginny soffiava come un gatto arrabbiato. «Lo so», disse Ron a voce bassa. «E le cose sono peggiorate. Ha detto che papà era un idiota a frequentare Silente, che Silente si stava cacciando in un grosso guaio e papà sarebbe affondato con lui e che lui, Percy, sapeva a chi essere fedele, cioè al ministero. E se papà e mamma avevano intenzione di tradire il ministero, lui avrebbe fatto in modo che tutti sapessero che non faceva più parte della nostra famiglia e ha fatto i bagagli la sera stessa e se n'è andato. Adesso vive qui a Londra». Harry imprecò sottovoce. Percy era sempre stato il fratello di Ron che gli piaceva di meno, ma non aveva mai pensato che potesse dire cose del genere al signor Weasley. «La mamma è completamente sconvolta», disse Ron. «Sai, piange, eccetera. È venuta a Londra per cercare di parlare con Percy, ma lui le ha sbattuto la porta in faccia. Non so che cosa fa quando incontra papà al lavoro. Lo ignora, immagino. Ma Percy deve sapere che Voldemort è tornato», disse Harry lentamente. «Non è stupido. Deve sapere che tua mamma e tuo papà non rischierebbero tutto senza averne le prove». «Sì, beh, mentre litigavano è saltato fuori anche il tuo nome», ammise Ron, scoccando a Harry uno sguardo furtivo. Percy ha detto che la sola prova era la tua parola e, non so, non credeva che fosse abbastanza valida. «Persi prende sul serio la gazzetta del profeta», disse Ermione acida, e tutti gli altri annuirono. «Di che cosa state parlando?», domandò Harry guardandoli. Lo osservavano tutti con aria circospetta. «Non hai ricevuto la gazzetta del profeta?», gli chiese Ermione nervosa. «Sì che l'ho ricevuta». «E l'hai letta tutta?», insiste Ermione, ancora più tesa. «Non da cima a fondo», rispose Harry sulla difensiva. «Se avessero scritto qualcosa su Voldemort sarebbe stato in prima pagina, no?». Gli altri sussultarono, sentendo pronunciare quel nome. Ermione riprese in fretta. «Beh, avresti dovuto leggerla da cima a fondo per notarlo, ma quelli ti nominano un paio di volte la settimana». «Ma l'avrei visto!» «No, se hai letto solo la prima pagina, no?», Ermione scosse il capo. «Non sto parlando di articoloni. Ti citano di sfuggita, come se fossi uno zimbello fisso». «Che cosa?» «È proprio una cattiveria», disse Ermione con calma forzata. «Stanno solo continuando il lavoro che aveva cominciato Rita. Ma non scrive più per loro, no?» «Oh no, ha mantenuto la promessa, non che avesse scelta», aggiunse soddisfatta, «ma ha gettato le basi per quello che stanno cercando di fare adesso». «E cioè che cosa?» chiese Ernie impaziente. «Sai che ha scritto che svenivi dappertutto e dicevi che ti faceva male la cicatrice, eccetera, no?» «Sì», rispose Ernie, che non poteva aver dimenticato tanto in fretta gli articoli di Rita Skeeter su di lui. «Beh, parlano di te come se fossi un frustrato, uno che cerca attenzione, che crede di essere un grande eroe tragico o roba del genere», disse Ermione rapidissima, come se fosse meno spiacevole per Ernie venire a sapere quei fatti velocemente. «Continuano a buttarli commenti malevoli su di te. Se esce un articolo su una storia inverosimile, scrivono cose tipo un racconto degno di Harry Potter e se qualcuno ha un incidente buffo o cose così, speriamo che non gli resti una cicatrice sulla fronte o presto ci toccherà adorarlo». «Io non voglio che nessuno mi adori», Harry cominciò a scaldarsi. «Lo so che non vuoi», disse Ermione in fretta con aria spaventata. «Io lo so, Harry, ma lo capisci che cosa stanno facendo. Vogliono trasformarti in una persona inattendibile. C'è dietro Fudge, ci scommetto tutto quello che vuoi. Vogliono che ovunque i maghi credano che sei solo uno stupido ragazzino, una specie di macchietta, che racconta storie esagerate e ridicole perché adora essere famoso e vuole rimanere tale». «Io non ho chiesto, io non volevo. Voldemort ha ucciso i miei genitori», farfugliò Harry. «Sono diventato famoso perché ha assassinato la mia famiglia, ma non è riuscito a uccidere me. Chi vuole essere famoso per questo motivo? Non pensano che preferirei che non fosse mai...» «Noi lo sappiamo, Harry», disse Ginni appassionata. «E naturalmente non hanno scritto una riga sull'aggressione dei dissennatori», riprese Ermione. «Qualcuno ha detto loro di tenere la bocca chiusa. Dissennatori a piede libero. Quella sì che sarebbe stata una notizia. Non hanno nemmeno scritto che hai violato lo statuto internazionale di segretezza. Credevamo che l'avrebbero fatto. Collimava così bene con l'immagine di te come uno stupido fanfarone. Secondo noi stanno aspettando che tu venga espulso per andare fino in fondo. Voglio dire, se vieni espulso, ovviamente», continuò in fretta. «Non dovrebbe succedere, se si attengono alle loro stesse leggi. Non ci sono argomenti contro di te». Erano tornati a parlare dell'udienza. Harry non voleva pensarci. Cercò di cambiare argomento, ma la fatica di trovarne un altro gli fu risparmiata da un rumore di passi che salivano le scale. «Oh!» Fred diede un robusto strattone all'orecchio oblungo. Si udì un altro sonoro schiocco e lui a George scomparvelo. Qualche istante dopo la signora Weasley apparve sulla soglia. «La riunione è finita. Potete scendere a cena adesso. Muoiono tutti dalla voglia di vederti, Harry. Si può sapere chi ha lasciato tutte quelle caccabombe davanti alla porta della cucina?» «Gratta Stinky», rispose Ginny senza arrossire. «Gli piace tanto giocarci». «Oh», disse la signora Weasley, «credevo che fosse stato Creature. Continua a fare strane cose del genere. Non dimenticate di tenere la voce bassa nell'ingresso. Ginny, hai le mani sporchissime. Che cosa hai fatto? Vai a lavartele prima di scendere a cena, per favore». Ginny fece una smorfia e seguì la madre, lasciando Harry solo con Ron e Ermione. Entrambi lo osservavano ansiosi, come se temessero che ricominciasse a urlare, ora che gli altri se n'erano andati. Le loro espressioni nervose lo fecero vergognare un po'. «Sentite», borbottò, ma Ron scosse il capo e Ermione disse piano. «Lo sapevamo che ti saresti arrabbiato, Harry. Non c'è da biasimarti sul serio. Ma devi capire. Ci abbiamo provato a convincere Silente. Sì, lo so», concluse Harry asciutto. «Cercò un argomento che non coinvolgesse il preside, perché il solo pensiero di Silente gli faceva di nuovo friggere le viscere di rabbia. «Chi è Kreacher?» chiese. «L'elfo domestico che abita qui», rispose Ron. «Un pazzo. Mai visto uno così». Ermione lo guardò accigliata. «Non è un pazzo, Ron. La sua massima ambizione è farsi tagliare la testa per vederla inchiodata su una targa come quella di sua madre», disse Ron irritato. «È normale, Ermione?» Ron sgranò gli occhi rivolto a Harry. «Ermione non ha ancora rinunciato al Crepa». «Non si chiama Crepa!» Ermione si infervorò. «Si chiama Comitato per la riabilitazione degli elfi proletari e alienati. E non sono solo io. Anche Silente dice che dovremmo essere gentili con Kreacher. «Sì, sì», disse Ron. «Andiamo, muoio di fame». Uscì per primo sul pianerottolo, ma prima che cominciassero a scendere le scale... «Fermi!» bisbigliò Ron, facendo scattare un braccio per bloccare Harry e Ermione. «Sono ancora nell'ingresso. Forse riusciamo a sentire qualcosa». Il terzetto spiò cauto oltre il corrimano. Il tetro ingresso era affollato di maghi e streghe, compresa la scorta di Harry al completo. Sussurravano eccitati. Al centro del gruppo, Harry vide la testa scura e unticcia e il naso prominente dell'insegnante di Hogwarts che meno amava, il professor Piton. Si sporse un po' di più. Voleva proprio sapere che cosa faceva Piton per l'ordine della Fenice. Un sottile spago color carne calò davanti agli occhi di Harry. Guardando in su, vide Fred e George sul pianerottolo di sopra, che facevano scendere cautamente l'orecchio oblungo verso lo scuro manipolo di persone di sotto. Un attimo dopo, però, presero tutti a muoversi verso la porta e sparirono. «Maledizione!» Harry udì Fred sussurrare mentre li avvolgeva l'orecchio oblungo. Sentirono la porta d'ingresso aprirsi e richiudersi. «Piton non cena mai qui», disse lonna a Harry piano. «Grazie al cielo. Andiamo e non dimenticare di tenere bassa la voce nell'ingresso, Harry!» sussurrò Hermione. Mentre passavano sotto la fila di teste di elfi domestici appese al muro, videro Lupin, la signora Weasley e Tonks sulla soglia, intenti a sigillare con la magia le molte serrature e i lucchetti dietro coloro che erano appena usciti. «Si mangia giù in cucina!» sussurrò la signora Weasley, raggiungendoli alla base delle scale. «Harry, caro, se attraversi l'ingresso in punta di piedi è oltre quella porta là. Crash! Tonks!» urlò la signora Weasley esasperata, voltandosi per guardare alle proprie spalle. «Mi dispiace!» ululò Tonks, che giaceva a terra a lunga distesa. «È quello stupido portaombrelli! È la seconda volta che ci inciampo!» Ma il resto delle sue parole fu soffocato da un terribile stridio da spaccare i timpani e inacidire il sangue. Le tende di velluto tarlate davanti alle quali Harry era passato prima si erano dischiuse, ma non c'era nessuna porta dietro. Per un istante Harry credette di guardare attraverso una finestra, oltre la quale una vecchia con una cuffia nera urlava e urlava come sotto tortura. Poi capì che era solo un ritratto in grandezza naturale, ma il più realistico e il più sgradevole che avesse mai visto. La vecchia sbavava, i suoi occhi roteavano, la pelle ingiallita del suo volto si tendeva, e lungo tutto il corridoio gli altri ritratti si ridestarono e presero anch'essi a urlare. Harry strizzò gli occhi e si premette le mani sulle orecchie. Lupin e la signora Weasley scattarono in avanti e tentarono di chiudere a strattoni le tende sulla vecchia, ma quelle non si spostarono e la donna gridò più forte che mai, tendendo le mani un ghiute come per graffiare i loro volti. «Suzzura! Feccia! Sottoprodotti di sudiciume e abiezione! Ibridi, mutanti, mostri! Via da questo luogo! Come osate insudiciare la casa dei miei padri!» Tonks si scusò più e più volte, trascinando l'enorme, pesante zampa di troll al suo posto. La signora Weasley abbandonò il tentativo di chiudere le tende e corse su e giù per l'ingresso, schiantando tutti gli altri ritratti con la bacchetta. Poi un uomo con lunghi capelli neri corse fuori da una porta di fronte a Harry. «Taci, orrida vecchia strega, taci!» ringhiò, afferrando la tenda abbandonata dalla signora Weasley. La vecchia impallidì. «Tu!» ululò, gli occhi fuori dalle orbite. «Traditore del tuo sangue! Abominio! Vergogna della mia carne! Ho detto taci!» ruggì l'uomo, e con uno sforzo formidabile lui e Lupin riuscirono a richiudere le tende. Gli strilli della vecchia si spensero ed echeggiarono nel silenzio. Un po' ansante, Sirius, il padrino di Harry, si allontanò i lunghi capelli scuri dagli occhi e si voltò verso di lui. «Ciao, Harry!» disse in tono cupo. «Vedo che hai fatto conoscenza con mia madre!» L'Ordine della Fenice «Tua?» «La mia cara vecchia mamma, sì!» disse Sirius. «È un mese che cerchiamo di tirarla giù, ma deve aver gettato un incantesimo di adesione permanente sul retro della tela. Scendiamo presto, prima che si risveglino tutti quanti. Ma che cosa ci fa qui il ritratto di tua madre?» chiese Harry, sconcertato, mentre varcavano la porta e scendevano per primi lungo una rampa di stretti scalini di pietra. «Non te l'hanno detto? Questa era la casa dei miei genitori», spiegò Sirius. «Ma io sono l'ultimo Black rimasto, quindi adesso è mia. L'ho offerta a Silente come quartier generale, praticamente è l'unica cosa utile che sono riuscito a fare». Harry, che si era aspettato un venuto più affettuoso, notò come suonava dura e amara la voce di Sirius. Seguì il padrino in fondo ai gradini, oltre una porta che conduceva in cucina. Era poco meno tetra dell'ingresso di sopra, una stanza cavernosa con le pareti di pietra viva. La luce proveniva per lo più da un gran fuoco all'altra estremità. Una cortina di fumo di pipa aleggiava nell'aria come su un campo di battaglia. Attraverso i vapori affioravano indistinte le forme minacciose di pesanti pentole e padelle di ferro appese al soffitto buio. Molte sedie erano state stipate nella stanza per la riunione, attorno a un lungo tavolo di legno, carico di rotoli di pergamena, calici, bottiglie di vino vuote e un mucchio di quelli che sembravano stracci. A un capo del tavolo il signor Weasley e il suo figlio maggiore, Bill, parlavano piano, con le teste vicine. La signora Weasley si schiarì la voce. Suo marito, un uomo magro, coi capelli rossi, una calvizia incipiente e occhiali di corno, si guardò intorno e balzò in piedi. «Harry!» esclamò. Si avvicinò per salutarlo e gli strinse forte la mano. «È bello vederti!» Dietro di lui Harry scorse Bill a rotolare in fretta le pergamene rimaste sul tavolo. Portava ancora i lunghi capelli raccolti in una coda. «Tutto bene il viaggio, Harry?» gridò Bill, cercando di raccogliere dieci rotoli in una volta sola. «Ma l'occhio non vi ha fatto venire via Groenlandia, allora!» «Ci ha provato!» disse Tonks, che si fece avanti per aiutare Bill e rovesciò all'istante una candela sull'ultimo foglio. «Oh no! Mi dispiace!» «Ecco, cara!» sospirò la signora Weasley esasperata e riparò la pergamena con un colpo di bacchetta. Nel lampo di luce provocato dall'incantesimo della signora Weasley, Harry colse uno scorso di quella che sembrava la pianta di un edificio. La signora Weasley si era accorta del suo sguardo, tolse bruscamente la pergamena dal tavolo e la ficcò tra le braccia già sovraccariche di Bill. «Queste cose dovrebbero essere messe via in fretta alla fine delle riunioni», sbottò prima di spostarsi verso un'antica credenza dalla quale prese i piatti per la cena. Bill estrasse la bacchetta, borbottò «Evanesco!» e i rotoli sparirono. «Siediti, Harry», disse Sirius. «Hai già conosciuto Mandangus, vero?» La cosa che Harry aveva scambiato per un mucchio di stracci emise un prolungato sbuffo simile a un grugnito, poi si svegliò con un sussulto. «Qualcuno mi chiama?» biascicò assonnato. «Sono d'accordo con Sirius», alzò una mano molto sporca come per votare. I suoi occhi languidi e iniettati di sangue erano appannati. Ginny ridacchiò. «La riunione è finita, Dang», disse Sirius, e si sedettero tutti al tavolo attorno a lui. «Harry è arrivato!» «Eh?» fece Mandangus, scrutando cupo Harry attraverso i capelli rossicci impastati. «Accidenti! Allora è arrivato! Sicuro! Stai bene, Harry?» «Sì», rispose. Mandangus frugò nervosamente nelle tasche, senza smettere di fissare Harry, ed estrasse una pipa nera incrostata di sporcizia. Se la ficò in bocca, accese il fornello con la bacchetta e trasse una bella boccata. Enormi nuvole fluttuanti di fumo verdastro lo oscurarono in pochi secondi. «Ti nube odorosa!» «Per l'ultima volta, Mandangus!» gridò la signora Weasley. «Vuoi smetterla di fumare quella roba in cucina, soprattutto quando stiamo per mangiare?» «Ah!» disse Mandangus. «Giusto! Scusa, Molly!» Mandangus ripose la pipa in tasca e la nube di fumo svanì, ma un acre odore di calzini bruciati rimase nell'aria. «E se volete cenare prima di mezzanotte avrò bisogno di una mano!» disse la signora Weasley, rivolta a tutti quanti. «No, tu resta dove sei, Enrico, hai fatto un lungo viaggio!» «Che cosa posso fare, Molly?» chiese Tonks entusiasta, balzando avanti. La signora Weasley esitò con aria preoccupata. «Ehm, no, è tutto a posto, Tonks, riposati anche tu, per oggi hai fatto abbastanza!» «No, no, voglio dare una mano!» esclamò Tonks allegramente, rovesciando una sedia mentre correva verso la credenza, dalla quale Ginny stava scegliendo le stoviglie. Ben presto una serie di pesanti coltelli tagliuzzavano carne e verdure per conto loro, sotto la sorveglianza del signor Weasley. Intanto la signora Weasley mescolava un calderone appeso sopra il fuoco e gli altri prendevano piatti, calici e cibo dalla dispensa. Harry rimase a tavola con Sirius e Mandangus, che continuava a sbattere le palpebre in modo lugubre, guardandolo. «Hai rivisto la vecchia Figgy?» «No», rispose Harry, «non ho visto nessuno». «Capisci, non è che me ne sarei andato», disse Mandangus, chinandosi in avanti, con una nota di supplica nella voce. «Ma c'era questa occasione, un vero affare!» Harry sentì qualcosa strusciare contro le sue ginocchia e sussultò, ma era solo Grattastinky, il gatto rosso con le zampe storte di Ermione, che girò ancora una volta attorno alle sue caviglie, facendole fusa. Poi balzò in grembo a Sirius e si acciambellò. Sirius lo grattò dietro le orecchie con aria assente e si rivolse a Harry, senza abbandonare la sua espressione cupa. «Hai passato una bella estate finora?» «No, schifosa», rispose Harry. Per la prima volta qualcosa di simile a un ghigno passò sul volto di Sirius. «Non so proprio di che cosa ti lamenti». «Che cosa?» disse Harry incredulo. «Personalmente avrei accolto con gioia un attacco di dissennatori. Una lotta mortale per la mia anima avrebbe interrotto piacevolmente la monotonia. Tu credi che ti sia andata male, ma almeno sei potuto uscire e andare in giro, muovere le gambe, buttarti in qualche rissa. Io sono chiuso qui dentro da un mese». «Come mai?» chiese Harry accigliato. «Perché il ministero della magia mi sta ancora cercando, e Voldemort ormai saprà che sono un animagus», Codaliscia glielo avrà detto. «Così il mio brillante travestimento è inutile. Non c'è molto che possa fare per l'ordine della Fenice, o almeno è ciò che pensa Silente». Qualcosa nel tono piatto con cui Sirius pronunciò il nome di Silente, disse a Harry che anche lui non era molto soddisfatto del preside. Harry provò un improvviso trasporto verso il padrino. «Almeno tu sai che cosa sta succedendo», disse incoraggiante. «Sicuro», replicò Sirius sarcastico. «Ascolto le relazioni di Piton e mi tocca incassare tutte le sue subdole allusioni al fatto che lui è fuori che rischia la vita, mentre io sto qui seduto comodo a divertirmi, e poi mi chiede come vanno le pulizie». «Quali pulizie?» chiese Harry. «Stiamo cercando di rendere questo posto adatto a ospitare degli esseri umani», disse Sirius, agitando una mano per mostrare la cucina lugubre. «Nessuno abita qui da dieci anni, da quando è morta mia madre. A meno di contare il suo vecchio elfo domestico, e lui è matto, non pulisce niente da secoli». «Sirius», intervenne Mandangus, che non aveva prestato alcuna attenzione alla conversazione, ma era intento a studiare un calice vuoto. «Questo è mica vero argento, amico?» «Sì», rispose Sirius, osservando l'oggetto con disgusto. «Il migliore, fatto dai goblin nel quindicesimo secolo, con lo stemma dei blec inciso». «Si può sempre toglierlo, eh?» borbottò Mandangus, lucidandolo con l'orlo della manica. «Fred, George, no, portateli e basta!» strillò la signora Weasley. Harry, Sirius e Mandangus si voltarono e un attimo dopo si tuffarono lontano dal tavolo. Fred e George avevano stregato un gran calderone di stufato, un bottiglione di ferro di burro birra e una pesante asse di legno per il pane, completa di coltello, in modo che sfrecciassero nell'aria verso di loro. Lo stufato scivolò fino in fondo al tavolo e si bloccò appena prima del bordo, lasciando una lunga bruciatura nera sulla superficie di legno. Il fiasco di burro birra cadde con un tonfo, versandola per tutto il contenuto. Il coltello del pane scivolò dall'asse e si conficcò con la punta all'ingiù, vibrando minaccioso, esattamente dove un attimo prima c'era la mano di Sirius. «Per l'amor del cielo!» urlò la signora Weasley. «Non c'era nessun bisogno! Ne ho abbastanza! Solo perché adesso potete usare la magia! Non dovete sfodelare la bacchetta per ogni piccola cosa!» «Stavamo solo cercando di risparmiare un po' di tempo!» disse Fred e corse a estrarre il coltello dal tavolo. «Mi dispiace, Sirius, non volevamo!» Harry e Sirius ridevano. Mandangus, che si era rovesciato all'indietro ed era caduto dalla sedia, si rialzò imprecando. Grattastinchi, con un simbilo rabbioso, se l'era battuta sotto la credenza, da dove i suoi grandi occhi gialli ora brillavano nel buio. «Ragazzi!» disse il signor Weasley, spostandolo stufato di nuovo in mezzo al tavolo. «Vostra madre ha ragione! Dovreste mostrare un po' più di senso di responsabilità, adesso che siete maggiorenni!» «Nessuno dei vostri fratelli ha combinato pasticci del genere!» inveì la signora Weasley contro i gemelli, mentre schiaffava una nuova bottiglia di burro birra sul tavolo e ne rovesciava quasi altrettanta. Bill non sentiva il bisogno di materializzarsi ogni mezzo metro. Charlie non incantava tutto quello che gli capitava a tiro. «Persi!» si bloccò di colpo e trattenne il respiro rivolgendo uno sguardo spaventato al marito, la cui espressione all'improvviso si pietrificò. «Mangiamo!» disse Bill in fretta. «Ha un aspetto magnifico, Molly!» disse Lupin. Le servì lo stufato e le porse il piatto. Per qualche minuto calò il silenzio, rotto solo dal tintinio di piatti e stoviglie e dal grattare delle sedie che venivano spostate per prendere posto a tavola. Poi la signora Weasley si rivolse a Sirius. «Volevo dirti, Sirius, che c'è qualcosa intrappolato in quello scrittoio nel salotto. Continuo a tremare e a scuotersi. Naturalmente potrebbe essere solo un molliccio, ma ho pensato che dovremmo chiedere ad Alastor di dargli un'occhiata prima di farlo uscire. Come vuoi!» disse Sirius indifferente. «E le tende, anche quelle, sono piene di doxi!» aggiunse la signora Weasley. «Ho pensato che potremmo affrontarle domani!» «Non vedo l'ora!» rispose Sirius. Harry avvertì il sarcasmo nella sua voce, ma non era sicuro che anche gli altri lo avessero colto. Di fronte a Harry, Tonks divertiva Ermione e Ginny, trasformando il proprio naso tra un boccone e l'altro. Strizzava gli occhi ogni volta con la stessa espressione sofferente che aveva assunto nella stanza di Harry, e il suo naso prima si dilatò in una protuberanza simile a un becco che ricordava molto quello di Piton, poi rimpicciolì alle dimensioni di un fungo immaturo e infine germogliò parecchi peli da ciascuna narice. A quanto pareva era uno spettacolo consueto durante i pasti, perché ben presto Ermione e Ginny cominciarono a chiedere i loro nasi preferiti. «Fai quello che sembra un grugno di maiale, Tonks!» Tonks eseguì e Harry ebbe la fugace impressione che una femmina Dudley gli sorridesse dall'altra parte del tavolo. Il signor Weasley, Bill e Lupin erano impegnati in un'accesa discussione sui Goblin. «Non hanno ceduto», disse Bill. «Non riesco ancora a capire se credono o no che sia tornato. Certo, potrebbero anche decidere di non prendere posizione, di starne fuori». «Sono sicuro che non si unirebbero mai a voi sapete chi», commentò il signor Weasley scuotendo il capo. «Anche loro hanno subito delle perdite. Ricordate quella famiglia di Goblin che ha assassinato l'ultima volta dalle parti di Nottingham?» «Credo che dipenda da quello che viene loro offerto», disse Lupin. «E non sto parlando di oro. Se si vedono offrire le libertà che noi neghiamo loro da secoli, saranno tentati. Non hai ancora avuto fortuna con Ragnhok, Bill?» «Al momento ce l'ha con noi maghi», rispose Bill. «Non gli è ancora passata la rabbia per la faccenda Bugman. Sospetta che il Ministero abbia insabbiato tutto. Bugman non ha mai dato ai Goblin il loro denaro, sapete». Uno scoppio di risate dal centro del tavolo soffocò le altre parole di Bill. Fred, George, Ron e Mandangus si rotolavano sulle sedie. «E poi», raccontava Mandangus con voce strozzata e con le lacrime che gli scorrevano sul viso, «e poi, se mi credete, quello mi fa. Ehi, Dang, dov'è che hai preso sto mucchio di rospi? Perché è un figlio di bolide e mi ha rubato tutti i miei. E allora io ci dico, ti han rubato i tuoi rospi, Will. Allora ce n'avrai bisogno di nuovi, eh? E credetemi, ragazzi, quell'imbecille di un gargoyle si ricompra tutti i suoi rospi da me per un bel mucchio di soldi in più di quanto li aveva pagati prima. Non ci servono altri dettagli sui tuoi commerci, grazie, Mandangus», commentò la signora Weasley secca, mentre Ron si afflosciava sul tavolo, ululando dalle risate. «Scusa, Molly», rispose subito Mandangus, asciugandosi gli occhi e facendo l'occhiolino a Harry. «Ma sai, Will li aveva grattati a Harry suorti, e quindi non è che facevo niente di male. Non so dove hai imparato cosa è giusto e cosa è sbagliato, Mandangus, ma a quanto pare hai perso alcune lezioni fondamentali», disse la signora Weasley gelida. Fred e George seppellirono le facce nei loro calici di burro birra. George aveva il singhiozzo. Per qualche ragione la signora Weasley lanciò un'occhiata molto torva a Sirius prima di alzarsi e andare a prendere il dolce, una grossa crostata di rabarbaro. Harry guardò il suo padrino. «Molly non ha prova che ci sia anche Mandangus», bisbigliò Sirius. «Come mai fa parte dell'ordine?», chiese Harry molto piano. «È utile», borbottò Sirius. «Conosce tutte le canaglie. Beh, per forza, visto che è una di loro. Ma è anche molto fedele a Silente, che una volta l'ha aiutato a cavarsela da un bel guaio. È un bene avere uno come Dang, viene a sapere cose che noi non scopriamo. Ma Molly crede che invitarlo a cena sia troppo. Non gli ha perdonato di aver abbandonato il suo turno di guardia quando avrebbe dovuto sorvegliarti. Tre porzioni di torta a rabarbaro con crema pasticcera più tardi, la cintura dei jeans di Harry si rivelò fastidiosamente stretta, il che la diceva lunga, visto che in passato erano appartenuti a Dudley. Mentre posava il cucchiaio ci fu un momento di quiete generale. Il signor Weasley, abbandonato contro lo schienale della sedia, sembrava sazio e rilassato. Tonks faceva dei gran sbadigli col naso tornato a normale. E Ginny, che aveva tirato fuori i grattastinchi da sotto la credenza, era seduta per terra a gambe incrociate e lo faceva giocare con dei tappi di burro birra. È quasi ora di andare a dormire, credo, la signora Weasley sbadigliò. Non ancora, Molly, disse Sirius, allontanando il piatto vuoto e voltandosi a guardare Harry. Sai, sono sorpreso. Ero convinto che appena arrivato qui avresti cominciato a fare domande su Voldemort. L'atmosfera nella stanza mutò con la rapidità che Harry associava all'arrivo dei dissennatori. Da sonnolenta e rilassata, adesso era allerta, perfino tesa. Al nome di Voldemort, un brivido era corso attorno al tavolo. Lupin, che stava per bere un sorso di vino, abbassò piano il calice, con aria diffidente. «L'ho fatto», disse Harry indignato. «Ho chiesto a Ron e Ermione, ma hanno detto che noi non siamo ammessi a far parte dell'ordine, quindi...» «E hanno ragione», intervenne la signora Weasley. «Siete troppo giovani». Sedeva eretta nella sua sedia, i pugni serrati sulle braccia conserte, ogni traccia di sonnolenza sparita. «Da quando uno deve far parte dell'ordine della Fenice per fare delle domande?», chiese Sirius. «Harry è rimasto intrappolato in quella casa babbana per un mese. Hai il diritto di sapere che cosa sta succedendo...» «Un momento», lo interruppe George. «Perché se Harry fa delle domande a lui rispondete», chiese Fred rabbioso. «Noi cerchiamo di estorcervi informazioni da un mese e voi non ci avete detto una sola schifida cosa», esclamò George. «Siete troppo giovani, non fate parte dell'ordine», disse Fred con una vocetta acuta che assomigliava prodigiosamente a quella di sua madre. «Harry non è nemmeno maggiorenne». «Non è colpa mia se non vi è stato detto che cosa fa l'ordine», rispose Sirius calmo. «Questa decisione spetta ai vostri genitori. Harry, d'altra parte, non state decidere che cosa è bene per Harry», ribatté la signora Weasley in tono secco. L'espressione sul suo viso, di solito gentile, era minacciosa. «Non hai dimenticato le parole di Silente, suppongo». «Quali?», chiese Sirius educato, ma con l'aria di chi si prepara a una lite. «Che non bisogna dire a Harry più di quanto abbia bisogno di sapere», rispose la signora Weasley, sottolineando pesantemente le ultime quattro parole. Le teste di Ron, Hermione, Fred e George ruotavano da Sirius alla signora Weasley come se stessero seguendo una partita di tennis. Ginny era in ginocchio tra un mucchio di tappi abbandonati di burro birra e seguiva la conversazione a bocca aperta. Gli occhi di Lupin erano puntati su Sirius. «Non intendo dirgli più di quanto abbia bisogno di sapere, Molly», disse Sirius, «ma visto che è stato lui ad assistere al ritorno di Voldemort, di nuovo si diffuse un brivido collettivo al suono del nome. Ha diritto più di molti altri, non è un membro dell'Ordine della Fenice», lo interruppe la signora Weasley. «Ha solo quindici anni e ha fatto esperienze pari a quelle di molti dell'Ordine», replicò Sirius, «e superiori rispetto ad alcuni». «Nessuno vuole negare quello che ha fatto», disse la signora Weasley con la voce che saliva e i pugni tremanti sui braccioli della sedia. «Ma è ancora? Non è un bambino!», sbottò Sirius impaziente. «Non è nemmeno un adulto!», ribatté la signora Weasley con le gote infuocate. «Non è James, Sirius!» «Mi è perfettamente chiaro chi è, grazie, Molly», rispose Sirius gelido. «Non ne sono così certa!», esclamò la signora Weasley. «A volte a sentire come parli di lui è come se fossi convinto di riavere il tuo migliore amico! Che cosa c'è di sbagliato?», domandò Harry. «C'è di sbagliato, Harry, che non sei tuo padre, per quanto tu possa assomigliargli», disse la signora Weasley, lo sguardo fisso su Sirius. «Vai ancora a scuola e gli adulti che sono responsabili di te non dovrebbero dimenticarlo! Vorresti dire che sono un padrino irresponsabile?», chiese Sirius alzando la voce. «Vorrei dire che sei noto per agire d'impulso, Sirius, ed è per questo che Silente continua a ricordarti di restare in casa e... lasciamo fuori da questa discussione le istruzioni che mi dà Silente, se non ti dispiace!» «Arthur!», disse la signora Weasley, rivolgendosi con vehemenza al marito. «Arthur, dammi una mano!» Il signor Weasley non rispose subito. Si tolse gli occhiali e li pulì lentamente con la veste, senza guardare la moglie. «Solo quando li ebbe risistemati con cura sul naso», parlò. «Silente sa che la situazione è cambiata, Molly, e accetta il fatto che Harry debba essere informato, fino a un certo punto, ora che abita qui al quartier generale. Sì, ma c'è una differenza tra questo e invitarlo a chiedere tutto quello che vuole». «Personalmente», intervenne Lupin piano, distogliendo infine lo sguardo da Sirius, mentre la signora Weasley si rivolgeva rapida a lui, nella speranza di riuscire finalmente a trovare un alleato, «credo che sia meglio che Harry venga a sapere i fatti. Non tutti i fatti, Molly, ma il quadro generale. Da noi, piuttosto che una versione ingarbugliata da altri». La sua espressione era pacata, ma Harry capì che almeno Lupin sapeva che alcune orecchie oblunghe, erano sopravvissute alla bonifica della signora Weasley. «Beh», disserei respirando a fondo e guardandosi intorno in cerca di un sostegno che non veniva, «beh, vedo che siete più forti di me. Dirò solo questo. Silente deve aver avuto le sue ragioni per non volere che Harry sapesse troppo, e parlando come chi ha a cuore tutto l'interesse di Harry. Non è tuo figlio», mormorò Sirius. «È come se lo fosse», ribatté la signora Weasley con forza. «Chi altri ha? A me! Sì!» disse la signora Weasley con il labbro arricciato. «Però ti è stato abbastanza difficile prenderti cura di lui mentre eri rinchiuso ad Azkaban, vero?» Sirius fece per alzarsi. «Molly, non sei la sola persona a questo tavolo che si preoccupa per Harry», intervenne Lupin asciutto. «Sirius, siediti». Il labbro inferiore della signora Weasley tremava. Sirius si risedette lentamente, pallido. «Credo che Harry dovrebbe avere il permesso di dire la sua», continuò Lupin. «È abbastanza grande da decidere per sé stesso». «Voglio sapere che cosa sta succedendo», disse Harry subito. Non guardò la signora Weasley. Averle sentito dire che era come un figlio per lei lo aveva toccato, ma era anche insofferente alle sue premure. Sirius aveva ragione, non era un bambino. «Molto bene», disse la signora Weasley con voce spezzata. «Ginny, Ron, Hermione, Fred, George, voglio che usciate da questa cucina. Adesso. Tumulto generale». «Noi siamo maggiorenni», urlarono Fred e George in coro. «Se Harry può sapere perché io no», urlò Ron. «Mamma, io voglio sentire», gemette Ginny. «No», urlò la signora Weasley alzandosi, gli occhi che brillavano in maniera innaturale. «Vi proibisco assolutamente!» «Molly, non puoi impedirlo a Fred e George», osservò il signor Weasley stancamente. «Loro sono maggiorenni. Vanno ancora a scuola». «Ma sono legalmente adulti ora», disse il signor Weasley con la stessa voce stanca. La signora Weasley era ormai scarlatta in viso. «Io?» «Allora va bene. Fred e George possono restare. Ma Ron?» «Harry racconterà comunque a me e a Hermione tutto quello che dite», esclamò Ron accalorato. «Vero? Vero?» aggiunse dubbioso, incrociando lo sguardo di Harry. Per un istante Harry contemplò l'ipotesi di dire a Ron che non gli avrebbe riferito una sola parola. Così poteva provare come ci si sente a essere tenuti all'oscuro. Ma il malvagio impulso svanì mentre si guardavano. «Certo», disse Harry. Ron e Hermione fecero un gran sorriso. «Bene!» urlò la signora Weasley. «Bene! Ginny, a letto!» Ginny non partì rassegnata. La sentirono protestare con rabbia contro la madre per tutte le scale, e quando raggiunse l'ingresso, gli strilli spaccatimpani della signora Black si sommarono al frastuono. Lupin corse verso il ritratto per riportare la calma. Fu solo al suo ritorno, quando si fu chiuso alle spalle la porta della cucina ed ebbe ripreso posto al tavolo, che Sirius parlò. «Allora, Harry, che cosa vuoi sapere?» Harry trasse un gran respiro e fece la domanda che lo ossessionava da un mese. «Dov'è Voldemort?» chiese, ignorando i soliti brividi e sussulti al suono di quel nome. «Che cosa fa? Ho cercato di seguire i notiziari babbani, e non è ancora successo niente che possa sembrare opera sua, nessuna strana morte o cose del genere. È perché non si sono ancora verificate strane morti?» disse Sirius. «A quanto ne sappiamo noi, almeno, e sappiamo parecchio. Più di quello che crede lui a ogni modo», aggiunse Lupin. «Come mai ha smesso di uccidere?» chiese Harry. «Sapeva che Voldemort aveva commesso più di un assassino soltanto l'anno prima. Perché non vuole attrarre l'attenzione su di sé», rispose Sirius. «Sarebbe pericoloso per lui. Il suo ritorno non è riuscito proprio come voleva lui, sai. Qualcosa gli è andato storto. Cioè tu gli sei andato storto», disse Lupin con un sorriso soddisfatto. «Come?» chiese Harry perpresso. «Non saresti dovuto sopravvivere», rispose Sirius. «Nessuno, tranne i suoi mangiamorte, doveva sapere che era tornato. Ma tu sei sopravvissuto per raccontarlo». E l'ultima persona che voleva che sapesse del suo ritorno era Silente, disse Lupin. «Tu hai fatto in modo che Silente lo sapesse subito. E in che modo questo è stato utile?» chiese Harry. «Stai scherzando?» intervenne Billy incredulo. «Silente è il solo che tu sai chi abbia mai temuto. Grazie a te, Silente ha potuto riconvocare l'ordine della Fenice solo un'ora dopo il ritorno di Voldemort», disse Sirius. «Ma che cosa fa l'ordine della Fenice?» chiese Harry guardandoli a uno a uno. «Tutto quello che possiamo per assicurarci che Voldemort non realizzi i suoi piani», disse Sirius. «Come fate a sapere quali sono i suoi piani?» aggiunse Harry in fretta. «Silente si è fatto un'idea precisa», rispose Lupin, «e le idee precise di Silente di solito si rivelano piuttosto azzeccate. E Silente che cosa sospetta?» «Beh, prima di tutto che Voldemort voglia ricostruire il suo esercito», disse Sirius. «In passato aveva grossi numeri ai suoi ordini, maghi e streghe che aveva costretto a seguirlo con la prepotenza o con incantesimi. I suoi fedeli mangia morte, un'enorme varietà di creature oscure. Hai sentito che progettava di reclutare i giganti? Beh, sono solo uno dei gruppi a cui fa la corte. Certamente non cercherà di impossessarsi del Ministero della Magia solo con una decina di mangiamorte. «Quindi state cercando di impedirgli di conquistare nuovi seguaci?» «Facciamo del nostro meglio», rispose Lupin. «Come?» «Beh, la cosa principale è convincere più persone possibile che tu sai chi è tornato. Metterle in guardia», disse Bill, «ma si sta dimostrando complicato». «Perché?» «Per colpa dell'atteggiamento del Ministero», intervenne Tonks. «Hai visto Cornelius Fudge dopo il ritorno di Tu sei chi, Harry? Beh, non si è mosso dalla sua posizione. Si rifiuta assolutamente di credere che sia successo». «Ma perché?» chiese Harry disperato. «Perché è così stupido? Se Silente...» «Ah, beh, hai centrato il problema», disse il signor Weasley con un sorriso obliquo. «Silente!» «Vedi, Fudge ha paura di lui», aggiunse Tonks malinconica. «Paura di Silente?» Harry era incredulo. «Paura di quello che sta facendo», spiegò il signor Weasley. «Fudge è convinto che Silente stia tramando per rovesciarlo. Crede che Silente voglia fare il ministro della magia». «Ma Silente non vuole!» «Certo che no», disse il signor Weasley. «Non ha mai voluto quel posto, anche se un sacco di gente voleva che fosse lui a prenderlo quando Millicent Bagnold è andata in pensione. Invece ha preso il potere Fudge, ma non ha dimenticato quanto sostegno popolare aveva Silente, anche se non si era mai candidato. In fondo Fudge sa che Silente è molto più abile di lui, è un mago molto più potente e nei primi giorni del suo ministero gli chiedeva sempre aiuto e consiglio», disse Lupin. «Ma pare che si sia affezionato al potere e che sia molto più sicuro di sé. Adora fare il ministro della magia ed è riuscito a convincersi di essere lui quello abile e che Silente stia solo creando scompiglio per il gusto di farlo». «Ma come fa a pensare una cosa del genere?» disse Harry arrabbiato. «Che Silente si inventi tutto! Che io mi inventi tutto perché accettare il fatto che Voldemort è tornato vorrebbe dire guai, come il ministero non ne affronta da quasi quattordici anni», osservò Sirius amaramente. «Fudge non riesce proprio ad ammetterlo. È molto più facile credere che Silente stia mentendo per destabilizzarlo». «Capisci il problema», disse Lupin. «Finché il ministero insiste che non c'è nulla da temere da parte di Voldemort, è difficile convincere la gente del suo ritorno, soprattutto perché nessuno ci vuole credere. In più, il ministero conta molto sul fatto che la gazzetta del profeta non riporta nessuno di quelli che definiscono i pettegolezzi di Silente. Così gran parte della comunità magica è completamente ignara di tutto ciò che è successo e questo la rende facile predare i Mangiamorte, se usano la maledizione Imperius». «Ma voi lo dite a tutti, no?» domandò Harry guardando il signor Weasley, Sirius, Bill, Mandangus, Lupin e Tonks. «Lo fate sapere a tutti che è tornato», sorrisero senza allegria. «Beh, visto che in giro si crede che io sia un pazzo terrorista e il ministero ha messo una taglia di diecimila galeoni sulla mia testa, non è che possa passeggiare per la strada a distribuire volantini, no?» disse Sirius irrequieto. «E io non sono un ospite a cena molto gradito per gran parte della comunità», aggiunse Lupin. «È uno dei rischi professionali di un lupo mannaro. Tonks e Arthur perderebbero il loro lavoro al ministero se cominciassero a parlare a destra e a manca», proseguì Sirius. «Ed è molto importante per noi avere delle spie all'interno del ministero, perché ci puoi scommettere che Voldemort le avrà». «Siamo riusciti a convincere un paio di persone, però», disse il signor Weasley. «Tonks, per esempio, è troppo giovane per aver fatto parte dell'Ordine della Fenice l'ultima volta e avere degli Auror dalla nostra parte è un enorme vantaggio. Anche Kingsley Shacklebolt è stato un bel acquisto. È responsabile della caccia a Sirius e così fa credere al ministero che Sirius sia in Tibet. Ma se nessuno di voi fa circolare la notizia che Voldemort è tornato», cominciò Harry. «Chi ha detto che nessuno di noi fa circolare la notizia?», disse Sirius. «Perché credi che Silente sia così nei guai?» «Che cosa intendi dire?», chiese Harry. «Stanno cercando di screditarlo», rispose Lupin. «Non hai letto la gazzetta del profeta la settimana scorsa? Hanno scritto che è stato estromesso dalla presidenza della Confederazione Internazionale dei Maghi perché sta invecchiando e perde il controllo. Ma non è vero. È stato escluso dai maghi del ministero dopo che ha tenuto un discorso per annunciare il ritorno di Voldemort. L'hanno retrocesso dalla carica di stregone capo del Wiesengamot e l'alta corte dei maghi e stanno decidendo se levargli anche l'Ordine di Merlino prima classe. «Ma Silente dice che non gli importa di quello che fanno finché non lo tolgono dalle figurine delle cioccorane», disse Bill con un gran sorriso. «Non è il caso di ridere», ribatte il signor Weasley secco. «Se continua a sfidare così il ministero, potrebbe finire ad Azkaban e questa è l'ultima cosa che vogliamo. Finché voi sapete chi sa che Silente è libero e ben consapevole di quello che lui ha in mente, deve andarci cauto. Se Silente è fuori gioco, beh, voi sapete chi avrà campo libero». «Ma se Voldemort sta cercando di reclutare altri mangiamorte, la notizia che è tornato dovrebbe diffondersi, no?», chiese Harry disperato. «Voldemort non va a bussare alla porta delle persone, Harry», disse Sirius. «Le inganna, le strega e le ricatta. È abituato ad agire in segreto. In ogni caso, raccogliere seguaci è solo una delle cose che gli interessano. Ha anche altri piani, piani che può mettere in atto senza gran clamore e al momento si sta concentrando su quelli. Che cosa cerca a parte seguaci?», chiese Harry. «Gli parve di vedere Sirius e Lupin scambiarsi il più fugace degli sguardi prima che Sirius rispondesse. Cose che può ottenere solo se agisce in segreto». Visto che Harry rimaneva perplesso, Sirius aggiunse «come un'arma, una cosa che l'ultima volta non aveva». «Quando era potente?» «Sì, che genere di arma?», chiese Harry. «Peggiore della vada che d'avra». «Basta così!», la voce della signora Weasley emerse dall'ombra vicino alla porta. Harry non si era accorto che era tornata dopo aver accompagnato Ginny di sopra. Aveva le braccia incrociate ed era furiosa. «Adesso vi voglio a letto, tutti!», aggiunse guardando Fred, George, Ron e Hermione. «Non puoi costringerci!», cominciò Fred. «Ascoltatemi bene!», si bilò la signora Weasley. Tremava lievemente, guardando Sirius. «Avete dato a Harry un sacco di informazioni. Ditegli qualcos'altro, e tanto vale a metterlo direttamente nell'Ordine della Fenice». «Perché no?», domandò Harry in fretta. «Ci sono! Voglio esserci! Voglio combattere!» «No!» Questa volta non fu la signora Weasley a parlare, ma Lupin. «L'Ordine è formato solo da maghi maggiorendi», disse. «Maghi che hanno finito la scuola», aggiunse, mentre Fred e George aprivano la bocca. «Farne parte comporta pericoli dei quali non potete avere idea. Nessuno di voi!» «Credo che Molly abbia ragione, Sirius. Abbiamo detto abbastanza!» Sirius scrollò le spalle senza ribattere. La signora Weasley fece un cenno imperioso ai suoi figli e a Hermione. Uno per uno si alzarono, e Harry, accettando la sconfitta, li imitò. La nobile e antichissima casata dei Black La signora Weasley li seguì di sopra con aria cupa. «Voglio che andiate tutti dritti a letto, niente chiacchiere», disse una volta giunti al primo pianerottolo. «Domani ci aspetta una giornata intensa. Mi auguro che Ginny si sia addormentata», aggiunse rivolta a Hermione. «Quindi cerca di non svegliarla». «Addormentata, sì, sicuro», mormorò Fred dopo che Hermione ebbe augurato loro la buonanotte, mentre salivano al piano di sopra. «Se Ginny non è sveglia ad aspettare che Hermione le racconti tutto, io sono un vermicolo». «Bene, Ron, Harry», disse la signora Weasley sul secondo pianerottolo, facendo loro segno di entrare in camera. «Filate a letto!» «Notte», dissero Harry e Ron ai gemelli. «Dormite bene», rispose Fred con una strizzatina d'occhio. La signora Weasley chiuse la porta dietro a Harry con un colpo secco. La stanza sembrava, se possibile, ancora più umida e squallida che al primo sguardo. Il quadro vuoto alla parete respirava lento e profondo, come se il suo invisibile abitante fosse addormentato. Harry si infilò il pigiama, si tolse gli occhiali e salì nel letto gelato, mentre Ron gettava dei biscottini guffici in cima all'armadio per placare Edvige e Leotordo, che facevano ticchettare gli artigli e scuotevano le ali irrequieti. «Non possiamo lasciarli uscire a caccia tutte le notti», spiegò Ron infilandosi il pigiama a Bordeaux. «Silente non vuole troppi gufi che planano nella piazza. Sarebbe sospetto». «Ah, sì, dimenticavo», andò alla porta e la chiuse con l'ucchetto. «Perché?» «Richard», spiegò Ron, spegnendo la luce. «La prima notte che ero qui è entrato alle tre del mattino. Fidati, non è bello svegliarsi e trovarlo che si aggira per la stanza». Si infilò nel letto, si sistemò sotto le coperte, poi si voltò a guardare l'amico nell'oscurità. Harry ne distinse la sagoma alla luce della luna, che filtrava attraverso la finestra incrostata. «Comunque, che cosa ne pensi?» Harry, non dovete chiedere a cosa si riferiva. «Beh, non ci hanno detto niente che non avremmo potuto indovinare, vero?» disse riflettendo. «Insomma, hanno detto solo che l'ordine sta cercando di impedire alla gente di unirsi a Vol?» Ron inspirò bruscamente. «The Mort», proseguì Harry con decisione. «Quand'è che comincerai a usare il suo nome? Sirius e Lupin lo fanno?» Ron ignorò quest'ultimo commento. «Sì, hai ragione», disse. «Sapevamo già quasi tutto, grazie alle orecchie oblunghe. L'unica novità è stata…» «Crack! Aia! Parla piano, Ron, o la mamma tornerà! Vi siete appena materializzati sulle mie ginocchia!» «Sì, beh, al buio è più difficile!» Harry vide i profili sfocati di Fred e George balzare giù dal letto di Ron. Ci fu un cigolio di molle e il materasso di Harry si abbassò di qualche centimetro, mentre George si sedeva vicino ai suoi piedi. «Allora ci siete già arrivati?» disse George impaziente. «All'arma di cui ha parlato Sirius?» chiese Harry. «Che si è lasciato sfuggire più che altro», precisò Fred soddisfatto. «Era seduto vicino a Ron. Di quella non abbiamo sentito parlare con le vecchie oblunghe, vero?» «Che cosa credete che sia?» chiese Harry. «Potrebbe essere qualunque cosa», rispose Fred. «Ma non può esserci nulla di peggio della vada che davra, vero?» disse Ron. «Che cos'è peggio della morte?» «Forse è qualcosa che può uccidere un sacco di gente in una volta sola», suggerì George. «Forse è un modo particolarmente doloroso di uccidere la gente», disse Ron terrorizzato. «Per fare del male alla maledizione Cruciatus», osservò Harry. «Non ha bisogno di una cosa più efficace di quella». Ci fu una pausa. Harry capì che gli altri, come lui, stavano rimuginando sugli orrori che quest'arma avrebbe potuto compiere. «Allora chi credete che ce l'abbia al momento?» chiese George. «Spero che siano i nostri», rispose Ron vagamente nervoso. «Se è così, è probabile che la custodisca silente», disse Fred. «Dove?» chiese Ron in fretta. «A Hogwarts». «Ci scommetto», esclamò George. «Era lì che teneva nascosta la pietra filosofale». «Un'arma, però, deve essere molto più grossa della pietra filosofale», disse Ron. «Non necessariamente», rispose Fred. «Sì, la taglia non è garanzia di potenza», ammise George. «Guardate, Ginny. Che cosa intendi dire?» chiese Harry. «Non ti sei mai beccato un suo maleficio mucovolante, vero?» «Shh!» fece Fred alzandosi dal letto. «Ascoltate!» «Tacquero!» Dei passi salivano le scale. «La mamma», disse George, e all'istante risuonò un forte crack, e Harry sentì il peso svanire dai piedi del letto. Qualche istante dopo, udirono il pavimento scricchiolare fuori dalla loro porta. La signora Weasley evidentemente era in ascolto per scoprire se stavano chiacchierando. Edvige e Leotordo tubarono dolorosamente. Il pavimento scricchiolò di nuovo, e sentirono la signora Weasley salire a controllare Fred e George. «Non si fida affatto di noi, sai», commentò Ron dispiaciuto. Harry era sicuro che non sarebbe riuscito a addormentarsi. La serata era stata così densa che sarebbe rimasto lì disteso, perfettamente sveglio per ore a rimuginare. Voleva continuare a parlare con Ron, ma la signora Weasley stava tornando di sotto, annunciata da altri scricchiolii, e quando si fu allontanata sentì che altri salivano le scale. In effetti, creature dotate di molte zampe trotterellavano piano su e giù davanti alla porta. Hagrid, l'insegnante di cura delle creature magiche, stava dicendo «Una vera bellezza, eh, Harry? Quest'anno studiamo le armi!». Harry vide che le creature avevano la testa a forma di cannone e ruotavano per fronteggiarlo. Si chinò. Un attimo dopo era appallottolato in un fagotto caldo, sotto le lenzuola, e la voce squillante di George riempiva la stanza. «La mamma dice di alzarsi! La colazione è in cucina e poi ha bisogno di voi in salotto. Ci sono molti più doxi del previsto e ha trovato un nido di puffscane morti sotto il divano». Mezz'ora dopo Harry e Ron, che si erano vestiti e avevano fatto colazione in fretta, entrarono nel salotto, una lunga stanza al primo piano, con il soffitto alto e pareti verde oliva coperte di arazzi sporchi. La moquette esalava nuvolette di polvere tutte le volte che qualcuno vi posava un piede, e le lunghe tende di velluto verde muschio ronzavano come se pullulassero di api invisibili. Era attorno a queste che la signora Weasley, Ermione, Ginny, Fred e George erano riuniti, tutti con un aspetto strano, visto che si erano legati uno straccio attorno al naso e alla bocca. Ciascuno di loro reggeva una grossa bottiglia di liquido nero, con un beccuccio in cima. «Copritevi la faccia e prendete uno spray», disse la signora Weasley a Harry e a Ron non appena li vide, indicando altre due bottiglie di liquido nero posate su un tavolino dalle gambe sottili. «E' Doxicida! Non ho mai visto un'infestazione così grave! Ma che cosa avrà fatto quell'elfo domestico negli ultimi dieci anni?» Il volto di Ermione era seminascosto da uno strofinaccio, ma Harry la vide chiaramente rivolgere uno sguardo di rimprovero alla signora Weasley. «Cricher è molto vecchio, probabilmente non è riuscito...» «Saresti sorpresa di scoprire che cosa riesce a fare Cricher quando vuole, Ermione», disse Sirius, che era appena entrato nella stanza reggendo un sacco insanguinato pieno di quelli che sembravano ratti morti. «Ho appena dato da mangiare a fiero becco», aggiunse, in risposta allo sguardo curioso di Harry. «Lo tengo di sopra, nella stanza da letto di mia madre. Comunque, questo scrittoio...» Lasciò cadere il sacco di ratti in una poltrona, poi si curvò a esaminare il mobiletto chiuso a chiave, che Harry lo notò per la prima volta, vibrava appena. «Beh, sono sicuro che è un molliccio», disse Sirius, spiando dal buco della serratura. «Ma forse dovremmo lasciare che Malocchio gli dia un'occhiata prima di farlo uscire. Conoscendo mia madre, potrebbe essere qualcosa di molto peggiore». «Hai ragione, Sirius», disse la signora Weasley. «Parlamano entrambi in tono cauto, lieve e educato, il che fece chiaramente capire a Harry che nessuno dei due aveva dimenticato i dissapori della sera prima. Un forte, sonoro scampanellio risuonò di sotto, seguito subito dalla cacofonia di urla e ululati scatenati da Tonks, che aveva rovesciato il portaombrelli. «Continuo a ripetere di non suonare il campanello!», esclamò Sirius esasperato, correndo fuori dalla stanza. Lo sentirono scendere le scale a tonfi, mentre gli strilli della signora Black echeggiavano di nuovo per la casa. «Ma chi è di disonore? Sudici ibridi, traditori del vostro sangue, figli della sozzura!» «Chiudi la porta, per favore, Harry», disse la signora Weasley. Harry si prese tutto il tempo possibile per chiudere la porta del salotto. Voleva sentire che cosa succedeva di sotto. Sirius era evidentemente riuscito a chiudere le tende sul ritratto della madre, perché quella smise di urlare. Lo sentì attraversare l'ingresso, poi udì il tintinnio della catena della porta principale e, infine, una voce profonda, che riconobbe per quella di Kingsley Shacklebolt. «Estia mi ha appena dato il cambio, quindi adesso il mantello di Moody ce l'ha lei. Ho pensato di lasciare un rapporto persilente». Sentendo lo sguardo della signora Weasley sulla nuca, Harry chiuse riluttante la porta del salotto e si unì di nuovo alla battuta di caccia ai doxi. La signora Weasley era china sulla pagina dedicata ai doxi della Guida alla disinfestazione domestica di Gilderoy Lockhart, che era aperta sul divano. «Va bene, sentite, dovete stare attenti, perché i doxi mordono e i loro denti sono velenosi. Ho qui una bottiglia di antidoto, ma preferirei che nessuno ne avesse bisogno». Si rialzò, si sistemò salda davanti alle tende e fece cenno agli altri di avanzare. «Al mio via, cominciate subito a spruzzare», disse. «Ci voleranno addosso, credo, ma sulle bottiglie c'è scritto che una bella innaffiata li paralizzerà. Quando sono immobilizzati, gettateli in questo secchio». Si spostò cautamente dalla loro linea di fuoco e alzò a sua volta la bottiglia. «Pronti? Spruzzare!» Harry spruzzava solo da qualche istante, quando un doxi completamente sviluppato uscì fluttuando da una piega del tessuto, con le lucide ali da maggiolino che frusciavano, i dentini a guzzi scoperti, il corpo da fata rivestito di folto pelo nero e i quattro pugnetti serrati dalla rabbia. Harry lo colpì in faccia con una spruzzata di doxicida. Quello rimase immobile a mezz'aria e cadde con un «tunk» sorprendentemente sonoro sulla moquette consunta. Harry lo raccolse e lo gettò nel secchio. «Fred, che cosa fai?» disse la signora Weasley secca. «Spruzzalo subito e buttalo via!» Harry si voltò. Fred reggeva un agitatissimo doxi tra pollice e indice. «Va bene!» rispose Fred allegramente e gli innaffiò rapido la faccia, facendolo svenire, ma non appena la signora Weasley si voltò, lo intascò con una strizzatina d'occhio. «Vogliamo fare degli esperimenti con il veleno dei doxi per le nostre merendine marinare!» spiegò George a Harry sottovoce. Harry centrò l'esto due doxi in una volta mentre puntavano dritti al suo naso. Poi si avvicinò a George e borbottò dall'angolo della bocca. «Che cosa sono le merendine marinare?» «Una linea di dolci per farti star male!» sussurrò George, sorvegliando con attenzione la schiena della signora Weasley. «Non male sul serio, però, solo abbastanza da farti uscire da un'ora di lezione quando ti va. Io e Fred ci stiamo lavorando. Sono dolcetti che hanno le due estremità marcate con colori diversi. Se mangi la metà arancione delle pasticche vomitose, per esempio, vomiti. Non appena ti hanno fatto uscire di corsa dall'aula per spedirti in infermeria, tu mandi giù la metà viola, che ti rimette in salute, consentendoti di praticare l'attività di svago prescelta durante un'ora che altrimenti sarebbe stata dedicata a una noia infruttuosa. È quello che scriveremo nella pubblicità, perlomeno», mormorò Fred, che si era tolto dal campo visivo della signora Weasley e stava raccogliendo e intascando alcuni doxi sparsi sul pavimento. «Ma dobbiamo perfezionarle un po'. Al momento le nostre cavie hanno qualche difficoltà a smettere di vomitare quanto basta per mandar giù la parte viola». «Cavie? Noi!» spiegò Fred. «Le prendiamo noi a turno!» George ha sperimentato i pasticcetti svenevoli. «Tutti e due abbiamo provato il torrone sanguinolento». «La mamma credeva che ci fossimo battuti con qualcuno», disse George. «Il negozio di scherzi va avanti, quindi», sussurrò Harry, fingendo di sistemare lo spruzzatore sulla bottiglia. «Beh, non siamo ancora riusciti a trovare i locali», disse Fred, abbassando ancora di più la voce mentre la signora Weasley si asciugava la fronte con la sciarpa prima di riprendere l'attacco. «Quindi, al momento, è solo per corrispondenza. Abbiamo messo un'inserzione pubblicitaria sulla Gazzetta del Profeta la settimana scorsa». «Tutto grazie a te, amico», disse George. «Ma non preoccuparti, la mamma non lo sa. Non vuole più leggere la Gazzetta del Profeta, perché scrive cose false su te e Silente». Harry fece un gran sorriso. Aveva convinto i gemelli Weasley ad accettare il premio di mille galeoni che aveva vinto al torneo Tre Maghi per aiutarli a realizzare la loro ambizione di aprire un negozio di scherzi. Ma era contento che la signora Weasley non sapesse del suo contributo. Lei non pensava che un negozio di scherzi fosse un'attività adatta a due dei suoi figli. La dedoxizzazione delle tende occupò gran parte della mattina. Era mezzogiorno passato, quando finalmente la signora Weasley si tolse la sciarpa protettiva, sprofondò in una poltrona pericolante e balzò di nuovo su, con aria disgustata. Si era seduta sul sacco di latti morti. Le tende non ronzavano più. Pendevano flosce umide per le spruzzate intensive. Ai loro piedi i doxi svenuti giacevano ammucchiati nel secchio vicino a una ciotola piena delle loro uova nere, che grattastinchi stavano usando, e Fred e George covavano con sguardi avidi. «Credo che affronterò quelle dopo pranzo?» La signora Weasley indicò le scaffalature chiuse da vetri polverosi che si ergevano ai lati del camino. Erano stipate di uno stravagante assortimento di oggetti, una selezione di pugnali arrugginiti, artigli, una pelle di serpente avvolta a spirale, alcune scatole d'argento ossidato con incise scritte in lingue che Harry non capiva, e infine la cosa più sgradevole di tutte, un'elaborata bottiglia di cristallo con una grossa opale incastonata nel tappo, piena di quello che, Harry ne era praticamente certo, doveva essere sangue. Il fragoroso campanello suonò di nuovo. Tutti guardarono la signora Weasley. «Restate qui», ordinò, e afferrò il sacco di ratti, mentre gli strilli della signora Black ricominciavano di sotto. «Porto su dei panini!» Uscì dalla stanza, richiudendosi con cura la porta alle spalle. Subito tutti corsero alla finestra per vedere chi stava arrivando. Scorsero la sommità di una disordinata testa rossiccia e una pila di calderoni pericolosamente in bilico. «Mandangus!» disse Hermione. «Perché ha portato tutti quei calderoni?» «Probabilmente sta cercando un posto sicuro dove nasconderli», rispose Harry. «Non è quello che stava facendo la notte che avrebbe dovuto fare la guardia a me? Recuperare dei calderoni sospetti?» «Sì, hai ragione», esclamò Fred. «Accidenti, alla mamma non piacerà!» Mandangus spinse dentro i calderoni e scomparve. Fred e George si avvicinarono alla porta e lì rimasero, ascoltando attentamente. La signora Black aveva smesso di urlare. «Mandangus sta parlando con Sirius e Kingsley», mormorò Fred accigliato per la concentrazione. «Non riesco a sentire bene. Credete che possiamo azzardarci a usare le orecchie oblunghe? Forse ne vale la pena», disse George. «Posso sgattaiolare di sopra a prenderne un paio». Ma in quel preciso istante un'esplosione di rumore rese inutili le orecchie oblunghe. Tutti sentirono distintamente la signora Weasley urlare a pieni polmoni. «Non siamo un covo di ricettatori!» «Adoro sentire la mamma che urla contro qualcun altro», commentò Fred con un sorriso soddisfatto, e aprì la porta di qualche centimetro per consentire alla voce della signora Weasley di invadere la stanza. «È un piacevole cambiamento!» «Del tutto irresponsabile! Abbiamo già abbastanza pensieri senza che tu ci porti in casa dei calderoni rubati!» «Quegli idioti la stanno lasciando andare a briglia sciolta», disse George scuotendo il capo. «Bisogna distrarla subito, altrimenti si surriscalda e va avanti per ore. Moriva dalla voglia di dirne quattro a Mandangus da quando è scappato via invece di starti appresso, Henry!» «Ecco che ricomincia la mamma di Sirius!» La voce della signora Weasley si smarrì tra nuovi strilli e grida dei ritratti nell'ingresso. George fece per chiudere la porta e soffocare il frastuono, ma prima che ci riuscisse entrò un elfo domestico. A parte lo straccio sudicio legato come un gonnellino attorno alla vita, era completamente nudo. Era molto vecchio, la sua pelle pareva troppo abbondante e anche se era calvo come tutti gli elfi domestici, una gran quantità di peli bianchi spuntava dalle grandi orecchie da pipistrello. Aveva gli occhi di un grigio acquoso e iniettato di sangue e il grosso naso carnoso, molto simile a un grugno. L'elfo non badò assolutamente a Henry e agli altri. Come se non li vedesse, avanzò trascinando i piedi, ingobbito, lento e risoluto, verso l'estremità della stanza, borbottando sottovoce con un tono rauco e profondo da rana toro. Puzza come una fogna e in più è un criminale, ma lei non è meglio, brutta vecchia traditrice del suo sangue, con i suoi mocciosi che impiastrano la casa della mia padrona. Oh, la mia povera padrona! Se sapesse, se sapesse la feccia che hanno lasciato entrare in casa sua, che cosa direbbe al vecchio Kreacher? Oh, vergogna! Sangue marcio e lupi mannari e traditori e ladri! Povero vecchio Kreacher, che cosa può farci? Ciao, Kreacher, disse Fred a voce un po' più alta del normale, chiudendo la porta di scatto. L'elfo domestico rimase immobile, tacque e si esibì in un sussulto di sorpresa molto enfatico e molto poco convincente. Kreacher non aveva visto il padroncino, rispose voltandosi e inchinandosi a Fred. Ancora con la faccia al pavimento aggiunse, a un livello perfettamente udibile, perfida piccola canaglia di un traditore del suo sangue, ecco cos'è. Scusa, disse George, non ho sentito l'ultima parte. Kreacher non ha detto niente, rispose l'elfo, con un secondo inchino a George, e aggiunse sottovoce, con molta chiarezza, ed ecco il suo gemello, piccoli mostri. Harry non sapeva se ridere o no. L'elfo si laddrizzò, occhieggiandoli tutti con malevolenza, apparentemente convinto che non potessero sentirlo. Ed ecco la sangue, Marcio, quella non ha paura di niente. Oh, se la mia padrona sapesse, oh, come piangerebbe. E c'è un ragazzo nuovo. Kreacher non sa come si chiama. Che cosa ci fa qui? Kreacher non lo sa. — Questo è Harry, Kreacher, disse Ermione esitante. Harry Potter. Kreacher. Gli occhi sbiaditi di Kreacher si allargarono, e borbottò più forte e furioso che mai. La sangue, Marcio, parla a Kreacher come se fosse sua amica. Se la padrona di Kreacher lo vedesse in simile compagnia, oh, che cosa direbbe? — Non chiamarla sangue, Marcio, esclamarono Ron e Ginni insieme, molto arrabbiati. — Non importa, sussurrò Ermione. Non è del tutto in sé. Non sa che cosa... — Non illuderti, Ermione. Lui sa esattamente quello che dice, intervenne Fred, osservando Kreacher con enorme disgusto. Kreacher continuava a bofunchiare, lo sguardo su Harry. — È vero? È Harry Potter? Kreacher vede la cicatrice. Deve essere vero. Quello è il ragazzo che ha fermato il Signore Oscuro. Kreacher si chiede come ha fatto. — Ce lo chiediamo tutti, Kreacher, disse Fred. — Che cosa vuoi, comunque? gli chiese George. Gli occhioni di Kreacher scattarono su quest'ultimo. — Kreacher pulisce, rispose evasivo. — Questa è bella, disse una voce dietro Harry. Sirius era tornato. Guardò torvo l'elfo dalla soglia. Il fracasso nell'ingresso si era placato. Forse la signora Weasley e Mandangus avevano deciso di continuare a litigare giù in cucina. Alla vista di Sirius, Kreacher si prostrò in un chino ridicolmente profondo, che gli appiattì a terra il naso a forma di grugno. — Tirati su, disse Sirius impaziente. Allora, che cos'ha in mente? — Kreacher pulisce, ripetè l'elfo. Kreacher vive per servire la nobile casata dei Black. — Che diventa sempre più nera. È sudicia, aggiunse Sirius. — Il padrone ha sempre amato scherzare, disse Kreacher, inchilandosi di nuovo, e continuò sottovoce. — Il padrone, quel perfido porco ingrato, ha spezzato il cuore di sua madre. — Mia madre non aveva un cuore, Kreacher, sbottò Sirius. Si manteneva in vita per puro dispetto. Kreacher si inchinò di nuovo. — Come vuole il padrone, mormorò furioso. — Il padrone non è degno di togliere il fango dagli stivali di sua madre. — Oh, mia povera padrona, che cosa direbbe se vedesse Kreacher servire lui come lo odiava? Che delusione è stato! — Ti ho chiesto che cosa hai in mente, insistè Sirius gelido. Tutte le volte che sbuchi con la scusa di pulire, fai sparire qualcosa e la porti in camera tua per impedirci di buttarla via. — Kreacher non vorrebbe muovere niente dal suo posto nella casa del padrone, rispose l'elfo. Poi biascicò molto in fretta. — La padrona non perdonerebbe mai Kreacher se venisse buttato via all'arazzo. Sono sette secoli che è in famiglia. Kreacher deve salvarlo. Kreacher non permetterà al padrone e ai traditori del loro sangue e ai mociosi di distruggerlo. — Lo supponevo, disse Sirius, scoccando un'occhiata sprezzante alla parete opposta. Mia madre deve aver scagliato un altro incantesimo di adesione permanente lì dietro. Non ne dubito, ma se solo posso sbarazzarmene, lo farò. Adesso vai via, Kreacher. Pareva che Kreacher non osasse disobbedire a un ordine diretto, ma lo sguardo che rivolse a Sirius mentre passava strascicando i piedi davanti a lui era colmo del più profondo disprezzo. L'elfo continuò a parlare sottovoce, uscendo dalla stanza. — Torna da Azkaban per dare ordine a Kreacher. — Oh, la mia povera padrona, che cosa direbbe se vedesse la casa adesso, la feccia che ci vive, i suoi tesori gettati via. Ha giurato che non era suo figlio ed è tornato. Dicono che è anche un assassino. — Continua a borbottare e lo diventerò, ringhiò Sirius, chiudendo con violenza la porta dietro l'elfo. — Sirius non è a posto col cervello, lo supplicò Ermione. Non credo che capisca che possiamo sentirlo. — È rimasto solo per troppo tempo, rispose Sirius, a prendere ordini folli dal ritratto di mia madre e a parlare da solo. Ma è sempre stato un sudicio piccolo se solo potessi liberarlo, disse Ermione speranzosa. — Forse non possiamo liberarlo, sa troppe cose dell'ordine, replicò Sirius secco. — E comunque lo sciocco lo ucciderebbe. Prova a suggerirgli di andare via di casa e vedrai come reagisce. Sirius attraversò la stanza e raggiunse l'arazzo che Kreacher aveva tentato di proteggere. Occupava tutta la parete. Harry e gli altri lo seguirono. L'arazzo sembrava immensamente antico. Era sbiadito e pareva rosicchiato qua e là dai doxi. Tuttavia, il filo d'oro con cui era ricamato scintillava ancora abbastanza da mostrare un esteso albero genealogico che risaliva, per quanto ne capiva Harry, al Medioevo. Grosse lettere in cima all'arazzo recitavano. — La nobile e antichissima casata dei Black. — Toujours pur. — Tu non ci sei, osservò Harry esaminando la parte più bassa dell'albero. — Ero qui, disse Sirius, indicando un buchetto rotondo carbonizzato nel tessuto, simile a una bruciatura di sigaretta. — La mia cara dolce madre mi ha incenerito dopo che sono scappato di casa. Kreacher ha una vera passione per bofonchiare questa storia. — Tu sei scappato di casa. — Avevo quasi sedici anni, disse Sirius. Non ne potevo più. — Dove sei andato? chiese Harry. — Da tuo padre, rispose Sirius. I tuoi nonni furono davvero buoni con me. In un certo senso mi adottarono come un secondo figlio. Sì, mi accampavo da tuo padre per le vacanze scolastiche, e a diciassette anni mi sono trovato un posto tutto mio. Mio zio Alford mi aveva lasciato un bel po' d'oro. È cancellato qui, probabilmente per questo motivo. E comunque da allora in poi ho badato a me stesso. Però ero sempre il benvenuto dai signori Potter per la colazione della domenica. — Ma perché? Me ne sono andato? Sirius fece un sorriso amaro e si passò le dita tra i lunghi capelli in disordine, perché li odiavo tutti. I miei genitori, con la loro mania del sangue puro, convinti che essere un black, ti rendesse praticamente di stirpe reale. Il mio fratello idiota, così sciocco da crederci. Eccolo. Sirius puntò un dito alla base dell'albero, sul nome Regulus Black. Una data di morte, che risaliva una quindicina di anni prima, seguiva quella di nascita. — Era più giovane di me, disse Sirius, ed era un figlio molto migliore, come mi veniva ricordato di continuo. — Ma è morto, osservò Harry. — Sì, disse Sirius, stupido idiota, si è unito ai Mangiamorte. — Stai scherzando? — Andiamo, Harry, non hai visto abbastanza di questa casa per capire che genere di maghi erano quelli della mia famiglia? chiese Sirius stizzito. — I tuoi genitori erano... erano anche loro, Mangiamorte. — No, no, ma credimi, erano convinti che Voldemort avesse ragione. erano per la purificazione della razza magica, per liberarsi dei nati babbani e avere al governo dei puro sangue. Non erano soli, comunque. Molta gente, prima che Voldemort mostrasse il suo vero volto, credeva che avesse ragione. Poi, però, si sono spaventati quando hanno visto che cosa era pronto a fare per ottenere il potere. Ma scommetto che i miei genitori erano convinti che Regulus fosse un autentico piccolo eroe per essersi unito a Voldemort all'inizio. È stato ucciso da un Auror? chiese Harry esitante. — Oh, no, rispose Sirius. No, è stato assassinato da Voldemort, o per ordine di Voldemort, più probabilmente. Dubito che Regulus sia mai stato così importante da scomodare Voldemort in persona. Da quanto ho scoperto dopo la sua morte, si era fatto coinvolgere fino a un certo punto. Poi è stato preso dal panico per quello che gli era stato richiesto e ha cercato di fare marcia indietro. Beh, non si consegnano le dimissioni a Voldemort. È servizio a vita o morte. — Il pranzo, annunciò la signora Weasley, teneva la bacchetta alta davanti a sé, reggendo in equilibrio sulla punta un enorme vassoio carico di panini e fette di torta. Era molto rossa in faccia e sembrava ancora arrabbiata. Gli altri si fecero avanti, avidi, ma Harry rimase con Sirius, che si era chinato sulla razzo. — Non lo guardo da anni. Ecco Fineast Nigellus, il mio bis bisnonno, sai, il preside meno amato che Hogwarts abbia mai avuto. E Araminta Melliflua, cugina di mia madre, ha cercato di far passare un progetto di legge al ministero per legalizzare la caccia ai babbani. — E la cara zia Ella Dora ha inaugurato la tradizione di famiglia di decapitare gli elfi domestici quando diventavano troppo vecchi per portare i vassoi del tè. Naturalmente, tutte le volte che la stirpe ha dato i Natali a qualcuno di appena decente, questo è stato diseredato. — Vedo che Tonks qui non c'è. Forse è per questo che Critcher non vuole prendere ordini da lei. Lui dovrebbe fare tutto ciò che qualsiasi membro della famiglia gli chiede. — Tu e Tonks siete parenti? chiese Harry sorpreso. — Oh sì, sua madre Andromeda era la mia cugina preferita, rispose Sirius esaminando la razzo con attenzione. — No, non c'è nemmeno lei, guarda. Indicò un'altra piccola bruciatura rotonda tra due nomi, Bellatrix e Narcisa. Le sorelle di Andromeda ci sono ancora, perché hanno contratto deliziosi, rispettabili matrimoni con puro sangue. Ma Andromeda ha sposato un nato babbano, Ted Tonks, e così. Sirius mimò l'atto di incendiare la razzo con una bacchetta e scoppiò in una risata acida. Harry, tuttavia, non rise. Era troppo occupato a fissare i nomi sulla destra della bruciatura di Andromeda. Una doppia linea di ricamo d'oro univa Narcisa Black a Lucius Malfoy. E una singola linea verticale portava dai loro nomi a Draco. — Sei imparentato con i Malfoy? — Le famiglie puro sangue sono tutte imparentate, disse Sirius. Se hai deciso che i tuoi figli e le tue figlie sposino solo dei puro sangue, la scelta è molto limitata. Siamo rimasti pochissimi. Io e Molly siamo cugini acquisiti, e Arthur deve essere mio cugino di secondo grado. Ma non serve cercarli qua. Se c'è una famiglia di rinnegati, sono i Weasley. Harry, però, guardava il nome alla sinistra della bruciatura di Andromeda. Bellatrix Black, unita da una doppia linea a Rodolphus Lestrange. — Lestrange, — mormorò Harry. Il nome aveva risvegliato qualcosa nella sua memoria. Sapeva di averlo sentito da qualche parte, ma per un attimo non riuscì a ricordare dove. Anche se gli suscitava una strana sensazione, come un brivido nello stomaco. — Sono a Raskaban, — rispose Sirius asciutto. Harry lo guardò incuriosito. — Bellatrix e suo marito Rodolphus sono entrati con Barty Crouch Jr., — spiegò Sirius con lo stesso tono brusco. — C'era anche Rabastan, il fratello di Rodolphus. Allora Harry ricordò. Aveva visto Bellatrix Lestrange dentro il pensatoio di Silente, il misterioso bacino nel quale pensieri e ricordi potevano essere conservati. Una donna alta e scura, con le palpebre pesanti, che al proprio processo si era alzata e aveva proclamato perenne fedeltà al Lord Voldemort. Il suo orgoglio per aver cercato di ritrovarlo dopo la sua caduta e la certezza che un giorno sarebbe stata ricompensata per tanta lealtà. — Non hai mai detto che è tua? È importante che sia mia cugina? Sbottò Sirius. Per quanto mi riguarda, non è la mia famiglia. Lei, di sicuro, non fa parte della mia famiglia. Non la vedo da quando avevo la tua età, tranne che di sfuggita, quando è arrivata a Raskaban. Credi che sia orgoglioso di avere una parente come lei? — Scusa, si affrettò a dire Harry. Non volevo. Ero solo sorpreso. Tutto qui. — Non importa, non scusarti, borbottò Sirius. Si voltò, le mani affondate nelle tasche. — Non mi piace essere di nuovo qui, aggiunse, fissando un punto dall'altra parte del salotto. Non pensavo che mi sarei trovato di nuovo prigioniero di questa casa. Harry capiva benissimo. Sapeva come si sarebbe sentito. Una volta cresciuto e convinto di essere libero per sempre, se fosse tornato a stare al numero quattro di Prive Drive. — Come quartier generale è l'ideale, naturalmente, disse Sirius. Mio padre l'ha dotata di ogni misura di sicurezza nota al mondo magico, quando abitava qui. È irrilevabile, quindi i babbani non potrebbero mai venire a suonare alla porta, come se potessero mai desiderarlo. E ora che Silente ha aggiunto la sua protezione, sarebbe difficile trovare una casa più sicura. Silente è il custode segreto dell'ordine, sai. Nessuno può trovare il quartier generale, a meno che lui non gli dica personalmente dove si trova. Quel biglietto che Moody ti ha mostrato ieri notte era di Silente. Sirius scoppiò in una breve risata simile a un latrato. Se i miei genitori potessero vedere a che uso è adibita la loro casa adesso, beh, il ritratto di mia madre dovrebbe darti una vaga idea. Si incubì per un istante, poi sospirò. Non ci farei caso se solo potessi uscire ogni tanto e fare qualcosa di utile. Ho chiesto a Silente se posso accompagnarti all'udienza, come felpato ovviamente, per offrirti un po' di sostegno morale. Che cosa ne dici? Harry si sentì come se lo stomaco gli fosse sprofondato nella moquette polverosa. Non aveva più pensato all'udienza dalla cena della sera prima. Nell'eccitazione di essere di nuovo tra le persone che preferiva e di essere messo al corrente di quanto stava succedendo, gli era del tutto passata di mente. Alle parole di Sirius, però, lo schiacciante senso di terrore fece ritorno. Fissò Hermione e i Weasley, che stavano addentando i loro panini, e pensò a come si sarebbe sentito se loro fossero tornati a Hogwarts senza di lui. Non preoccuparti, disse Sirius. Harry alzò lo sguardo e si accorse che il suo padrino lo stava osservando. Sono certo che ti scagioneranno. Di sicuro lo statuto internazionale di segretezza prevede che si possa usare la magia per salvarsi la vita. Ma se invece mi buttano fuori, mormorò Harry, posso venire qui a vivere con te? Sirius sorrise triste. Vedremo. Affronterei molto meglio l'udienza se sapessi che non devo tornare dai Darsley, insiste Harry. Devono essere tremendi se preferisci questo posto, osservò Sirius malinconico. «Sbrigatevi voi due o non resterà niente», disse loro la signora Weasley. Sirius trasse un altro profondo sospiro e gettò uno sguardo cupo all'arazzo. Poi lui e Harry si unirono agli altri. Harry fece del suo meglio per non pensare all'udienza mentre vuotavano le librerie a vetri quel pomeriggio. Per sua fortuna era un lavoro che richiedeva concentrazione, perché molti oggetti sembravano alquanto riluttanti a lasciare i loro polverosi scaffali. Sirius ricevette un brutto morso da una tabacchiera d'argento. In pochi secondi la mano ferita fu ricoperta da una sgradevole crosta che la fasciava come un robusto guanto marrone. «È tutto a posto», disse, esaminando la mano con interesse prima di batterla appena con la bacchetta e farla tornare normale. «Deve esserci dentro polvere di capperuncolo!» Gettò la scatola nel sacco, dove stavano buttando la spazzatura degli armadietti. Poco dopo Harry vide Giorgio avvolgersi con cura una mano in uno straccio e infilare di nascosto la tabacchiera nella tasca già piena di doxi. Trovarono uno strumento d'argento dall'aspetto inquietante, delle specie di pinzette con molte zampe, che si arrampicarono su per il braccio di Harry come un ragno quando lui le prese e cercarono di perforargli la pelle. Sirius le afferrò e le schiacciò con un pesante volume intitolato «Nobiltà di natura, genealogia magica». C'era un carillon che una volta caricato emise una musichetta tintinnante e vagamente sinistra e si sentirono tutti stranamente deboli e sonnolenti, finché Ginni non ebbe il buon senso di chiudere il coperchio. Un pesante medaglione che nessuno di loro riuscì ad aprire, un certo numero di antichi sigilli, e in una scatola polverosa un ordine di Merlino, prima classe, che era stato attribuito al nonno di Sirius per servizi resi al ministero. «Vuol dire che ha dato loro un bel mucchio d'oro», commentò Sirius sprezzante, gettando la medaglia nel sacco della spazzatura. Kreacher si insinuò parecchie volte nella stanza e tentò di sottrarre oggetti nascondendoli sotto il gonnellino, biascicando maledizioni terribili tutte le volte che veniva sorpreso. Quando Sirius gli strappò dalla presa un grosso anello d'oro con lo stemma dei Black, scoppiò addirittura in lacrime di rabbia e uscì dalla stanza singhiozzando sottovoce e apostrofando Sirius con parole che Harry non aveva mai sentito prima. «Era di mio padre», spiegò Sirius, gettando l'anello nel sacco. «Kreacher non era devoto a lui proprio quanto a mia madre, ma la settimana scorsa l'ho sorpreso a sbacciucchiare un paio di suoi vecchi pantaloni». La signora Weasley li fece lavorare sodo nei giorni che seguirono. Ci vollero tre giornate per disinfestare il salotto. Alla fine le uniche cose indesiderabili rimaste furono l'arazzo dell'albero genealogico dei Black che resistette a tutti i loro tentativi di staccarlo dalla parete e lo scrittoio traballante. Moody non era ancora passato al quartier generale, quindi non potevano essere certi del contenuto. Si spostarono dal salotto a una sala da pranzo al piano terreno, dove trovarono ragni grandi come piattini appostati nella credenza. Ron uscì di corsa dalla stanza per farsi una tassa di tè e non tornò per un'ora e mezzo. Sirius gettò in un sacco, senza alcun riguardo, tutte le porcellane che recavano impressi lo stemma e il motto dei Black e la stessa sorte toccò a un gruppo di vecchie fotografie inossidate cornici d'argento. Tutti i ritratti emisero urla perforanti quando il vetro che li ricopriva si infranse. Piton poteva anche definire il loro lavoro pulizie, ma secondo Harry in realtà stavano muovendo guerra alla casa e la casa opponeva una fiera resistenza, aiutata e sostenuta da Critcher. L'elfo domestico compariva tutte le volte che si riunivano. Il suo mormorio diventava sempre più offensivo, mentre cercava di sottrarre quello che poteva dai sacchi della spazzatura. Sirius arrivò a minacciare di regalargli dei vestiti, ma Critcher lo fissò con uno sguardo acquoso e disse «E il padrone deve fare come il padrone desidera», prima di voltarsi e borbottare a voce molto alta. «Ma il padrone non caccerà via Critcher, no, perché Critcher sa quello che hanno in mente. Oh, sì, lui sta tramando contro il Signore Oscuro, sì, con questi sangue marcio, traditori, feccia!» Al che Sirius, ignorando le proteste di Ermione, afferrò Critcher dal retro del gonnellino e lo gettò di peso fuori dalla stanza. Il campanello suonava parecchie volte al giorno, e ogni volta la madre di Sirius ricominciava a strillare, e Harry e gli altri tentavano di origliare le parole del visitatore, ma raggranellarono pochissimo, dalle brevi occhiate e dai frammenti di conversazione che riuscivano a rubare prima che la signora Weasley li richiamasse ai loro compiti. Piton entrò e uscì furtivamente di casa molte volte, anche se con sollievo di Harry non si trovarono mai faccia a faccia. Harry vide anche disfuggita la sua insegnante di trasfigurazione, la professoressa McGonagall, che sembrava assai strana, vestita con un abito e un soprabito babbani, e anche lei troppo indaffarata per attardarsi. Qualche volta, però, il visitatore restava a dare una mano. Tonks si unì a loro in un memorabile pomeriggio, nel quale scoprirono un vecchio e pericoloso ghoul appostato in un bagno di sopra, e Lupin, che abitava con Sirius, ma usciva per lunghi periodi a svolgere compiti misteriosi per l'ordine, gli aiutò a guarire un orologio a pendolo, dalla spiacevole abitudine di scagliare grossi dardi ai passanti. Mandangus riuscì a redimersi un po' agli occhi della signora Weasley, salvando Ron da un antico completo viola che aveva cercato di strangolarlo quando l'aveva tolto dall'armadio. Nonostante continuasse a dormire male e sognasse ancora corridoi e porte chiuse che gli facevano prudere la cicatrice, Harry riuscì a divertirsi per la prima volta in tutta l'estate. Finché era indaffarato, era sereno, ma quando sospendevano il lavoro e abbassava la guardia, o giaceva sfinito a letto osservando ombre sfocate muoversi sul soffitto, lo riprendeva l'ansia per l'udienza imminente. La paura gli perforava le viscere al pensiero di che cosa gli sarebbe successo se fosse stato espulso. L'idea era così terribile che non osava esprimerla, nemmeno a Ron e Ermione, i quali, anche se lui li vedeva spesso sussurrare tra loro e gettargli sguardi ansiosi, seguivano il suo esempio e non ne parlavano mai. A volte non poteva impedire alla sua fantasia di mostrargli un funzionario senza volto del ministero che spezzava in due la sua bacchetta e gli ordinava di tornare dai Darsley, ma non ci sarebbe andato. Su questo era fermissimo. Sarebbe tornato in Grimmauld Place a vivere con Sirius. Fu come se un mattone gli fosse cascato nello stomaco quando mercoledì sera, durante la cena, la signora Weasley gli disse piano «Ho stirato i tuoi vestiti migliori per domani mattina, Harry, e voglio anche che stasera ti lavi i capelli. Una buona prima impressione può fare meraviglie». Ron, Ermione, Fred, George e Ginny smisero tutti di parlare e lo guardarono. Harry annui e cercò di continuare a mangiare la sua costoletta, ma la bocca gli era diventata così asciutta che non riusciva a masticare. «Come ci vado?» chiese alla signora Weasley, cercando di suonare tranquillo. «Arthur ti porta con sé al lavoro», rispose lei dolcemente. Il signor Weasley sorrise incoraggiante dall'altra parte del tavolo. «Potrai aspettare nel mio ufficio fino all'ora dell'udienza», disse. Harry guardò Sirius, ma prima che riuscisse a formulare la domanda, la signora Weasley era già intervenuta. «Il professor Silente non crede che sia una buona idea che Sirius venga con te, e devo dire che...» «Credi che abbia proprio ragione», concluse Sirius a denti stretti. La signora Weasley strinse le labbra. «Quando gliel'ha detto, Silente?» chiese Harry fissando Sirius. «È venuto ieri sera mentre dormivi», rispose il signor Weasley. Sirius infilzò di malumore una patata. Harry abbassò lo sguardo sul piatto. Il pensiero che Silente fosse stato in quella casa, la vigilia dell'udienza, e non avesse chiesto di vederlo, lo fece sentire, se possibile, ancora peggio». Il ministero della magia La mattina dopo, Harry si svegliò alle cinque e mezzo, di colpo e completamente, come se qualcuno gli avesse urlato in un orecchio. Per qualche istante rimase disteso immobile, mentre la prospettiva dell'udienza disciplinare riempiva ogni piccola parte del suo cervello. Poi, incapace di sopportarlo, balzò fuori dal letto e inforcò gli occhiali. La signora Weasley aveva disposto i suoi jeans e la t-shirt appena lavati ai piedi del letto. Harry se li infilò. Il quadro vuoto sulla parete ridacchiò. Ron era disteso sulla schiena, a braccia aperte, con la bocca spalancata, profondamente addormentato. Non si mosse nemmeno quando Harry attraversò la stanza, uscì sul pianerottolo e richiuse piano la porta. Cercando di non pensare alla prossima volta in cui avrebbe visto Ron, se non fossero più stati compagni di scuola a Hogwarts, Harry discese piano le scale, passò sotto le teste degli antenati di Critcher e scese in cucina. Si era aspettato di trovarla vuota, ma giunto davanti alla porta sentì un quieto borbottio. La aprì e vide il signore e la signora Weasley, Sirius, Lupin e Tonks seduti, come se lo stessero aspettando. Erano vestiti di tutto punto, tranne la signora Weasley, che indossava una vestaglia trapuntata viola e balzò in piedi all'ingresso di Harry. «La colazione!» disse sfoderando la bacchetta e corse verso il camino. «Bu-bu-bu-buongiorno, Harry!» sbadigliò Tonks. Quella mattina aveva i capelli biondi e ricci. «Dormito bene?» «Sì!» rispose Harry. «Sono sta-sta-sta-sta-sveglia tutta la notte!» disse con un altro sbadiglio che la scosse tutta. «Vieni a sederti!» prese una sedia e rovesciò quella accanto. «Che cosa vuoi, Harry?» domandò la signora Weasley. «Porridge? Muffin? Aringhe? Uova e pancetta? Pane tostato?» «Solo... solo pane tostato, grazie!» rispose Harry. Lupin gli lanciò un'occhiata e poi disse a Tonks. «Che cosa stavi dicendo a proposito di Scrimgeour?» «Oh, sì, beh, dobbiamo stare un po' più attenti!» ha fatto strane domande a me e a Kingsley. Harry si sentì vagamente grato che non gli fosse richiesto di unirsi alla conversazione, aveva le budella attorcigliate. La signora Weasley gli mise davanti due fette di pane tostato con la marmellata d'arance. Lui cercò di mangiare, ma era come masticare moquette. La signora Weasley sedette al suo fianco e cominciò a sistemargli la t-shirt, infilando l'etichetta dentro il collo e lisciando le pieghe sulle spalle. Harry avrebbe preferito che non lo facesse. «E dovrò dire a Silente che domani non posso fare il turno di notte. Sono troppo stanca!» concluse Tonks con un nuovo enorme sbadiglio. «Ti sostituisco io», disse il signor Weasley. «Sto bene, e comunque devo finire una relazione». Non indossava una veste da mago, ma un paio di pantaloni gessati e un vecchio giubbotto imbottito. Si rivolse a Harry. «Come ti senti?» Harry scrollò le spalle. «Presto sarà tutto finito», gli disse il signor Weasley in tono incoraggiante. «Tempo poche ore e sarai scagionato». Harry non rispose. «L'udienza è al mio piano, nell'ufficio di Amelia Bones. È il direttore dell'ufficio applicazione della legge sulla magia ed è lei che condurrà l'interrogatorio». «Amelia Bones è a posto, Harry», disse Tonks con fervore. «È una persona onesta, ti ascolterà fino in fondo». Harry annui, sempre incapace di pensare a qualcosa da dire. «Non perdere il controllo», intervenne Sirius all'improvviso. «Sia educato e attieni che hai fatti». Harry annui di nuovo. «La legge è dalla tua», aggiunse Lupin tranquillamente. «Anche i maghi minorenni sono autorizzati a usare la magia in pericolo di morte». Qualcosa di molto freddo colò lungo il collo di Harry. Per un attimo pensò che qualcuno gli stesse scagliando un incantesimo di disillusione. Poi capì che la signora Weasley stava attaccando i suoi capelli con un pettine bagnato. «Ma non stanno mai giù?» chiese in tono disperato. Harry scosse il capo. Il signor Weasley guardò l'orologio e poi Harry. «Andiamo», disse. «Siamo un po' in anticipo, ma starei meglio al ministero che qui a ciondolare». «D'accordo», rispose Harry automaticamente. Lasciò il pane tostato e si alzò. «Andrà una meraviglia, Harry», disse Tonks dandogli delle pacche sul braccio. «Buona fortuna», aggiunse Lupin. «Sono sicuro che andrà bene». «E se non va bene», disse Sirius cupo, «ci penso io ad Amelia Bones». Harry fece un debole sorriso. La signora Weasley lo abbracciò. «Teniamo tutti le dita incrociate?» «Bene», rispose Harry. «Beh, ci vediamo dopo». Seguì il signor Weasley su per le scale e nell'ingresso. Sentì la madre di Sirius grugnire nel sonno dietro le tende. Il signor Weasley aprì le serrature e uscirono nell'alba fredda e grigia. «Di solito non va al lavoro a piedi, vero?» gli chiese Harry mentre facevano il giro della piazza a passo sostenuto. «No, di solito mi materializzo», disse il signor Weasley. «Ma naturalmente tu non puoi e credo che sia meglio arrivare in un modo assolutamente non magico. Darà un'impressione migliore, visto il motivo per cui sei indagato». Il signor Weasley teneva la mano sotto la giacca. Harry sapeva che era serrata attorno alla bacchetta. Le strade scalcinate erano quasi deserte, ma quando arrivarono alla miserabile piccola stazione della metropolitana la trovarono già affollata di pendolari mattinieri. Come sempre quando si trovava in vicinanza di babbani intenti alle loro occupazioni quotidiane, il signor Weasley riusciva a stento a trattenere l'entusiasmo. «Semplicemente favoloso!» sussurrò indicando le biglietterie automatiche meravigliosamente ingegnose! «Sono fuori servizio!» osservò Harry indicando il cartello. «Sì, ma anche così!» disse il signor Weasley rivolgendo loro un sorriso appassionato. Comprarono dunque i biglietti da un guardiano insonnolito. Se ne incaricò Harry perché il signor Weasley non era molto abile con il denaro babbano e cinque minuti dopo salirono su un convoglio che li portò sferragliando verso il centro di Londra. Il signor Weasley continuava a controllare e ricontrollare ansioso la cartina della metropolitana appesa sopra i finestrini. «Ancora quattro fermate, Harry!» «Ancora tre!» «Solo due fermate, Harry!» scesero in una stazione nel cuore di Londra e vennero trascinati fuori dal treno da una marea di uomini in giacca e cravatta e donne armate di valigette. Salirono la scala mobile, attraversarono la barriera, il signor Weasley fu deliziato dalla colonnina che inghiottì il suo biglietto, ed emersero in una larga strada fiancheggiata da edifici imponenti e già piena di traffico. «Dove siamo?» chiese il signor Weasley con aria smarrita e per un istante mozzafiato Harry credette che fossero scesi alla fermata sbagliata, nonostante i continui controlli del suo accompagnatore sulla cartina. Ma un attimo dopo il signor Weasley disse «Ah, sì!» «Da questa parte, Harry!» e lo guidò lungo una strada laterale. «Scusa», disse «ma non vengo mai con la metropolitana e sembra tutto parecchio diverso da un punto di vista babbano. In effetti non ho mai usato l'ingresso dei visitatori». Più camminavano, più piccoli e meno imponenti diventavano gli edifici, finché si trovarono in una via che ospitava uffici dall'aria trascurata, un pub e un cassonetto traboccante. Harry si aspettava una sede un po' più maestosa per il ministero della magia. «Eccoci!» annunciò allegramente il signor Weasley indicando una vecchia cabina del telefono rossa con molti vetri rotti che si ergeva davanti a un muro tutto coperto di graffiti. «Dopo di te, Harry!» Aprì la porta della cabina. Harry entrò chiedendosi che cosa accidenti significasse. Il signor Weasley si intrufolò vicino a lui e chiuse la porta. Ci stavano strettissimi. Harry era schiacciato contro l'apparecchio telefonico che pensolava storto dalla parete come se un vandalo avesse tentato di svellerlo. Il signor Weasley tese la mano verso il ricevitore. «Signor Weasley, credo che anche questo sia fuori servizio», fece notare Harry. «No, no, sono sicuro che funziona», rispose il signor Weasley reggendo il ricevitore sopra la testa e guardando il disco. «Vediamo...» «Sei...» e fece il numero. «Due...» «Quattro...» «Ancora quattro...» «E ancora due...» Il disco tornò al suo posto con un ronzio uniforme e una fredda voce femminile risuonò nella cabina, non dal ricevitore che il signor Weasley teneva in mano, ma forte e chiara come se una donna invisibile fosse lì in piedi accanto a loro. «Benvenuti al Ministero della Magia. Per favore, dichiarate il vostro nome e il motivo della visita». «Ehm...» fece il signor Weasley, evidentemente incerto se parlare o non nel ricevitore. Scelse un compromesso e avvicinò la cornetta all'orecchio. «Arthur Weasley, ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani. Sono qui per accompagnare Harry Potter, che deve presentarsi a un'udienza disciplinare». «Grazie», disse la fredda voce femminile. «Il visitatore è pregato di raccogliere la targhetta e assicurarla sul vestito. Si udì uno scatto e un tintinio. Harry vide qualcosa cadere nel contenitore metallico, dove di solito sbucavano le monete del resto. Lo raccolse. Era una spilla quadrata d'argento con scritto sopra «Harry Potter, udienza disciplinare». La fissò sulla maglietta mentre la voce femminile riprendeva a parlare. «Il visitatore del ministero all'obbligo di sottoporsi a perquisizione e di presentare la bacchetta perché sia registrata al banco della sorveglianza in fondo all'atrio». Il pavimento della cabina tremò. Stavano sprofondando lentamente nel suolo. Harry guardò preoccupato il marciapiede che sembrava alzarsi oltre i vetri della cabina finché l'oscurità non si chiuse sopra di loro. Poi non vide nulla. Sentiva solo il sordo cigolio della cabina che scendeva attraverso la terra. Dopo circa un minuto, anche se a lui parve molto di più, una luce dorata illuminò i suoi piedi e salì lungo il suo corpo fino a illuminarlo in viso. Dovette strizzare le palpebre per impedire agli occhi di lacrimare. «Il Ministero della Magia vi augura una buona giornata», salutò la voce femminile. La porta della cabina si spalancò e il signor Weasley uscì, seguito da Harry, che rimase a bocca spalancata. Erano all'estremità di un lunghissimo, magnifico salone d'ingresso con il pavimento splendente di legno scuro. Il soffitto blu pavone era incastonato di scintillanti simboli dorati che continuavano a muoversi e mutare come un enorme tabellone celeste. Le pareti ai due lati erano coperte da pannelli di lucido legno scuro dove si aprivano molti camini dorati. Ogni pochi secondi un mago o una strega affioravano da uno dei camini sulla sinistra con un dolce fruscio. Sul lato destro, davanti a ogni camino, si formavano brevi code di maghi e streghe in attesa di partire. Al centro dell'atrio c'era una fontana. Un gruppo di statue dorate più grandi del naturale si ergeva al centro di una vasca circolare. La più alta di tutte rappresentava un mago dall'aspetto nobile con la bacchetta puntata diritta in aria. Radunati attorno a lui c'erano una bella strega, un centauro, un goblin e un elfo domestico. Gli ultimi tre guardavano con aria adorante la strega e il mago. Scintillanti zampilli d'acqua schizzavano dalle estremità delle loro bacchette, dalla punta della freccia del centauro, dalla cima del cappello del goblin e dalle orecchie dell'elfo domestico, così che il golgogliare dell'acqua che cadeva si aggiungeva ai pop e crack di coloro che si materializzavano e al frastuono dei passi di centinaia di maghi e streghe che con espressioni accigliate e assonnate avanzavano verso una serie di cancelli d'oro all'altro capo dell'ingresso. Da questa parte, disse il signor Weasley, si unirono alla folla, facendosi strada tra i dipendenti del ministero, alcuni dei quali reggevano pile vacillanti di pergamene, altri valigette fruste, altri ancora leggevano la gazzetta del profeta mentre camminavano. Passando vicino alla fontana, Harry vide falci d'argento e zellini di bronzo scintillare sul fondo della vasca. Un piccolo cartello sbavato lì accanto recitava «Tutti i proventi della fontana della fratellanza magica verranno devoluti all'ospedale San Mungo per malattie e ferite magiche». «Se non mi espellano da Hogwarts butto dieci galeoni», Harry si ritrovò a pensare disperatamente. «Per di qua, Harry», disse il signor Weasley e uscirono dal flusso di impiegati del ministero per dirigersi verso i cancelli dorati. Seduto a una scrivania sulla sinistra sotto un cartello che diceva «Sorveglianza», un mago con la barba malfatta e un abito blu pavone li guardò avvicinarsi e posò la gazzetta del profeta. «Accompagno un visitatore», disse il signor Weasley indicando Harry. «Venga», rispose il mago con voce annoiata. Harry si avvicinò e il mago tese una lunga asta dorata, sottile e flessibile come l'antenna radio di un'auto e la passò su e giù davanti e dietro Harry. «Bacchetta», borbottò il mago della sorveglianza rivolto a Harry, posando lo strumento dorato e tendendo la mano. Harry estrasse la bacchetta. Il mago la lasciò cadere in uno strano congegno d'ottone che assomigliava a una bilancia con un solo piatto. Il congegno prese a vibrare. Una strisciolina di pergamena sbucò da una fessura alla base. Il mago la strappò e lesse. «Undici pollici nucleo di piuma di fenice in uso da quattro anni. Corretto?» «Sì», rispose Harry nervoso. «Questo lo tengo io», disse il mago, infilzando il pezzetto di pergamena su un piccolo puntale di ottone. «Questa se la riprenda», aggiunse consegnando la bacchetta a Harry. «Grazie». «Un momento», disse il mago lentamente. Il suo sguardo balenò dalla targhetta d'argento sul petto di Harry alla sua fronte. «Grazie, Eric», tagliò corto il signor Weasley e prendendo Harry per una spalla lo guidò lontano dalla scrivania, di nuovo nel fiume di maghi e streghe. Tra gli urti della folla, Harry seguì il signor Weasley oltre i cancelli, nell'ingresso più piccolo, dove almeno venti ascensori si aprivano dietro elaborate griglie dorate. Harry e il signor Weasley si unirono alla folla attorno a uno di essi. Vicino a loro, un grosso mago barbuto reggeva uno scatolone di cartone che emetteva rumori rasposi. «Tutto bene, Arthur?» disse il mago facendo un cenno al signor Weasley. «Che cos'hai lì, Bob?» chiese il signor Weasley guardando la scatola. «Non lo sappiamo bene», rispose il mago serio. «Credevamo che fosse un normalissimo pollo finché non ha cominciato a sputar fuoco. sembrerebbe una grave violazione del bando dell'allevamento sperimentale». Con un gran stridere e sbatacchiare un ascensore scese davanti a loro. Le griglie dorate si spalancarono. Harry e il signor Weasley entrarono col resto della folla e Harry si ritrovò spiaccicato contro la parete sul fondo. Parecchi maghi e streghe lo guardavano incuriositi. Lui si fissò i piedi per evitare di incrociare qualche sguardo e si appiattì la frangia. Le griglie si chiusero con fragore e l'ascensore prese a salire lentamente con le catene che sbattevano e la stessa fredda voce femminile che Harry aveva sentito nella cabina telefonica risuonò di nuovo. «Settimo livello ufficio per i giochi e gli sport magici comprendente il quartier generale della Lega Britannico-Irlandese del Quidditch il circolo ufficiale di Gobbiglie e l'ufficio Brevetti Ridicoli. Le porte dell'ascensore si aprirono. Harry scorse un corridoio dall'aria trascurata con numerosi poster di squadre di Quidditch appesi storti alle pareti. Uno dei maghi nell'ascensore che trasportava una bracciata di scope si districò a fatica, uscì e scomparve nel corridoio. Le porte si chiusero. L'ascensore sussultò e riprese a salire e la voce della donna annunciò «Sesto livello, ufficio del trasporto magico comprendente l'autorità della metropolvere, il controllo regolativo delle scope, l'ufficio passaporte e il centro esami di materializzazione». Ancora una volta le porte dell'ascensore si aprirono e scesero quattro o cinque maghi e streghe. Nello stesso tempo parecchi aeroplani di carta vi entrarono planando. Harry li guardò stupito volteggiare pigramente sopra la sua testa. Erano di un violetto pallido. riuscì a leggere «Ministero della magia» stampigliato lungo l'orlo delle ali. «Sono solo promemoria interuffici» borbottò il signor Weasley. Una volta usavamo i gufi ma era un pasticcio incredibile le scrivanie coperte di cacche. Mentre continuavano a salire sferragliando i promemoria sbatacchiavano attorno alla lampada che pensolava dal soffitto dell'ascensore. «Quinto livello, ufficio per la cooperazione magica internazionale comprendente il corpo delle convenzioni dei commerci magici internazionali, l'ufficio internazionale della legge sulla magia e la confederazione internazionale dei maghi, seggi britannici». Quando le porte si aprirono due promemoria uscirono sfrecciando insieme a un po' di maghi e streghe ma molti altri entrarono così che la luce della lampada si affievoliva e lampeggiava sopra di loro a seconda di come i promemoria le svolazzavano intorno. «Quarto livello, ufficio regolazione e controllo delle creature magiche comprendente la divisione bestie, esseri e spiriti, l'ufficio delle relazioni con i goblin e lo sportello consulenza animali nocivi». «Permesso», disse il mago che trasportava il pollo sputafuoco e scese inseguito da una flottiglia di promemoria. Le porte si richiusero sferragliando. «Terzo livello, dipartimento delle catastrofi e degli incidenti magici, comprendente la squadra cancellazione della magia accidentale, il quartier generale degli obbliviatori e il comitato scuse ai babbani». Tutti scesero dall'ascensore tranne il signor Weasley, Harry e una strega intenta leggere un lunghissimo foglio di pergamena che si trascinava sul pavimento. I promemoria residui continuarono a svolazzare attorno alla lampada. L'ascensore balzò in su, poi le porte si aprirono e la voce fece il suo annuncio. «Secondo livello, ufficio applicazione della legge sulla magia, comprendente l'ufficio per l'uso improprio delle arti magiche, il quartier generale degli Auror e i servizi amministrativi Weas and Gamot». «È il nostro, Harry», disse il signor Weasley e seguirono la strega fuori dall'ascensore e lungo un corridoio pieno di porte. «Il mio ufficio è dall'altra parte». «Signor Weasley», disse Harry notando una finestra, da cui entrava splendente la luce del sole, «non siamo ancora sottoterra?» «Sì, certo», rispose il signor Weasley, «sono finestre incantate, quelli della manutenzione magica decidono che tempo avremo tutti i giorni. L'ultima volta che volevano un aumento abbiamo avuto due mesi di uragani». «Per di qua, Harry!» Voltarono un angolo, attraversarono una massiccia porta a due battenti di quercia e sbucarono in un open space sovraffollato, diviso in cubicoli che lonzava di chiacchiere e risate. I promemoria sfrecciavano tra i pannelli divisori come razzi in miniatura. Un cartello sbilenco sul cubicolo più vicino diceva «Quartier generale degli Auror». Harry guardò furtivo dentro le porte. Gli Auror avevano tappezzato le pareti dei loro cubicoli con un po' di tutto, da ritratti di maghi ricercati e foto delle loro famiglie a poster delle loro squadre del cuore di Quidditch e articoli della Gazzetta del Profeta. Un uomo vestito di scarlatto con una coda di cavallo più lunga di quella di Bill era seduto con gli stivali sulla scrivania e dettava una relazione alla sua penna d'oca. Un po' oltre una strega con una benda sull'occhio parlava con Kingsley Shacklebolt da sopra la parete del suo cubicolo. Buongiorno Weasley disse Kingsley distrattamente mentre si avvicinavano Devo dirti una cosa hai un secondo? Sì se è davvero un secondo rispose il signor Weasley sono piuttosto di fretta. Parlavano come se si conoscessero appena e quando Harry aprì la bocca per salutare Kingsley il signor Weasley gli pestò un piede. Seguirono Kingsley lungo la fila dei cubicoli fino all'ultimo. Harry ebbe un attimo di spavento il volto di Sirius occhieggiava da tutte le parti ritagli di giornali e vecchie foto compresa quella in cui era testimone al matrimonio dei Potter tappezzavano le pareti. L'unico spazio privo di Sirius era una cartina del mondo sulla quale piccoli spilli rossi rilucevano come gemme. Tieni disse Kingsley in tono brusco al signor Weasley ficcandogli in mano un fascio di pergamene ho bisogno di tutte le informazioni possibili sui veicoli babbani volanti avvistati negli ultimi dodici mesi abbiamo ricevuto informazioni secondo cui Black potrebbe ancora usare la sua vecchia motocicletta. Kingsley rivolse a Harry una gran strizzata d'occhio e gli sussurrò dagli la rivista potrebbe trovarla interessante poi disse in tono normale e non metterci troppo Weasley il ritardo di quella relazione sui carmi da fuoco ha bloccato le nostre indagini per un mese. Se avessi letto la mia relazione sapresti che il termine esatto è armi da fuoco rispose asciutto il signor Weasley e temo che dovrai aspettare per avere informazioni sulle motociclette al momento siamo estremamente occupati abbassò la voce e aggiunse se riesce a liberarti prima delle sette Molly fa le polpette fece un cenno a Harry e lo guidò fuori dal cubicolo di Kingsley attraverso una seconda porta di quercia in un altro passaggio voltò a sinistra avanzò lungo un altro corridoio voltò a destra in un corridoio fiocamente illuminato e decisamente squallido e alla fine raggiunse un vicolo cieco dove una porta sulla sinistra era socchiusa rivelando un armadio per scope e un'altra sulla destra recava un'ossidata targa di ottone uso improprio dei manufatti dei babbani il misero ufficio del signor Weasley si sarebbe detto un po' più piccolo dell'armadio delle scope vi erano state stipate due scrivanie e c'era appena lo spazio per girarci intorno per via di tutti gli archivi traboccanti in cima ai quali si ergevano precarie pile di cartelle il poco spazio libero sulle pareti testimoniava l'ossessione del signor Weasley poster di auto compreso quello di un motore smontato due illustrazioni di cassette della posta che sembrava aver ritagliato da libri babbani per bambini e uno schema che mostrava come collegare una spina in cima alla vaschetta tracimante della posta in entrata c'erano un vecchio tostapane che si inghiozzava sconsolato e un paio di guanti di pelle vuoti che giravano i pollici una foto della famiglia Weasley stava accanto alla vaschetta Harry notò che Percy se n'era andato non abbiamo la finestra spiegò il signor Weasley a mo' di scusa sfilandosi giubbotto e sistemandolo sullo schienale della sedia abbiamo fatto domanda ma evidentemente non ritengono che ne abbiamo bisogno siediti Harry a quanto pare Perkins non è ancora arrivato Harry si insinuò nella sedia dietro la scrivania di Perkins mentre il signor Weasley scorreva il fascio di pergamene che gli aveva dato Kingsley Shacklebolt ah disse con un gran sorriso sfilando una copia di una rivista intitolata il cavillo sì la sfogliò sì ha ragione sono sicuro che Sirius la troverà molto divertente oh cielo e adesso che cosa c'è un promemoria era appena sfrecciato attraverso la porta e si era posato in cima al tostapane singhiozzante il signor Weasley lo aprì e lesse ad alta voce terzo bagno pubblico rigurgitante denunciato a Bethnal Green prego indagare immediatamente sta diventando ridicolo un bagno che rigurgita burle anti babbani spiegò il signor Weasley accigliato ne abbiamo avuti due la settimana scorsa uno a Wimbledon uno a Elephant and Castle i babbani tirano l'acqua e la roba invece di sparire beh te lo puoi immaginare quei poveretti continuano a chiamare gli idropici credo che si chiamino sai quelli che riparano i tubi e roba del genere idraulici eh sì proprio così ma naturalmente sono confusi spero solo che riusciremo a prendere i responsabili saranno gli Auror a dar loro la caccia oh no è troppo banale per gli Auror è la normale pattuglia della squadra speciale magica ah Harry questo è Perkins un vecchio mago curvo dall'aria timorosa e soffici capelli bianchi era appena entrato ansante oh Arthur esclamò disperato senza guardare Harry grazie al cielo non sapevo che cosa fare se aspettarti qui o no ho appena spedito un gufo a casa tua ma evidentemente l'hai mancato è arrivato un messaggio urgente dieci minuti fa so del bagno che rigurgita disse il signor Weasley no no non è il bagno è l'udienza del giovane Potter hanno cambiato ora il luogo comincia alle otto ed è giù nel vecchio tribunale aula dieci giù nel vecchio ma mi avevano detto per la barba di Merlino il signor Weasley guardò l'orologio e mise un gemito e balzò su dalla sedia presto Harry avremmo dovuto essere lì cinque minuti fa Perkins si appiattì contro gli archivi e il signor Weasley uscì di corsa dall'ufficio con Harry alle calcagna perché hanno cambiato orario chiese Harry senza fiato sfrecciando davanti ai cubicoli degli Auror i maghi misero fuori la testa e li guardarono filare via Harry si sentiva come se avesse lasciato le viscere alla scrivania di Perkins non ne ho idea ma grazie al cielo siamo arrivati presto se non ti fossi presentato sarebbe stata una catastrofe il signor Weasley si bloccò davanti agli ascensori e sferrò un pugno impaziente al pulsante giù e muoviti l'ascensore arrivò sferragliando e loro corselo dentro tutte le volte che si fermava il signor Weasley imprecava con furia e colpiva più volte il pulsante del nono livello quelle aule non vengono usate da anni disse arrabbiato non riesco a capire perché la tengono laggiù a meno che ma no una strega grassa che reggeva un calice fumante salì in quel momento e il signor Weasley non concluse la frase Atrio annunciò la fredda voce femminile e le griglie si aprirono offrendo a Harry uno scorcio remoto delle statue dorate nella fontana la strega grassa scese e salì un mago con la pelle olivastra e un viso molto funereo giorno Arthur salutò con voce sepolcrale mentre l'ascensore cominciava a scendere non ti si vede spesso qua giù affari urgenti Bode rispose il signor Weasley che saltellava per l'impazienza e scoccava sguardi ansiosi a Harry ah certo disse Bode scrutando Harry senza batter ciglio naturalmente Harry non aveva voglia di preoccuparsi anche di Bode ma il suo sguardo fermo non contribuì a farlo sentire meglio ufficio misteri annunciò la fredda voce femminile e non aggiunse altro presto Harry disse il signor Weasley quando le porte si aprirono cicolando e presero a correre lungo un corridoio alquanto diverso da quelli di sopra le pareti erano spoglie non c'erano finestre né porte tranne una liscia e nera in fondo Harry si aspettava che la varcassero ma invece il signor Weasley lo prese per un braccio e lo trascinò a sinistra dove c'era un'apertura che dava su una rampa di scale giù di qua giù di qua disse ansante scendendo due gradini alla volta l'ascensore non arriva così in basso perché la tengono qui io raggiunselo la base delle scale e fecelo di corsa un altro corridoio che assomigliava moltissimo a quello che portava al sotterraneo di Piton a Hogwarts con torce appese alle pareti di pietra viva le porte che oltrepassarono erano di legno massiccio con chiavistelli e serrature di ferro aula dieci credo ci siamo quasi ecco il signor Weasley si fermò barcollando davanti a una porta scura coperta di suddiciume con un enorme chiavistello di ferro e si afflosciò contro la parete premendosi la mano al petto vai avanti disse ansimando e indicò la porta entra lei non lei non viene con no no non mi ha permesso buona fortuna il cuore di Harry tambureggiava con vehemenza contro il suo pomo da damo deglutì forte abbassò la pesante maniglia di ferro ed entrò nell'aula l'udienza Harry boccheggiò non poté farne a meno la vasta segreta in cui era entrato gli era terribilmente familiare non solo l'aveva già vista ma c'era già stato quello era il luogo che aveva visitato dentro il pensatoio di Silente il luogo in cui aveva visto i Lestrange condannati all'ergastolo ad Azkaban le pareti erano di pietra scura illuminate fiocamente da torce panche vuote si ergevano ai due lati di Harry ma di fronte sulle panche più alte c'erano molte sagome in ombra stavano parlando a bassa voce ma quando la pesante porta si chiuse dietro a Harry calò un silenzio carico di presagi una fredda voce maschile risuonò nell'aula sei in ritardo mi dispiace disse Harry nervosamente io io non sapevo che l'orario era stato cambiato non per colpa del Wiesengamot ribatté la voce ti è stato mandato un gufo questa mattina siediti al tuo posto Harry lasciò cadere lo sguardo sulla sedia al centro della stanza coi braccioli coperti di catene aveva visto quelle catene animarsi e legare chiunque prendesse posto tra loro i suoi passi echeggiarono forte attraverso il pavimento di pietra quando si sedette cautamente sull'orlo della sedia le catene tintinnarono minacciose ma non lo legarono preso da una leggera nausea guardò in su verso le persone sedute sulle panche in alto ce n'erano una cinquantina tutte per quanto riusciva a vedere indossavano una veste color prugna con una vidoppia d'argento dal ricamo elaborato sul lato sinistro del petto e tutte lo fissavano dall'alto al basso alcune con espressioni molto severe altre con sguardi di sincera curiosità al centro esatto della fila davanti sedeva Cornelius Fudge il ministro della magia Fudge era un uomo corpulento che spesso portava una bombetta verde acido anche se quel giorno ne aveva fatto a meno aveva fatto a meno anche del sorriso indulgente che un tempo esibiva quando si rivolgeva a Harry una strega corpulenta dalla mascella quadrata con i capelli grigi molto corti sedeva alla sua sinistra portava un monocolo e aveva l'aria ostile alla destra di Fudge c'era un'altra strega ma era seduta così indietro sulla panca che il suo volto rimaneva in ombra molto bene cominciò Fudge dal momento che l'accusato è presente finalmente cominciamo sei pronto? chiese rivolto verso il basso sì signore rispose una voce zelante che Harry conosceva il fratello di Ron Percy era seduto all'estremità della prima panca Harry lo guardò aspettandosi un cenno di riconoscimento che però non venne gli occhi di Percy dietro gli occhiali cerchiati di corno erano fissi sulla pergamena una penna d'oca pronta in mano udienza disciplinare del 12 agosto annunciò Fudge con voce sonora e Percy cominciò subito a prendere appunti per violazioni commesse contro il decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni e lo statuto internazionale di segretezza da Harry James Potter residente al numero 4 di Privet Drive Little Wingin Inquisitori Cornelius Oswald Fudge ministro della magia Amelia Susan Bones direttore dell'ufficio applicazione della legge sulla magia Dolores Jane Umbridge sottosegretario anziano del ministro scrivano della corte Percy Ignatius Weasley Testimone per la difesa Albus Percival Wolfric Brian Silente disse una voce pacata alle spalle di Harry che voltò la testa così in fretta che si fece male al collo Silente avanzava con serenità nell'aula sfoggiando una lunga veste blu notte e un'espressione di calma perfetta la lunga barba e i capelli d'argento scintillavano alla luce delle torce mentre si avvicinava a Harry e guardava in su verso Fudge attraverso gli occhiali a mezzaluna posati a metà del naso adunco i membri del Wiesengamot borbottarono gli occhi di tutti ora fissavano Silente alcuni sembravano seccati altri un po' spaventati due anziane streghe nella fila dietro tuttavia levarono la mano e salutarono in segno di benvenuto un'emozione potente era sorta nel petto di Harry alla vista di Silente una sensazione di forza e di speranza simile a quella che gli infondeva il canto della Fenice voleva incrociare il suo sguardo ma Silente non guardava dalla sua parte continuava a guardare in su verso un Fudge in evidente stato di agitazione ah disse Fudge che sembrava sconcertato Silente si tu hai ricevuto il nostro messaggio sul fatto che orario e luogo dell'udienza erano cambiati dunque devo essermelo perso rispose Silente allegro tuttavia a causa di un fortunato errore sono arrivato al ministero con tre ore di anticipo quindi niente di male sì beh immagino che ci servirà un'altra sedia io Weasley potresti non c'è problema non c'è problema disse Silente in tono amabile estrasse la bacchetta l'agito appena e una soffice poltrona di cinz apparve dal nulla vicino a Harry Silente si sedette unì le punte delle lunghe dita e guardò Fagge sopra di esse con un'espressione di educata curiosità il Wiesengamot stava ancora borbottando e si agitava irrequieto solo quando Fagge parlò di nuovo maghi e streghe si calmarono sì disse di nuovo Fagge sfogliando gli appunti bene allora dunque le accuse sì sfilò un foglio di pergamena dalla pila che aveva davanti trasse un profondo respiro e lesse le accuse sono le seguenti che consapevolmente deliberatamente e in piena conoscenza dell'illegalità delle sue azioni avendo ricevuto un precedente avvertimento scritto dal ministero della magia per un'accusa analoga l'imputato ha prodotto un incanto patronus in una zona abitata da babbani in presenza di un babbano il 2 agosto alle 21 e 23 ciò che costituisce violazione al decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni 1875 comma c nonché all'articolo 13 dello statuto di segretezza della confederazione internazionale dei maghi sei Harry James Potter e vivi al numero 4 di private drive little whinging sorry chiese Fagge scrutando torvo Harry da sopra la pergamena sì rispose Harry hai ricevuto una munizione scritta dal ministero per aver praticato magia illegale tre anni fa non è così sì ma eppure hai evocato un patronus la sera del 2 agosto chiese Fagge sì disse Harry ma sapendo che non ti è permesso usare la magia al di fuori della scuola fino al raggiungimento dei 17 anni sì ma sapendo di trovarti in una zona piena di babbani sì ma pienamente consapevole di essere in stretta vicinanza con un babbano in quel momento sì disse Harry irato ma l'ho usata solo perché stavamo la strega col monocolo lo interruppe con voce tonante hai prodotto un patronus completamente formato sì rispose Harry perché un patronus corporeo un cosa disse Harry il tuo patronus aveva una forma chiaramente definita voglio dire era più che semplice vapore o fumo sì disse Harry che si sentiva impaziente e vagamente disperato è un cervo è sempre un cervo sempre disse col suo vocione madame Bons hai prodotto un patronus prima d'ora sì rispose Harry lo faccio da più di un anno e hai 15 anni sì e l'hai imparato a scuola sì il professor Lupin me l'ha insegnato al terzo anno perché notevole disse madame Bons fissandolo dall'alto un vero patronus alla sua età davvero notevole alcuni maghi e streghe attorno a lei borbottarono di nuovo alcuni annuirono ma altri si incupirono e scossero il capo la questione non è quanto notevole sia stata la magia disse Fudge con voce stizzita in effetti più è impressionante peggio è direi dal momento che il ragazzo la compiuta davanti agli occhi di un babbano coloro che prima erano accigliati mormorarono in segno d'assenso ma fu la vista dell'ossequioso breve cenno di Persi che spinse Harry a parlare l'ho fatto per i dissennatori esclamò prima che qualcuno potesse interromperlo di nuovo si era aspettato altri borbottii ma il silenzio che cadde parve in qualche modo più denso dissennatori chiese madame Bons dopo un attimo le folte sopracciglia inarcate tanto che il suo monocolo parve sul punto di cadere che cosa intendi dire ragazzo intendo dire che c'erano due dissennatori lungo il vicolo e hanno aggredito me e mio cugino ah disse faggio di nuovo con uno sgradevole sorriso allusivo e guardò tutto il guisengamot come invitando il consiglio a condividere la facezia sì sì lo immaginavo che avremmo sentito qualcosa del genere dissennatori al little wing chiese madame Bons in tono di enorme sorpresa non capisco davvero amelia disse faggio sempre con quel sorrisetto compiaciuto lascia che ti spieghi ci ha riflettuto e ha deciso che i dissennatori avrebbero fornito una bella storiella come alibi molto carina davvero i babbani non possono vedere i dissennatori vero ragazzo decisamente opportuno decisamente opportuno quindi è solo la tua parola non ci sono testimoni non sto mentendo gridò Harry sovrastando un'altra esplosione di borbottii della corte ce n'erano due che venivano dalle due imboccature del vicolo è diventato tutto buio e freddo e mio cugino li ha sentiti ed è scappato basta basta intervenne faggio con un'espressione molto sdegnata sono spiacente di interrompere quella che sono certo sarebbe stata una storia assai ben costruita silente si schiarì la voce sul wisengamot cadde di nuovo il silenzio in effetti abbiamo un testimone della presenza di dissennatori in quel vicolo disse a parte Dudley Darsley voglio dire il volto grassoccio di faggio parve afflosciarsi come se qualcuno l'avesse sgonfiato scrutò silente per un attimo poi con l'aria di chi tenta di riprendere il controllo rispose non abbiamo tempo di ascoltare altre fandonie temo silente voglio che ce la sbrighiamo in fretta potrei sbagliarmi replicò silente in tono amabile ma sono certo che secondo la carta dei diritti del wisengamot l'accusato ha il diritto di presentare testimoni a suo favore non è questa la prassi dell'ufficio applicazione della legge sulla magia madame bones continuò rivolto alla strega col monocolo vero convenne madame bones assolutamente vero oh molto bene molto bene sbottò fudge dov'è questa persona l'ho portata con me rispose silente è qui fuori dalla porta devo no weasley vai tu abbaiò fudge appersi che si alzò subito scese di corsa ai gradini di pietra della balconata del giudice e passò frettoloso davanti a silente harry senza degnarli di uno sguardo un attimo dopo persi tornava seguito dalla signora fig sembrava spaventata e più svitata che mai harry avrebbe voluto che si fosse cambiata le pantofole di feltro silente si alzò e cedette la poltrona alla signora fig evocandone un'altra per sé nome completo chiese fudge quando la signora fig si fu appollaiata nervosamente sull'orlo della poltrona arabella dorine fig rispose la signora fig con la sua voce tremula e chi è lei di preciso chiese fudge in tono annoiato e altero sono un abitante di little wing sto vicino a harry potter rispose la signora fig fig non abbiamo traccia di maghi o streghe che abitino a little wing a parte harry potter intervenne madame bones la situazione è sempre stata attentamente tenuta sotto controllo dati dati gli eventi del passato sono una maga no disse la signora fig quindi non mi avete censita vero una maga no ripetè fudge scrutandola sospettoso controlleremo lasci i dettagli della sua ascendenza al mio assistente weasley per inciso i maghi no sono in grado di vedere i dissenatori aggiunse guardando alla sua destra e poi a sinistra sì che possiamo esclamò la signora fig indignata fudge tornò a guardarla dall'alto le sopracciglia inarcate molto bene disse distaccato qual è la sua versione ero uscita a comprare del cibo per gatti al negozio all'angolo in fondo a wisteria walk erano circa le nove la sera del 2 agosto borbottò la signora fig subito come se avesse imparato a memoria quello che stava dicendo quando ho sentito un rumore nel vicolo che unisce magnolia crescent a wisteria walk mi sono avvicinata all'imbocco del vicolo e ho visto dei dissenatori che correvano che correvano intervenne madame bones in tono aspro i dissenatori non corrono scivolano era quello che intendevo dire aggiunse in fretta la signora fig e macchie rosse le apparvero sulle guance avvizzite che scivolavano lungo il vicolo verso quelli che sembravano due ragazzi che aspetto avevano chiese madame bones stringendo gli occhi tanto che l'orlo del monocolo scomparve nella carne ben uno uno era molto grosso e l'altro molto magro no no disse madame bones impaziente i dissenatori li descriva oh oh morborò la signora fig mentre il rossore le si propagava al collo erano grossi grossi e portavano il mantello Harry provò una terribile sensazione di vuoto alla bocca dello stomaco qualunque cosa potesse dire la signora fig gli pareva che al massimo avesse visto un'immagine di un dissenatore e un'immagine non avrebbe mai potuto rivelare com'erano davvero quegli esseri il modo strano di muoversi aleggiando a qualche centimetro da terra o il loro odore di putrefazione o quel terribile rumore metallico che facevano quando risucchiavano l'aria tutto intorno nella seconda fila un mago tarchiato con i baffoni neri si chinò verso la vicina una strega con i capelli crespi per sussurrarle qualcosa all'orecchio la strega fece un sorrisetto e a noi grossi e portavano il mantello ripete madame bons gelida e fudge sbuffò beffardo capisco nient'altro si disse la signora fig li ho sentiti tutto è diventato freddo ed era una sera molto calda d'estate sapete e mi sono sentita come se tutta la felicità fosse sparita dal mondo e ho ricordato cose terribili la sua voce si spezzò e si spense gli occhi di madame bons si dilatarono appena harry vide i segni rossi sotto il sopracciglio dove il monocolo aveva scavato un solco che cosa hanno fatto i dissenatori chiese harry provò un moto di speranza hanno aggredito i ragazzi disse la signora fig con voce più forte e sicura mentre il rossore le defluiva dal viso uno di loro era caduto l'altro indietreggiava cercando di respingere il dissenatore era harry ha provato due volte ma ha fatto solo del vapore d'argento al terzo tentativo ha prodotto un patronus che ha cacciato il primo dissenatore e poi su esortazione di harry ha cacciato via il secondo da suo cugino e questo questo è quel che è successo concluse la signora fig debolmente madame bons guardò la signora fig in silenzio fudge non la guardava affatto ma giocherellava con le sue carte infine alzò gli occhi e chiese in tono piuttosto aggressivo questo è ciò che ha visto vero questo è quel che è successo ripete la signora fig molto bene disse fudge può andare la signora fig lanciò uno sguardo spaventato da fudge a silente poi si alzò e strascicando i piedi si avviò verso la porta harry laudì chiudersi con un tonfo alle sue spalle un testimone non molto convincente commentò fudge sprezzante oh non saprei ribatté madame bons con la sua voce tonante certo ha descritto con molta precisione gli effetti dell'attacco di un dissenatore e non riesco a immaginare perché dovrebbe dire che c'erano se non c'erano dissenatori che vagano in un soborgo babbano e per caso incrociano un mago sbuffò fudge le probabilità devono essere molto molto scarse nemmeno bugman avrebbe scommesso io penso che nessuno di noi creda che i dissenatori fossero lì per caso intervenne silente in tono leggero la strega seduta alla destra di fudge quella con il volto in ombra si mosse appena ma tutti gli altri rimasero immobili e silenziosi e questo cosa vorrebbe dire chiese fudge gelido vuol dire che io credo che abbiano ricevuto l'ordine di andare laggiù disse silente ci sarebbe traccia nei registri se qualcuno avesse ordinato a una coppia di dissenatori di andare a passeggio a little winging abbaiò fudge non se i dissenatori di questi tempi prendono ordini da qualcuno che non è il ministero della magia replicò silente tranquillo ti ho già esposto le mie opinioni in proposito cornelius sì è vero rispose fudge accalorandosi e io non ho ragione di credere che le tue opinioni siano altro che sciocchezze silente i dissenatori stanno al loro posto ad azkaban e fanno tutto ciò che chiediamo loro di fare allora disse silente sempre calmo ma incalzante dobbiamo chiederci perché qualcuno all'interno del ministero ha ordinato a una coppia di dissenatori di andare in quel vicolo il 2 di agosto nel completo silenzio che accolse queste parole la strega alla destra di fudge si chinò in avanti e erri la vide per la prima volta gli ricordò un grosso pallido rospo era tozza con la faccia larga e vizza il collo corto come quello di zio vernon e la bocca molto grande e molle aveva gli occhi grandi tondi e un po' sporgenti perfino il fiocchetto di velluto nero in equilibrio in cima ai corti capelli ricci gli fece pensare a una mosca che lei stesse per catturare con la lingua lunga e appiccicosa la presidenza dà la parola dolores jane humbridge sottosegretario anziano del ministro annunciò fudge la strega parlò con una voce eccitata da bambina acutissima che colse erri di sorpresa si era aspettato un gracidio sono certa di averla fraintesa il professor silente disse con un sorriso lezioso che lasciò freddi i suoi occhioni rotondi che sciocca ma per un brevissimo istante mi è parso che lei suggerisse che il ministero della magia avrebbe ordinato di aggredire questo ragazzo scoppiò in una risata argentina che fece rizzare i peli sulla nuca di erri alcuni altri membri del wisengamot risero con lei non avrebbe potuto essere più evidente che nessuno era davvero divertito se è vero che i dissennatori prendono ordini solo dal ministero della magia e se è anche vero che due dissennatori hanno aggredito erri e suo cugino la settimana scorsa ne consegue logicamente che qualcuno al ministero deve aver dato ordine di aggredirli disse silente in tono educato naturalmente questi particolari dissennatori potrebbero essere fuori dal controllo del ministero non ci sono dissennatori fuori dal controllo del ministero sbottò faggio diventato rosso mattone silente piegò il capo in un breve inchino allora sicuramente il ministero condurrà un'indagine approfondita per scoprire perché due dissennatori erano così lontani da azgaban e perché hanno attaccato senza autorizzazione non sta a te decidere che cosa fa o non fa il ministero della magia silente esplose faggio ormai di una sfumatura rosso violetto da fare invidia a zio vernon certo che no convenne silente in tono mite stavo solo esprimendo la mia fiducia sul fatto che questa faccenda non resterà senza accertamenti guardò madame bons che si riassestò il monocolo e rispose allo sguardo un po' accigliata vorrei ricordare a tutti che il comportamento di questi dissennatori se in vero non sono frutto dell'immaginazione di questo ragazzo non è l'argomento di questa audienza esclamò faggio siamo qui per prendere in esame le violazioni di harry potter al decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni certo disse silente ma la presenza di dissennatori in quel vicolo è di enorme rilevanza l'articolo 7 del decreto stabilisce che la magia può essere usata davanti a babbani in circostanze eccezionali e queste circostanze eccezionali comprendono situazioni che minaccino la vita del mago o della strega stessi o qualsivoglia strega mago o babbano presente al momento del conosciamo l'articolo 7 grazie mille ringhiò faggio ma certo disse silente o sequioso allora conveniamo che le circostanze in cui harry ha usato l'incanto patronus rientrano precisamente nella categoria che l'articolo descrive come eccezionali se c'erano dei dissennatori cosa di cui dubito l'hai sentito dire da un testimone oculare ribatté silente se ancora dubiti della sua sincerità richiamala interrogalo di nuovo sono certo che non farà obiezioni io che non inveì faggio trafficando con i documenti che aveva davanti eh voglio chiudere oggi silente ma naturalmente non ti importerà quante volte interroghi un testimone pur di evitare un grave errore giudiziario disse silente un grave errore i miei stivali urlò faggio con la voce al massimo volume hai mai fatto il conto del numero di panzane che questo ragazzo si è inventato silente per cercare di coprire i suoi flagranti abusi di magia fuori dalla scuola immagino che tu abbia dimenticato l'incantesimo di liberazione che ha usato tre anni fa non sono stato io è stato un elfo domestico protestò Harry visto ruggì faggi indicando Harry con un gesto teatrale un elfo domestico in una casa babbana sentiamo l'elfo domestico in questione è al momento un dipendente della scuola di Hogwarts disse silente posso convocarlo qui in un attimo a testimoniare se lo desideri io non ho tempo di stare ad ascoltare degli elfi domestici comunque non è la sola ha gonfiato sua zia per l'amor di dio urlò Fudge pestando il pugno sul banco del giudice e rovesciando una boccetta di inchiostro e tu molto gentilmente non muovesti accuse in quell'occasione ammettendo suppongo che anche i maghi migliori non riescono sempre a controllare le emozioni osservò silente calmo mentre Fudge cercava di pulire l'inchiostro dai suoi appunti e non ho nemmeno cominciato a elencare quello che combina a scuola ma poiché il ministero non ha l'autorità di punire gli studenti di Hogwarts per infrazioni commesse a scuola il comportamento di Harry lassù non è rilevante per questa audienza disse silente educato come sempre ma ora con una punta di freddezza ho ho sbottò Fudge quello che fa a scuola non sono affari nostri la pensi così il ministero non ha il potere di espellere gli studenti da Hogwarts Cornelius come ti ho ricordato la sera del 2 agosto disse silente né hai il diritto di confiscare bacchette finché le accuse non sono state pienamente provate come ti ho ricordato sempre la sera del 2 agosto nella tua ammirevole fretta di assicurare che le leggi siano rispettate pare che certamente senza volerlo tu stesso ne abbia trascurata qualcuna le leggi si possono cambiare replicò Fudge in tono feroce ma certo convenne silente chinando il capo e sembra proprio che tu sia impegnato a compiere molti cambiamenti Cornelius insomma nelle poche settimane da quando mi è stato chiesto di lasciare il Wisen Gamot è già diventato uso corrente tenere un vero e proprio processo criminale per un semplice caso di magia minorile alcuni dei maghi sopra di loro si agitarono imbarazzati nei loro banchi Fudge divenne di una sfumatura color pulce un po' più intensa la strega con la faccia di rospo alla sua destra si limitò a scrutare silente con volto inespressivo a quanto ne so continuò silente non esiste ancora una legge che dice che è compito di questa corte punire Harry per ogni magia che ha compiuto gli è stata mossa un'accusa precisa e lui ha presentato la sua difesa tutto ciò che io e lui possiamo fare ora è aspettare il vostro verdetto silente congiunse di nuovo le punte delle dita e non disse altro Fudge lo guardò furente chiaramente esasperato Harry scoccò uno sguardo in tralice a silente in cerca di rassicurazioni non era affatto certo che fosse il caso di dire a Louis and Gamot in effetti che era ora di prendere una decisione ma silente parve ancora ignorare Harry e continuò a guardare in su verso le panche dove l'intero Louis and Gamot era immerso in una concitata discussione a bassa voce Harry si guardò i piedi il suo cuore che sembrava essersi dilatato fino a dimensioni innaturali batteva forte sotto le costole si sarebbe aspettato che l'udienza durasse di più non era per niente sicuro di aver fatto una buona impressione non aveva detto molto in verità avrebbe dovuto spiegare meglio la storia dei dissennatori che era caduto che sia lui sia Dudley erano quasi stati baciati due volte alzò lo sguardo verso Fudge e aprì la bocca per parlare ma il cuore gonfio gli bloccava le vie respiratorie ed entrambe le volte sospirò profondamente e tornò a guardarsi le scarpe poi il bisbiglio cessò Harry voleva guardare in su verso i giudici ma scoprì che era molto molto più facile davvero continuare a studiarsi i lacci quanti sono per la soluzione dell'imputato da tutte le accuse chiese la voce tonante di Madame Bons la testa di Harry scattò in su c'erano delle mani alzate tante più della metà respirando molto in fretta cercò di contarle ma prima che riuscisse a finire Madame Bons domandò e quanti sono per la condanna Faj alzò la mano così fecero una mezza dozzina di altri presenti compresi la strega alla sua destra il mago baffuto e la strega coi capelli crespi in seconda fila Faj guardò tutti quanti con l'aria di che ha qualcosa di grosso incastrato in gola poi abbassò la mano trasse due respiri profondi e annunciò con voce deformata dalla rabbia repressa molto bene molto bene assolto perfetto commentò silente sbrigativo scattò in piedi estrasse la bacchetta e fece sparire le due poltrone di cinz beh devo andare buona giornata a tutti e senza neanche un'occhiata a Harry uscì con aria altera dal sotterraneo le pene della signora Weasley la brusca partenza di Silente colse Harry del tutto di sorpresa rimase seduto dov'era nella sedia con le catene lottando con i propri sentimenti di spavento e sollievo tutti i membri del Wiesengamot si stavano alzando parlavano raccoglievano le loro carte Harry si alzò nessuno parve rivolgergli la minima attenzione tranne la strega che assomigliava a un rospo alla destra di Faj che adesso fissava lui come prima fissava Silente ignorandola cercò di incrociare lo sguardo di Faj o di Madame Bones per chiedere se era libero di andare ma Faj sembrava ben deciso a non notarlo e Madame Bones era occupata con la sua valigetta così lui mosse qualche passo esitante verso l'uscita e quando nessuno lo richiamò camminò più in fretta salì gli ultimi gradini di corsa spalancò la porta e quasi urtò contro il signor Weasley che era lì fuori pallido e preoccupato Silente non mi ha detto assolto annunciò Harry chiudendosi la porta alle spalle da tutte le accuse con un gran sorriso il signor Weasley lo prese per le spalle Harry è meraviglioso beh naturalmente non potevano trovarti colpevole non sulla base delle prove tuttavia non posso nascondere di essere stato ma il signor Weasley si interruppe perché la porta dell'aula si era appena riaperta i Weasengamot stavano uscendo per la barba di Merlino esclamò il signor Weasley stupefatto e trasse da parte Harry per lasciarli passare tutti sei stato giudicato dalla corte plenaria credo di sì rispose Harry sottovoce uno o due maghi fecero un cenno a Harry passando e qualcuno tra cui Madame Bons disse giorno Arthur al signor Weasley ma la gran parte distolse lo sguardo Cornelius Fudge e il rospo furono tra gli ultimi a uscire dalla segreta Fudge si comportò come se il signor Weasley e Harry facessero parte del muro ma di nuovo la strega guardò Harry come per valutarlo l'ultimo fu persi come Fudge ignorò del tutto suo padre Harry passò loro davanti stringendo un grosso rotolo di pergamena e una manciata di penne d'oca di riserva la schiena rigida e il naso per aria le rughe attorno alla bocca del signor Weasley si rigidirono appena ma a parte questo non diede altro segno di aver visto il suo terzo figlio ti riporto subito indietro così potrai dare agli altri la bella notizia disse facendo cenno a Harry di muoversi non appena i tacchi di persi furono spariti superi gradini che portavano al nono livello ti accompagno e poi vado a vedere quel bagno a Bethnal Green andiamo e che cosa farà per il bagno chiese Harry con un ghigno all'improvviso tutto sembrava cinque volte più buffo del solito cominciava a rendersene conto era stato scagionato sarebbe tornato a Hogwarts è una controfattura abbastanza semplice rispose il signor Weasley mentre salivano le scale ma non è tanto dover riparare il danno è più l'atteggiamento che sta dietro i vandalismi Harry tormentare i babbani può anche sembrare divertente ad alcuni maghi ma è espressione di qualcosa di molto più profondo e malvagio e io per si interruppe a metà frase erano appena arrivati al corridoio del nono livello e Cornelius Fudge era a qualche metro da loro a parlare piano con un mago alto con lisci capelli biondi e un viso pallido e affilato il mago si voltò al suono dei loro passi anche lui si interruppe i suoi freddi occhi grigi si strinsero e puntarono sul viso di Harry bene 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 patronus potter disse Lucius Malfoy in tono gelido Harry si sentì mozzare il fiato come se avesse appena sbattuto contro qualcosa di duro l'ultima volta che aveva visto quei freddi occhi grigi era stato attraverso le fessure di un cappuccio da mangiamorte e l'ultima volta che aveva sentito la voce beffarda di quell'uomo era stato in un cupo cimitero mentre Lord Voldemort lo torturava Harry non riusciva a credere che Lucius Malfoy osasse guardarlo in faccia non riusciva a credere che fosse lì al ministero della magia o che Cornelius Fudge stesse parlando con lui quando solo qualche settimana prima Harry aveva detto a Fudge che Malfoy era un mangiamorte il ministro mi stava giusto raccontando che te la sei cavata potter proseguì con voce strascicata il signor Malfoy davvero stupefacente come continui a strisciar fuori dai buchi più stretti serpentesco in effetti il signor Weasley strinse la spalla di Harry in segno d'avvertimento sì disse Harry sono bravo a cavarmela Lucius Malfoy alzò lo sguardo sul signor Weasley e c'è anche Arthur Weasley che cosa fai qui Arthur io lavoro qui rispose il signor Weasley brusco non qui vero disse il signor Malfoy alzando le sopracciglia e scoccando un'occhiata alla porta oltre la spalla del signor Weasley credevo che stessi su al secondo livello non fai qualcosa tipo portarti a casa di nascosto dei manufatti babbani e stregarli no sbottò il signor Weasley con le dita affondate nella spalla di Harry e lei che cosa ci fa qui invece chiese Harry a Lucius Malfoy non credo che gli affari privati tra me e il ministero siano fatti tuoi Potter disse Malfoy lisciandosi la veste sul petto Harry sentì chiaramente il dolce tintinio di quella che sembrava una tascata d'oro davvero solo perché sei il cocco di Silente non devi aspettarti la stessa indulgenza da tutti noi andiamo su nel tuo ufficio allora Fudge certo rispose il ministro voltando le spalle a Harry e al signor Weasley da questa parte Lucius si allontanarono insieme parlando a bassa voce il signor Weasley non lasciò andare la spalla di Harry finché non furono scomparsi nell'ascensore perché non stava aspettando fuori dall'ufficio di Fudge se hanno degli affari da sbrigare insieme esplose Harry furioso che cosa ci fa qua giù cercava di intrufolarsi nell'aula secondo me disse il signor Weasley agitatissimo si guardò alle spalle come per essere certo che nessuno lo sentisse per scoprire se eri stato espulso o no lascerò un biglietto per Silente quando ti accompagnerò a casa deve sapere che Malfoy ha parlato di nuovo con Fudge e comunque che razza di faccende private hanno in comune oro immagino rispose il signor Weasley con rabbia Malfoy fa da anni generose donazioni per ogni sorta di cose così incontra le persone giuste e poi può chiedere favori ritardare leggi che non vuole oh ha un sacco di contatti utili Lucius Malfoy l'ascensore arrivò era vuoto a parte una flottiglia di promemoria che svolazzarono attorno alla testa del signor Weasley che li allontanò con la mano irritato e premette il bottone per l'atrio le porte si chiusero con un tonfo signor Weasley disse eri lentamente se Fudge incontra dei mangiamorte come Malfoy e li incontra da solo come facciamo a sapere che non gli hanno scagliato una maledizione Imperius non credere che non ci abbiamo pensato bisbigliò il signor Weasley ma silente e convinto che Fudge agisca di sua volontà per ora il che come dice lui non è molto consolante adesso è meglio non parlarne più Harry le porte si aprirono e i due uscirono nell'atrio ormai quasi deserto Eric il guardiamago era di nuovo nascosto dietro la sua gazzetta del profeta avevano appena superato la fontana d'oro quando Harry ricordò aspetti disse al signor Weasley estrasse dalla tasca la borsa del denaro e tornò alla fontana guardò in su il bel volto del mago ma da vicino lo trovò scialbo e un po' insulso la strega aveva un sorriso svaporato da concorso di bellezza e per quello che Harry sapeva di Goblin e Centauri era alquanto improbabile che li si potesse sorprendere a guardare in modo così svenevole qualunque genere di umani solo l'atteggiamento di strisciante servilismo dell'elfo domestico era convincente con un sorriso al pensiero di quello che avrebbe detto Ermione se avesse visto la statua dell'elfo Harry rovesciò la borsa vuotando nella vasca non solo dieci galeoni ma tutto il suo contenuto lo sapevo urlò Ron scagliando i pugni in aria te la cavi sempre dovevano assolverti disse Ermione che si stava consumando dalla preoccupazione quando Harry era entrato in cucina e ora teneva una mano tremante sugli occhi non c'erano argomenti contro di te nessuno sembrate tutti piuttosto sollevati però considerando che sapevate già che ce l'avrei fatta osservò Harry sorridendo la signora weasley si asciugò il volto nel grembiule e Fred George e Ginny si diedero a una sorta di danza di guerra cantando ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta basta urlò il signor weasley ma sorrideva anche lui ascolta Sirius Lucius Malfoy era al ministero che cosa domandò Sirius ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta zitti voi tre sì l'abbiamo visto parlare con Fudge al nono livello poi sono saliti insieme nell'ufficio di Fudge Silente deve saperlo assolutamente disse Sirius glielo diremo non ti preoccupare beh meglio che vada c'è un bagno rigurgitante che mi aspetta Betnal Green Molly tornerò tardi faccio il turno di Tonks ma può darsi che Kingsley venga a cena ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta adesso basta Fred George Ginny ordinò la signora Weasley mentre suo marito usciva dalla cucina Harry caro vieni a sederti mangia qualcosa non hai mangiato niente a colazione Ron e Hermione si sedettero davanti a lui felici come mai da quando era arrivato in Grimmauld Place e la sensazione di vertiginoso sollievo di Harry che in qualche modo era stata intaccata dall'incontro con Lucio Smalfoy si dilatò di nuovo la tetra casa sembrava all'improvviso più calda e più accogliente perfino Kreacher parve meno brutto quando infilò il naso a grugno in cucina per indagare sulla fonte di tutto quel fracasso certo quando Silente è comparso al tuo fianco figuriamoci se ti condannavano disse Ron allegramente distribuendo mucchi di purè di patate in tutti i piatti sì è stato decisivo ammise Harry sentiva che sarebbe stato profondamente ingrato per non dire infantile aggiungere vorrei che mi avesse parlato però o almeno che mi avesse guardato e nel pensarlo la cicatrice sulla fronte bruciò così forte che lui dovette battervi sopra una mano che cosa succede chiese Hermione preoccupata la cicatrice borbottò Harry ma non è niente succede di continuo ormai nessuno degli altri si era accorto di nulla tutti si stavano servendo e gongolavano per la soluzione di Harry Fred, George e Ginny continuavano a cantare Hermione era piuttosto agitata ma prima che riuscisse a dire qualcosa Ron intervenne allegramente scommetto che Silente stasera viene a festeggiare con noi non credo che ce la farà Ron disse la signora Weasley posando un enorme piatto di pollo arrosto davanti a Harry al momento è davvero molto occupato ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta silenzio rugì la signora Weasley nei giorni che seguirono Harry non pote fare a meno di notare che una persona al numero 12 di Grimaule Place non sembrava proprio sopraffatta dalla gioia al pensiero che lui sarebbe tornato a Hogwarts Sirius aveva ostentato una più che credibile pervenza di felicità alla notizia aveva stretto la mano a Harry e aveva fatto dei gran sorrisi come tutti gli altri ben presto tuttavia divenne più scontroso e corrucciato che mai parlava meno con tutti Harry compreso e passava sempre più tempo chiuso nella stanza di sua madre con fiero becco non vorrai sentirti in colpa esclamò Hermione con fermezza quando Harry confidò le sue sensazioni a lei e Ron mentre ripulivano un armadio ammuffito al terzo piano qualche giorno dopo tu appartieni a Hogwarts e Sirius lo sa personalmente credo che si comporti da egoista sei un po' dura Hermione disse Ron accigliato tentando di grattar via un po' di muffa che gli si era appiccicata al dito neanche tu vorresti stare rinchiusa in questa casa senza compagnia ma lui ce l'avrà la compagnia ribatte Hermione è il quartier generale dell'ordine della Fenice no? solo che sperava che Harry sarebbe venuto a vivere qui con lui non credo obiettò Harry strizzando il suo straccio non mi ha dato una risposta chiara quando gli ho chiesto se potevo perché non voleva illudersi disse Hermione saggia e probabilmente si sentiva anche lui un po' in colpa perché ho l'impressione che una parte di lui si augurasse davvero che tu venissi espulso così sareste stati dei reietti tutti e due ma andiamo dissero Harry e Ron in coro Hermione si limitò a scrollare le spalle come credete però a volte penso che la mamma di Ron abbia ragione e che Sirius faccia un po' di confusione fra te e tuo padre Harry cioè credi che sia un po' tocco? chiese Harry infiammandosi no credo soltanto che sia rimasto troppo solo troppo a lungo rispose Hermione con semplicità a questo punto la signora Weasley entrò nella stanza non avete ancora finito? chiese infilando la testa nell'armadio credevo che fossi venuta a dirci di fare una pausa protestò Ron amareggiato lo sai quanta buffa abbiamo tolto da quando siamo qui? eravate così entusiasti di aiutare l'ordine osservò la signora Weasley potete fare la vostra parte rendendo abitabile il quartier generale mi sento come un elfo domestico brontolor Ron beh adesso che capisci quanto è terribile la loro vita forse ti darai un po' più da fare per il crepa disse Hermione speranzosa mentre la signora Weasley li lasciava sai forse non sarebbe una cattiva idea mostrare esattamente alla gente com'è tremendo dover pulire di continuo potremmo fare una pulizia sponsorizzata della sala comune di Grifondoro e destinare i proventi al crepa questo potrebbe accrescere la conoscenza del problema oltre che i fondi io ti sponsorizzo se non parli più del crepa borbottò Ron irritato ma piano in modo che solo Harry lo potesse sentire Harry si scoprì a fantasticare su Hogwarts sempre più spesso via via che si avvicinava la fine delle vacanze non vedeva l'ora di ritrovare Hagrid di giocare a Quidditch perfino di passeggiare tra gli orti verso le serre di erbologia sarebbe stata una festa solo lasciare quella casa polverosa e muffita dove metà degli armadi erano ancora sprangati e nell'ombra Critcher si bilava insulti anche se Harry stava bene attento a non lasciare indovinare questi suoi sentimenti a Sirius il fatto era che vivere al quartier generale del movimento anti-Voldemort non era neanche lontanamente così eccitante quanto Harry si sarebbe aspettato anche se i membri dell'ordine della Fenice andavano e venivano regolarmente e a volte si fermavano per i pasti o per scambiare informazioni sottovoce la signora Weasley faceva in modo che Harry e gli altri fossero tenuti accuratamente fuori tiro d'orecchio oblungo o normale e nessuno nemmeno Sirius pareva credere che Harry avesse bisogno di sapere qualcosa di più di quello che aveva sentito la notte del suo arrivo l'ultimo giorno delle vacanze Harry stava spazzando le cacche di Edwige dalla cima dell'armadio quando Ron entrò con un paio di buste sono arrivate le liste dei libri disse gettandone una a Harry che era in piedi su una sedia era ora credevo che si fossero dimenticati di solito arrivano molto prima Harry buttò le ultime cacche in un sacchetto della spazzatura e lo scagliò oltre la testa di Ron nel cestino nell'angolo che lo indiottì e fece un gran rutto poi aprì la sua lettera conteneva due fogli di pergamena uno era il solito avviso che la scuola cominciava il primo settembre l'altro elencava i libri per il nuovo anno solo due nuovi disse leggendo la lista manuale degli incantesimi volume quinto di Miranda Goshock e teoria della magia difensiva di Wilbert Slinkard crack Fred e George si materializzarono proprio accanto a Harry ormai c'era così abituato che non cadde nemmeno dalla sedia ci stavamo chiedendo chi ha scelto il libro di Slinkard disse Fred perché significa che Silente ha trovato un nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure continuò George era anche ora buttò lì Fred perché chiese Harry saltando giù dalla sedia beh abbiamo origliato con le orecchie oblunghe mentre la mamma e il papà parlavano qualche settimana fa rispose Fred e a sentir loro Silente ha avuto serie difficoltà a trovarne uno quest'anno non c'è da stupirsi se pensi a che cosa è successo agli ultimi quattro no? disse George uno licenziato uno morto uno con la memoria rimossa e uno chiuso in un baule per nove mesi Harry li contò sulle dita sì capisco cosa hai Ron? chiese Fred Ron non rispose Harry si voltò l'amico era assolutamente immobile con la bocca un po' aperta e fissava la sua lettera da Hogwarts cosa succede? chiese Fred impaziente e si avvicinò a Ron per guardare la pergamena da sopra la sua spalla anche la bocca di Fred si spalancò prefetto disse guardando incredulo la lettera prefetto? George fece un balzo in avanti afferrò la busta dall'altra mano di Ron e la rovesciò Harry vide qualcosa di dorato e scarlatto cadere nel palmo di George impossibile mormorò George con voce soffocata c'è stato un errore disse Fred sfilando la lettera dalla presa di Ron e tenendola contro luce come per controllare la filigrana nessuno col cervello a posto sceglierebbe Ron come prefetto le teste dei gemelli si voltarono insieme ed entrambi fissarono Harry pensavamo che tu fossi una certezza disse Fred come se Harry li avesse in qualche modo ingannati credevamo che Silente dovesse scegliere te esclamò George indignato dopo che hai vinto il tre maghi e tutto aggiunse Fred forse la storia della pazzia ha pesato contro di lui disse George a Fred si convenne Fred dopo un po' si ti sei cacciato in troppi guai amico beh almeno uno di voi sa quali sono le cose importanti nella vita andò da Harry e gli diede una gran pacca sulla schiena lanciando a Ron uno sguardo pungente prefetto Ronnino il prefettino oh la mamma sarà rivoltante gemette George gettando la spilla a Ron come se fosse infetta Ron che non aveva ancora detto una parola la fissò per un momento poi la tese a Harry come cercando una muta conferma della sua autenticità Harry la prese una grossa P era sovrapposta al leone di Grifondoro aveva visto una spilla identica sul petto di Percy il suo primo giorno a Hogwarts la porta si aprì con violenza Hermione entrò di corsa le guance arrossate e i capelli svolazzanti aveva in mano una busta hai ti è arrivata vide la spilla in mano a Harry ed emise uno strilletto lo sapevo esclamò eccitata brandendo la sua lettera anch'io Harry anch'io no rispose Harry in fretta premendo di nuovo la spilla nella mano di Ron e Ron non sono io e che cosa Ron è prefetto non io disse Harry Ron Hermione spalancò la bocca ma sei sicuro voglio dire diventò rossa mentre Ron la guardava con aria di sfida c'è il mio nome sulla lettera disse io mormorò Hermione sconcertata io beh wow bravo Ron è davvero inaspettato concluse George annuendo no disse Hermione più rossa che mai no non lo è Ron ha fatto un sacco di è veramente la porta si aprì di nuovo e la signora Weasley entrò di spalle nella stanza con una pila di abiti appena lavati e stirati fra le braccia Ginny mi ha detto che finalmente sono arrivate le liste dei libri disse guardando le buste mentre raggiungeva il letto e cominciava a dividere i vestiti in due pile se le date a me le porto a diagonale e oggi pomeriggio e vi prendo i libri mentre voi fate i bagagli Ron dovrò comprarti altri pigiami questi sono troppo corti di almeno 15 centimetri è incredibile come stai crescendo in fretta che colore ti piacerebbe prendigli li rossi e oro così si intonano alla spilla suggerì George con un sorrisetto maligno si intonano a cosa chiese la signora Weasley distrattamente arrotolando un paio di calzini bordeaux e sistemandoli sulla pila di Ron alla sua spilla disse Fred con il tono di chi vuole che il peggio passi in fretta la sua deliziosa splendente nuova spilla da prefetto ci volle un momento perché le parole di Fred facessero breccia nella mente della signora Weasley concentrata sui pigiami la sua ma Ron non sei Ron mostrò la spilla la signora Weasley emise uno strillo identico a quello di Ermione non ci credo non ci credo oh Ron è meraviglioso prefetto come tutti in famiglia io e Fred chi siamo i vicini della porta accanto disse George indignato ma sua madre lo spinse da parte e gettò le braccia attorno al più piccolo dei suoi maschi aspetta che lo sappia tuo padre Ron sono così fiera di te che notizia meravigliosa potresti diventare caposcuola come Bill e Percy è il primo passo oh che bella cosa tra tutti questi pensieri sono emozionata oh Ronnie Fred e George facevano finta di vomitare e forte alle sue spalle ma la signora Weasley non se ne accorse con le braccia strette attorno al collo di Ron gli baciava tutta la faccia che era diventata più rossa della spilla mamma non mamma controllati balbettò lui cercando di allontanarla lei lo lasciò andare e disse senza fiato beh che cosa vuoi a Percy avevamo regalato un gufo ma tu ce l'hai già che cosa vuoi dire chiese Ron come se non osasse credere alle proprie orecchie ti meriti un premio disse la signora Weasley in tono affettuoso che cosa ne dici di un bel po' di vestiti nuovi gliel'abbiamo già comprati noi intervenne Fred in tono acido quasi rimpiangendo quell'atto di generosità o un calderone nuovo quello vecchio di Charlie è tutto arrugginito o un topo nuovo ti piaceva crosta mamma disse Ron speranzoso posso avere una scopa nuova l'espressione gioiosa della signora Weasley si attenuò lievemente le scope erano care non una bella si affrettò ad aggiungere Ron solo solo una nuova per una volta la signora Weasley esitò poi sorrise ma certo beh è meglio che mi muova se devo comprare anche una scopa ci vediamo più tardi il piccolo Ronnie prefetto e non dimenticate di fare i bauli prefetto sono tutta un tremito diede a Ron un altro bacio sulla guancia tirò su forte col naso e uscì agitata Fred e George si scambiarono uno sguardo non ti dispiace se non ti baciamo Ron chiese Fred con voce falsamente preoccupata possiamo inchinarci se vuoi aggiunse George oh piantatela rispose Ron guardandoli torvo se no disse Fred con un ghigno perfido che si allargava sul suo viso ci vuoi mettere in castigo vorrei proprio vedere ridacchiò George può anche farlo se non state attenti intervenne Ermione arrabbiata Fred e George scoppiarono a ridere e Ron borbottò lascia perdere Ermione dovremo stare attenti George disse Fred fingendo di tremare con questi due alle costole sì sembra proprio che i nostri giorni da fuori legge siano giunti all'epilogo commentò George scuotendo il capo e con un altro sonoro crack i gemelli si smaterializzarono quei due esclamò Ermione furibonda fissando il soffitto attraverso il quale si sentivano Fred e George in preda alle risate nella stanza di sopra non badarci Ron sono solo invidiosi non credo disse Ron dubbioso guardando a sua volta il soffitto hanno sempre detto che solo gli stupidi diventano prefetti però aggiunse in tono più allegro loro non hanno mai avuto delle scope nuove vorrei poter andare con la mamma a sceglierla non potrà mai permettersi un animbus ma è uscita la nuova tornado sarebbe magnifico sì credo che andrò a dirle che mi piace la tornado così perché lo sappia e schizzò via lasciando Harry e Ermione soli per qualche motivo Harry scoprì di non aver voglia di guardare Ermione si voltò verso il suo letto raccolse la pila di abiti puliti che la signora Weasley vi aveva posato e attraversò la stanza diretto al suo baule Harry fece Ermione incerta complimenti Ermione disse Harry con una voce così affabile che non suonò affatto come la sua e aggiunse sempre senza guardarla brava prefetto grandioso grazie disse Ermione Harry mi presti Edvige così lo dico alla mamma e a papà saranno contenti insomma prefetto è una cosa che possono capire sì non c'è problema disse Harry sempre con lo stesso orrendo tono cordiale che non gli apparteneva prendila pure si chinò sul baule posò i vestiti sul fondo e finse di cercare qualcosa mentre Ermione andava all'armadio e chiamava Edvige passarono alcuni istanti Harry udì la porta chiudersi ma rimase piegato in ascolto gli unici rumori venivano dal quadro vuoto sulla parete che ridacchiava di nuovo e dal cestino della carta straccia nell'angolo che tossiva soffocato dalle cacche di civetta si rialzò e si guardò alle spalle Ermione era uscita Edvige era sparita tornò a passi lenti al suo letto e vi sprofondò fissando assorto i piedi dell'armadio si era completamente dimenticato che i prefetti vengono scelti al quinto anno era troppo afflitto dalla possibilità di essere espulso per dedicare un solo pensiero al fatto che le spille dovevano essere in viaggio ma se l'avesse ricordato se ci avesse pensato che cosa si sarebbe aspettato non questo disse una vocina sincera dentro la sua testa Harry contrasse il volto e lo seppellì fra le mani non poteva mentire a se stesso se avesse saputo che la spilla stava per arrivare si sarebbe aspettato che toccasse a lui non a Ron era un arrogante come Draco Malfoy si credeva superiore a chiunque altro era proprio convinto di essere migliore di Ron no disse la vocina intorno di sfida davvero? si chiese Harry sondando preoccupato i propri sentimenti io sono più bravo a Quidditch disse la voce ma non sono più bravo in nient'altro era la verità pensò Harry non era migliore di Ron a scuola ma fuori dalle aule e quelle avventure che lui Ron e Hermione avevano vissuto da quando avevano cominciato a frequentare Hogwarts rischiando spesso molto più che l'espulsione beh Ron e Hermione erano quasi sempre con me disse la voce dentro la testa di Harry non sempre però Harry ribatte a se stesso non hanno lottato contro Quirrell non hanno sfidato Riddle e il Basilisco non si sono sbarazzati di tutti quei dissenatori la notte della fuga di Sirius non erano nel cimitero con me quando Voldemort è tornato e la stessa sensazione di ingiustizia che l'aveva sopraffatto la notte del suo arrivo si testò di nuovo ho decisamente fatto di più pensò Harry indignato ho fatto più di tutti e due ma forse disse la vocina con onestà forse Silente non sceglie i prefetti perché si sono ficcati in un mucchio di situazioni pericolose forse li sceglie per altre ragioni Ron deve avere qualcosa che io non ho Harry aprì gli occhi e sbirciò tra le dita le zampe artigliate dell'armadio ricordando le parole di Fred nessuno col cervello a posto sceglierebbe Ron come prefetto Harry scoppiò a ridere un attimo dopo si sentì disgustato di se stesso Ron non aveva chiesto a Silente di dargli la spilla da prefetto non era colpa sua lui Harry il migliore amico di Ron gli avrebbe tenuto il broncio perché lui non aveva una spilla avrebbe riso con i gemelli alle sue spalle gli avrebbe sciupato questa gioia quando per la prima volta aveva battuto Harry in qualcosa a quel punto Harry udì i passi di Ron sulle scale si alzò si raddrizzò gli occhiali e si stampò un sorriso sulla faccia mentre il suo amico entrava saltando tutto allegro l'ho raggiunta appena in tempo annunciò dice che se può compra la tornado forte disse Harry e fu sollevato nel sentire che la sua voce aveva smesso di suonare cordiale senti Ron complimenti bel colpo il sorriso svanì dal volto di Ron non ho mai pensato che capitasse a me ammise scuotendo il capo credevo che saresti stato tu no io mi sono cacciato in troppi guai rispose Harry ripetendo le parole di Fred sì disse Ron già forse beh è meglio che riempiamo i bauli no era strano vedere a che raggio di distanza le loro cose si erano sparpagliate dal loro arrivo impiegarono gran parte del pomeriggio a recuperare libri e oggetti da tutta la casa e riporli di nuovo nei bauli di scuola Harry notò che Ron continuava a spostare la spilla da prefetto prima la mise sul comodino poi la infilò nella tasca dei jeans poi la prese e la posò sui vestiti piegati come per vedere l'effetto del rosso contro il nero solo quando Fred e George entrarono e si offrirono di appiccicargliela alla fronte con un incantesimo di adesione permanente la avvolse con tenerezza nei suoi calzini bordeaux e la chiuse nel baule la signora Weasley tornò da diagonale verso le sei carica di libri con un lungo pacco avvolto in carta spessa che Ron le tolse di mano con un gemito di desiderio non è il momento di aprirla adesso sta arrivando gente a cena vi voglio tutti di sotto disse la signora Weasley ma non appena fu sparita Ron strappò la carta con frenesia e studiò ogni centimetro della sua nuova scopa con espressione estatica giù nel seminterrato sopra la tavola ingombra di piatti la signora Weasley aveva appeso uno striscione scarlatto congratulazioni Ron e Ermione nuovi prefetti durante tutte le vacanze Harry non l'aveva mai vista così di buon umore ho pensato di organizzare una festicciola non una cena seduta disse tuo padre e Bill stanno arrivando Ron ho mandato un gufo a tutti e due sono eccitatissimi aggiunse con un gran sorriso Fred alzò gli occhi al cielo Sirius Lupin Tonks e Kingsley Shacklebolt erano già arrivati e Malocchio Moody fece il suo ingresso zoppicando poco dopo che Harry si fu servito una burro birra oh Alastor sono felice che tu sia qui disse la signora Weasley allegra mentre Malocchio si liberava del mantello da viaggio è un secolo che volevamo invitarti potresti dare un'occhiata allo scrittoio nel salotto e dirci che cosa c'è dentro non abbiamo voluto aprirlo nel caso sia qualcosa di veramente pericoloso non c'è problema Molly l'occhio blu elettrico di Moody ruotò verso l'alto e si fermò sul soffitto della cucina il salotto ringhiò mentre la pupilla si contraeva lo scrittoio nell'angolo sì lo vedo sì è un molliccio vuoi che vada su a toglierlo di mezzo no no lo farò io più tardi rispose la signora Weasley raggiante tu serviti da bere stiamo festeggiando indicò lo striscione scarlatto il quarto prefetto in famiglia disse con affetto scompigliando i capelli di Ron prefetto eh ringhiò Moody con l'occhio normale puntato su Ron e quello magico che scrutava l'interno della testa Harry ebbe la sgradevole sensazione che stesse guardando lui e si spostò verso Sirius e Lupin beh congratulazioni disse Moody continuando a osservare Ron con l'occhio normale le posizioni di autorità tirano sempre guai ma immagino che Silente sia convinto che tu possa resistere alle fatture principali altrimenti non ti avrebbe scelto Ron rimase stupito da questo aspetto della questione ma la pena di replicare gli fu risparmiata dall'arrivo di suo padre e del fratello maggiore la signora Weasley era così di buon umore che non brontolò nemmeno per il fatto che avevano portato con sé Mandangus costui indossava un lungo cappotto stranamente rigonfio in punti improbabili e declinò l'offerta di toglierlo e riporlo insieme al mantello da viaggio di Moody beh credo che un brindisi sia d'obbligo disse il signor Weasley quando tutti ebbero da bere levò il calice a Ron e Ermione i nuovi prefetti di Grifondoro Ron e Ermione sorrisero e tutti bevero alla loro salute e applaudirono io non sono mai diventata prefetto disse Tonks allegramente alle spalle di Harry quando tutti si spostarono verso il tavolo per servirsi i suoi capelli quella sera erano rosso pomodoro e lunghi fino alla vita sembrava la sorella maggiore di Ginny il direttore della mia casa diceva che mi mancavano alcune qualità necessarie tipo chiese Ginny che stava scegliendo una patata al forno tipo comportarmi bene rispose Tonks Ginny rise Ermione non sapeva se sorridere o no e scese a un compromesso bevendo un sorso troppo lungo di burro birra che le andò di traverso e tu Sirius chiese Ginny dando grandi pacche a Ermione sulla schiena Sirius che era accanto a Harry fece la sua solita risata simile a un latrato nessuno mi avrebbe voluto come prefetto passavo troppo tempo in punizione con James il bravo ragazzo era Lupin lui sì che ha portato la spilla Silente sperava che sarei riuscito a esercitare un po' di controllo sui miei migliori amici aggiunse Lupin inutile dire che ho fallito clamorosamente l'umore di Harry migliorò di colpo nemmeno suo padre era stato prefetto all'improvviso la festa fu molto più divertente si riempì il piatto sentendosi ancora più affezionato a tutti quanti nella stanza Ron cantava le lodi della sua nuova scopa a chiunque volesse ascoltarlo da 0 a 70 in 10 secondi non male se pensate che la Comet 290 fa solo da 0 a 60 e col vento in coda secondo guida alla scelta della scopa Ermione spiegava infervorata a Lupin le sue opinioni sui diritti degli elfi insomma è un'idiozia come la segregazione dei lupi mannari no? tutto per questa orribile idea che hanno i maghi di credersi superiori alle altre creature la signora Weasley e Bill al solito stavano discutendo dei capelli di Bill stai esagerando e sei così un bel ragazzo starebbero molto meglio corti vero Harry? oh non so disse Harry un po' allarmato nel sentirsi chiamato in causa scivolò via verso Fred e George che erano rincantucciati in un angolo con Mandangus Mandangus smise di parlare quando vide Harry ma Fred gli strizzò l'occhio e gli fece segno di avvicinarsi tranquillo disse a Mandangus possiamo fidarci di lui è il nostro finanziatore guarda che cosa ci ha portato Dang disse George tendendo la mano verso Harry era piena di quelli che sembravano baccelli avvizziti e mettevano un debole ticchettio pur essendo completamente immobili semi di tentacula velenosa continuò George ci servono per le merendine marinare ma sono una sostanza non commerciabile di classe C e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà a procurarceli 10 galeoni per tutti allora Dang con tutti i guai che ho passato protestò Mandangus gli occhi iniettati di sangue ancor più dilatati del solito mi spiace ragazzi ma fanno 20 non uno zellino di meno a Dang piace scherzare disse Fred a Harry sì finora il massimo che ha preso è stato 6 falci per un sacchetto di aculei di nar aggiunse George attenti li mise in guardia Harry a voce bassa a cosa chiese Fred la mamma è occupata con il prefetto Ron siamo al sicuro ma Moody potrebbe avervi messo l'occhio addosso osservò Harry Mandangus si guardò dietro le spalle nervoso ha ragione brontolò e va bene ragazzi facciamo 10 se li prendete in fretta evviva Harry disse Fred deliziato dopodiché Mandangus si vuotò le tasche nelle mani tese dei gemelli e sgattaiolò via in direzione del cibo meglio portarli di sopra Harry li guardò allontanarsi un po' a disagio gli era appena venuto in mente che i signori Weasley avrebbero voluto sapere come facevano Fred e George a finanziare il negozio di scherzi quando come era inevitabile l'avessero finalmente scoperto regalare ai gemelli la vincita del tre maghi era sembrato semplice al momento ma se avesse portato a un'altra lite domestica e a un distacco come quello di Percy la signora Weasley avrebbe continuato a considerare Harry come un figlio se avesse scoperto che era stato lui a permettere a Fred e George di avviare una carriera tanto sconveniente lì in piedi dove l'avevano lasciato i gemelli con la sola compagnia di un senso di colpa alla bocca dello stomaco Harry sentì pronunciare il suo nome la voce profonda di Kingsley Shacklebolt sovrastava il chiacchiericcio circostante perché Silente non ha scelto Harry come prefetto stava chiedendo avrà avuto le sue ragioni rispose Lupin ma avrebbe dato prova di aver fiducia in lui è quello che avrei fatto io insistè Kingsley soprattutto con la gazzetta del profeta che lo attacca ogni tre giorni Harry non si voltò non voleva che Lupin o Kingsley si accorgessero che aveva sentito anche se non aveva nemmeno un po' di fame seguì Mandangus al tavolo la sua gioia per la festa era evaporata in fretta come era venuta desiderò essere di sopra a letto ma l'occhio Moody stava annusando una coscia di pollo con quel che gli restava del naso evidentemente non riconobbe alcuna traccia di veleno perché strappò via una striscia di carne con i denti il manico è di quercia spagnola con una laccatura antifattura e controllo delle vibrazioni incorporato Ron stava spiegando a Tongs la signora Weasley si esibì in un gran sbadiglio beh credo che sistemerò quel molliccio prima di andare a dormire Arthur non farli andare a letto troppo tardi d'accordo buonanotte Harry caro uscì dalla cucina Harry posò il piatto e si chiese se sarebbe riuscito a seguirla senza attirare l'attenzione tutto bene Potter borbottò Moody sì bene mentì Harry Moody beve una sorsata dalla sua fiaschetta l'occhio blu elettrico che guardava Harry in tralice vieni qui ho una cosa che potrebbe interessarti disse da una tasca interna dell'abito estrasse una vecchia foto magica molto consunta l'ordine della Fenice originario ringhiò l'ho trovata ieri sera mentre cercavo il mio mantello dell'invisibilità di riserva visto che Podmore non ha avuto il garbo di restituirmi quello buono ho pensato che alla gente qui sarebbe piaciuto vederla Harry prese la foto una piccola folla di persone alcune che lo salutavano con la mano altre che levavano i bicchieri rispose al suo sguardo questo sono io disse Moody indicando se stesso senza che ce ne fosse bisogno il Moody nella foto era inconfondibile anche se i capelli erano un po' meno grigi e il naso intatto e vicino a me c'è Silente dall'altra parte Daedalus Deagle questa è Marlène McKinnon è stata uccisa due settimane dopo che la foto è stata scattata hanno preso tutta la sua famiglia questi sono Frank e Alice Longbottom guardando Alice Longbottom Harry già a disagio sentì lo stomaco contrarsi conosceva molto bene il suo viso tondo e cordiale anche se non l'aveva mai incontrata perché era identica a suo figlio Neville poveri diavoli ringhiò Moody meglio morti che come loro e questa è Emmeline Vance l'hai conosciuta e Lupin ovviamente Benji Fenwick se ne è andato anche lui abbiamo ritrovato solo dei pezzi spostatevi voi aggiunse premendo col dito sull'immagine e i piccoli personaggi fotografici si fecero da parte così che quelli coperti venissero avanti questo è Edgar Bones il fratello di Amelia Bones hanno preso lui e la sua famiglia era un gran mago Sturgis Podmore accidenti come era giovane Caradoc Dearborn scomparso sei mesi dopo non abbiamo mai ritrovato il corpo Hagrid naturalmente è sempre lo stesso Elfias Doge l'hai conosciuto mi ero dimenticato che portava sempre quello stupido cappello Gideon Pruet ci sono voluti cinque mangiamorte per uccidere lui e suo fratello Fabian hanno combattuto da eroi spostatevi spostatevi le piccole persone nella foto si pigiarono e quelli nascosti in seconda fila si fecero avanti questo è Aberfort il fratello di Silente l'ho incontrato solo quella volta un tipo strano ecco Dorcas Medos Voldemort l'ha uccisa personalmente Sirius quando aveva ancora i capelli corti e ecco ho pensato che questo ti poteva interessare il cuore di Harry ebbe un balzo sua madre e suo padre gli sorridevano seduti ai due lati di un ometto dagli occhi acquosi che Harry riconobbe subito per coda liscia colui che aveva rivelato il nascondiglio dei suoi genitori a Voldemort e così ne aveva provocato la morte eh? disse Moody Harry guardò il volto di Moody solcato da profonde cicatrici e butterato chiaramente Moody era convinto di aver offerto a Harry qualcosa di ghiotto sì disse Harry cercando di nuovo di sorridere ehm senta mi sono appena ricordato che non ho messo via il mio la fatica di inventare un oggetto che non aveva riposto gli fu risparmiata Sirius aveva appena detto che cosa hai lì malocchio e Moody si era voltato verso di lui Harry attraversò la cucina scivolò oltre la porta e salì le scale prima che qualcuno potesse richiamarlo non sapeva perché fosse stato un tale shock aveva già visto altri ritratti dei suoi genitori e aveva incontrato Codaliscia ma vederseli sbattere davanti così quando meno se lo aspettava non sarebbe piaciuto a nessuno pensò con rabbia e poi circondati da tutte quelle altre facce allegre Benji Fenwick ritrovato a pezzi e Gideon Pruet morto da eroe i Longbottom torturati sino alla follia tutti che salutavano allegri dalla foto per sempre senza sapere di essere condannati beh Moody poteva anche trovarlo interessante lui Harry lo trovava sconvolgente sgattaiolò su per le scale dell'ingresso oltre le teste impagliate degli elfi felice di essere di nuovo solo ma quando si avvicinò al primo pianerottolo sentì dei rumori qualcuno si inghiozzava in salotto chi c'è? chiese Harry non ebbe risposta ma i singhiozzi continuarono salì i gradini rimasti due alla volta attraversò il pianerottolo e aprì la porta del salotto qualcuno era rannicchiato contro la parete scura la bacchetta in mano il corpo scosso dai singulti disteso sul vecchio tappeto polveroso in una macchia di luce lunare chiaramente morto c'era Ron tutta l'aria parve sparire dai polmoni di Harry si sentì come se stesse precipitando attraverso il pavimento il cervello gli si gelò Ron morto no non era possibile ma un momento non era possibile Ron era di sotto signora Weasley gracchiò Harry ridiculous disse la signora Weasley tra i singhiozzi puntando la bacchetta tremante verso il corpo di Ron crack il corpo di Ron si trasformò in quello di Bill disteso sulla schiena a braccia spalancate gli occhi dilatati e vuoti la signora Weasley pianse più forte che mai ridiculous ripete tra i singulti crack il corpo del signor Weasley sostituì quello di Bill gli occhiali di traverso un rivolo di sangue che gli colava sul volto no gemette la signora Weasley no ridiculous 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 crack i gemelli morti crack persi morto crack Harry morto signora Weasley esca di qui urlò Harry fissando il proprio corpo sul pavimento lasci fare a qualcun altro che cosa succede Lupin era arrivato di corsa nella stanza seguito a ruota da Sirius con mudi che arrancava zoppicando alle loro spalle Lupin guardò prima la signora Weasley poi il corpo di Harry sul pavimento e parve capire all'istante estrasse la bacchetta e disse molto forte e chiaro ridiculous il corpo di Harry sparì un globo argente o rimase sospeso nell'aria sul punto in cui prima era disteso il cadavere Lupin agitò ancora una volta la bacchetta e il globo svanì in uno sbuffo di fumo oh 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 boccheggiò la signora Weasley e poi esplose in un gran pianto il volto tra le mani molly disse Lupin desolato avvicinandosi molly non un attimo dopo la signora Weasley si inghiozzava con tutta l'anima sulla spalla di Lupin era solo un molliccio disse Lupin cercando di consolarla accarezzandole la testa solo uno stupido molliccio li vedo morti di continuo gemette la signora Weasley contro la sua spalla di di continuo me lo me lo sogno Sirius fissava la macchia di moquette dove il molliccio era rimasto disteso fingendo di essere il corpo di Harry Moody osservava Harry che evitò il suo sguardo aveva la strana sensazione che l'occhio magico di Moody lo avesse seguito fin dalla cucina non non ditelo ad Arthur la signora Weasley deglutì asciugandosi frettolosamente gli occhi con le maniche non voglio che sappia che sono una sciocca Lupin le diede un fazzoletto e lei si soffiò il naso Harry mi spiace tanto che cosa penserai di me disse con voce tremante non sono nemmeno capace di sbarazzarmi di un molliccio non dica sciocchezze rispose Harry sforzandosi di sorridere è solo che sono così preoccupata continuò lei mentre le lacrime le colavano di nuovo dagli occhi metà famiglia fa parte dell'ordine sarà un miracolo se ne usciremo tutti vivi e Percy non ci rivolge la parola e se succede qualcosa di terribile e non abbiamo fatto la pace con lui e se io e Arthur veniamo uccisi chi si prenderà a cula di Ron e Ginny molly adesso basta disse Lupin con fermezza non è come l'ultima volta l'ordine è più preparato abbiamo un certo vantaggio sappiamo che cosa ha in mente Voldemort la signora Weasley emise un breve squittio di terrore al suono di quel nome oh molly andiamo è ora che ti abitui a sentirlo ascolta non posso promettere che nessuno si farà del male nessuno può prometterlo ma adesso siamo molto meglio organizzati allora non facevi parte dell'ordine non capisci eravamo schiacciati venti a uno dai mangiamorte ci venivano a cercare uno alla volta Harry pensò di nuovo alla foto ai volti sorridenti dei suoi genitori sapeva che Moody lo stava ancora osservando quanto ha persi non preoccuparti intervenne Sirius bruscamente rinsavirà è solo questione di tempo quando Voldemort uscirà allo scoperto tutti al ministero ci supplicheranno di perdonarli e non sono sicuro che accetterò le loro scuse aggiunse amareggiato quanto a chi si occuperà di Ron e Ginny se tu e Arthur non ci foste più aggiunse Lupin con un vago sorriso cosa credi che le lasceremmo morire di fame la signora Weasley abbozzò un sorriso tremulo sono una sciocca borbottò di nuovo asciugandosi gli occhi ma Harry chiudendo la porta della propria stanza una decina di minuti dopo non riuscì a pensare che la signora Weasley fosse una sciocca vedeva ancora i suoi genitori sorriderli dalla vecchia foto lacera ignari che le loro vite come quella di molti intorno a loro si avvicinavano alla fine l'immagine del molliccio che si spacciava per il cadavere di ogni membro della famiglia Weasley continuava a balenargli davanti agli occhi senza alcun preavviso la cicatrice sulla fronte gli bruciò di nuovo e il suo stomaco si contorse orribilmente piantala disse deciso strofinandosi la cicatrice mentre il dolore si affievoliva è il primo segnale di follia parlare da soli osservò una voce maligna dal quadro vuoto sulla parete Harry la ignorò si sentiva più vecchio che mai e gli parve straordinario che meno di un'ora prima si fosse preoccupato di un negozio di scherzi e di una spilla da prefetto Luna Lovegood Harry passò una notte inquieta i suoi genitori continuavano a entrare e uscire dai suoi sogni senza mai parlare la signora Weasley si inghiozzava sul cadavere di Critcher vegliato da Ron e Ermione che portavano fiori e ancora una volta Harry si ritrovò a camminare lungo un corridoio che finiva con una porta chiusa a chiave si svegliò all'improvviso con la cicatrice che gli prudeva Ron era già vestito e gli stava parlando meglio muoversi la mamma è fuori di sé dice che perderemo il treno c'era una grande agitazione in casa da quello che sentì mentre si vestiva a tutta velocità Harry dedusse che Fred e George avevano stregato i loro bauli in modo che volassero di sotto per risparmiarsi la fatica di trasportarli col risultato che quelli avevano urtato Ginny e l'avevano fatta precipitare per due rampe di scale fino all'ingresso la signora Black e la signora Weasley urlavano tutte e due a pieni polmoni potevate farle male sul serio idioti sudici ibridi che infangate la casa dei miei padri Harry si stava infilando le scarpe da ginnastica quando Hermione entrò correndo nella stanza tutta agitata Edvige si dondolava sulla sua spalla e lei reggeva tra le braccia grattastinchi che si divincolava mamma e papà hanno appena rimandato Edvige la civetta sbatté piano le ali e si appollaiò in cima alla propria gabbia sei pronto? quasi Ginny sta bene? chiese Harry infilandosi gli occhiali la signora Weasley l'ha risistemata disse Hermione ma ora ma l'occhio brontola che non possiamo uscire se non arriva Sturgey Spodmore altrimenti mancherà una persona alla scorta la scorta disse Harry dobbiamo andare a King's Cross con la scorta tu devi andare a King's Cross con la scorta lo corresse Hermione perché? chiese Harry seccato credevo che Voldemort fosse nascosto o mi stai dicendo che salterà fuori da dietro un bidone dell'immondizia per farmi fuori non so è malocchio che lo dice rispose Hermione distrattamente guardando l'orologio ma se non usciamo in fretta perderemo il treno di sicuro volete scendere tutti quanti per favore? urlò furiosa la signora Weasley Hermione fece un balzo come se si fosse scottata e corse fuori dalla stanza Harry afferrò Edvige la ficcò senza tante cerimonie nella gabbia e scese dietro a Hermione trascinando il baule il ritratto della signora Black ululava dalla rabbia ma nessuno si diede la pena di chiuderle le tende in faccia tutto il fracasso nell'ingresso l'avrebbe risvegliata comunque Harry tu devi venire con me e Tonks urlò la signora Weasley sovrastando gli strilli ripetuti di sangue marcio feccia sudice creatore lascia qui baule civetta ai bagagli ci pensa Alastor oh per l'amor del cielo Sirius Silente ha detto di no un cane nero simile a un orso era comparso al fianco di Harry che stava scavalcando i vari bauli stipati nell'ingresso per raggiungere la signora Weasley oh insomma sbottò lei esasperata beh la responsabilità è solo tua aprì con forza la porta d'ingresso e uscì nel debole sole settembrino Harry e il cane la seguirono la porta si richiuse con un tonfo alle loro spalle e gli strilli della signora Black si interruppero all'istante dove è Tonks? chiese Harry guardandosi intorno mentre scendevano i gradini di pietra del numero 12 che sparirono non appena raggiunsero il marciapiede ci sta aspettando laggiù rispose la signora Weasley in tono severo distogliendo lo sguardo dal cane nero che avanzava a balzi al fianco di Harry una vecchia signora li salutò all'angolo aveva i capelli grigi e a riccioli fitti e portava un cappello viola a forma di pasticcio di maiale in crosta ciao Harry disse con una strizzatina d'occhio meglio muoversi no Molly aggiunse guardando l'orologio lo so lo so gemette la signora Weasley allungando il passo è che malocchio voleva aspettare Sturgis se solo Arthur fosse riuscito a mandarci un'altra volta delle macchine dal ministero ma di questi tempi faggio non gli lascia prendere in prestito nemmeno una boccetta vuota d'inchiostro come fanno i babbani a viaggiare senza magia ma il cagnone nero diede in un latrato di gioia e saltò attorno a loro cercando di mordere i piccioni e inseguendo la propria coda Harry non poteva fare a meno di ridere Sirius era rimasto rinchiuso per molto molto tempo la signora Weasley strinse le labbra in un modo che ricordava tanto zia Petunia impiegarono venti minuti per raggiungere King's Cross a piedi e l'unico avvenimento significativo fu quando Sirius spaventò un paio di gatti per divertire Harry una volta dentro la stazione indugiarono con aria disinvolta vicino alla barriera tra i binari 9 e 10 finché non ci fu via libera poi ciascuno di loro vi si appoggiò a turno e passò tranquillamente sul binario 9 e 3 quarti dove Logworth Express eruttava vapore furigginoso lungo un marciapiede affollato di studenti in partenza e delle loro famiglie Harry inspirò l'odore ben noto e sentì il morale decollare tornava davvero a Hogwarts spero che gli altri arrivino in tempo disse la signora Weasley preoccupata guardando dietro di sé l'arco di ferro battuto che sovrastava il binario bel cane Harry gridò un ragazzo alto con i riccioli rasta grazie lì rispose Harry con un gran sorriso mentre Sirius scodinzolava frenetico oh bene disse la signora Weasley sollevata ecco Alastor con i bagagli con un cappuccio da facchino abbassato sugli occhi scompagnati Moody si fece avanti zoppicando sotto l'arco spingendo un carrello carico dei loro bauli tutto a posto borbottò alla signora Weasley e a Tonks non credo che ci abbiano seguito qualche istante dopo il signor Weasley comparve sul marciapiede con Ron e Ermione avevano quasi scaricato il carrello di Moody quando Fred George e Ginny arrivarono con Lupin niente guai chiese Moody nulla rispose Lupin farò ugualmente rapporto su Sturgis assilente ringhiò Moody è la seconda volta che non si fa vedere in una settimana sta diventando inaffidabile come Mandangus beh state bene disse Lupin stringendo la mano a tutti si avvicinò a Harry per ultimo e gli diede una pacca sulla spalla anche tu Harry sta attento sì testa bassa e occhi aperti aggiunse Moody stringendo a sua volta la mano a Harry e non dimenticate tutti quanti attenti a quel che scrivete nelle lettere se avete dei dubbi non scrivetelo è stato magnifico conoscervi tutti quanti disse Tonks abbracciando Ermione e Ginny ci vedremo presto immagino risuonò un fischio d'avvertimento gli studenti ancora sul marciapiede si affrettarono verso il treno svelti svelti esclamò la signora Weasley concitata abbracciandoli a caso e acchiappando Harry due volte scrivete fate i bravi se avete dimenticato qualcosa ve la spediremo ora salite sul treno presto per un breve istante l'enorme cane nero si rizzò sulle zampe di dietro e posò quelle davanti sulle spalle di Harry ma la signora Weasley spinse via Harry verso lo sportello del treno soffiando per l'amor del cielo comportati in modo più canino Sirius ci vediamo gridò Harry dal finestrino aperto mentre il treno cominciava a muoversi Ron, Hermione e Ginny salutavano con la mano accanto a lui le sagome di Tonks Lupin e Moody e dei signori Weasley rimpicciolirono in fretta ma il cane nero corse accanto al finestrino scodinzolando le persone sfocate sul marciapiede risero nel vederlo inseguire il treno poi questo fece una curva e Sirius sparì non avrebbe dovuto venire con noi osservò Hermione preoccupata oh dai ribatte Ron non vedeva la luce del giorno da mesi poveraccio bene disse Fred battendo le mani una volta non possiamo star qui a chiacchierare tutto il giorno abbiamo degli affari da discutere con Lee ci vediamo dopo e lui e George sparirono a destra lungo il corridoio il treno prese velocità le case fuori dal finestrino sfrecciavano via e loro tre cominciarono a barcollare andiamo a cercarci uno scompartimento allora chiese Harry Ron e Hermione si scambiarono uno sguardo ehm fece Ron noi beh io e Ron dovremmo andare nella carrozza dei prefetti disse Hermione cauta Ron non stava guardando Harry sembrava profondamente interessato alle unghie della propria mano sinistra oh disse Harry d'accordo va bene non credo che dovremmo restarci per tutto il viaggio aggiunse in fretta Hermione le lettere dicevano che dobbiamo ricevere istruzioni dai capi scuola e poi sorvegliare i corridoi ogni tanto va bene ripete Harry beh allora magari ci vediamo dopo sì sicuro disse Ron lanciandogli uno sguardo furtivo e ansioso è uno strazio doverci andare preferirei ma dobbiamo insomma non mi diverto non sono mica persi concluse con enfasi lo so Harry soghignò ma vedendo Hermione e Ron che trascinavano i bauli grattastinchi e la gabbia con Leo Tordo verso la locomotiva Harry provò uno strano senso di abbandono non aveva mai viaggiato su Logworth Express senza Ron andiamo gli disse Ginny se ci muoviamo riusciremo a tenere il posto anche per loro giusto fece Harry prese con una mano la gabbia di Edvige e con l'altra la maniglia del baule avanzarono a fatica lungo il corridoio sbirciando oltre i vetri delle porte degli scompartimenti già pieni Harry non poté fare a meno di notare che un sacco di ragazzi rispondevano ai suoi sguardi con enorme interesse e che parecchi davano gomitate ai loro vicini e lo indicavano dopo aver osservato questo comportamento in cinque carrozze di fila ricordò che la gazzetta del profeta aveva raccontato per tutta l'estate ai suoi lettori che razza di bugiardo esibizionista era rabbuiato si chiese se i ragazzi che lo fissavano e mormoravano credessero a quegli articoli nell'ultima carrozza incontrarono Neville Longbottom compagno di Harry tra i grifondoro del quinto anno la faccia tonda lucente per lo sforzo di trascinare il baule e trattenere con una mano sola il suo rospo agitato Trevor ciao Harry disse ansante ciao Ginny è pieno dappertutto non riesco a trovare un posto ma che dici ribatte Ginny che si era insinuata oltre Neville per sbirciare nello scompartimento dietro di lui qui c'è posto c'è solo lunatica Lovegood Neville borbottò confusamente che non voleva disturbare nessuno non fare lo sciocco rise Ginny lei è a posto fece scorrere la porta e trascinò dentro il suo baule Harry e Neville la seguirono ciao Luna disse Ginny possiamo sederci qui la ragazza vicino al finestrino al solo sguardo aveva capelli disordinati lunghi fino alla vita di un biondo sporco sopracciglia molto pallide e occhi sporgenti che le conferivano un'espressione di perenne sorpresa Harry capì all'istante perché Neville aveva deciso di passare oltre quello scompartimento la ragazza dava la netta sensazione di essere completamente tocca forse era la bacchetta che si era infilata dietro l'orecchio sinistro o la collana di tappi di burro birra che indossava o la rivista che stava leggendo a rovescio il suo sguardo vagò su Neville e si fermò su Harry a noi grazie Ginny le sorrise Harry e Neville sistemarono i tre bauli e la gabbia di Edvige sulla rastrelliera e si sedettero Luna li osservò da sopra la rivista rovesciata intitolata il cavillo non sembrava che avesse bisogno di sbattere le palpebre quanto un normale essere umano fissò a lungo Harry che si era seduto di fronte a lei e se n'era già pentito hai passato una bella estate Luna le chiese Ginny sì rispose lei in tono sognante senza togliere gli occhi di dosso a Harry sì è stata abbastanza piacevole sai tu sei Harry Potter aggiunse lo so disse Harry Neville ridacchiò Luna puntò su di lui gli occhi pallidi e non so chi sei tu nessuno rispose Neville in fretta no che non sei nessuno disse Ginny secca Neville Longbottom Luna Lovegood Luna è del mio anno ma è di corvo nero un ingegno smisurato per il mago e dono grato cantichiò Luna alzò la rivista quanto bastava a nasconderle il viso e tacque Harry e Neville si guardarono con le sopracciglia inarcate Ginny soffocò un risolino il treno continuò a sferragliare portandoli in aperta campagna era una strana giornata dal tempo incerto un momento la carrozza era inondata di sole un attimo dopo passavano sotto minacciose nuvole grigie indovinate che cosa ho ricevuto per il mio compleanno disse Neville un'altra ricordella chiese Harry rammentando quella specie di biglia che la nonna di Neville gli aveva mandato nel tentativo di aiutare la sua pessima memoria no rispose Neville mi potrebbe servire però quella vecchia l'ho persa un secolo fa no guarda qui ficcò la mano libera da Trevor nella borsa dei libri e dopo averlo vistato un po' estrasse quello che sembrava un piccolo cactus grigio in un vasetto ma invece che di spine era coperto di bolle mimbulus mimbletonia disse orgoglioso Harry fissò la cosa pulsava lievemente e questo le dava l'aspetto abbastanza sinistro di un organo interno ammalato è molto molto rara spiegò Neville con un gran sorriso non so se ce n'è una nemmeno nella serra di Hogwarts non vedo l'ora di mostrarla alla professoressa Sprout me l'ha presa il mio prozio Algi in Assiria voglio vedere se riesco a farla riprodurre Harry sapeva che la materia preferita di Neville era erbologia ma non riusciva assolutamente a capire che cosa ci potesse fare con quella piantina rachitica fa qualcosa chiese un sacco di cose rispose Neville fiero possiede uno straordinario meccanismo difensivo ecco tienimi Trevor scaricò il rospo in grembo a Harry e prese una penna d'oca dalla borsa dei libri gli occhi sporgenti di Luna Lovegood apparvero di nuovo da sopra la rivista rovesciata tenendo la sua mimbulus mimbletonia davanti agli occhi la lingua fra i denti Neville affondò nel cactus la punta della penna da ogni bolla schizzò del liquido getti densi puzzolenti verde scuro colpirono il soffitto i finestrini e macchiarono la rivista di Luna Lovegood Ginny che aveva alzato le braccia davanti al viso appena in tempo si ritrovò soltanto con una specie di viscido cappello verde sulla testa ma Harry che aveva le mani occupate per tenere Trevor ricevette uno schizzo in piena faccia puzzava di letame rancido Neville che aveva anche lui faccia e busto zuppi scosse il capo per liberarsi gli occhi scusate disse boccheggiando non ci avevo ancora provato non sapevo che sarebbe successo così non preoccupatevi comunque la puzza linfa non è velenosa aggiunse teso mentre Harry ne sputava una boccata per terra in quel preciso istante la porta dello scompartimento si aprì oh ciao Harry disse una voce nervosa è un brutto momento Harry si ripulì le lenti degli occhiali con la mano libera da Trevor una ragazza molto graziosa con lunghi luci di capelli neri stava sulla soglia e gli sorrideva Cho Chang il cercatore della squadra di Quidditch di Corvo Nero oh ciao rispose Harry in tono piatto ehm fece Cho beh avevo pensato di passare a salutarti allora arrivederci piuttosto rossa in faccia chiuse la porta e se ne andò Harry si afflosciò nel sedile con un gemito gli sarebbe piaciuto che Cho lo avesse trovato seduto in compagnia di un gruppo di compagni molto in gamba che ridevano a crepapelle per qualche sua battuta spiritosa non con Neville e lunatica Lovegood un rospo tra le mani e puzza linfa da ogni parte non importa disse Ginny incoraggiante possiamo liberarci in fretta di questa roba e strasse la bacchetta polizio la puzza linfa sparì scusate ripetè Neville con la voce piccola Ron e Hermione non comparvero per quasi un'ora nel frattempo il carrello del cibo era già passato Harry Ginny e Neville avevano finito i loro zuccotti di zucca ed erano occupati a scambiarsi le figurine delle cioccorane quando la porta dello scompartimento si aprì e i due amici entrarono accompagnati da Grattastinky e da Leotordo che strideva acutissimo nella sua gabbia muoio di fame annunciò Ron stipò Leotordo vicino a Edvige afferrò una cioccorana di Harry e si gettò nel sedile vicino al suo strappò la busta staccò con un morso la testa della rana e ricade all'indietro con gli occhi chiusi come se avesse appena passato una mattinata estenuante beh ci sono due prefetti del quinto anno per ogni casa disse Ermione che prese posto con aria assai scontenta un maschio e una femmina e indovina chi è il prefetto di Serpeverde chiese Ron sempre a occhi chiusi Malfoy rispose subito Harry certo che il suo peggior timore avrebbe avuto conferma naturale commentò Ron amareggiato si ficò il resto della rana in bocca e ne prese un'altra e quella fetente di Penzi Parkinson aggiunse Ermione con rabbia come ha fatto a diventare prefetto se è più tonta di un troll che ha preso una botta in testa chi sono quelli di Tassofrasso chiese Harry Ernie McMillen e Anna Abbott biascicò Ron e Anthony Goldstein e Padma Patil per Corvo Nero disse Ermione tu sei andato al ballo del ceppo con Padma Patil osservò una voce sognante tutti si voltarono a guardare Luna Lovegood che scrutava Ron senza batter ciglio da sopra il cavillo lui mandò giù il suo boccone di rana sì lo so rispose un po' sorpreso non si è divertita granché lo informò Luna dice che tu non l'hai trattata molto bene perché non hai voluto ballare con lei io non credo che me la sarei presa aggiunse pensierosa a me non piace molto ballare sparì di nuovo dietro il cavillo Ron fissò la copertina a bocca aperta per qualche istante poi guardò Ginny in cerca di spiegazioni ma lei si era cacciata le nocche in bocca per soffocare il riso Ron scosse il capo confuso poi guardò l'orologio dovremmo pattugliare i corridoi ogni tanto disse Harry e Neville e possiamo punire chi si comporta male non vedo l'ora di beccare Crebbe e Goyle per qualcosa non dovresti abusare della tua posizione Ron esclamò Hermione severa già perché Malfoy non ne abuserà affatto ribatte Ron sarcastico allora vuoi abbassarti al suo livello no voglio solo beccare i suoi amici prima che lui becchi i miei per l'amor del cielo Ron costringerò Goyle a scrivere cento volte la stessa frase lo ucciderà lui odea scrivere disse Ron allegro abbassò la voce per imitare il ringhio sordo di Goyle e contraendo il viso in un'espressione dolorosamente concentrata fece il gesto di scrivere per aria io non devo assomigliare al sedere di un babbuino tutti risero ma nessuno forte come Luna Lovegood le sue urla sguaiate svegliarono Edvige che sbatté le ali indignata Grattastinchi balzò sulla rastrelliera dei bagagli soffiando Luna rideva così forte che la rivista le sfuggì di mano e scivolò a terra che divertente i suoi occhi bulbosi erano inondati di lacrime e lei cercava di prendere fiato fissando Ron decisamente sconcertato lui guardò gli altri che ora ridevano per la sua espressione e per la risata assurdamente lunga di Luna Lovegood che si dondolava avanti e indietro tenendosi i fianchi mi prendi in giro? le chiese Ron accigliato il sedere di un babbuino disse lei con voce strozzata tenendosi le costole tutti gli altri guardavano Luna che rideva ma Henry cadde l'occhio sulla rivista per terra e notò una cosa che lo indusse a raccoglierla all'istante prima alla rovescia era difficile capire che cosa fosse l'immagine di copertina ma Henry si rese conto che era una pessima vignetta su Cornelius Fudge lo riconobbe solo grazie alla bombetta verde acido una delle mani di Fudge era stretta attorno a un sacco d'oro l'altra strangolava un goblin la didascalia recitava dove arriverà Fudge per ottenere la Gringot sotto erano elencati i titoli di altri articoli all'interno della rivista corruzione nella lega del Quidditch così i Tornados stanno prendendo il comando i segreti delle antiche rune svelati Sirius Black colpevole o vittima posso dare un'occhiata chiese Henry a Luna impaziente lei annui senza fiato per il gran ridere lo sguardo fisso su Ron Henry aprì la rivista e scorse l'indice fino a quel momento si era completamente dimenticato della rivista che Kingsley aveva passato al signor Weasley per Sirius ma doveva essere proprio quel numero del cavillo trovò la pagina e cercò eccitato l'articolo anche quello era illustrato da una vignetta piuttosto brutta Henry non avrebbe capito che si trattava di Sirius se non ci fosse stata la didascalia il suo padrino era in piedi su una pila di ossa umane con la bacchetta sfoderata il titolo era Sirius Black nero come lo si dipinge famigerato terrorista o innocente star musicale Henry dovete leggere la frase parecchie volte per assicurarsi di non aver frainteso da quando Sirius era una star musicale da 14 anni Sirius Black è ritenuto colpevole della strage di 12 babbani innocenti e di un mago l'audace fuga di Black da Azkaban due anni fa ha portato alla più vasta caccia all'uomo mai condotta dal ministero della magia nessuno di noi ha mai messo in dubbio il fatto che meriti di essere catturato e riconsegnato ai dissennatori ma è così secondo una nuova sorprendente testimonianza Sirius Black non avrebbe commesso i crimini per i quali fu rinchiuso ad Azkaban in effetti dichiara Doris Parkis 18 a Cansea Way Little Norton Black non sarebbe nemmeno stato presente agli omicidi quello che la gente non capisce è che Sirius Black è un nome falso dice la signora Parkis l'uomo che tutti credono Sirius Black è in realtà Stubby Boardman il solista del popolare gruppo corale Job Goblin che si ritirò dalla vita pubblica quasi 15 anni fa dopo essere stato colpito a un orecchio da una rapa durante un concerto nell'auditorium della chiesa di Little Norton io l'ho riconosciuto non appena ho visto la sua foto sul giornale ora Stubby non avrebbe potuto commettere quei crimini perché nel giorno in questione si stava godendo una romantica cenetta a lume di candela con me ho scritto al ministero della magia e mi aspetto che da un giorno all'altro esso conceda la piena assoluzione a Sirius Harry finì di leggere e fissò incredulo la pagina forse era uno scherzo pensò forse la rivista pubblicava spesso degli scupi inventati tornò indietro di qualche pagina e trovò l'articolo su Faggio Cornelius Faggio il ministro della magia ha negato di aver mai nutrito qualsivoglia ambizione di assumere la gestione della banca dei maghi Gringot da quando è stato eletto ministro della magia cinque anni fa Faggio ha sempre dichiarato che non desidera altro che cooperare in pace con i guardiani del nostro oro ma è vero fonti vicine al ministero hanno rivelato di recente che la più grande ambizione di Faggio è arrivare a controllare le riserve auree dei Goblin e che non esiterà a ricorrere alla forza se necessario non sarebbe nemmeno la prima volta ha dichiarato una talpa del ministero Cornelius Pacca Goblin Faggio così lo chiamano gli amici se lo sentiste quando crede che nessuno lo ascolti parla sempre dei Goblin che ha fatto fuori li ha fatti annegare li ha fatti defenestrare li ha fatti avvelenare li ha fatti cucinare in crosta Harry non andò oltre Faggio poteva avere molti difetti ma Harry non se lo vedeva a dare ordine di cucinare Goblin in crosta sfogliò il resto della rivista e lesse qua e là l'accusa i tutti il Tornados di star vincendo il campionato di Quidditch grazie a una combinazione di ricatti manomissione illegale di scope e torture un'intervista a un mago che sosteneva di essere volato sulla Luna con una Tornado 6 e di aver riportato come prova un sacco pieno di rane lunari e un articolo sulle antiche rune che almeno spiegava perché Luna prima stesse leggendo il cavillo alla rovescia secondo la rivista le rune capovolte rivelavano un incantesimo per trasformare le orecchie del nemico in mandarini cinesi in effetti rispetto al resto degli articoli il suggerimento che Sirius potesse davvero essere la voce solista degli Hobgoblin era decisamente plausibile c'è qualcosa di buono? chiese Ron mentre Harry chiudeva la rivista no di certo intervenne Ermione pungente prima che Harry potesse rispondere il cavillo è solo spazzatura lo sanno tutti scusa disse Luna all'improvviso aveva perso il tono sognante mio padre è il direttore io oh oh balbettò Ermione imbarazzata beh ci sono delle cose interessanti voglio dire è piuttosto me la riprendo grazie tagliò corto Luna gelida si chinò in avanti e strappò la rivista dalle mani di Harry sfogliò fino a pagina 57 la ribaltò con aria decisa e scomparve dietro di essa proprio quando la porta dello scompartimento si aprì per la terza volta Harry si voltò a guardare se l'aspettava ma ciò non rese affatto più piacevole la vista di Draco Malfoy che gli rivolgeva un sorrisetto compiaciuto tra i suoi compari Crabbe e Goyle che cosa c'è? chiese in tono aggressivo prima che Malfoy potesse aprir bocca si educato Potter o dovrò metterti in castigo rispose Malfoy con la sua voce strascicata i lisci capelli biondi e il mento appuntito erano identici a quelli del padre vedi io a differenza di te sono stato scelto come prefetto il che significa che io a differenza di te ho il potere di infliggere punizioni si disse Harry ma tu a differenza di me sei un verme quindi esci e lasciaci in pace Ron Ermione Ginny e Neville risero Malfoy fece un sorrisetto dimmi che cosa si prova a essere secondi a Weasley Potter chiese taci Malfoy intervenne Ermione in tono asciutto a quanto pare ho toccato un nervo scoperto continuò Malfoy con un ghigno beh stai attento Potter perché io ti starò addosso come un segugio aspettando che tu faccia un passo falso fuori urlò Ermione alzandosi sogginiando Malfoy scoccò a Harry un ultimo sguardo maligno e se ne andò con Crabbe e Goyle che si trascinavano alle sue spalle Ermione chiuse violentemente la porta dello scompartimento e si voltò a guardare Harry come lui aveva registrato le parole di Malfoy e ne era altrettanto turbata butta un po' un'altra rana disse Ron che evidentemente non si era accorto di nulla Harry non poteva parlare in libertà davanti a Neville e Luna scambiò con Ermione un'altra occhiata nervosa poi si mise a guardare fuori dal finestrino l'idea di Sirius di accompagnarlo alla stazione gli era sembrata subito un po' sciocca ma ora all'improvviso gli parve avventata se non addirittura pericolosa Ermione non sbagliava Sirius non sarebbe dovuto venire e se il signor Malfoy avesse notato il cane nero e l'avesse detto a Draco e se avesse dedotto che i Weasley Lupin Tonks e Moody sapevano dove si nascondeva Sirius o l'uso della parola segugio da parte di Malfoy era una coincidenza il tempo rimase incerto anche più a nord la pioggia spruzzava i vetri di malavoglia poi il sole faceva una debole comparsa prima che le nuvole lo coprissero di nuovo quando calò il buio e le lampade si accesero negli scompartimenti Luna arrotolò il cavillo lo ripose con cura nella borsa e prese invece a fissare tutti i compagni di viaggio Harry era seduto con la fronte premuta contro il finestrino e cercava di avvistare un primo scorcio di Hogwarts ma era una notte senza Luna e il vetro rigato di pioggia era sudicio meglio cambiarsi disse infine Ermione lei e Ron si appuntarono con cura le spille da prefetto sulla veste Harry vide Ron scrutare il proprio riflesso nel finestrino nero infine il treno prese a rallentare lungo il convoglio con un gran chiasso tutti si davano da fare per recuperare bagagli e animali poiché Ron e Ermione dovevano sorvegliare tutto questo scomparvelo di nuovo lasciando Harry e gli altri a occuparsi di Grattastinchi e Leo Tordo io porto il gufo se vuoi disse Luna a Harry e tese la mano per prendere Leo Neville ripose con grande cautela Trevor in una tasca interna oh grazie rispose Harry passandole la gabbia e reggendo più salda tra le braccia quella di Edvige uscirono a fatica dallo scompartimento e avvertirono il primo pizzicore dell'aria notturna già mentre si univano alla folla nel corridoio lentamente avanzarono verso gli sportelli Harry annusò l'odore dei pini che fiancheggiavano il sentiero per il lago scese sul marciapiede e si guardò intorno in attesa del familiare richiamo primo anno da questa parte primo anno ma non venne invece una voce alquanto diversa sbrigativa e femminile gridava quelli del primo anno in fila da questa parte per favore tutti quelli del primo anno da me una lanterna avanzò dondolando verso Harry rivelandogli il mento prominente e il severo taglio di capelli della professoressa Grabley Plank la strega che l'anno prima aveva sostituito per qualche tempo Hagrid come insegnante di cura delle creature magiche dov'è Hagrid? chiese Harry non lo so rispose Ginny ma è meglio se ci togliamo di mezzo così blochiamo il passaggio ah sì mentre si spostavano dal binario all'uscita della stazione Harry e Ginny si persero di vista spintonato dalla folla Harry strizzò gli occhi nel buio per scorgere Hagrid doveva esserci Harry ci contava rivederlo era una delle cose che aveva più atteso ma non ce n'era traccia non può essersene andato si disse Harry varcando lentamente con gli altri una porta stretta che dava sulla strada avrà il raffreddore una cosa così cercò con lo sguardo Ron o Hermione voleva sapere che cosa ne pensavano ma nessuno dei due era vicino così si lasciò sospingere in avanti nella buia strada lavata dalla pioggia fuori dalla stazione di Hogsmeade lì erano sempre parcheggiate più o meno un centinaio di carrozze senza cavalli che portavano al castello gli studenti dal secondo anno in su Harry diede loro una rapida occhiata si voltò per avvistare Ron e Hermione poi tornò a guardare stupito quelle carrozze non erano più senza cavalli c'erano delle creature tra le stange se avesse dovuto dar loro un nome probabilmente li avrebbe definiti cavalli eppure avevano qualcosa di rettile erano completamente privi di carne i manti neri aderivano allo scheletro di cui era visibile ogni osso avevano teste di drago con occhi senza pupille bianchi e sgranati dal garese spuntavano vaste ali nere della consistenza del cuoio come di pipistrelli giganti immobili e tranquille nell'oscurità le creature avevano un aspetto misterioso e sinistro harry non riusciva a capire come mai le carrozze venissero tirate da quegli orribili cavalli quando in realtà erano in grado di muoversi da sole dov'è leo? domandò la voce di ron appena dietro a harry ce l'aveva quella a luna rispose harry voltandosi in fretta ansioso di discutere con ron di agrid dove credi che agrid? non so disse ron e sembrava preoccupato speriamo che stia bene poco lontano draco malfoi seguito da una piccola banda di compari tra cui crabb goyle e pensi parkinson spingeva via alcuni intimoriti allievi del secondo anno di modo che lui e i suoi amici potessero avere una carrozza tutta per loro qualche istante dopo ermione emersi ansante dalla folla malfoi è stato assolutamente tremendo con uno del primo anno laggiù giuro che farò rapporto ha la spilla da tre minuti e la usa per fare il bullo dov'è grattastinchi? ce l'ha ginni? rispose harry eccola ginni era appena sbucata dalla folla teneva stretto grattastinchi che si rivincolava grazie disse ermione prendendo il gatto andiamo saliamo su una carrozza insieme prima che si riempiano tutte non ho ancora Leo disse Ron ma ermione era già diretta verso la carrozza vuota più vicina harry rimase indietro con Ron che cosa sono quei cosi? ne hai idea? gli chiese indicando gli orrendi cavalli mentre gli altri studenti li superavano quali cosi? quei cavalli? l'una apparve reggendo la gabbia di Leo Tordo fra le braccia il minuscolo gufo cinguettava eccitato come sempre eccoti disse è un guffetto tanto carino vero? sì è a posto rispose Ron burbero beh allora andiamo saliamo che cosa dicevi Harry? dicevo che cosa sono quelle specie di cavalli? chiese Harry mentre lui Ron e Luna raggiungevano la carrozza in cui erano già sedute ermione e Ginny quali cavalli? questi guarda Harry prese per un braccio Ron e lo fece voltare in modo che si trovasse proprio di fronte al cavallo alato Ron lo fissò per un secondo poi tornò a guardare Harry che cos'è che dovrei guardare? lì in mezzo alle stanghe attaccato alla carrozza è proprio davanti a ma poiché Ron rimaneva perplesso uno strano pensiero attraversò la mente di Harry non non li vedi? vedere che cosa? non vedi che cos'è che tira le carrozze? Ron ormai era seriamente preoccupato ti senti bene Harry? io sì Harry era sconcertato il cavallo era lì davanti a lui scintillante e concreto nella luce tenue che emanava dalle finestre della stazione col vapore che gli usciva dalle narici nella fredd'aria notturna eppure a meno che non facesse apposta ed era uno scherzo molto stupido se lo era Ron non riusciva proprio a vederlo allora saliamo? chiese Ron dubbioso e guardò preoccupato Harry sì rispose Harry sì prima tu stai tranquillo disse una voce trassognata accanto a Harry mentre Ron spariva nel buio interno della carrozza non stai impazzendo li vedo anch'io davvero? chiese Harry disperato voltandosi verso Luna vide i cavalli con le ali da pipistrello riflessi nei grandi occhi argentei della ragazza oh sì confermò Luna li vedo dal primo giorno che vengo qui hanno sempre tirato le carrozze non preoccuparti sei sano di mente quanto me con un vago sorriso salì dietro Ron nell'aria stantia della carrozza non del tutto rassicurato Harry la seguì la nuova canzone del cappello parlante Harry non voleva dire agli altri che lui e Luna avevano la stessa allucinazione se di questo si trattava così non parlò più dei cavalli prese posto nella carrozza e chiuse lo sportello con forza tuttavia non pote fare a meno di osservare le loro sagome che si muovevano fuori dal finestrino l'avete vista tutti la grabbly plank chiese Ginny che cosa ci fa di nuovo qui Hagrid non può essere andato via vero ne sarei felice disse Luna non è un insegnante molto bravo no sì invece la rimbeccarono Harry Ron e Ginny Harry guardò torvo Hermione lei si schiarì la voce e disse in fretta sì è molto bravo beh noi di Corvo Nero pensiamo che sia un po' ridicolo insistè Luna imperterrita allora avete un pessimo senso dell'umorismo sbottò Ron le ruote sotto di loro si avviarono cigolando Luna non parve turbata dall'insolenza di Ron al contrario si limitò a guardarlo per un po' come se fosse un programma televisivo di blando interesse sbatacchiando e ondeggiando le carrozze avanzarono in fila lungo la strada quando passarono dal cancello che portava nel territorio della scuola fra gli alti pilastri di pietra sovrastati da cinghiali alati Harry si sporsa in avanti per cercare di vedere se c'erano luci accese nella capanna di Hagrid vicino alla foresta proibita ma i prati erano immersi in una completa oscurità il castello di Hogwarts tuttavia incombeva sempre più vicino una massa imponente di torrette nero giaietto contro il cielo scuro e qua e là una finestra diffondeva una luce vibrante sopra di loro le carrozze si fermarono sferragliando accanto ai gradini di pietra che salivano al portone di quercia Harry scese per primo e si voltò di nuovo in cerca di finestre illuminate giù vicino alla foresta ma non c'era alcun segno di vita nella capanna di Hagrid riluttante perché aveva quasi sperato che sarebbero scomparse rivolse invece lo sguardo alle strane creature scheletriche immobili e tranquille nella gelida aria notturna i vacui occhi bianchi che brillavano a Harry era già successo una volta di vedere qualcosa che Ron non vedeva ma in quel caso si era trattato di un riflesso in uno specchio molto più inconsistente di un centinaio di bestie dall'aspetto assai concreto tanto forti da tirare un convoglio di carrozze a sentire l'una le bestie erano sempre state lì invisibili allora perché Harry all'improvviso riusciva a vederle e Ron no vieni disse Ron a suo fianco oh sicuro rispose Harry e si unirono alla folla che si affrettava a salire i gradini per entrare nel castello la sala d'ingresso era splendente di torce e deccheggiava dei passi degli studenti che attraversavano il pavimento di pietra diretti alla doppia porta sulla destra che portava nella sala grande al banchetto di inizio anno nella sala grande i quattro lunghi tavoli delle case si stavano riempiendo sotto il cielo nero privo di stelle identico a quello che si scorgeva dalle alte finestre candele galleggiavano a mezz'aria sopra i tavoli illuminando i fantasmi argenti sparpagliati nella sala e i volti degli studenti immersi in fitte conversazioni intenti a scambiarsi notizie dell'estate a gridare saluti agli amici delle altre case a osservare i loro nuovi abiti e taglie di capelli Harry notò ancora una volta che alcuni sussurravano al suo passaggio strinse i denti e cercò di comportarsi come se non se ne accorgesse o non gli importasse Luna si allontanò da loro per raggiungere il tavolo di corvo nero quando furono a quello di Grifondoro Ginny fu chiamata da alcuni compagni del quarto anno e andò con loro Harry, Ron, Hermione e Neville si sedettelo vicini a metà del tavolo tra Nick quasi senza testa il fantasma di Grifondoro e Parvati Patil e Lavanda Brown queste ultime rivolsero a Harry saluti fin troppo amichevoli dai quali capì che avevano smesso di parlare di lui un attimo prima ma Harry aveva preoccupazioni più importanti guardò oltre le teste degli studenti il tavolo degli insegnanti lungo la parete in fondo alla sala non c'è anche Ron e Hermione scorsero con lo sguardo il tavolo degli insegnanti benché non ce ne fosse bisogno la taglia di Hagrid lo rendeva evidente a colpo d'occhio non può essersene andato disse Ron un po' inquieto certo che no concordò deciso Harry non pensate che sia malato o ferito chiese Hermione inquieta no rispose subito Harry ma allora dov'è ci fu una pausa poi Harry disse molto piano in modo che Neville Parvati e Lavanda non sentissero forse non è ancora tornato sapete la sua missione quella cosa che doveva fare in estate per Silente sì sì deve essere così disse Ron rassicurato ma Hermione si morse il labbro osservando gli insegnanti come se sperasse in una spiegazione definitiva dell'assenza di Hagrid chi è quella? chiese in tono brusco indicando il centro del tavolo lo sguardo di Harry seguì il suo si posò prima sul professor Silente seduto sul suo seggio d'oro dall'alto schienare al centro del lungo tavolo indossava una veste viola scuro cosparsa di stelle d'argento e un cappello in tinta la testa di Silente era china verso la strega seduta accanto a lui che gli parlava all'orecchio aveva l'aspetto pensò Harry di una zia zitella tarchiata con corti capelli ricci color topo in cui aveva infilato un orrendo cerchietto rosa come il vaporoso cardigan che indossava sopra la veste voltò appena il viso per bere un sorso dal calice Harry riconobbe con orrore una faccia pallida da rospo e un paio di gonfiocchi sporgenti era Umbridge chi? chiese Hermione era alla mia udienza lavora per fudge bel cardigan commentò Ron con una smorfia lavora per fudge ripete Hermione accigliata ma allora che cosa diavolo ci fa qui? non so con gli occhi ridotti a fessure Hermione controllò il tavolo degli insegnanti no borbottò no impossibile Harry non capì di che cosa parlava ma non glielo chiese la sua attenzione era stata catturata dalla professoressa Grubbly Plank appena comparsa dietro il tavolo che si faceva strada fino all'estremità e sedeva nel posto che avrebbe dovuto occupare Hagrid ciò significava che quelli del primo anno dovevano aver attraversato il lago e raggiunto il castello infatti qualche istante dopo si aprirono le porte e dalla sala d'ingresso entrò una lunga fila di bambini dall'aria spaventata in testa c'era la professoressa McGonagall che reggeva uno sgabello sul quale era posato un antico cappello da mago pieno di toppe e rammendi con un ampio strappo vicino al bordo sfilacciato il chiacchiericcio nella sala grande svanì i bambini del primo anno si allinearono davanti al tavolo degli insegnanti col viso rivolto verso il resto degli studenti la professoressa McGonagall posò con cautela lo sgabello davanti a loro poi si trasse indisparte i volti degli studenti del primo anno riducevano pallidi alla luce delle candele un bambinetto al centro della fila sembrava tremare Harry ricordò per un attimo il terrore che aveva sentito quando si era trovato lì in piedi in attesa della prova ignota che avrebbe deciso la sua casa di appartenenza tutta la scuola aspettava col fiato sospeso poi lo strappo vicino al bordo del cappello si spalancò come una bocca e il cappello parlante prese a cantare quando era un cappello silente e ancora nuovo e Hogwarts da poco di Maghi era un covo i suoi quattro padri i suoi fondatori restavano uniti senza odi o rancori comune era il loro più grande ideale che il nostro sapere sia reso immortale così edifichiamo in un solco profondo la scuola di Maghi migliore del mondo restiamo concordi facciamo una scuola la nostra sapienza in fondo è una sola insieme affrontiamo quel che è da decidere nessun sognerà di poterci dividere nessuno è leale quant'è rancostoro così serpeverde così grifondoro nessuno è più amico in modo sincero come tassofrasso fu di corvo nero eppure qualcosa dovette andar storto perché il sentimento ben presto fu morto ebbene a quel tempo io ero presente e posso narrarvi la storia dolente parlò serpeverde sol chi ha sangue puro è degno di avere da mago il futuro parlò corvo nero del mago l'essenza è essere il primo per intelligenza parlò grifondoro bisogna dar saggio soltanto di avere enorme coraggio parlò tassofrasso a grande importanza che sia rispettata la vera uguaglianza al primo momento fu poco il fastidio che venne causato dal loro dissidio e questo poteva succedere perché ognuno una casa aveva per sé e per insegnare quel che preferiva così serpeverde per scelta elettiva prendeva rampolli di nobile schiatta quanto la sua stessa la razza sia intatta ma per corvo nero i più pronti intelletti finivano per essere gli allievi perfetti mentre grifondoro sceglieva seguaci fra tutti i maghetti per certo più audaci nessuno più in alto nessuno più in basso nel gruppo omogeneo che andò a tassofrasso quartetto di maghi quartetto di case l'accordo era saldo la pace rimase e furono ancora annate felici in cui a scuola a Hogwarts si era tra amici finché la discordia non vinse gli affetti facendosi forte dei nostri difetti le case che furono già i quattro pilastri del forte di Hogwarts causaron disastri ognuna ogni altra nemica da odiare la pace per sempre sembrò tramontare la scuola pareva crollare giù a terra perché fra gli amici non c'era che guerra dove erano sorelle dove erano fratelli restavan soltanto oltraggi e duelli ma poi Serpeverde si mise in cammino sparì dalla scuola un certo mattino seppur terminarono gli odi più acuti non fummo più amici restammo abbattuti da allora dissolta fu la compagnia tre erano a Hogwarts il quarto andò via ma fra queste case da che se ne andò l'antica armonia già mai ritornò e adesso sentite il cappello parlante di cui conoscete il tema costante capisco chi siete e a una casa vi assegno a questa mansione è adatto il mio ingegno ma l'anno è speciale e la mia canzone si spinge un po' oltre l'usata funzione io sono costretto a farvi dividere ma che ciò sia giusto non riesco a decidere è compito mio e tutti lo sanno formar quattro gruppi lo faccio ogni anno ma il loro distacco e il dubbio è supremo potrebbe causare la fine che temo pensate ai pericoli i segni leggete la storia ha dei moniti li conoscerete un grande nemico esterno e mortale potrebbe annientarci il rischio è reale per batterlo amici la strada è una sola restiamo sempre uniti e salviamo la scuola ho messo in avviso chi a me è stato attento adesso procedo con lo smistamento il cappello tornò immobile scoppiò un applauso anche se inframezzato per la prima volta a quanto ricordava Harry da borbottie e sussurri per tutta la sala grande gli studenti si scambiavano commenti e Harry battendo le mani con gli altri sapeva con precisione di che cosa parlavano ha un po' esagerato quest'anno eh commentò Ron le sopracciglia inarcate altro che rispose Harry il cappello parlante di solito si limitava a descrivere le qualità diverse che ciascuna delle quattro case di Hogwarts ricercava e il proprio ruolo nel riconoscerle Harry non ricordava che avesse mai cercato di dare consigli alla scuola chissà se ha mai dato avvertimenti prima d'ora si chiese Hermione un po' preoccupata si sicuro disse Nick quasi senza testa con tono saputo curvandosi su di lei attraverso Neville che trasalì è molto spiacevole avere un fantasma che ti attraversa il cappello si sente tenuto a dare alla scuola i necessari consigli tutte le volte che avverte ma la professoressa McGonagall che aspettava di leggere la lista dei ragazzi del primo anno fulminò gli studenti con lo sguardo Nick quasi senza testa si posò un dito trasparente sulle labbra e tornò a sedersi sussiegoso mentre il borbottio si interrompeva dopo un ultimo sguardo accigliato che percorse i quattro tavoli delle case la professoressa McGonagall abbassò gli occhi sulla lunga pergamena e pronunciò a voce alta e chiara il primo nome Abercrombie Ewan il bambino terrorizzato che Harry aveva già notato avanzò barcollando e si mise in testa il cappello che non gli cadde fino alle spalle solo perché aveva le orecchie molto sporgenti il cappello meditò un istante poi lo strappo vicino al bordo si aprì di nuovo e urlò Grifondoro Harry applaudì forte con gli altri Grifondoro Ewan Abercrombie si avvicinò mal sicuro al tavolo e si sedette con l'aria di chi avrebbe molto gradito sprofondare nel pavimento e non farsi mai più vedere lentamente la lunga fila di bambini del primo anno si ridusse nelle pause tra i nomi e le decisioni del cappello parlante Harry sentiva lo stomaco di Ron borbottare forte finalmente Zeller Rose fu assegnata a tassofrasso la professoressa McGonagall portò via cappello e sgabello e il professor Silente si alzò per quanto fosse amareggiato dal comportamento del suo preside Harry fu in qualche modo tranquillizzato nel vedere Silente davanti a tutti loro tra l'assenza di Hagrid e la presenza di quei cavalli simili a Draghi sentiva che il ritorno tanto atteso a Hogwarts era pieno di sorprese inaspettate come note stonate in una canzone familiare ma questo almeno era come doveva essere il loro preside che si alzava per salutarli tutti prima del banchetto di inizio anno ai nuovi arrivati disse Silente con voce forte le braccia allargate e un gran sorriso sulle labbra benvenuti ai nostri vecchi amici bentornati c'è un tempo per i discorsi ma non è questo dateci dentro ci fu una risata di approvazione e uno scoppio di applausi mentre Silente sedeva con garbo e si gettava la lunga barba sulla spalla per tenerla lontana dal piatto il cibo era parso dal nulla e i cinque lunghi tavoli erano carichi di arrosti e pasticci e piatti di verdure pane e salse e boccali di succo di zucca ottimo disse Ron con un gemito di desiderio e afferrato il piatto di costolette più vicino prese ad ammucchiarle sul suo sotto lo sguardo assorto di Nick quasi senza testa che cosa stava dicendo prima dello smistamento chiese Ermione al fantasma il cappello dà consigli oh sì rispose Nick lieto di avere un motivo per distrarsi da Ron che mangiava patate arrosto con un entusiasmo quasi indecente sì ho sentito dire che il cappello l'ha già fatto sempre quando ha avvertito periodi di enorme pericolo per la scuola e naturalmente il suo consiglio è sempre lo stesso restate uniti siate forti dall'interno come fa peff uova in pvico fanpello chiese Ron aveva la bocca così piena che a Henry sembrò un gran risultato che riuscisse a emettere un qualunque verso pardon domandò educatamente Nick quasi senza testa Ermione era visibilmente disgustata Ron indiottì un boccone immenso e disse come fa a sapere che la scuola è in pericolo se è un cappello non ne ho idea rispose Nick quasi senza testa certo risiede nell'ufficio di Silente quindi oserei dire che raccoglie le sue informazioni lassù e vuole che tutte le case siano amiche chiese Henry guardando il tavolo di serpe verde dove Draco Malfoy teneva banco proprio un gioco da ragazzi beh ecco non dovresti assumere questo atteggiamento lo rimproverò Nick cooperazione pacifica questa è la chiave noi fantasmi anche se apparteniamo a case distinte manteniamo legami di amicizia nonostante la competitività fra Grifondoro e serpe verde non mi sognerei mai di scatenare una disputa con il barone sanguinario solo perché ne ha paura disse Ron Nick quasi senza testa fu enormemente offeso paura? io Sir Nicholas de Mimsy Porpington mi pregio di non essere mai stato colpevole di codardia nella mia vita il nobile sangue che scorre nelle mie vene quale sangue chiese Ron non ne ha più è un modo di dire esclamò Nick quasi senza testa ormai così irritato che la testa semi mozzata gli tremava in modo minaccioso suppongo di poter ancora far uso delle parole che preferisco anche se i piaceri del mangiare e del bere mi sono negati ma sono abbastanza avvezzo a che gli studenti tragano divertimento dalla mia morte te lo garantisco non la voleva prendere in giro Nick disse Ermione scoccando un'occhiata furiosa a Ron purtroppo Ron aveva di nuovo la bocca piena da scoppiare e riuscì a boffonchiare solo che Nick non parve considerare una scusa adeguata si levò a mezz'aria raddrizzò il cappello piumato e volò via verso l'altro capo del tavolo dove atterrò tra i due fratelli Crivei Colin e Dennis bravo Ron esplose Ermione cosa disse Ron indignato dopo essere riuscito finalmente a mandar giù non posso fare una semplice domanda lascia perdere tagliò corto Ermione irritata e i due passarono il resto della cena immersi in un silenzio scocciato Harry era troppo abituato ai loro battibecchi per preoccuparsi di riconciliarli pensò che avrebbe speso meglio il suo tempo attaccando con decisione tutto il suo pasticcio di carne e rognone poi una gran fetta di torta alla melassa la sua preferita quando tutti gli studenti ebbero finito di mangiare e il frastuono nella sala prese a crescere Silente si alzò un'altra volta smisero tutti all'istante di parlare e si voltarono verso il preside Harry si sentiva piacevolmente assonnato il suo letto a baldacchino lo aspettava lassù meravigliosamente caldo e morbido bene ora che stiamo tutti digerendo un altro splendido banchetto chiedo alcuni istanti della vostra attenzione per i soliti avvisi cominciò Silente quelli del primo anno devono sapere che la foresta nel parco della scuola è proibita agli studenti e ormai dovrebbero saperlo anche alcuni dei nostri studenti più anziani Harry Ron e Hermione si scambiarono dei sorrisetti il signor Filch il custode mi ha chiesto per quella che mi riferisce essere la 462esima volta di ricordarvi che la magia non è permessa nei corridoi tra le classi così come un certo numero di altre cose che si possono controllare sulla lista completa ora appesa alla porta del suo ufficio abbiamo avuto due avvicendamenti nel corpo insegnanti quest'anno siamo molto felici di salutare di nuovo la professoressa Grabley Plank che terrà le lezioni di cura delle creature magiche siamo anche lieti di presentare la professoressa Umbridge nostra nuova insegnante di difesa contro le arti oscure ci fu un giro di applausi educati ma decisamente poco entusiasti Harry Ron e Hermione si scambiarono sguardi di vago panico Silente non aveva detto per quanto tempo la professoressa Grabley Plank avrebbe insegnato Silente riprese i provini per le squadre di Quidditch delle case si terranno il si interruppe guardando interrogativo la professoressa Umbridge siccome non era molto più alta in piedi che da seduta per un attimo nessuno capì perché Silente avesse smesso di parlare ma poi lei si schiarì la voce e fu chiaro che si era alzata e intendeva tenere un discorso Silente parve stupito solo per un attimo poi si sedette prontamente e guardò con molta attenzione la professoressa Umbridge come se non desiderasse altro che ascoltarla altri membri del corpo insegnanti non furono così abili nel nascondere la loro sorpresa le sopracciglia della professoressa Sprout scomparvero sotto i capelli svolazzanti e le labbra della professoressa McGonagall non erano mai state così sottili nessun nuovo insegnante aveva mai interrotto Silente prima d'allora molti studenti ammiccarono era chiaro che quella donna non sapeva come andavano le cose a Hogwarts grazie preside disse in tono lezioso la professoressa Umbridge per le gentili parole e di benvenuto la sua voce era acutissima tutta di gola da bambinetta e di nuovo Harry provò un potente moto di disgusto che non riuscì a spiegarsi sapeva solo che detestava tutto di lei dalla sua stupida voce al suo soffice cardigan rosa lei fece un altro colpetto di tosse per schiarirsi la voce e continuò beh devo dire che è delizioso essere di nuovo a Hogwarts sorrise rivelando denti molto aguzzi e vedere queste faccette felici che mi guardano Harry si guardò intorno nessuno dei volti che vedeva aveva un'aria felice al contrario erano tutti sconcertati dal fatto che si rivolgesse loro come se avessero cinque anni non vedo l'ora di conoscervi tutti e sono certa che saremo ottimi amici gli studenti si scambiarano occhiate e alcuni nascosero a stento delle smorfie sarò sua amica basta che non mi presti mai quel cardigan sussurrò parvati a lavanda e tutte e due furono scosse da risatine silenziose la professoressa Umbridge si schiarì la voce di nuovo ma quando riprese un po' del timbro di gola era sparito suonava molto più pratica e le sue parole avevano il tono piatto di un discorso imparato a memoria il ministero della magia ha sempre considerato l'istruzione dei giovani maghi e streghe di vitale importanza i lari doni con i quali siete nati possono non dare frutto se non vengono alimentati e perfezionati da un'educazione attenta le antiche abilità della comunità dei maghi devono essere trasmesse di generazione in generazione o le perderemo per sempre il tesoro della sapienza magica accumulato dai nostri antenati deve essere sorvegliato arricchito e rifinito da coloro che sono stati chiamati alla nobile professione dell'insegnamento la professoressa Umbridge qui fece una pausa e rivolse un breve inchino ai colleghi nessuno dei quali rispose le scure sopracciglia della professoressa McGonagall si erano contratte tanto da darle il cipiglio di un falco e Harry la vide chiaramente scambiare uno sguardo eloquente con la professoressa Sprout mentre la Umbridge faceva un altro piccolo hem hem e continuava il suo discorso ogni preside mago o strega di Hogwarts ha portato il proprio contributo all'oneroso compito di governare questa scuola storica ed è così che deve essere perché senza progresso vi sarebbero torpore e decadenza e tuttavia il progresso per il progresso deve essere scoraggiato perché le nostre consolidate tradizioni spesso non richiedono correzioni un equilibrio dunque fra il vecchio e il nuovo fra la stabilità e il cambiamento fra la tradizione e l'innovazione Harry sentì l'attenzione calare come se il suo cervello ogni tanto fosse fuori sintonia la calma che riempiva sempre la sala quando parlava silente si stava infrangendo e gli studenti avvicinavano le teste per bisbigliare e ridacchiare al tavolo di corvo nero Cho Chan discuteva animatamente con le sue amiche qualche posto più in là Luna Lovegood aveva estratto di nuovo il cavillo nel frattempo al tavolo di tasso frasso Ernie McMillen era uno dei pochi che ancora fissavano la professoressa Umbridge ma aveva lo sguardo vitreo e Ernie era certo che fingesse solo di ascoltare nel tentativo di dimostrarsi degno della nuova spilla da prefetto che scintillava sulla sua veste la professoressa Umbridge non parve notare l'irrequietezza della platea Ernie aveva l'impressione che avrebbe potuto scoppiarle sotto il naso una rissa in piena regola e lei avrebbe tirato dritto col suo discorso gli insegnanti tuttavia ascoltavano ancora con molta attenzione e Ermione sembrava bersi ogni singola parola anche se a giudicare dalla sua espressione non erano affatto di suo gusto perché alcuni cambiamenti saranno per il meglio mentre altri a tempo debito verranno riconosciuti come errori di giudizio nel frattempo alcune vecchie abitudini verranno mantenute e a ragione mentre altre obsolete e consunte devono essere abbandonate andiamo avanti dunque in una nuova era di apertura concretezza e responsabilità decisi a conservare ciò che deve essere conservato perfezionare ciò che ha bisogno di essere perfezionato e tagliare là dove troviamo abitudini che devono essere abolite sedette silente applaudì gli insegnanti seguirono il suo esempio anche se Henry notò che alcuni unirono le mani solo una o due volte prima di smettere alcuni studenti fecero lo stesso ma quasi tutti erano stati colti di sorpresa dalla fine del discorso avendone ascoltato solo qualche parola e prima che potessero mettersi ad applaudire sul serio silente si alzò di nuovo grazie infinite professoressa Umbridge è stato profondamente illuminante disse con un inchino ora come dicevo i provini per il quidditch si terranno sì è stato illuminante davvero commentò Hermione a bassa voce non mi dirai che ti è piaciuto replicò piano Ron rivolgendo uno sguardo inespressivo a Hermione è il discorso più noioso che abbia mai sentito e io sono cresciuto con persi ho detto illuminante non piacevole precisò Hermione ha spiegato molto davvero chiese Henry sorpreso a me sono sembrate un sacco di ciance c'erano cose importanti nascoste tra le ciance rispose Hermione cupa sul serio disse Ron in tono piatto che cosa ne dite di il progresso per il progresso deve essere scoraggiato e di tagliare là dove troviamo abitudini che devono essere abolite beh che cosa vuol dire chiese Ron impaziente te lo spiego io rispose Hermione minacciosa vuol dire che il ministero si sta intromettendo negli affari di Hogwarts attorno a loro si levò un gran sbatacchiare era chiaro che Silente aveva appena congedato gli studenti perché tutti si alzavano pronti a uscire dalla sala Hermione scattò in piedi turbata Ron dobbiamo mostrare la strada a quelli del primo anno oh sicuro disse Ron che chiaramente se l'era dimenticato ehi ehi voi nanerottoli Ron beh è vero sono minuscoli lo so ma non puoi chiamarli nanerottoli voi del primo anno gridò Hermione in tono autoritario lungo il tavolo da questa parte per favore un gruppo di nuovi studenti si avviò timidamente lungo lo spazio fra i tavoli di grifondoro e di tassofrasso ciascuno deciso a non passare per primo sembravano davvero molto piccoli Harry era certo di non aver avuto un'aria così giovane al suo arrivo rivolse loro un gran sorriso un ragazzino biondo vicino a Yuan Abercrombie rimase pietrificato diede una gomitata a Yuan e gli sussurrò qualcosa all'orecchio Yuan Abercrombie sembrò altrettanto spaventato e scoccò uno sguardo di terrore a Harry che sentì il gran sorriso scivolargli via dalla faccia come puzza linfa ci vediamo dopo disse a Ron e Ermione e uscì dalla sala grande da solo sforzandosi di ignorare altri mormorii altri sguardi fissi e altri cenni al suo passaggio tenne lo sguardo puntato davanti a sé facendosi strada fra la calca nella sala d'ingresso poi corse su per la scalinata di marmo imboccò un paio di scorciatoie nascoste e ben presto si lasciò alle spalle gran parte della folla era stato uno stupido a non prevederlo pensò con rabbia percorrendo i corridoi molto più sgombri dei piani di sopra naturale che lo guardassero tutti due mesi prima era sbucato dal labirinto del tre maghi col cadavere di un compagno affermando che il lord Voldemort era tornato anche nel caso in cui se la fosse sentita di fornire alla scuola intera un resoconto dettagliato dei terribili eventi accaduti in quel cimitero non c'era stato tempo di dare spiegazioni prima che andassero tutti a casa alla fine dell'anno Harry aveva raggiunto la fine del corridoio che portava nella sala comune di Grifondoro e si arrestò davanti al ritratto della signora grassa prima di rendersi conto che non conosceva la nuova parola d'ordine mormorò depresso fissando la signora grassa che si disciò le pieghe dell'abito di saten rosa e sostenne il suo sguardo con fermezza niente parola d'ordine niente ingresso disse altezzosa Harry la so io qualcuno arrivava ansante alle sue spalle voltandosi Harry vide Neville che trottava verso di lui indovina per una volta me la ricorderò agitò il piccolo cactus striminzito che gli aveva mostrato in treno mimbulus mimbletonia esatto disse la signora grassa e il suo ritratto si spalancò verso di loro come una porta rivelando un buco circolare nella parete la sala comune di grifondoro era accogliente come sempre una confortevole stanza rotonda in una torre piena di poltrone spellate e mollicce e di vecchi tavoli traballanti un fuoco scoppiettava allegramente nel camino e alcuni ragazzi si scaldavano le mani prima di salire nei loro dormitori dall'altra parte della stanza Fred e George Weasley stavano appendendo qualcosa alla bacheca Harry li salutò con la mano e puntò dritto verso la porta che conduceva al dormitorio dei maschi non aveva molta voglia di chiacchierare al momento Neville lo seguì Dean Thomas e Simus Finnegan erano arrivati per primi e stavano coprendo le pareti accanto ai loro letti di poster e fotografie parlavano quando Harry aprì la porta ma si interruppero di colpo non appena lo videro Harry si chiese se per caso stavano parlando di lui poi se per caso stava diventando paranoico ciao disse si avvicinò al proprio baule e lo aprì ehi Harry rispose Dean che si stava infilando un pigiama con i colori del West Ham belle vacanze non male borbottò Harry poiché una cronaca veritiera della sua vacanza avrebbe occupato gran parte della notte e non se la sentiva e tu si tutto bene disse Dean con una risatina soffocata meglio di quelle di Simus comunque mi stava raccontando proprio adesso perché che cosa è successo Simus chiese Neville posando con delicatezza la sua mimbulus mimbletonia sul comodino Simus non rispose subito era molto impegnato ad assicurarsi che il poster della squadra di Quidditch dei Kenmare Kestrels fosse ben diritto poi disse dando ancora la schiena a Harry la mamma non voleva che tornassi qui che cosa fece Harry mobilizzandosi nell'atto di tirar fuori i suoi abiti non voleva che tornassi a Hogwarts Simus si voltò e prese il pigiama dal baule sempre senza guardare Harry ma perché chiese Harry esterrefatto sapeva che la madre di Simus era una strega e non riusciva a capire come potesse essere diventata così simile ai Darsley Simus non rispose finché non ebbe finito di abbottonarsi il pigiama beh disse poi con voce misurata immagino per colpa tua che cosa vuoi dire chiese Harry in fretta il suo cuore batteva forte aveva la vaga sensazione che qualcosa gli si stesse chiudendo addosso beh ripetè Simus evitando ancora lo sguardo di Harry lei beh non sei solo tu è anche Silente crede alla gazzetta del profeta disse Harry crede che io sia un bugiardo e Silente un vecchio pazzo Simus lo guardò sì qualcosa del genere Harry non replicò gettò la bacchetta sul comodino si tolse la veste la ficcò rabbioso nel baule e si infilò il pigiama era stufo marcio stufo di essere la persona che tutti fissavano e di cui tutti parlavano di continuo se avessero saputo se uno solo di loro avesse avuto la più vaga idea di come ci si sentiva a essere quello a cui erano successe tutte quelle cose che ne sapeva la signora Finnegan quella stupida pensò con ferocia si infilò nel letto e fece per tirare le tende attorno a sé Massimus disse senti cos'è successo veramente quella notte quando sì insomma quando con Cedric Diggory sembrava teso e curioso allo stesso tempo Dean che era chino sul suo baule nel tentativo di recuperare una ciabatta si immobilizzò e Henry capì che stava ascoltando perché me lo chiedi? ribatte Henry basta che tu legga la gazzetta del profeta come tua madre no? ti dirà tutto quello che hai bisogno di sapere non prendertela con mia madre sbottò Simus me la prendo con chiunque mi dia del bugiardo ribatte Henry non parlarmi con quel tono io parlo come mi pare e piace disse Henry con ira crescente tanto che riprese la bacchetta dal comodino se è un problema dividere il dormitorio con me vai a chiedere alla McGonagall di spostarti così tua mamma non sta più in pensiero lascia stare mia madre Potter che cosa succede? Ron era apparso sulla soglia i suoi occhi spalancati si spostarono da Henry inginocchiato sul letto con la bacchetta puntata contro Simus a Simus in piedi con i pugni levati offende mia madre urlò Simus che cosa? disse Ron Henry non lo farebbe mai abbiamo conosciuto tua madre c'è simpatica prima che si mettesse a credere a quello schifo della gazzetta del profeta gridò Henry ah fece Ron cominciando a capire ah ecco la sai una cosa? disse Simus infervorato scoccando a Henry un'occhiata velenosa ha ragione io non voglio più stare in dormitorio con lui è pazzo stai esagerando Simus ribatte Ron le sue orecchie cominciavano a diventare rosse ed era sempre un segnale di pericolo io esagero? urlò Simus che a differenza di Ron stava diventando pallido tu credi a tutte le sciocchezze che ha sparato su tu sai chi vero? tu sei convinto che dica la verità? sì certo rispose Ron arrabbiato allora sei pazzo anche tu concluse Simus disgustato davvero? beh purtroppo per te amico sono anche un prefetto Ron si picchiò il petto con un dito quindi se non vuoi un castigo occhio a quello che dici per qualche attimo parve che Simus considerasse un castigo un prezzo ragionevole per dire quello che gli passava per la mente poi con un verso sprezzante si voltò balzò nel letto e chiuse le tende così violentemente che si strapparono e cadero in una pila polverosa sul pavimento Ron guardò torvo Simus poi si rivolse a Dean e Neville i genitori di qualcun altro hanno problemi con Harry? chiese in tono aggressivo i miei sono babbani amico disse Dean con un'alzata di spalle non sanno niente di morti a Hogwarts perché non sono così stupido da raccontarglielo tu non conosci mia madre riuscirebbe a farsi raccontare qualsiasi cosa da chiunque ribatté Simus e poi i tuoi genitori non leggono la gazzetta del profeta non sanno che il nostro preside è stato licenziato dal Wisen Gamot e dalla Confederazione Internazionale dei Maghi perché ha qualche rotella fuori posto mia nonna dice che sono scemenze intervenne Neville dice che è la gazzetta del profeta che sta peggiorando non silente ha disdetto l'abbonamento noi crediamo a Harry concluse con semplicità si arrampicò sul letto e si tirò le coperte fino al mento guardando Simus al di sopra di esse come un gufo mia nonna ha sempre detto che tu sai chi sarebbe tornato un giorno e se silente dice che è tornato è tornato Harry provò un moto di gratitudine per Neville nessun altro parlò Simus estrasse la bacchetta riparò le tende e ci sparì dietro Dean entrò nel letto si voltò e tacque Neville che a sua volta pareva non aver nient'altro da aggiungere guardava con affetto il suo cactus illuminato dalla luna Harry ricadde sui cuscini mentre Ron si affaccendava attorno al letto vicino mettendo via le sue cose era scosso dalla lite con Simus che gli era sempre stato molto simpatico quanta altra gente avrebbe insinuato che lui mentiva o era impazzito silente aveva sofferto così tutta l'estate quando prima il Wisengamot poi la Confederazione Internazionale dei Maghi l'avevano radiato era la rabbia verso Harry forse che gli aveva impedito di mettersi in contatto con lui per mesi erano nella stessa barca dopo tutto silente aveva creduto a Harry aveva annunciato la sua versione degli eventi a tutta la scuola e poi alla più vasta comunità magica chiunque pensasse che Harry fosse un bugiardo doveva pensarlo anche di silente oppure doveva credere che lui l'avesse ingannato alla fine scopriranno che abbiamo ragione pensò Harry sconfortato mentre Ron si infilava nel letto e spegneva l'ultima candela del dormitorio ma si chiese quanti altri attacchi come quello di Simus avrebbe dovuto sopportare prima che venisse quel momento la professoressa Umbridge la mattina dopo Simus si vestì in tutta fretta e uscì dal dormitorio prima che Harry avesse il tempo di infilarsi i calzini ha paura di diventare uno svitato se sta nella stessa stanza con me per troppo tempo chiese Harry ad alta voce mentre l'orlo della veste di Simus spariva svolazzando lascia stare Harry borbottò Dean hissandosi in spalla la borsa dei libri è solo ma non riuscì a dire con precisione che cos'era Simus e dopo una pausa di imbarazzo se ne andò anche lui sia Neville che Ron rivolsero a Harry uno sguardo che voleva dire è un problema suo non tuo ma lui non si sentì molto consolato quanto ancora avrebbe dovuto sopportare che cosa succede chiese Hermione cinque minuti dopo raggiungendo Harry e Ron nella sala comune per scendere a fare colazione sembri assolutamente oh per l'amor del cielo stava guardando la bacheca dove era stato affisso un grosso cartello nuovo galloni di galeoni le vostre paghette non bastano per le vostre spese vi piacerebbe guadagnare un po' contattate Fred e George Weasley sala comune di Grifondoro per un impiego semplice part time virtualmente indolore purtroppo il lavoro è a rischio e pericolo dei candidati hanno passato il limite commentò Hermione in tono cupo staccando il cartello che Fred e George avevano appeso sopra la comunicazione del primo fine settimana a Hogsmeade che sarebbe stato in ottobre dovremmo fargli un discorsetto Ron fece una faccia decisamente preoccupata perché? perché siamo prefetti esclamò Hermione attraversando il buco del ritratto sta a noi stroncare questo genere di cose Ron non rispose Harry capì dalla sua espressione accigliata che la prospettiva di impedire a Fred e George di fare esattamente quello che volevano non gli sembrava allettante ma insomma che cosa c'è Harry? continuò Hermione mentre scendevano una rampa di scale fiancheggiate da ritratti di vecchi maghi e streghe che immersi in una loro conversazione li ignorarono sembri proprio arrabbiato Simus crede che Harry stia mentendo su tu sei chi? spiegò Ron succinto quando Harry non rispose Hermione da cui Harry si aspettava una reazione stizzita sospirò sì anche Lavanda la pensa così avete fatto una bella chiacchieratina? avete discusso se sono un idiota bugiardo che cerca di attirare l'attenzione? scattò Harry no rispose Hermione tranquilla le ho detto di chiudere quella boccaccia veramente e sarebbe carino se la smettessi di aggredirci Harry perché nel caso non te ne sia accorto io e Ron siamo dalla tua parte ci fu una breve pausa scusa mormorò Harry figurati disse Hermione con grande sussiego poi scosse il capo non ti ricordi che cosa ha detto Silente al banchetto di fine anno? sia Harry che Ron la guardarono con aria smarrita e Hermione sospirò di nuovo su voi sapete chi? ha detto che la sua abilità nel seminare discordia e inimicizia è molto grande possiamo combatterla solo mostrando un legame altrettanto forte di amicizia e fiducia come fai a ricordarti una cosa del genere? chiese Ron guardandola ammirato ascolto Ron disse Hermione con una punta di asprezza anch'io ascolto però non saprei dirti che cosa il punto è proseguì Hermione che è esattamente di questo che parlava Silente voi sapete chi è tornato solo due mesi fa e abbiamo già cominciato a litigare fra noi e l'avvertimento del cappello parlante è lo stesso state vicini restate uniti Harry aveva ragione ieri sera ribatté Ron se vuol dire che dobbiamo fare gli amiconi con serpe verde non se ne parla proprio beh io penso che sia un peccato non sforzarsi di ottenere un po' di unità tra le case concluse Hermione severa erano arrivati ai piedi della scalinata di marmo una fila di corvo nero del quarto anno attraversava la sala d'ingresso avvistarono Harry e si affrettarono a stringersi tra loro come se avessero paura che potesse attaccare gli isolati sì dovremmo proprio fare amicizia con gente del genere commentò Harry sarcastico seguirono quelli di corvo nero nella sala grande ed entrando guardarono tutti distinto verso il tavolo degli insegnanti la professoressa Grubbly Plank chiacchierava con la professoressa sinistra l'insegnante di astronomia e Hagrid ancora una volta si notava solo per l'assenza il soffitto incantato sopra di loro rifletteva l'umore di Harry un deprimente grigio da pioggia silente non ha nemmeno detto quanto resterà la Grubbly Plank osservò Harry mentre raggiungevano il tavolo di Grifondoro forse disse Hermione pensierosa cosa chiesero Harry e Ron in coro beh forse non voleva attirare l'attenzione sul fatto che Hagrid non è qui come sarebbe attirare l'attenzione disse Ron con una mezza risata come facevamo a non accorgercene prima che Hermione potesse rispondere una ragazza di colore alta e con lunghe trecine si avvicinò a Harry ciao Angelina ciao disse lei in tono spiccio bella estate e senza aspettare risposta senti sono diventata capitano della squadra di Quidditch di Grifondoro magnifico Harry le rivolse un gran sorriso immaginava che le ramanzine di Angelina non sarebbero state prolisse come quelle di Oliver Wood il che poteva essere solo un miglioramento sì beh abbiamo bisogno di un nuovo portiere adesso che Oliver se n'è andato i provini sono venerdì alle cinque e voglio che ci sia tutta la squadra d'accordo così possiamo vedere come si inserisce il nuovo giocatore va bene rispose Harry Angelina gli sorrise e se ne andò mi ero dimenticata che Wood non c'è più disse Hermione vaga sedendosi vicino a Ron e tirando verso di sé un piatto di pane tostato immagino che per la squadra farà una bella differenza vero credo di sì rispose Harry prendendo posto sulla panca di fronte era un buon portiere ma non sarà male avere delle nuove energie no? disse Ron tra fruscie e sbatterdali centinaia di gufi planarono dalle finestre in alto portando lettere e pacchetti ai destinatari e spruzzando i ragazzi seduti a far colazione con una pioggia di goccioline d'acqua evidentemente fuori pioveva forte Edvige non c'era ma Harry non ne fu sorpreso il suo unico corrispondente era Sirius e dubitava che avesse qualcosa di nuovo da dirgli dopo solo 24 ore Hermione invece dovette spostare in fretta il suo succo d'arancia per fare spazio un grosso umido gufo che reggeva nel becco una copia zuppa della Gazzetta del Profeta Come mai continui a riceverla? chiese Harry irritato pensando a Simus mentre Hermione infilava uno zellino nella bolsa di cuoio sulla zampa del gufo che decollò subito A me non interessa dice un mucchio di sciocchezze E' meglio sapere che cosa pensa il nemico rispose Hermione cupa poi srotolò il quotidiano ci sparì dietro e non riemerse finché Harry e Ron non ebbero finito di mangiare Niente disse semplicemente arrotolando il giornale e posandolo vicino al piatto niente su di te o su Silente o nient'altro la professoressa McGonagall avanzava lungo il tavolo distribuendo gli orari Guardate oggi gemette Ron storia della magia due ore di pozioni divinazione e due ore di difesa contro le arti oscure Beans Piton Trelawney e quella Umbridge tutti in un giorno spero che Fred e George si spiccino a perfezionare quelle merendine marinare Le mie orecchie mi ingannano? domandò Fred arrivando con George e stringendosi sulla panca vicino a Harry I prefetti di Hogwarts certo non desiderano saltare le lezioni vero? Guarda che cosa abbiamo oggi ribatte Ron scontroso ficcando l'orario sotto il naso di Fred è il lunedì peggiore che abbia mai visto hai ragione fratellino disse Fred scorrendo la colonna puoi avere un po' di torrone sanguinolento a buon prezzo se vuoi come mai costa poco chiese Ron insospettito perché continui a perdere sangue dal naso finché non ti prosciughi non abbiamo ancora trovato un antidoto rispose George servendosi una ringa affumicata grazie tante borbottò Ron intascando l'orario ma credo che sceglierò le lezioni e a proposito delle vostre merendine marinare intervenne Ermione scrutando Fred e George con gli occhi fiammeggianti non potete attaccare annunci sulla bacheca di Grifondoro per cercare cavie e chi lo dice chiese George esterrefatto io rispose Ermione e Ron lasciami fuori disse Ron in fretta Ermione lo guardò torva Fred e George ridacchiarono cambierai registro molto presto Ermione disse Fred spalmando uno spesso strato di burro su una focaccina stai cominciando il quinto anno e molto presto pregherai in ginocchio per una merendina e perché cominciare il quinto anno dovrebbe farmi desiderare una merendina marinara chiese Ermione il quinto è l'anno del GUFO e allora e allora si avvicinano gli esami no? vi faranno sgobbare da star male disse Fred con gusto metà di quelli del nostro anno hanno avuto un esaurimento nervoso in zona GUFO raccontò George allegramente lacrime e scenate Patricia Stimpson continuava a svenire a Kenneth Towler sono venute le pustole ti ricordi? continuò Fred abbandonandosi alle memorie perché gli avevi messo della polvere di Bulbadox nel pigiama gli rammentò George oh sì disse Fred con un ghigno me l'ero scordato è difficile tenere tutto a mente a volte vero? comunque è un anno da incubo il quinto proseguì George se a uno importano i risultati degli esami almeno io e Fred siamo riusciti a tenerci su sicuro avete preso quanti erano tre GUFO per ciascuno? chiese Ron sì rispose Fred con aria indifferente ma abbiamo la sensazione che il nostro futuro si estenda oltre il mondo dei successi accademici abbiamo seriamente discusso se dovevamo prenderci la briga di tornare qui per il settimo anno disse George tutto allegro adesso che abbiamo era lì lì per farsi scappare della vincita del tre maghi ma si interruppe a un'occhiataccia di Harry adesso che abbiamo i nostri GUFO concluse in fretta voglio dire abbiamo proprio bisogno dei MAGO ma abbiamo pensato che la mamma non avrebbe sopportato che lasciassimo la scuola in anticipo non adesso che Percy sia rivelato l'idiota più grande del mondo non abbiamo intenzione di sprecare l'ultimo anno che passiamo qui però disse Fred e guardò con affetto la sala grande lo useremo per fare un po' di ricerche di mercato scoprire esattamente che cosa chiede lo studente medio di Hogwarts a un negozio di scherzi valutare con attenzione i risultati della nostra indagine e infine proporre prodotti che soddisfino la domanda ma dove riprenderete i soldi per aprire un negozio di scherzi chiese Ermione scettica vi serviranno gli ingredienti e il materiale e anche i locali immagino Harry non guardò i gemelli si sentiva il viso bollente lasciò cadere apposta la forchetta in terra e si tuffò a riprenderla sentì Fred che diceva non farci domande e non ti racconteremo bugie Ermione andiamo George se arriviamo presto forse riusciamo a vendere un po' di orecchie oblunghe prima di erbologia Harry affiorò da sotto il tavolo e vide Fred e George allontanarsi carichi di pile di pane tostato che cosa voleva dire chiese Ermione guardando prima Harry poi Ron non farci domande vuol dire che hanno già dell'oro per aprire un negozio sai me lo chiedo anch'io disse Ron la fronte aggrottata mi hanno regalato un nuovo corredo di vestiti quest'estate e non sono riuscito a capire dove hanno preso i galeoni Harry decise che era ora di deviare la conversazione da quel terreno pericoloso pensate che davvero quest'anno sarà così duro oh sì disse Ron deve esserlo no i GUFO sono proprio importanti il lavoro che puoi cercare dipende da loro e tutto il resto quest'anno più avanti ci sono anche gli incontri di orientamento professionale me l'ha detto Bill così uno può scegliere i M-A-G-O che vuole affrontare l'anno prossimo voi lo sapete che cosa volete fare dopo Hogwarts chiese Harry agli altri due poco dopo quando uscirono dalla sala grande diretti a storia della magia non proprio disse Ron lentamente solo che beh sembrava un po' imbarazzato che cosa insiste Harry beh sarebbe forte diventare Auror rispose Ron disinvolto sì è vero concordò Harry però sono insomma il meglio disse Ron bisogna essere bravi sul serio e tu Hermione non so rispose lei credo che mi piacerebbe fare qualcosa di davvero utile un Auror è utile esclamò Harry sì è vero ma non è la sola cosa utile disse Hermione pensosa voglio dire se riuscissi a far crescere il crepa Harry e Ron evitarono accolatamente di guardarsi storia della magia era per opinione comune la materia più noiosa mai concepita dal mondo magico il professor Beans il loro insegnante fantasma aveva una voce affannosa e monotona che dava la garanzia quasi assoluta di una pesante sonnolenza entro dieci minuti cinque quando faceva caldo non variava mai la forma delle sue lezioni ma parlava senza interrompersi mentre gli allievi prendevano appunti o piuttosto fissavano il vuoto in sonnoliti Harry e Ron fino ad allora erano riusciti a strappare la sufficienza copiando gli appunti di Hermione prima degli esami solo lei sembrava capace di resistere al potere soporifero della voce di Beans quel giorno sopportarono tre quarti d'ora di borbottii sulle guerre dei giganti Harry sentì abbastanza nei primi dieci minuti da intuire che affidata a un altro insegnante la materia avrebbe potuto essere vagamente interessante ma a quel punto il suo cervello si scollegò e lui trascorse i restanti trentacinque minuti a giocare con Ron all'impiccato su un angolo della pergamena sotto gli sguardi torvi di Hermione che cosa succederebbe chiese lei in tono gelido quando uscirono dalla classe per l'intervallo Beans fluttuò via attraverso la lavagna se quest'anno mi rifiutassi di prestarvi i miei appunti verremmo bocciati al GUFO rispose Ron se vuoi questo peso sulla coscienza Hermione beh ve lo meritereste sbottò lei non ci provate nemmeno ad ascoltarlo vero ci proviamo e come ribatte Ron è solo che non abbiamo il tuo cervello o la tua memoria o la tua concentrazione sei più brava di noi tutto qui ti pare bello farcelo pesare no non rifilarmi queste sciocchezze disse Hermione ma parve un po' addolcita mentre marciava davanti a loro nel cortile umido cadeva una pioggerellina fitta e leggera e i ragazzi riuniti a gruppetti attorno al cortile sembravano come sfocati Henry Ron e Hermione scelsero un angolo appartato sotto un balcone che gocciolava pesantemente si rialzarono i colletti contro la fredda aria di settembre e parlarono di che cosa avrebbe preparato Piton per la prima lezione dell'anno erano arrivati a concordare che probabilmente sarebbe stato qualcosa di molto impegnativo per coglierli alla sprovvista dopo due mesi di vacanze quando qualcuno voltò l'angolo e venne verso di loro ciao Henry era Cho Chan e per di più era di nuovo sola cosa alquanto insolita Cho era quasi sempre circondata da una banda di ragazze ridacchianti Henry ricordava la difficoltà di trovarla da sola per invitarla al ballo del ceppo ciao le rispose e sentì che la faccia gli si scaldava almeno questa volta non sei coperto di puzza linfa si disse Cho a quanto pareva stava pensando la stessa cosa allora ti sei liberato di quella roba eh? sì rispose Henry cercando di sorridere come se il ricordo del loro ultimo incontro fosse divertente invece che umiliante allora hai passato una bella estate il tempo di pronunciare queste parole e desiderò di non averlo fatto Cedric era stato il ragazzo di Cho e il ricordo della sua morte doveva aver afflitto le sue vacanze almeno quanto quelle di Henry qualcosa parve irrigidirsi sul suo volto ma lei rispose oh è andato tutto bene sai è una spilla dei tornados chiese Ron all'improvviso indicando la veste di Cho dove era fissata una spilla azzurro cielo con incisa una doppia t d'oro non tieni mica per loro vero? sì rispose Cho da sempre o solo da quando hanno cominciato a vincere il campionato chiese Ron con un tono di voce che Henry giudicò eccessivamente accusatorio tengo per loro da quando avevo sei anni rispose Cho con freddezza comunque ci vediamo Henry e se ne andò Hermione aspettò che Cho fosse a metà cortile prima di scagliarsi contro Ron sei privo di qualsiasi tatto che cosa le ho chiesto solo se non hai capito che voleva parlare da sola con Henry e allora poteva farlo non glielo ho impedito perché l'hai aggredita sulla sua squadra di quidditch aggredita io non l'ho aggredita stavo solo chi se ne importa se tiene ai tornados oh andiamo metà della gente che vedi con quelle spille le ha comprate solo la stagione scorsa ma che importanza ha vuol dire che non sono dei veri tifosi saltano sul carrozzone del vincitore la campanella disse Henry svogliato perché Ron e Hermione discutevano a voce troppo alta per poterla sentire non smisero di litigare per tutta la strada fino al sotterraneo di Piton così Henry ebbe il tempo per riflettere che tra Neville e Ron sarebbe stato fortunato a sostenere due minuti di conversazione con ciò che poi potesse ricordare senza voler lasciare il paese eppure pensò mentre si univano alla coda che si allungava fuori dalla classe di Piton ciò aveva deciso di venire a parlare con lui no? era stata la ragazza di Cedric avrebbe potuto odiare Henry per essere uscito vivo dal labirinto del tre maghi quando Cedric era morto eppure gli parlava da amica non come se lo credesse pazzo o bugiardo o in qualche orrendo modo responsabile per la morte di Cedric sì aveva proprio deciso di venire a parlare con lui ed era la seconda volta in due giorni a quell'idea l'umore di Henry si risollevò perfino il cigolio minaccioso della porta del sotterraneo di Piton che si apriva non fece scoppiare la piccola bolla di speranza che pareva essersi gonfiata nel suo petto entrò in classe dietro a Ron e Ermione e li seguì al solito banco in fondo ignorando i loro battibecchi silenzio disse Piton con voce fredda chiudendosi la porta alle spalle non c'era bisogno di richiamare nessuno all'ordine nel momento in cui la classe aveva sentito la porta chiudersi ogni irrequitezza si era placata la sola presenza di Piton bastava ad assicurare il silenzio in una classe prima di cominciare la lezione di oggi disse Piton raggiungendo la cattedra e facendo scorrere lo sguardo su tutti gli studenti ritengo opportuno ricordarvi che il prossimo giugno affronterete un esame importante durante il quale dimostrerete quanto avete imparato sulla composizione e l'uso delle pozioni magiche per quanto alcuni alunni di questa classe siano senza dubbio deficienti mi aspetto che strappiate un accettabile al vostro GUFO o incorrerete nel mio disappunto il suo sguardo questa volta indugiò su Neville che deglutì dopo quest'anno naturalmente molti di voi smetteranno di studiare con me continuò Piton io ammetto solo i migliori nella mia classe di pozioni per il MAGO il che significa che ad alcuni dovrò dire addio i suoi occhi si soffermarono su Harry e le sue labbra si arricciarono Harry rispose allo sguardo torvo provando un fiero piacere all'idea che dopo il quinto anno avrebbe potuto piantarla con pozioni ma abbiamo un altro anno davanti prima di quel lieto congedo continuò Piton piano così che intendiate o no cercare di affrontare il MAGO consiglio a tutti voi di concentrare i vostri sforzi sul mantenimento dell'alta media che mi aspetto dai miei studenti oggi prepareremo una pozione che viene richiesta spesso al GUFO la bevanda della pace una pozione che calma l'ansia e placa l'agitazione attenti se esagerate con gli ingredienti infliggerete al bevitore un sonno pesante e qualche volta irreversibile quindi dovete prestare molta attenzione alla sinistra di Harry Hermione si mise un po' più diritta ostentando la massima concentrazione gli ingredienti e il metodo disse Piton agitando appena la bacchetta sono sulla lavagna e vi apparvero troverete tutto quello che occorre e agitò di nuovo la bacchetta nell'armadio la porta dell'armadio si spalancò avete un'ora e mezzo cominciate proprio come Harry Ron e Hermione avevano predetto Piton non avrebbe potuto assegnare una pozione più complicata e insidiosa gli ingredienti dovevano essere aggiunti nel calderone nell'ordine e nella quantità esatti l'intruglio doveva essere mescolato per un preciso numero di volte prima in senso orario poi anti-orario il calore della fiamma sul quale sobolliva doveva essere abbassato esattamente al livello giusto per un determinato numero di minuti prima di aggiungere l'ingrediente finale un lieve vapore d'argento dovrebbe ora sprigionarsi dalle vostre pozioni annunciò Piton a dieci minuti dalla fine Harry che sudava copiosamente si guardò intorno disperato il suo calderone emanava un'abbondante quantità di fumo grigio scuro quello di Ron sprizzava scintille verdi Simus attizzava in modo febbrile le fiamme alla base del suo con la punta della bacchetta perché erano lì lì per spegnersi la superficie della pozione di Ermione tuttavia era una nebbiolina fosforescente di vapore argenteo e passando Piton la guardò senza fare commenti il che voleva dire che non trovava nulla da criticare ma davanti al calderone di Henry si fermò e lo scrutò con un orribile sorriso mellifluo potter e questa che cosa sarebbe i serpeverde in prima fila alzarono lo sguardo eccitati adoravano quando Piton tormentava Henry la bevanda della pace rispose Henry teso dimmi un po' potter disse Piton dolcemente sai leggere Draco Malfoy rise sì rispose Henry le dita serrate attorno alla bacchetta leggimi la terza riga delle istruzioni potter Henry guardò la lavagna strizzando gli occhi non era facile decifrare le istruzioni nella bruma di vapore multicolore che riempiva il sotterraneo aggiungere la pietra di luna in polvere mescolare tre volte in senso antiorario lasciar bollire per sette minuti poi aggiungere due gocce di sciroppo di elleboro il suo cuore ebbe un tuffo non aveva aggiunto lo sciroppo di elleboro ma era passato alla quarta riga delle istruzioni dopo aver lasciato bollire la sua pozione per sette minuti hai fatto tutto quello che c'era scritto alla terza riga potter no rispose Henry molto piano prego no disse Henry più forte ho dimenticato l'elleboro lo so potter il che vuol dire che questa porcheria è del tutto inutile evanesco la pozione di Henry svanì lui rimase come un idiota accanto al calderone vuoto quelli di voi che sono riusciti a leggere le istruzioni riempiano una fiaschetta con un campione della loro pozione scrivano chiaramente sull'etichetta il loro nome e la portino alla mia scrivania per la verifica disse Piton compito 30 centimetri di pergamena sulle proprietà della pietra di luna e i suoi usi nella preparazione di pozioni da consegnare giovedì mentre tutti attorno a lui riempivano le loro fiaschette Henry ripose le sue cose fremente la sua pozione non era peggiore di quella di Ron che al momento emanava un odoraccio di uova marce né di quella di Neville che aveva raggiunto la consistenza di cemento fresco e che Neville era intento a spalare dal calderone eppure era lui Henry che avrebbe preso zero punti quel giorno rificcò la bacchetta nella borsa e si afflosciò sulla sedia guardando gli altri sfilare fino alla cattedra di Piton con le fiaschette piene e tappate al suono della campana fu il primo a uscire e aveva già cominciato a pranzare quando Ron e Ermione lo raggiunsero nella sala grande nel corso della mattinata il soffitto era diventato di un grigio ancora più cupo la pioggia frustava le alte finestre è stato davvero ingiusto disse Ermione per consolarlo prese posto vicino a Henry e si servì di carne e purè la tua pozione non era nemmeno lontanamente orrida come quella di Goyle quando l'ha versata la fiaschetta è andata in frantumi e gli si è incendiato il vestito già mormorò Henry guardando minaccioso il piatto quando mai Piton è stato giusto con me nessuno dei due rispose tutti e tre sapevano che l'ostilità reciproca tra Piton e Henry era totale dal momento in cui Henry aveva messo piede a Hogwarts ero convinta che sarebbe andata un po' meglio quest'anno disse Ermione in tono deluso voglio dire insomma si guardò intorno cauta c'erano una mezza dozzina di posti vuoti da entrambi i lati e nessuno stava passando adesso che fa parte dell'ordine il lupo perde il pelo disse Ron saggiamente comunque io ho sempre pensato che Silente fosse pazzo a fidarsi di Piton dove sono le prove che ha davvero smesso di lavorare per voi sapete chi io credo che Silente abbia un sacco di prove anche se non le raccontate Ron ribatte Ermione oh smettetela voi due sbottò Henry con vehemenza mentre Ron apriva la bocca per rispondere a tono sia lui che Ermione rimasero lì immobili arrabbiati e offesi non potete darci un taglio continuò Henry non fate altro che beccarvi è una cosa che mi fa impazzire e abbandonando il suo arrosto si gettò di nuovo la borsa in spalla e li piantò lì seduti salì la scalinata di marmo due gradini alla volta superando i molti studenti che si affrettavano a scendere a pranzo la rabbia che era appena divampata così a sorpresa ardeva ancora dentro di lui e la visione delle facce sconvolte di Ron e Ermione gli dava una profonda soddisfazione gli sta bene pensò perché non la smettono non fanno altro che bisticciare farebbero diventare matto chiunque oltrepassò il grande ritratto di Sir Cadogan il cavaliere su un pianerottolo Sir Cadogan sfoderò la spada e la brandì con ferocia contro Henry che lo ignorò torna indietro vile cane fermati e combatti strillò Sir Cadogan con voce soffocata dietro la visiera ma Henry continuò a camminare e quando il cavaliere tentò di seguirlo correndo in un quadro confilante fu respinto dal suo abitatore un grosso leveriero iracondo Henry passò il resto dell'ora di pranzo da solo seduto sotto la botola in cima alla torre nord quindi fu il primo a salire la scala d'argento che portava nella classe di Sibyl Trelawney quando suonò la campana dopo pozioni divinazione era la lezione che Henry amava di meno soprattutto per l'abitudine della professoressa Trelawney di predire la sua prematura morte ogni due o tre lezioni era una donna sottile avvolta in strati di scialli e fili di perline scintillanti e ricordava sempre a Henry un insetto con quegli occhiali che le dilatavano le pupille quando Henry entrò nell'aula la trovò indaffarata a distribuire libri rilegati in pelle consunta su ciascuno dei tavolini dalle gambe esili la luce emanata dalle lampade coperte da veli e il fuoco che ardeva basso e greve di aromi malsani erano così tenui che parve non accorgersi di lui che prendeva posto tra le ombre il resto della classe arrivò nei cinque minuti seguenti Ron emerse dalla botola si guardò intorno con attenzione individuò Henry e andò diritto verso di lui per quanto fosse possibile andare diritto in mezzo a tavoli sedie e puff troppo imbottiti io e Hermione abbiamo smesso di litigare annunciò sedendosi di fianco a Henry bene borbottò Henry ma Hermione dice che sarebbe carino se tu lo smettessi di scaricare i tuoi nervi su di noi disse Ron io non faccio solo da ambasciatore lo interruppe Ron ma credo che abbia ragione non è colpa nostra se Piton e Simus ti trattano così io non ho mai detto che buongiorno disse la professoressa Trelonei con la sua solita voce nebulosa e sognante è ritacque di nuovo un po' era irritato e un po' si vergognava di se stesso e bentornati a divinazione naturalmente ho seguito le vostre sorti con estrema attenzione durante le vacanze e sono assai lieta di vedere che siete tutti tornati a Hogwarts sani e salvi come naturalmente sapevo che sarebbe successo troverete sui tavoli davanti a voi le copie dell'oracolo dei sogni di Inigo Imago l'interpretazione dei sogni è un mezzo assai importante per prevedere il futuro e molto probabilmente sarà una prova del GUFO naturalmente non credo che la promozione o la bocciatura a un esame abbia la più remota importanza quando è in gioco la sacra arte della divinazione se avete l'occhio interiore diplomi e voti contano assai poco tuttavia il preside desidera che voi affrontiate l'esame quindi la sua voce sfumò delicatamente non lasciando dubbio alcuno sul fatto che la professoressa Trelonei considerava la propria materia al di sopra di basse faccende come gli esami andate all'introduzione per favore e leggete ciò che i mago ha da dire sull'interpretazione dei sogni poi dividetevi in coppie usate l'oracolo per interpretare i rispettivi sogni più recenti prego c'era una cosa buona da dire a proposito della lezione non era di due ore quando tutti ebbero finito di leggere l'introduzione rimasero dieci minuti scarsi per l'interpretazione dei sogni al tavolo vicino a quello di Harry e Ron Dean faceva coppia con Neville che si imbarcò subito nella lunghissima spiegazione di un incubo con un paio di forbici giganti che portavano il cappello migliore di sua nonna Harry e Ron si limitarono a scambiarsi uno sguardo cupo io non mi ricordo mai i sogni che faccio disse Ron raccontane uno tu deve ricordartene almeno uno ribatte Harry impaziente non aveva intenzione di condividere i suoi sogni con nessuno sapeva benissimo che cosa significava il suo incubo ricorrente del cimitero non aveva bisogno di Ron o della professoressa Trelawney o di quello stupido oracolo dei sogni beh l'altra notte ho sognato che giocavo a Quidditch disse Ron contraendo il viso nello sforzo di ricordare che cosa credi che voglia dire probabilmente che sarai divorato da un marshmallow gigante o roba del genere rispose Harry voltando distrattamente le pagine dell'oracolo dei sogni era molto noioso cercare frammenti di sogni in quel libro e Harry non si rallegrò quando la professoressa Trelawney diede loro il compito di tenere un diario dei sogni per un mese quando suonò la campana lui e Ron furono i primi a scendere la scala Ron si lamentava a gran voce ma lo sai quanti compiti abbiamo già Vince ci ha dato un tema di 50 centimetri sulle guerre dei giganti Piton ne vuole 30 sull'uso della pietra di luna e adesso dobbiamo tenere per un mese un diario dei sogni per la Trelawney Fred e George non avevano torto sull'anno dei GUFO eh sarà meglio che quella Umbridge non ce ne dia quando entrarono nella classe di difesa contro le arti oscure trovarono la professoressa Umbridge già seduta alla cattedra con addosso il vaporoso cardigan rosa della sera prima e il fiocco di velluto nero in cima alla testa a Henry ricordò di nuovo con estrema precisione una grossa mosca che per imprudenza si fosse posata su un rospo ancora più grosso tutti entrarono in silenzio la professoressa Umbridge era ancora un'entità ignota e nessuno sapeva quanto potesse essere rigorosa in fatto di disciplina beh buon pomeriggio disse quando finalmente tutti si furono seduti alcuni borbottarono buon pomeriggio disse la professoressa Umbridge così non va no vorrei per favore che rispondeste buon pomeriggio professoressa Umbridge un'altra volta prego buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio professoressa Umbridge le risposero in coro bene disse la professoressa Umbridge in tono amabile non era troppo difficile vero via le bacchette e fuori le penne prego molti ragazzi si scambiarono sguardi cupi l'ordine via le bacchette non era mai stato seguito da una lezione interessante Harry ripose la sua ed estrasse penna d'oca inchiostro e pergamena la professoressa Umbridge aprì la borsa sfilò la bacchetta che era insolitamente corta e batte forte la lavagna subito apparvero le parole difesa contro le arti oscure ritorno ai principi base allora l'insegnamento di questa materia è stato piuttosto discontinuo e frammentario non è così esordì voltandosi verso la classe con le mani intrecciate davanti a sé il continuo cambio di insegnanti molti dei quali pare non abbiano seguito alcun programma approvato dal ministero ha purtroppo sortito l'effetto di porvi assai sotto la media di istruzione che ci aspetteremmo di vedere nell'anno dei gufo vi farà piacere sapere tuttavia che questi problemi saranno finalmente risolti quest'anno seguiremo un corso di magia difensiva strutturato con cura fondato sulla teoria approvato dal ministero copiate le frasi seguenti prego colpì di nuovo la lavagna il primo messaggio sparì e fu sostituito dagli obiettivi del corso uno comprendere i principi base della magia difensiva due imparare a riconoscere le situazioni nelle quali la magia difensiva può essere usata legalmente tre porre la magia difensiva in un contesto per l'uso pratico per un paio di minuti l'aula fu invasa dal fluscio delle penne sulla pergamena quando tutti ebbero ricopiato i tre obiettivi del corso la professoressa Umbridge chiese avete tutti teoria della magia difensiva di Wilbert Slinkard la classe fu percorsa da un cupo mormorio di assenso credo che dobbiamo riprovarci disse la professoressa Umbridge quando vi faccio una domanda vorrei che rispondeste sì professoressa Umbridge o no professoressa Umbridge allora avete tutti teoria della magia difensiva di Wilbert Slinkard sì professoressa Umbridge risuonò nell'aula bene disse la professoressa Umbridge vorrei che apriste il libro a pagina 5 e leggeste capitolo 1 fondamenti per principianti non ci sarà bisogno di parlare si allontanò dalla lavagna e si sedette dietro la cattedra osservandoli con quegli occhi gonfi da rospo Harry andò a pagina 5 del libro e cominciò a leggere era infinitamente noioso quasi orrendo come ascoltare il professor Beans sentì che la concentrazione si dileguava ben presto si ritrovò a leggere la stessa riga per la decima volta senza capire altro che le prime poche parole passarono alcuni minuti di silenzio vicino a lui Ron si rigirava la penna tra le dita con aria assente fissando lo stesso punto della pagina Harry guardò a destra e la sorpresa lo riscosse dal torpore Hermione non aveva nemmeno aperto il libro guardava fisso la professoressa Umbridge con la mano alzata a quanto ricordava Harry Hermione non aveva mai trascurato di leggere quando le veniva ordinato né in verità aveva mai resistito alla tentazione di aprire qualunque libro le capitasse sotto il naso la guardò interrogativo ma lei si limitò a scuotere appena il capo per far capire che non aveva intenzione di rispondere ad alcuna domanda e continuò a fissare la professoressa Umbridge che guardava con altrettanta decisione da un'altra parte dopo parecchi minuti tuttavia Harry non fu più il solo a tenere d'occhio Hermione il capitolo che era stato ordinato loro di leggere era così noioso che un numero crescente di ragazzi aveva deciso di osservare il muto tentativo di Hermione di attirare l'attenzione della professoressa Umbridge invece di affaticarsi sui fondamenti per principianti quando ormai più di metà della classe fissava Hermione al posto dei propri libri la professoressa Umbridge parve decidere che non poteva più ignorare la situazione voleva chiedere qualcosa a proposito del capitolo cara domandò a Hermione come se si fosse appena accorta di lei non a proposito del capitolo no rispose Hermione beh adesso stiamo leggendo disse la professoressa Umbridge mostrando i dentini affilati se ha altre domande possiamo affrontarle alla fine della lezione ho una domanda sugli obiettivi del suo corso ribatte Hermione la professoressa Umbridge alzò le sopracciglia il suo nome è Hermione Granger rispose Hermione beh signorina Granger credo che gli obiettivi del corso siano perfettamente chiari se li legge attentamente disse la professoressa Umbridge con deliberata dolcezza veramente non mi pare obiettò Hermione Brusca là non c'è scritto niente sul fatto di usare incantesimi di difesa ci fu un breve silenzio durante il quale molti ragazzi si voltarono a guardare corrucciati i tre obiettivi del corso ancora scritti sulla lavagna usare incantesimi di difesa ripete la professoressa Umbridge con una risatina beh non riesco a immaginare una situazione nella mia classe che richieda di ricorrere a un incantesimo di difesa signorina Granger lei non si aspetta di venire aggredita durante le lezioni no? non useremo la magia domandò Ron ad alta voce gli studenti alzano la mano quando desiderano parlare durante le mie lezioni signor Weasley disse Ron scagliando la mano in aria la professoressa Umbridge con un sorriso ancora più ampio gli voltò le spalle anche Harry e Hermione alzarono subito la mano gli occhi gonfi della professoressa Umbridge indugiarono su Harry un istante prima di rivolgersi a Hermione sì signorina Granger voleva chiedere qualcos'altro sì rispose Hermione senza dubbio lo scopo di difesa contro le arti oscure è esercitarsi negli incantesimi di difesa no? lei è per caso un'esperta di istruzione del ministero signorina Granger chiese la professoressa Umbridge con la sua voce falsamente dolce no ma beh allora temo che non sia qualificata per decidere qual è lo scopo di un corso maghi molto più anziani e capaci di lei hanno ideato il nostro nuovo programma di studi apprenderete gli incantesimi di difesa in un modo sicuro privo di rischi a che cosa serve chiese Harry ad alta voce se verremo attaccati non sarà in un la mano signor Potter cantillenò la professoressa Umbridge Harry scagliò il pugno in aria di nuovo la professoressa Umbridge gli voltò rapida alle spalle ma ormai parecchi ragazzi avevano la mano alzata il suo nome è chiese la professoressa Umbridge a Dean Dean Thomas allora signor Thomas beh è come dice Harry no? disse Dean se verremo attaccati non sarà privo di rischi ripeto rispose la professoressa Umbridge sorridendo a Dean in modo assai irritante si aspetta di venire aggredito durante le mie lezioni? no ma la professoressa Umbridge lo interruppe non ho intenzione di criticare il modo in cui le cose sono state condotte in questa scuola disse con un sorriso niente affatto convincente che le stirava la bocca larga ma in questo corso siete stati esposti all'influenza di maghi assai irresponsabili davvero assai irresponsabili per non parlare e diede una risatina maligna di ibridi estremamente pericolosi se intende il professor Lupin sbottò Dean arrabbiato è stato il migliore che abbiamo mai la mano signor Thomas come stavo dicendo siete stati introdotti a incantesimi complessi inadatti alla vostra età e potenzialmente letali siete stati indotti con la paura a credere che sia probabile imbattersi in attacchi oscuri un giorno sì e uno no non è così disse Ermione abbiamo solo la sua mano non è alzata signorina Granger Ermione alzò la mano la professoressa Umbridge si voltò dall'altra parte mi pare di aver capito che il mio predecessore non solo ha praticato maledizioni illegali davanti a voi ma addirittura su di voi beh è saltato fuori che era un pazzo no? disse Dean accalorandosi ma comunque abbiamo imparato un sacco di cose la sua mano non è alzata signor Thomas trillò la professoressa Umbridge ora è opinione del ministero che una conoscenza teorica sarà più che sufficiente a farvi superare gli esami e dopo tutto è questo lo scopo della scuola il suo nome aggiunse fissando Parvati che aveva appena fatto scattare in aria la mano Parvati Patil e al GUFO non c'è anche una prova pratica di difesa contro le arti oscure non dobbiamo dimostrare di saper concretamente eseguire le contromaledizioni eccetera se avrete studiato abbastanza a fondo la teoria non c'è ragione per cui non dovreste essere in grado di eseguire gli incantesimi durante gli esami in circostanze di massima sicurezza rispose la professoressa Umbridge categorica senza mai averli provati prima chiese Parvati in credula ci sta dicendo che la prima volta che potremo fare gli incantesimi sarà agli esami ripeto se avrete studiato a fondo la teoria e a che cosa servirà la teoria nel mondo reale intervenne Erri ad alta voce la mano di nuovo levata la professoressa Umbridge alzò lo sguardo qui siamo a scuola signor Potter non nel mondo reale disse piano allora non dobbiamo prepararci a ciò che ci aspetta là fuori non c'è niente che ci aspetta là fuori signor Potter oh davvero ribatte Erri la rabbia che gli borbottava dentro sommessa da tutto il giorno stava raggiungendo la temperatura di ebollizione chi immagina possa desiderare di aggredire ragazzini come voi indagò la professoressa Umbridge con voce tremendamente mielosa mi lasci pensare rispose Erri in tono falsamente meditabondo forse Lord Voldemort Ron trattenne il fiato Lavanda Brown emise un gridolino Neville scivolò giù dallo sgabello la professoressa Umbridge tuttavia non battè ciglio fissava Erri con aria di cupa soddisfazione dieci punti in meno per Grifondoro signor Potter la classe era immobile e silenziosa tutti fissavano la Umbridge o Erri ora permettete che chiarisca un paio di cose la professoressa Umbridge si alzò e si sporse verso di loro le mani dalle dita tozze allargate sul piano della cattedra vi è stato riferito che un certo mago oscuro è tornato dal mondo dei morti non era morto disse Erri con rabbia ed è tornato signor Potter lei ha già fatto perdere dieci punti alla sua casa non peggiori la situazione disse la professoressa Umbridge tutto d'un fiato senza guardarlo come stavo dicendo vi è stato riferito che un certo mago oscuro è di nuovo in circolazione questa è una bugia non è una bugia esclamò Erri io l'ho visto io ho combattuto contro di lui punizione signor Potter la professoressa Umbridge era trionfante domani sera alle 5 nel mio ufficio ripeto questa è una bugia il ministero della magia garantisce che non correte alcun pericolo da parte di alcun mago oscuro se siete ancora preoccupati venite assolutamente da me dopo le ore di lezione se qualcuno vi mette in agitazione diffondendo frottole sui maghi oscuri rinati vorrei esserne informata sono qui per aiutarvi sono vostra amica e ora volete per favore continuare la lettura pagina 5 fondamenti per principianti la professoressa Umbridge sedette dietro la cattedra Erri invece si alzò lo guardavano tutti Simus era mezzo spaventato mezzo ammaliato Erri no sussurrò Ermione allarmata tirandolo per una manica ma lui allontanò il braccio con uno strattone quindi secondo lei Cedric Diggory è morto così da solo vero chiese con voce tremante trattennero tutti il respiro perché nessuno di loro tranne Ron e Ermione aveva mai sentito Erri parlare di ciò che era successo la notte della morte di Cedric spostarono gli sguardi curiosi da Erri alla professoressa Umbridge che aveva alzato gli occhi e lo guardava senza alcuna traccia del suo sorriso posticcio la morte di Cedric Diggory è stata un tragico incidente rispose in tono gelido è stato un assassinio disse Erri avvertiva il proprio tremito non aveva parlato quasi con nessuno della cosa men che meno davanti a trenta compagni di classe avidi di sapere Voldemort l'ha ucciso e lei lo sa il volto della Umbridge era privo di espressione per un attimo Erri pensò che gli avrebbe urlato contro invece disse con la voce più morbida più dolcemente infantile che riuscì a trovare venga qui signor Potter caro lui calciò via la sedia oltrepassò Ron e Hermione e raggiunse la cattedra sentì il resto della classe trattenere il respiro era così arrabbiato che non gli importava di quello che sarebbe successo la professoressa Umbridge estrasse un piccolo rotolo di pergamena rosa dalla borsetta lo srotolò sulla cattedra intinse la penna in una boccetta di inchiostro e prese a scrivere in fretta chinandosi in modo che Erri non potesse vedere quello che scriveva nessuno parlò dopo un minuto la Umbridge arrotolò la pergamena e la colpì con la bacchetta il rotolo si sigillò completamente in modo che lui non potesse aprirlo lo porti alla professoressa McGonagall caro disse la professoressa Umbridge e gli porse il messaggio lui lo prese e uscì dall'aula senza fiatare senza nemmeno voltarsi a guardare Ron e Hermione sbatté la porta alle proprie spalle percorse in fretta il corridoio con il biglietto per la McGonagall stretto in mano e voltando un angolo cozzò contro Peeves il poltergeist un ometto con una gran bocca che svolazzava sulla schiena a mezz'aria facendo il giocoliere con parecchi calamai ma guarda è potino potter chiocciò Peeves lasciando cadere due calamai che si frantumarono a terra e schizzarono le pareti di inchiostro Erri balzò indietro con un ringhio alla larga Peeves oh potteruccio fai capricci disse Peeves inseguì Erri lungo il corridoio sfrecciando sopra di lui e guardandolo con astio che cosa c'è questa volta caro il mio amico Potti senti delle voci hai delle visioni parli delle strane e diede una pernacchia gigante lingue ho detto di lasciarmi in pace urrò Erri scendendo di corsa la più vicina rampa di scale ma Peeves scivolò con la schiena lungo il corrimano c'è gente che pensa che Potti è sclerato chi dice che è stanco è già più garbato ma Peeves lo conosce e sa che è suonato zitto una porta alla sua sinistra si aprì di colpo e la professoressa McGonagall uscì dal suo ufficio con aria cupa e un po' infastidita si può sapere perché diamine urli Potter scattò mentre Peeves gongolava allegramente e sfrecciava via perché non sei a lezione sono stato mandato da lei mandato come sarebbe mandato le tese il messaggio della professoressa Umbridge la professoressa McGonagall lo prese accigliata lo aprì con un colpo di bacchetta lo srotolò e cominciò a leggere i suoi occhi si spostavano da un lato all'altro del foglio dietro gli occhiali squadrati mentre scorreva le parole della Umbridge e a ogni riga si stringevano di più entra Potter Harry la seguì nell'ufficio la porta si chiuse da sola dietro di lui allora chiese la professoressa McGonagall voltandosi è vero è vero che cosa chiese Harry più aggressivo di quanto volesse professoressa aggiunse nel tentativo di sembrare più educato è vero che hai urlato contro la professoressa Umbridge sì rispose Harry e le hai dato della bugiarda sì le hai detto che colui che non deve essere nominato è tornato sì la professoressa McGonagall si sedette alla sua scrivania e osservò Harry accigliata poi disse prendi un biscotto Potter prendo che cosa prendi un biscotto ripete lei impaziente indicando una scatola di latta stampata con un disegno scozzese in cima a una pila di documenti sulla scrivania e siediti già in un'altra occasione Harry si era aspettato di venire bacchettato dalla professoressa McGonagall e invece si era visto assegnare alla squadra di quiddici di grifondoro sprofondò in una sedia di fronte a lei e prese uno zenzero confuso e spiazzato come quella volta la professoressa McGonagall posò il biglietto della professoressa Umbridge e guardò Harry con molta serietà Potter devi stare attento Harry inghiottì il boccone di Zenzerotto e la fissò il suo tono di voce non era affatto quello a cui era abituato non era sbrigativo asciutto e severo era basso e ansioso e in qualche modo molto più umano del solito una cattiva condotta durante le ore della professoressa Umbridge potrebbe costarti molto di più di qualche punto sottratto alla casa e un castigo che cosa Potter usa il buonsenso sbottò la professoressa McGonagall con un brusco ritorno ai soliti modi sai da dove viene quindi dovresti sapere a chi riferisce suonò la campana che segnalava la fine della lezione sopra di loro e tutto attorno risuonarono i rumori elefantiaci di centinaia di studenti in movimento qui c'è scritto che ti ha assegnato una punizione per tutte le sere di questa settimana a partire da domani disse la professoressa McGonagall guardando di nuovo il biglietto della Umbridge tutte le sere della settimana ripete Harry orripilato ma professoressa non può no non posso rispose la professoressa McGonagall in tono piatto ma è una tua insegnante e ha tutti i diritti di infliggerti punizioni per cominciare andrai nel suo ufficio domani alle 5 ricorda solo questo stai attento a Dolores Umbridge ma ho detto la verità esclamò Harry offeso Voldemort è tornato lei lo sa il professor Silente sa che è per l'amor del cielo Potter inveì la McGonagall raddrizzandosi gli occhiali con rabbia aveva fatto una smorfia terribile al nome di Voldemort credi davvero che c'entrino la verità o le bugie il problema è che devi stare tranquillo e controllati si alzò le narici dilatate e la bocca sottilissima e anche Harry si alzò prendi un altro biscotto disse lei in tono irritato spingendo la scatola verso di lui no grazie rispose Harry freddamente non essere ridicolo lui ne prese uno grazie disse controvoglia non hai sentito il discorso di Dolores Umbridge al banchetto d'inizio anno Potter si ha detto che il progresso verrà proibito beh voleva dire che che il ministero della magia sta cercando di interferire a Hogwarts la professoressa McGonagall lo scrutò per un attimo poi tirò su col naso fece il giro della scrivania e gli aprì la porta beh sono felice che almeno ascolti Hermione Granger disse e gli fece segno di uscire dal suo ufficio punizione con Dolores la cena nella sala grande non fu un'esperienza piacevole per Harry la notizia della sua urlata con la Umbridge aveva viaggiato con straordinaria rapidità anche per gli standard di Hogwarts quando si sedette a mangiare con Ron e Hermione udì tutto un sussurrare attorno il buffo era che nessuno sembrava preoccuparsi che lui sentisse che cosa dicevano al contrario era come se sperassero che si arrabbiasse e ricominciasse a urlare in modo da poter ascoltare la sua storia di prima mano dice che ha visto assassinare Cedric Diggory sostiene di aver combattuto con voi sapete chi ma andiamo a chi crede di darla a bere per favore quello che non capisco disse Harry con voce spezzata posando coltello e forchetta le mani gli tremavano troppo e perché hanno creduto tutti a questa storia due mesi fa quando gliela raccontata Silente Harry non sono sicura che sia così disse Hermione Cupa oh andiamo via di qui sbatte anche lei sul tavolo coltello e forchetta Ron guardò con desiderio la torta di mele lasciata a metà ma li seguì gli altri ragazzi fissarono tutti e tre mentre uscivano dalla sala che cosa vuol dire che non sei sicura che sia così chiese Harry a Hermione quando ebbero raggiunto il pianerottolo del primo piano senti tu non sai com'è andata dopo mormorò Hermione tu sei arrivato in mezzo al prato con il cadavere di Cedric nessuno di noi ha visto che cos'è successo nel labirinto avevamo solo la parola di Silente che tu sai chi era tornato e aveva ucciso Cedric e lottato con te ed è la verità esclamò Harry lo so Harry quindi per favore vuoi smetterla di aggredirmi disse Hermione stancamente solo che prima che la verità potesse entrare nella testa a tutti sono andati a casa per l'estate e hanno passato due mesi a leggere che tu sei un pazzo e Silente rimbambito la pioggia picchiava sulle finestre dei corridoi deserti che portavano alla torre di Grifondoro Harry aveva la sensazione che il primo giorno fosse durato una settimana ma aveva ancora una montagna di compiti da fare prima di andare a dormire un dolore sordo e pulsante stava aumentando sopra il suo occhio destro guardò fuori da una finestra lavata dalla pioggia verso il parco buio mentre svoltavano nel corridoio della signora grassa nella capanna di Hagrid ancora nessuna ruce mimbulus mimbletonia disse Hermione prima che la signora grassa lo chiedesse il ritratto si aprì e i tre varcarono il buco la sala comune era quasi vuota quasi tutti erano ancora giù a cena Grattastinchi si srotolò balzò giù da una poltrona e trotterellò verso di loro facendo le fusa e quando Harry Ron e Hermione portarono le loro tre poltrone preferite vicino al fuoco balzò lieve in grembo a Hermione e vi si appallottolò come un rosso cuscino peloso Harry guardò le fiamme si sentiva svuotato e sfinito come è possibile che Silente l'abbia permesso gemette Hermione all'improvviso facendo trasalire Harry e Ron Grattastinchi balzò via offeso lei per la rabbia prese a pugni i braccioli della poltrona tanto che pezzetti di imbottitura sfuggirono dai buchi come può permettere che quella donna orribile sia nostra insegnante e nell'anno dei GUFO per di più beh non abbiamo mai avuto dei grandi insegnanti di difesa contro le arti oscure no? disse Harry sai com'è Hagrid ce l'ha spiegato nessuno vuole quel posto dicono che ha il malocchio sì ma assumere qualcuno che si rifiuta categoricamente di lasciarci fare magie a che gioco sta giocando Silente e lei sta cercando di convincere la gente a fare la spia disse Ron Cupo avete sentito quando ci ha chiesto di andare da lei se qualcuno ci dice che voi sapete chi è tornato è ovvio che è qui per spiarci se l'ha mandata a Fudge sbottò Hermione non ricominciate a litigare disse Harry stancamente mentre Ron apriva la bocca per ribattere non possiamo facciamo quei compiti togliamoceli dai piedi recuperarono le borse dei libri e tornarono alle poltrone vicino al fuoco gli altri ragazzi cominciavano a tornare dalla cena Harry distorse il viso dal buco del ritratto ma sentì lo stesso gli sguardi su di sé facciamo prima Piton? chiese Ron intingendo la penna d'oca nell'inchiostro le proprietà della pietra di luna e i suoi usi nella preparazione di pozioni recitò scrivendo le parole in cima alla sua pergamena ecco sottolineò il titolo poi guardò Hermione in attesa allora quali sono le proprietà della pietra di luna e i suoi usi nella preparazione di pozioni ma Hermione non stava ascoltando cercava invece di scrutare in fondo alla stanza dove Fred George e Lee Jordan erano seduti al centro di un gruppo di bambini del primo anno dall'aria innocente tutti intenti a masticare qualcosa che sembrava essere uscito da un grosso sacchetto di carta in mano a Fred no mi dispiace questo è troppo disse si alzò decisamente furiosa andiamo Ron io cosa? fece Ron cercando di prendere tempo no dai Hermione non possiamo sgridarli perché regalano dei dolci sai perfettamente che quelli sono pezzi di torrone sanguinolento o pasticche vomitose o pasticcetti svenevoli suggerì Harry piano uno dopo l'altro come se fossero stati colpiti sulla testa da un martello invisibile i bambini del primo anno si afflosciarono svenuti sulle poltrone alcuni scivolarono per terra altri si limitarono a ciondolare dai braccioli le lingue pensoloni quasi tutti i presenti ridevano Hermione tuttavia raddrizzò le spalle e marciò diritta verso il punto dove Fred e George reggendo delle tavolette osservavano attentamente i piccoli del primo anno privi di sensi Ron si alzò a metà dal suo posto rimase lì indeciso per qualche istante poi borbottò a Harry a tutto sotto controllo prima di sprofondare più giù che poteva nella poltrona per quanto lo consentiva la sua figura allampanata basta così gridò Hermione a Fred e George entrambi alzarono lo sguardo un po' sorpresi sì hai ragione disse George e a noi questo dosaggio sembra abbastanza forte vero? ve l'ho detto stamattina non potete sperimentare le vostre schifezze sugli studenti li paghiamo obbiettò Fred indignato non me ne importa potrebbe essere pericoloso sciocchezze disse Fred calmati Hermione stanno bene la rassicurò lì passando da un ragazzino all'altro e infilando dei dolcetti viola nelle bocche aperte sì guarda si stanno riprendendo disse George alcuni bambini in effetti si muovevano parecchi sembravano così spaventati di ritrovarsi distesi a terra o pensoloni dalle poltrone che Harry fu certo che Fred e George non li avevano avvertiti dell'effetto dei dolciumi ti senti bene? chiese George gentilmente a una bambina minuscola con i capelli scuri distesa ai suoi piedi io credo di sì rispose lei tremante ottimo esclamò Fred allegro ma un attimo dopo Hermione gli aveva strappato di mano sia la tavoletta che il sacchetto di pasticcetti svenevoli non è ottimo certo sono vivi no? disse Fred arrabbiato non puoi farlo e se qualcuno fosse stato male sul serio? non li faremo star male l'abbiamo già sperimentato su di noi è solo per vedere se tutti reagiscono allo stesso se non la smettete io vi ci metterò in castigo chiese Fred in tono da voglio proprio vedere se ci provi ci farai scrivere cento volte la stessa frase? incalzò George con un sorrisetto gli altri studenti ridevano Hermione si erse in tutta la sua statura i suoi occhi erano ridotti a fessure e i capelli cespugliosi sembravano crepitare di elettricità no rispose la voce vibrante di rabbia ma scriverò a vostra madre non dici sul serio? boccheggiò giorgio ripilato facendo un passo indietro oh sì rispose Hermione non posso impedirvi di mangiare quelle stupide cose ma non dovete darle a quelli del primo anno Fred e George erano atterriti era chiaro che consideravano la minaccia di Hermione un colpo basso con un ultimo sguardo severo lei rificò la tavoletta e il sacchetto di pasticcetti tra le braccia di Fred e tornò a passi rigidi alla sua poltrona vicino al fuoco Ron era scivolato così in basso che il suo naso era quasi allo stesso livello delle ginocchia grazie per il sostegno Ron disse Hermione acida te lo sei cavata benissimo da sola borbottò Ron Hermione fissò il foglio di pergamena in tonso per qualche istante poi disse tesa oh è inutile adesso non riesco a concentrarmi vado a dormire spalancò la borsa Harry pensò che stesse per mettere via i libri ma invece estrasse due oggetti in formi di lana li posò con cautela su un tavolo vicino al fuoco li coprì con qualche pezzo di pergamena stropicciata e una penna d'oca spezzata e si ritrasse per ammirare l'effetto che cosa stai facendo nel nome di Merlino chiese Ron scrutandola come se temesse per la sua salute mentale sono berretti per elfi domestici spiegò lei sbrigativa riempiendo la borsa di libri li ho fatti quest'estate senza magia sono lenta a lavorare ai ferri ma adesso che sono tornata a scuola dovrei riuscire a farne molti di più lasci in giro i berretti per gli elfi domestici domandò Ron lentamente e li copri di immondizia sì rispose Ermione in tono di sfida gettandosi la borsa sulle spalle non vale disse Ron arrabbiato stai cercando di indurli a prendere i berretti con l'inganno li liberi quando potrebbero non volerlo ma certo che vogliono essere liberi ribatte subito Ermione anche se stava arrossendo non provare a toccare quei berretti Ron e se ne andò Ron aspettò che fosse sparita nei dormitori femminili poi tolse l'immondizia dai berretti di lana almeno dovrebbero vedere quello che tirano su disse con fermezza comunque arrotolò la pergamena sulla quale aveva scritto il titolo del tema per Piton è inutile cercare di finirlo adesso non ci riesco senza Ermione non ho la più pallida idea di che cosa bisogna fare con la pietra di luna e tu? Harry scosse il capo e nel farlo si accorse che il dolore alla tempia destra stava peggiorando pensò al lungo tema sulle guerre dei giganti e il dolore lo trafisse acuto sapendo benissimo che il mattino dopo avrebbe rimpianto di non aver finito i compiti quella sera ammucchiò i libri dentro la borsa vado a dormire anch'io avviandosi alla porta che conduceva ai dormitori passò accanto a Simus ma non lo guardò Harry ebbe la fugace impressione che Simus avesse aperto la bocca per parlare ma accelerò e raggiunse la pace confortevole della scala a chiocciola di pietra senza dover sopportare altre provocazioni il giorno dopo si annunciò plumbeo e piovoso come quello precedente a colazione Hagrid mancava ancora dal tavolo degli insegnanti ma in compenso oggi niente Piton disse Ron incoraggiante Ermione fece un gran sbadiglio e si versò del caffè sembrava vagamente compiaciuta per qualcosa e quando Ron le chiese che cosa aveva da essere così contenta si limitò a dire i berretti sono spariti pare che gli elfi domestici vogliano la libertà dopo tutto non ci scommetterei le rispose Ron tagliente non so se contano come vestiti a me non sembrano affatto dei berretti piuttosto delle vesciche di lana Ermione non gli rivolse la parola per tutta la mattina le due ore di incantesimi furono seguite da due ore di trasfigurazione sia il professor Flitwick che la professoressa McGonagall passarono i primi undici minuti della loro lezione a fare una predica alla classe sull'importanza dei GUFO quello che dovete ricordare disse il piccolo professor Flitwick con voce gracchiante appollaiato come sempre su una pila di libri per riuscire a vedere oltre la cattedra è che questi esami possono influenzare il vostro futuro per molti anni a venire se non avete ancora pensato seriamente alla vostra carriera ora è il momento di farlo e nel frattempo temo che lavoreremo più che mai per garantire che tutti voi siate all'altezza del vostro talento poi passarono più di un'ora a ripassare gli incantesimi di appello che secondo il professor Flitwick sarebbero senz'altro venuti fuori all'esame di GUFO e lui completò la lezione assegnando loro il più gran quantitativo di compiti mai dati per incantesimi a trasfigurazione fu lo stesso se non peggio non potete superare un GUFO disse la professoressa McGonagall minacciosa senza una seria applicazione esercizio e studio non vedo ragione per cui qualcuno in questa classe non dovrebbe ottenere un GUFO in trasfigurazione a patto che lavori sodo Neville fece un versetto triste e incredulo sì anche tu Longbottom continuò la professoressa McGonagall non c'è niente che non vada nel tuo lavoro a parte la mancanza di sicurezza quindi oggi cominceremo gli incantesimi evanescenti sono più facili degli incantesimi di evocazione che non dovreste affrontare fino al livello del MAGO ma sono sempre tra le magie più ardue in cui verrete valutati al GUFO aveva ragione Harry trovò gli incantesimi evanescenti tremendamente difficili alla fine delle due ore né lui né Ron erano riusciti a far sparire le lumache con le quali si stavano esercitando anche se Ron dichiarò speranzoso che la sua gli sembrava un po' più pallida Hermione d'altra parte fece svanire con successo la sua lumaca al terzo tentativo ottenendo dalla professoressa McGonagall un bonus di dieci punti per Grifondoro fu la sola a non avere compiti a tutti gli altri venne ordinato di esercitarsi subito nell'incantesimo pronti per un nuovo tentativo con le lumache il pomeriggio seguente con un vago senso di panico per la catasta di compiti che li aspettava Harry e Ron passarono l'ora di pranzo in biblioteca a indagare sugli usi della pietra di luna nella preparazione delle pozioni ancora arrabbiata per l'insulto di Ron ai suoi berretti di lana Hermione non si unì a loro al momento di cura delle creature magiche nel pomeriggio a Harry faceva di nuovo male la testa la giornata era diventata fresca e ventosa e attraversando il prato che scendeva fino alla capanna di Hagrid al limitare della foresta proibita sentirono qualche rara goccia di pioggia sul viso la professoressa Grabley Plank aspettava la classe a una trentina di metri dalla capanna davanti a lei c'era un lungo tavolo su cavalletti carico di bastoncini Harry e Ron si stavano avvicinando quando un alto scoppio di risate risuonò alle loro spalle si voltarono e videro Draco Malfoy che avanzava circondato dalla solita banda di compari di serpe verde doveva aver appena detto qualcosa di molto divertente perché Crabb Goyle Penzi Parkinson e gli altri continuarono a sghignazzare di cuore mentre si radunavano attorno al tavolo e a giudicare da come lo guardavano Harry indovinò l'argomento della battuta senza troppe difficoltà ci siete tutti abbaiò la professoressa Grabley Plank allora cominciamo chissà dirmi come si chiamano questi indicò il mucchio di bastoncini davanti a sé la mano di Hermione scattò in aria alle sue spalle Malfoy fece l'imitazione di lei con i denti sporgenti che saltava su e giù ansiosa di rispondere e Penzi Parkinson diede in una risata che si trasformò quasi subito in un urlo i bastoncini sul tavolo balsavano in aria rivelandosi minuscole creature di legno simile a folletti ciascuna dotata di braccia e gambe nodose e marroni di due dita a rametto al termine di ciascuna mano e di una buffa faccia piatta di corteccia in cui luccicava un paio di occhi marrone scarafaggio ooooh fecero parvati e lavanda irritando profondamente Harry sembrava che Hagrid non avesse mai mostrato loro creature impressionanti bisognava ammetterlo i vermicoli erano stati un po' noiosi ma le salamandre e gli ipogrifi si erano rivelati decisamente interessanti e gli schiopo di sparacoda forse anche troppo siate così gentili da abbassare la voce ragazze esclamò imperiosa la professoressa grabli plank sparpagliando una manciata di quello che sembrava riso bruno tra le creature stecco che si gettarono subito sul cibo allora qualcuno sa come si chiamano signorina granger asticelli rispose ermione sono guardiani di alberi di solito vivono sugli alberi da legno per bacchette cinque punti per grifondoro disse la professoressa grabli plank sì questi sono asticelli e come giustamente dice la signorina granger di solito vivono sugli alberi il cui legno è di qualità da bacchette qualcuno sa che cosa mangiano onischi rispose ermione all'istante il che spiegava come mai quelli che eri aveva preso per chicchi di riso bruno si muovessero ma anche uova di fata se riescono a prenderle brava altri cinque punti allora quando avete bisogno di foglie o di legna di un albero in cui risiede un asticello è saggio tenere pronta un'offerta di onischi per distrarlo o calmarlo possono non sembrare pericolosi ma se si arrabbiano tenteranno di strapparvi gli occhi con le dita che come potete vedere sono molto appuntite e nient'affatto desiderabili in zona pupille adesso accostatevi prendete qualche onisco e un asticello uno ogni tre persone e studiateli più da vicino voglio che ciascuno di voi prepari un disegno con le definizioni di tutte le parti del corpo per la fine della lezione la classe si raggruppò attorno al tavolo Harry fece il giro dall'altra parte in modo da trovarsi vicino alla professoressa Grabley Plank dove è Hagrid? le chiese mentre tutti gli altri sceglievano gli asticelli non sono affari tuoi rispose la professoressa Grabley Plank secca con lo stesso atteggiamento dell'ultima volta quando Hagrid non si era presentato a lezione con un sorriso malevolo sul viso appuntito Draco Malfoy si chinò di fronte a Harry e afferrò l'asticello più grosso forse disse sottovoce in modo che solo Harry potesse sentirlo quel deficiente si è fatto male sul serio forse è quello che succederà a te se non stai zitto soffiò Harry da un angolo della bocca forse si sta impicciando di cose troppo grosse forse per lui se capisci cosa intendo Malfoy si allontanò rivolgendo un sorrisetto mellifluo a Harry che all'improvviso si sentì male Malfoy sapeva qualcosa suo padre dopo tutto era un mangiamorte aveva informazioni sul destino di Hagrid che non erano ancora giunte alle orecchie dell'ordine fece di corsa il giro del tavolo per raggiungere Ron e Ermione che erano accovacciati sull'erba poco lontano e cercavano di convincere un asticello a restare fermo per poterlo disegnare Harry prese penna e pergamena si accoccolò vicino a loro e riferì in un sussurro quello che Malfoy aveva appena detto Silente lo saprebbe se fosse successo qualcosa a Hagrid disse subito Ermione farsi vedere preoccupati significa stare al gioco di Malfoy fargli capire che non sappiamo bene che cosa sta succedendo dobbiamo ignorarlo Harry ecco tieni un momento l'asticello così riesco a disegnare la faccia sì dal gruppo più vicino si levò chiara la voce strascicata di Malfoy mio padre ha parlato col ministro un paio di giorni fa sapete e pare che sia proprio deciso a farla finita con l'insegnamento scadente in questo posto quindi anche se quel deficiente troppo cresciuto si fa vedere di nuovo probabilmente lo spediranno subito a fare i bagagli aia Harry aveva stretto l'asticello così forte che quello si era quasi spezzato e per vendicarsi gli aveva sferrato un gran colpo alla mano con le dita affilate lasciandovi due tagli profondi Harry mollò la presa Crabbe e Goyle già sghignazzavano all'idea che Hagrid venisse licenziato e risero ancora più forte quando l'asticello fuggì a tutta velocità verso la foresta un omino di legno ben presto inghiottito fra le radici degli alberi quando la campana echeggiò lontana sul parco Harry arrotolò il ritratto insanguinato dell'asticello e marciò a erbologia con la mano avvolta nel fazzoletto di Ermione e la risata di scherno di Malfoy che ancora gli risuonava nelle orecchie se dice ancora una volta che Hagrid è un deficiente murmurò a denti stretti Harry non attaccare briga con Malfoy non dimenticare che adesso è un prefetto potrebbe renderti la vita difficile accidenti chissà come deve essere una vita difficile commentò Harry sarcastico Ron rise ma Ermione si incubì insieme si trascinarono attraverso l'orto il cielo sembrava ancora incapace di decidere se voleva piovere o no vorrei solo che Hagrid si spicciasse a tornare tutto qui disse Harry a bassa voce mentre si avvicinavano alle serre e non dire che quella grabbly plank è un insegnante migliore aggiunse minaccioso non ne avevo l'intenzione rispose Ermione tranquilla perché non sarà mai brava come Hagrid concluse Harry perentorio sapeva perfettamente di aver appena assistito a una lezione esemplare di cura delle creature magiche e questo lo irritava la porta della serra più vicina si aprì e ne uscirono alcuni studenti del quarto anno compresa Ginny ciao disse allegramente passando qualche istante dopo emerse Luna Lovegood in coda al resto della classe con una macchia di terra sul naso e i capelli legati in un nodo in cima alla testa quando vide Harry i suoi occhi sporgenti parvero gonfiarsi per l'agitazione e andò dritta verso di lui molti dei compagni di Harry si voltarono incuriositi a guardare Luna trasse un profondo trasse un profondo respiro e poi dichiarò senza nemmeno un ciao preliminare credo che colui che non deve essere nominato sia tornato e credo che tu abbia combattuto contro di lui e gli sia sfuggito ah bene disse Harry imbarazzato Luna portava a modi orecchini quelli che sembravano due rapanelli arancioni cosa che Parvati e Lavanda sembravano aver notato perché ridacchiavano tutte e due indicando i suoi lobby potete anche ridere Luna alzò la voce evidentemente convinta che Parvati e Lavanda ridessero per le sue parole invece che per i suoi accessori ma la gente una volta credeva che non esistessero cose come il cannolo balbuziente o il ricciocorno schiattoso beh avevano ragione no? disse Ermione in tono spiccio il cannolo balbuziente o il ricciocorno schiattoso non esistono Luna le lanciò uno sguardo incendiario e se ne andò furibonda con i rapanelli che dondolavano all'impazzata Parvati e Lavanda non erano le sole a ululare dal ridere ora potresti evitare di offendere le sole persone che mi credono? chiese Harry a Ermione quando entrarono in classe oh per l'amor del cielo Harry puoi avere di meglio di lei disse Ermione Ginny mi ha raccontato tutto a quanto pare crede solo alle cose di cui non esiste alcuna prova beh non mi aspetto altro dalla figlia del direttore del cavillo Harry pensò ai sinistri cavalli alati che aveva visto la notte del suo arrivo e che anche Luna aveva detto di vedere ebbe un attimo di sgomento aveva mentito ma prima che potesse dedicare altri pensieri all'argomento Ernie McMillen gli si avvicinò voglio che tu sappia Potter disse a voce alta e sicura che non sono solo gli strambi a crederti personalmente ti credo al cento per cento la mia famiglia è sempre stata dalla parte di Silente e io anche grazie mille Ernie rispose Harry corto alla sprovvista ma compiaciuto Ernie poteva anche essere pomposo all'occasione ma Ernie apprezzava profondamente un voto di fiducia da parte di uno senza rapanelli penzolanti dalle orecchie le parole di Ernie avevano cancellato il sorriso dalla faccia di Lavanda Brown e quando Ernie si voltò per parlare con Ron e Hermione colse l'espressione di Simus a un tempo confusa spavalla nessuno si stupì quando la professoressa Sprout tenne un discorsetto sull'importanza dei GUFO Ernie avrebbe preferito che i professori la smettessero cominciava a provare un senso di ansia e confusione tutte le volte che ricordava quanti compiti doveva fare sensazione che peggiorò drammaticamente alla fine della lezione quando la professoressa Sprout assegnò un altro tema stanchi e intrisi del forte odore di cacca di drago il fertilizzante preferito della Sprout i Grifondoro si avviarono a ranghi compatti verso il castello e nessuno di loro parlò molto era stata un'altra lunga giornata siccome Ernie era affamato e aveva la prima punizione con la Umbridge alle 5 andò subito a cena senza passare a lasciare la borsa nella torre di Grifondoro in modo da buttar giù qualcosa prima di affrontare ciò che era in serbo per lui ma non aveva ancora raggiunto l'ingresso della sala grande che una voce forte e rabbiosa urlò ehi Potter e adesso che cosa c'è borbottò Ernie stancamente voltandosi per affrontare Angelina Johnson che sembrava imbufalita te lo dico io che cosa c'è disse marciando dritto fino a lui e picchiandogli forte il petto con l'indice si può sapere come ti è saltato in mente di farti mettere in castigo per le 5 di venerdì che cosa disse Ernie perché ho sicuro i provini per il portiere adesso se lo ricorda ringhiò Angelina non ti ho detto che volevo fare un provino con la squadra al completo e trovare qualcuno che andasse d'accordo con tutti non ti ho detto che avevo prenotato apposta il campo di Quidditch e adesso tu hai deciso che non ci sarai non l'ho deciso io protestò Ernie ferito dall'ingiustizia di quelle parole ho preso un castigo da quella Umbridge solo perché le ho detto la verità su tu sai chi beh adesso fili da lei e le chiedi di lasciarti libero venerdì gli intimò Angelina e non mi importa come dille che tu sai chi è un prodotto della tua immaginazione se credi basta che tu faccia in modo di esserci e si allontanò in fretta sapete una cosa disse Ernie a Ron e Ermione quando entrarono nella sala grande credo che sarà meglio verificare col Paddlemare United se per caso Oliver Wood è stato ucciso durante un allenamento perché pare proprio che Angelina incarni il suo spirito secondo te quante probabilità ci sono che la Umbridge ti lasci libero venerdì chiesero a un scettico mentre si sedevano al tavolo di Grifondoro meno di zero rispose Henry Tetro si fece scivolare sul piatto delle costolette d'agnello e cominciò a mangiare meglio provare però no? mi offrirò di stare in punizione altri due giorni non so mandò giù un boccone di patate e aggiunse spero che non mi trattenga troppo stasera lo sapete che dobbiamo scrivere tre temi esercitarci negli incantesimi evanescenti per la McGonagall trovare un controincantesimo per Flitwick finire il disegno dell'asticello e cominciare quello stupido diario dei sogni per la Tre Lonei Ron gemette e levò lo sguardo al soffitto e pare che stia per piovere che cosa c'entra con i compiti? chiese Ermione le sopracciglia inarcate niente rispose subito Ron arrossendo sulle orecchie alle 5 meno 5 Henry salutò gli altri due e si incamminò verso l'ufficio della Umbridge al terzo piano quando bussò alla porta lei disse avanti con voce zuccherosa entrò cauto e si guardò attorno aveva già visto quell'ufficio al tempo dei tre precedenti occupanti nei giorni in cui Gilderoy Lockhart era vissuto lì era tappezzato dei suoi ritratti sorridenti quando l'aveva occupato Lupin era assai probabile incontrarvi qualche ammaliante creatura oscura in una gabbia o in un acquario nei giorni di Mudi l'impostore era ingombro di vari strumenti e congegni per riconoscere malefici e occultamenti adesso però era irriconoscibile le superfici piane erano state ricoperte da tovagli e pizzi c'erano parecchi vasi pieni di fiori secchi ciascuno posato sul suo centrino e su una delle pareti era appesa una collezione di piatti ornamentali raffiguranti gattini coloratissimi ognuno con un fiocco diverso al collo erano così orrendi che Harry li fissò costernato finché la professoressa Umbridge non parlò di nuovo buonasera signor Potter Harry trassalì e si guardò attorno lì per lì non l'aveva notata perché indossava un completo affiorami sgargianti che si mimetizzava perfettamente con la tovaglia sul tavolo dietro di lei sera professoressa Umbridge rispose impacciato prego si sieda disse lei indicando un tavolino ricoperto di pizzo al quale aveva avvicinato una sedia con lo schienale rigido un foglio di pergamena bianco era posato sul tavolo a quel che pareva in sua attesa mormorò Harry senza muoversi professoressa Umbridge prima che cominciamo io volevo chiederle un favore gli occhi da rospo si strinsero oh davvero beh io io faccio parte della squadra di quiddici di grifondoro e venerdì alle cinque dovevo essere al provino per il nuovo portiere e mi stavo mi chiedevo se posso saltare la punizione quella sera e farla farla un'altra sera invece ben prima di finire la frase seppe che era inutile oh no rispose l'Umbridge con un sorriso così ampio che pareva avesse appena inghiottito una mosca particolarmente sugosa oh no 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 questa è la punizione che lei si merita per aver diffuso storie malvagie e maligne per attirare l'attenzione signor Potter e le punizioni non possono essere modificate secondo i comodi del colpevole no domani alle cinque lei verrà qui e il giorno dopo e anche venerdì e subirà la sua punizione come stabilito credo che sia bene che lei perda qualcosa a cui tiene sul serio dovrebbe rafforzare la lezione che sto cercando di impartirle Harry sentì il sangue salirli alla testa e avvertì una serie di tonfi nelle orecchie quindi lui raccontava storie malvagie e maligne per attirare l'attenzione l'insegnante lo osservava con la testa appena inclinata sempre con quell'ampio sorriso come se sapesse esattamente che cosa stava pensando e aspettasse di vedere se avrebbe ricominciato a urlare con uno sforzo enorme Harry distolse lo sguardo da lei lasciò cadere la borsa dei libri vicino alla sedia con lo schienale rigido e si sedette ecco disse la Umbridge dolcemente stiamo già diventando più bravi a controllare i nostri scatti ora ricopierà un po' di frasi per me signor Potter no non con la sua penna aggiunse quando Harry si chinò ad aprire la borsa userà una delle mie una piuttosto speciale ecco qui gli porse una lunga penna d'oca nera e sottile con la punta insolitamente affilata voglio che lei scriva non devo dire bugie gli sussurrò quante volte chiese Harry con una lodevole affettazione di cortesia o quanto ci vuole perché il messaggio penetri rispose l'Umbridge mielosa cominci si spostò alla sua scrivania si sedette e si chinò su una pila di pergamene che sembravano temi da correggere Harry levò la penna nera affilata poi capì che cosa mancava non mi ha dato l'inchiostro osservò o non le servirà l'inchiostro disse la professoressa Umbridge con una vaghissima punta di larità nella voce Harry posò la punta della penna sul foglio e scrisse non devo dire bugie e mise un gemito di dolore le parole erano comparse sulla pergamena in quello che sembrava scintillante inchiostro rosso nello stesso tempo erano apparse anche sul dorso della mano destra di Harry incise sulla sua pelle come tracciate da un bisturi mentre lui era ancora intento a fissare il taglio luccicante la pelle si richiuse lasciando il punto dove si era aperta appena più rosso di prima ma liscio Harry guardò la Umbridge lei lo osservava la larga bocca da rospo stirata in un sorriso sii niente disse Harry piano tornò a guardare la pergamena vi posò di nuovo la penna scrisse non devo dire bugie e sentì una seconda volta il dolore lacerante sul dorso della mano di nuovo le parole si erano incise nella sua pelle di nuovo si rimarginarono dopo qualche secondo e andò avanti così più e più volte Harry scrisse le parole con quello che ben presto capì non essere inchiostro ma il suo stesso sangue e più e più volte le parole furono incise sul dorso della sua mano si rimarginarono e riapparvero non appena ebbe posato di nuovo la penna sulla pergamena il buio cadde oltre la finestra della Umbridge Harry non chiese quando avrebbe potuto smettere non guardò nemmeno l'orologio sapeva che lei lo stava osservando in cerca di segnali di debolezza e non voleva mostrarne alcuno nemmeno se fosse dovuto restare lì fino al mattino a squarciarsi la mano con quella penna venga qui disse lei dopo quelle che parvero ore Harry si alzò la mano era tutta una puntura dolorosa quando la guardò vide che la ferita si era chiusa ma la pelle era rosso vivo la mano disse lei lui la tese lei la prese nella sua Harry represse un brivido quando lo toccò con le grosse dita tozze cariche di vecchi orribili anelli direi che non ho fatto ancora molta impressione concluse sorridendo beh dovremo riprovare domani sera vero può andare Harry uscì dal suo ufficio senza una parola la scuola era praticamente deserta era di sicuro mezzanotte passata risalì lentamente il corridoio poi quando ebbe voltato l'angolo e fu sicuro che lei non lo sentisse prese a correre non aveva avuto tempo di esercitarsi negli incantesimi evanescenti non aveva scritto un solo sogno nel diario non aveva finito il disegno dell'asticello e non aveva nemmeno fatto i temi la mattina dopo saltò la colazione per scribacchiare un paio di sogni inventati per divinazione alla prima ora e fu sorpreso di trovare uno scarmigliato Ron a tenerli in compagnia come mai non li hai fatti ieri sera chiese Harry mentre Ron fissava disperatamente la sala comune in cerca di ispirazione Ron che era profondamente addormentato quando Harry era tornato nel dormitorio borbottò di aver fatto qualcos'altro si chinò sulla sua pergamena e scarabocchiò qualche parola questo basterà stabilì chiudendo il diario con un tonfo ho detto che ho sognato che mi compravo un paio di scarpe nuove non può cavarne niente di strano si affrettarono a raggiungere insieme la torre nord come è stata la punizione con l'Humbridge che cosa ti ha fatto fare Harry esitò per una frazione di secondo poi rispose scrivere delle frasi non è poi così male allora eh disse Ron no ehi me l'ho dimenticato ti ha lasciato libero per venerdì no rispose Harry Ron gemette solidale fu un'altra brutta giornata per Harry fu uno dei peggiori a trasfigurazione visto che non si era affatto esercitato negli incantesimi evanescenti dovetti rinunciare all'ora di pranzo per completare il disegno dell'asticello e nel frattempo le professoresse McGonagall Grabley Plank e Sinistra chiedero loro altri compiti che non aveva alcuna speranza di finire quella sera a causa della seconda punizione con l'Humbridge a coronare il tutto Angelina Johnson lo cercò di nuovo a cena e quando seppe che non sarebbe riuscito ad andare ai provini gli disse che non era affatto contenta del suo comportamento e che si aspettava che chi desiderava continuare a far parte della squadra mettesse gli allenamenti al di sopra degli altri impegni sono in punizione urlò Harry ad Angelina che si allontanò a grandi passi credi che preferisca restare chiuso in una stanza con quella vecchia rospa invece di giocare a Quidditch almeno sono solo frasi disse Ermione per consolarlo mentre Harry si lasciava ricadere sulla panca e guardava il pasticcio di carne e rognone di cui non aveva più molta voglia non è una punizione così tremenda davvero Harry aprì la bocca la richiuse e annui non sapeva bene perché non voleva dire a Ron e Ermione che cosa succedeva di preciso dall'Humbridge sapeva solo che non voleva vedere i loro sguardi di orrore avrebbero fatto sembrare la cosa ancora peggiore e quindi più difficile da affrontare e poi intuiva vagamente che quella era una faccenda tra lui e la Umbridge una battaglia privata di volontà e non intendeva darle la soddisfazione di sapere che si era lamentato non posso credere a quanti compiti abbiamo disse Ron abbacchiato beh perché non hai fatto niente ieri sera gli chiese Ermione dove eri? io ero avevo voglia di fare una passeggiata rispose Ron evasivo Harry ebbe la chiara impressione di non essere il solo a nascondere qualcosa il secondo castigo fu orrendo come il precedente la pelle sul dorso della mano di Harry si irritò più in fretta e ben presto fu rossa e infiammata Harry pensò che non sarebbe riuscita a rimarginarsi del tutto ancora a lungo ben presto la ferita sarebbe rimasta incisa sulla sua mano e la Umbridge forse sarebbe stata soddisfatta non si lasciò sfuggire nemmeno un gemito di dolore tuttavia e dal momento in cui entrò nella stanza a quando fu congedato di nuovo dopo mezzanotte non disse altro che buonasera e buonanotte la situazione dei suoi compiti però era ormai disperata e quando tornò alla sala comune di Grifondoro non andò a letto pur essendo sfinito ma aprì i libri e cominciò il tema per Piton sulla pietra di luna quando ebbe terminato erano le due e mezzo sapeva di aver fatto un lavoro pessimo ma non ci poteva far niente se non avesse consegnato qualcosa sarebbe stato punito anche da Piton poi buttò giù delle risposte alle domande assegnate dalla professoressa McGonagall mise insieme qualcosa sul corretto trattamento degli asticelli per la professoressa Grabli Plank e barcollò a letto dove crollò sulle coperte vestito di tutto punto e si addormentò all'istante il giovedì passò in una bruma di stanchezza pure Ron sembrava molto assonnato anche se Harry non capiva perché il terzo castigo di Harry trascorse come gli altri due tranne per il fatto che dopo due ore le parole non devo dire bugie non si cancellarono più dal dorso della sua mano ma vi rimasero incise colando goccioline di sangue sentendo che la penna appuntita aveva smesso per un momento di grattare sulla pergamena la professoressa Umbridge alzò lo sguardo ah disse dolcemente facendo il giro della scrivania per osservare la mano bene dovrebbe servirle come monito vero per stasera può andare devo sempre tornare domani chiese Harry raccogliendo la borsa con la mano sinistra invece che con la destra addolorante oh sì rispose la professoressa Umbridge col suo ampio sorriso sì credo che possiamo imprimere il messaggio un po' più a fondo con un'altra sera di lavoro Harry non aveva mai pensato prima d'allora di poter odiare un altro insegnante più di Piton ma tornando alla torre di Grifondoro dovete ammettere che Piton aveva un valido concorrente è cattiva pensò salendo una scalinata per andare al settimo piano è una perfida perversa vecchia pazza Ron in cima alle scale aveva girato a destra e quasi era andato a sbattere contro Ron appostato dietro una statua di Lachlan l'allampanato con la sua scopa stretta in pugno fece un gran balzo di sorpresa quando vide Harry e cercò di nascondere la sua nuova Tornado 11 dietro la schiena che cosa fai? ehm niente e tu? Harry lo guardò accigliato andiamo a me puoi dirlo perché ti nascondi? io io mi nascondo da Fred e George se vuoi saperlo disse Ron sono appena passati con un gruppo del primo anno scommetto che stanno sperimentando dell'altra roba su di loro voglio dire adesso non possono farlo in sala comune no? c'è Hermione parlava velocissimo in modo febbrile ma come mai hai la scopa? non sei andato a volare no? chiese Harry io beh beh va bene te lo dico ma tu non ridere d'accordo? disse Ron sulla difensiva diventando ogni secondo più rosso io io pensavo di fare il provino per il posto da portiere di Grifondoro adesso che ho una scopa decente ecco avanti ridi non sto ridendo rispose Harry Ron sbatte le palpebre è un'ottima idea sarebbe forte se entrassi nella squadra non ti ho mai visto giocare da portiere sei bravo? non sono male disse Ron che parve immensamente sollevato dalla reazione di Harry Charlie Fred e George mi facevano sempre stare in porta quando si allenavano durante le vacanze allora questa sera ti sei allenato tutte le sere da martedì da solo però sto cercando di stregare le pluffe perché vengano da me ma non è facile e non so quanto servirà Ron era nervoso e preoccupato Fred e George moriranno da ridere quando mi presenterò ai provini da quando sono diventato prefetto non la smettono di prendermi in giro vorrei esserci disse Harry amareggiato mentre si avviavano insieme verso la sala comune sì anch'io Harry che cos'hai alla mano? Harry che si era appena grattato il naso con la mano destra libera cercò di nasconderla ma ebbe tanto successo quanto Ron con la sua tornado è solo un taglio non è niente è ma Ron afferrò l'avambraccio di Harry e sollevò il dorso della sua mano all'altezza degli occhi ci fu una pausa durante la quale fissò le parole incise nella pelle poi con l'aria di sentirsi male lasciò andare la mano credevo che ti desse solo delle frasi da scrivere Harry esitò ma dopo tutto Ron era stato sincero con lui così gli raccontò la verità sulle ore che aveva trascorso nell'ufficio della Umbridge quella vecchia megera sussurrò Ron disgustato fermandosi davanti alla signora grassa che sonnecchiava tranquilla con la testa contro la cornice è una squilibrata vai dalla McGonagall dille qualcosa no ribatté subito Harry non le darò la soddisfazione di sapere che è riuscita nel suo intento riuscita non puoi permettere che la passi liscia non so quanto potere ha la McGonagall su di lei disse Harry silente allora dillo a silente no rispose Harry in tono piatto perché no ha già abbastanza grane a cui pensare ma non era quello il vero motivo Harry non aveva intenzione di andare a chiedere aiuto a silente quando silente non gli rivolgeva la parola da giugno beh secondo me dovresti insiste Ron ma fu interrotto dalla signora grassa che li aveva osservati sonnacchiosa e ora sbottò volete dirmi la parola d'ordine o devo stare sveglia tutta la notte ad aspettare che finiate di cianciare il venerdì cominciò imbronciato e zuppo come il resto della settimana Harry guardò automaticamente verso il tavolo degli insegnanti quando entrò nella sala grande ma senza alcuna vera speranza di vedere Hagrid e rivolse subito la mente ai problemi più pressanti che lo affliggevano come la pila di compiti ormai simile a una montagna e la prospettiva di un'altra punizione della Umbridge due cose sostennero Harry quel giorno il pensiero che era quasi la fine della settimana e il fatto che per quanto terribile dovesse essere l'ultimo castigo con la Umbridge dalla finestra del suo ufficio si vedeva da lontano il campo di Quidditch e con un po' di fortuna sarebbe riuscito a scorgere qualcosa del provino di Ron raggi di luce piuttosto deboli era vero ma Harry era grato per qualunque cosa potesse illuminare la sua attuale oscurità non aveva mai passato una prima settimana di scuola peggiore a Hogwarts la sera alle 5 bussò alla porta dell'ufficio della professoressa Umbridge per quella che sperava essere l'ultima volta e gli fu detto di entrare la pergamena bianca era pronta per lui sul tavolino coperto di pizzo la penna nera affilata lì accanto sa che cosa fare signor Potter disse la Umbridge sorridendogli dolcemente Harry prese la penna e guardò oltre la finestra se spostava la sedia di appena qualche centimetro a destra con la scusa di avvicinarsi al tavolo ci riuscì ora vedeva da lontano la squadra di Quidditch di Grifondoro che volteggiava su e giù per il campo e una mezza dozzina di sagome nere ai piedi delle tre alte porte evidentemente in attesa del loro turno per fare i provini era impossibile dire quale fosse Ron da quella distanza non devo dire bugie scrisse Harry il taglio sul dorso della mano destra si aprì e riprese a sanguinare non devo dire bugie il taglio si fece più profondo pungeva e bruciava non devo dire bugie il sangue gli colò lungo il polso azzardò un'altra occhiata fuori dalla finestra chiunque difendesse la porta in quel momento stava facendo un pessimo lavoro Katie Bell segnò due volte nei pochi secondi in cui Harry si arrischiò a guardare sperando intensamente che il portiere non fosse Ron Harry posò di nuovo lo sguardo sulla pergamena macchiata di sangue non devo dire bugie non devo dire bugie guardava in su tutte le volte che pensava di poter rischiare quando sentiva il grattare della penna della Umbridge o l'aprirsi di un cassetto della scrivania la terza persona a sottoporsi alla prova fu decisamente brava la quarta fu terribile la quinta schivò un bolide benissimo ma poi si lasciò sfuggire una parata facile il cielo diventava più scuro e Harry dubitò di riuscire a vedere la sesta e la settima prova non devo dire bugie non devo dire bugie la pergamena luccicava di gocce di sangue e il dorso della mano gli bruciava di dolore quando Harry alzò di nuovo lo sguardo era calata alla notte e il campo di Quidditch non si distingueva più vediamo se ha capito il messaggio d'accordo disse la voce stucchevole della Umbridge un'ora dopo avanzò verso di lui e tese le corte dita coperte di anelli per prendergli il braccio e quando lo afferrò per osservare le parole ora incise nella sua pelle il dolore esplose non sul dorso della mano ma nella cicatrice sulla fronte nello stesso momento Harry avvertì una sensazione del tutto insolita attorno al diaframma liberò il braccio dalla presa e balzò in piedi fissandola lei gli restituì lo sguardo con un sorriso che le stilava la bocca larga e molle sì fa male vero? chiese soave lui non replicò il cuore gli batteva forte e rapido stava parlando della sua mano o sapeva che cosa aveva appena sentito sulla fronte beh credo di aver raggiunto l'obiettivo signor Potter può andare Harry raccolse la borsa dei libri e uscì dalla stanza più veloce che potè rimani calmo si disse filando su per le scale rimani calmo non vuol dire per forza quello che credi mimulus mimbretonia disse ansante alla signora grassa un gran fragore lo accolse Ron gli venne incontro correndo con un sorriso da orecchio a orecchio rovesciandosi addosso un calice di burro birra Harry ce l'ho fatta sono portiere che cosa oh magnifico rispose Harry cercando di sorridere in modo naturale mentre il cuore continuava a correre e la mano pulsava e sanguinava prendi una burro birra Ron gli infilò in mano una bottiglia non ci posso credere dove andate Hermione è là Fred tracannando a sua volta una burro birra indicò una poltrona vicino al fuoco Hermione vi sonnecchiava con la bevanda pericolosamente inclinata in mano beh prima ha detto che era contenta disse Ron un po' contrariato lasciala dormire si affrettò a dire George ci volle qualche istante perché Harry notasse che parecchi bambini del primo anno riuniti attorno a loro recavano inconfondibili segni di recenti emorragie nasali vieni qui Ron e vedi un po' se la vecchia divisa di Oliver ti va bene gridò Katie Bell possiamo togliere il suo nome e metterci il tuo dopo che Ron si fu allontanato Angelina avanzò a grandi passi verso Harry mi dispiace se sono stato un po' dura con te Potter disse bruscamente è faticosa questa faccenda di dirigere la squadra sai comincio a pensare di essere stata ingiusta con Wood qualche volta osservò Ron da sopra l'orlo del suo calice con un vago cipiglio senti lo so che è il tuo migliore amico ma non è un fenomeno disse senza giri di parole credo che con un po' di allenamento andrà bene però viene da una famiglia di buoni giocatori conto sul fatto che rivelerà un po' più di talento di quello che ha dimostrato oggi a essere sincera Vicky Frobisher e Jeffrey Hooper hanno volato meglio tutti e due stasera ma Hooper è una piaga si lamenta sempre e Vicky fa parte di ogni genere di gruppo ha ammesso anche lei che se gli allenamenti si accavallassero con il club di incantesimi metterebbe il club al primo posto comunque abbiamo un allenamento domani alle due quindi fai modo di esserci stavolta e fammi un favore aiuta Ron più che puoi ok? Harry annui e Angelina tornò da Alicia Spinnet Harry andò a sedersi vicino a Hermione che si svegliò con un sussulto quando lui posò la borsa oh Harry sei tu è bello per Ron vero? bofonchiò sono così 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 stanca sbadigliò sono stata sveglia fino a luna a fare altri berretti spariscono in un soffio a guardar bene Harry vide che c'erano berretti di lana nascosti per tutta la stanza dove elfi incauti potevano raccoglierli senza rendersene conto grandioso disse distrattamente se non l'avesse raccontato subito a qualcuno sarebbe esploso senti Hermione sono appena stato su nell'ufficio della Umbridge e mi ha toccato il braccio Hermione ascoltò con attenzione quando Harry ebbe finito disse lentamente temi che tu sai chi possa controllarla come controllava Quirrell? beh rispose Harry abbassando la voce è possibile no? immagino di sì disse Hermione ma suonava poco convinta però non credo che riesca a possederla come possedeva Quirrell voglio dire ora è di nuovo vivo e vegeto ha il suo corpo non ha bisogno di usare quello di un altro potrebbe controllarla con la maledizione Imperius però Harry osservò per un attimo Fred, George e Lee Jordan che facevano i giocolieri con le bottiglie vuote di burro birra poi Hermione disse ma l'anno scorso la cicatrice ti faceva male senza che nessuno ti toccasse e Silente non ha detto che dipendeva da quello che provava tu sai chi in quel momento voglio dire forse quello che senti adesso non c'entra affatto con la Umbridge forse è solo una coincidenza che sia successo mentre eri con lei è cattiva disse Harry in tono piatto perversa è tremenda sì ma Harry credo che dovresti dire a Silente che ti fa male la cicatrice era la seconda volta in due giorni che gli consigliavano di andare da Silente e la risposta che Harry diede a Hermione fu la stessa che aveva dato a Ron non lo voglio seccare con questa faccenda come hai appena detto non è una gran cosa mi ha fatto male un po' sì un po' no per tutta l'estate stasera è stato solo peggio tutto qui Harry sono sicura che Silente vorrebbe essere seccato per questa sì sbottò Harry prima di riuscire a trattenersi è la sola parte di me che interessa a Silente vero la mia cicatrice non dire così non è vero credo che scriverò a Sirius per sapere che cosa ne pensa Harry non puoi scrivere una cosa del genere in una lettera disse Hermione preoccupata non ti ricordi Moody ci ha detto di stare attenti non siamo più sicuri che i gufi non vengano intercettati va bene va bene allora non glielo dico irritato Harry si alzò vado a dormire dillo tu a Ron d'accordo oh no disse Hermione sollevata se vai tu vuol dire che posso andare anch'io senza essere scortese sono completamente sfinita e domani voglio fare altri berretti senti puoi aiutarmi se ti va è divertente sto migliorando so fare i disegni e i pompon e un sacco di cose adesso Harry la guardò era radiosa di gioia e lui cercò di sembrare almeno un po' tentato dalla sua offerta no non credo grazie rispose non domani ho un mucchio di compiti da fare e si trascinò fino alla scala dei maschi lasciandola un po' delusa persi e felpato la mattina dopo Harry fu il primo del suo dormitorio a svegliarsi rimase disteso a guardare la polvere vorticare nel raggio di sole che passava dalle tende del baldacchino e assaporò il pensiero che era sabato la prima settimana di scuola sembrava essersi protratta in eterno come una gigantesca lezione di storia della magia a giudicare dal silenzio sonnacchioso della stanza e dalla luce acerba del raggio di sole era appena passata all'alba scostò le tende attorno al letto si alzò e cominciò a vestirsi il solo rumore a parte il cinguettio remoto degli uccelli era il lento profondo respiro dei suoi compagni di grifondoro aprì la borsa dei libri con cautela prese penna e pergamena e uscì dal dormitorio diretto alla sala comune andò dritto verso la sua vecchia molle poltrona preferita accanto al fuoco ormai spento si mise comodo e srotolò il foglio si guardò intorno i frammenti accartocciati di pergamena vecchie gobbiglie barattoli di ingredienti vuoti e incarti di dolci che in genere ingombravano la sala comune alla fine di ogni giornata erano spariti così come tutti i berretti da elfo di ermione chiedendosi distratto quanti elfi fossero ormai stati liberati volenti o nolenti Harry stappò la boccetta dell'inchiostro intinse la penna poi la tenne sospesa qualche centimetro sopra la liscia superficie giallognola della pergabena e pensò intensamente ma dopo un minuto si trovò a fissare il focolare vuoto senza che gli fosse venuta un'idea ora capiva com'era stato difficile per Ron e Ermione scrivergli durante l'estate come faceva a raccontare a Sirius tutto quello che era successo nell'ultima settimana e a chiedergli tutte le cose che gli premevano senza dare a potenziali ladri di lettere un sacco di informazioni inopportune rimase seduto immobile per un po' scrutando dentro il camino poi finalmente prese una decisione intinse ancora una volta la penna nella boccetta d'inchiostro e la posò risoluto sulla pergamena caro tartufo spero che tu stia bene i primi giorni qui sono stati terribili sono proprio felice che sia arrivato il fine settimana abbiamo una nuova insegnante di difesa contro le arti oscure la professoressa Umbridge è simpatica quasi come la tua madre mamma scrivo perché la cosa di cui ti avevo scritto la scorsa estate è successa di nuovo ieri sera mentre ero in castigo con la Umbridge il nostro più grande amico manca a tutti quanti speriamo che torni presto ti prego rispondi in fretta i migliori saluti Harry Harry rilesse parecchie volte la lettera cercando di vederla dal punto di vista di un estraneo era certo che nessuno avrebbe potuto capire di che cosa parlava o con chi spero che Sirius cogliesse l'allusione a Hagrid e dicesse loro quando sarebbe tornato Harry non voleva chiederlo direttamente per non attirare troppo l'attenzione su Hagrid e su quello che stava facendo nonostante fosse una lettera molto corta aveva richiesto molto tempo la luce era strisciata fino a metà della stanza e ormai Harry sentiva lontani movimenti nei dormitori di sopra si girò con cura la pergamena uscì dal buco dietro il ritratto e andò alla guferia io non andrei da quella parte se fossi in te disse Nick quasi senza testa attraversando una parete appena davanti a Harry che scendeva per il corridoio Peeves sta tramando uno spassoso scherzo ai danni della prossima persona che passerà davanti al busto di Paracelso a metà del corridoio consiste nello scaraventare Paracelso in testa alla persona per caso chiese Harry parrabuffo ma è così disse Nick quasi senza testa con voce annoiata la finezza non è mai stata il suo forte vado a cercare il barone sanguinario forse riuscirà a fermarlo ci vediamo Harry sì saluti rispose Harry e invece di voltare a destra prese a sinistra imboccando un percorso più lungo ma più sicuro per la guferia il suo umore migliorò quando oltrepassando una finestra dopo l'altra vide il cielo di un azzurro brillante più tardi ci sarebbero stati gli allenamenti finalmente sarebbe tornato sul campo di Quidditch qualcosa gli sfiorò le caviglie guardò giù e vide la gatta scheletrica del custode Mrs. Norris che camminava furtiva dietro di lui e gli puntò addosso per un attimo gli occhi gialli simili a lampadine prima di sparire dietro una statua di Wilfred il meditabondo non sto facendo niente di male le gridò dietro Harry lei aveva tutta l'aria di stare andando a riferire al suo padrone eppure Harry non riusciva a capire perché aveva tutti i diritti di salire alla guferia di sabato mattina il sole ormai era alto nel cielo e quando Harry entrò nella guferia le finestre prive di vetri lo abbagliarono spessi raggi dorati si incrociavano nella stanza circolare in cui centinaia di gufi erano appollaiati sulle travi un po' irrequieti nella luce del mattino alcuni erano appena tornati dalla caccia il pavimento coperto di paglia scricchiolò un po' mentre Harry calpestava ossicini di animali tendendo il collo per cercare Edvige ecco ti qui disse individuandola in un punto molto vicino al soffitto avvolta scendi ho una lettera per te con un fischio sommesso Edvige aprì le ampie ali bianche e planò sulla sua spalla è vero fuori c'è scritto tartufo le disse dandole la lettera da reggere nel becco e sussurrando senza sapere bene perché ma è per Sirius d'accordo lei chiuse e aprì una volta gli occhi d'ambra e lui lo prese come il segno che aveva capito buon volo allora disse e la portò sino a una finestra con una breve pressione sul suo braccio Edvige decollò nel cielo accecante lui la guardò finché non divenne un puntino nero e sparì poi spostò lo sguardo sulla capanna di Hagrid che dalla finestra si vedeva chiaramente ed era altrettanto chiaramente disabitata il camino senza fumo le tende tirate le cime degli alberi della foresta proibita dondolavano alla brezza leggera Harry le osservò assaporando l'aria fresca sul viso pensando al quiddici che lo aspettava poi lo vide un enorme cavallo alato di quelli che trainavano le carrozze di Hogwarts con le ali nere di cuoio spalancate come un opterodattilo si librò dagli alberi simile a un grottesco uccello gigante planò disegnando un grande cerchio poi si tuffò di nuovo tra le chiome il tutto accadde così in fretta che Harry riuscì astento a credere a ciò che aveva visto se non per il cuore che gli martellava forte la porta della guferia si aprì dietro di lui sobbalzò spaventato si voltò di colpo e vide Cho Chan che reggeva una lettera e un pacchetto Ciao disse Harry automaticamente Oh ciao rispose lei senza fiato non pensavo che ci fosse qualcuno quassù così presto mi sono ricordata solo cinque minuti fa che il compleanno di mia mamma mostrò il pacchetto Ho capito mormorò Harry il suo cervello sembrava inceppato voleva dire qualcosa di buffo interessante ma il ricordo di quell'orribile cavallo alato era ancora fresco nella sua mente Bella giornata disse accennando alle finestre sentì le viscere accartocciarsi dall'imbarazzo il tempo stava parlando del tempo sì rispose Cho guardandosi attorno in cerca di un gufo adatto buone condizioni per il quidditch è tutta la settimana che non esco e tu nemmeno Cho aveva scelto uno dei gufi della scuola lo persuase a scendere sul suo braccio e quello tese con garbo una zampa in modo che lei potesse fissare il pacchetto ehi grifondoro ha già un nuovo portiere chiese sì rispose Harry è il mio amico Ron Weasley lo conosci quello che odia i tornados chiese Cho in tono distaccato è bravo sì disse Harry credo di sì non ho visto il suo provino però ero in punizione Cho alzò lo sguardo il pacchetto attaccato solo per metà alla zampa del gufo quella umbridge disgustosa sussurrò punirti soltanto perché hai detto la verità su come come è morto l'hanno sentito tutti lo sapeva tutta la scuola sei stato proprio coraggioso a tenerle testa le viscere di Harry si rigonfiarono così in fretta che gli parve di poter galleggiare a qualche centimetro dal pavimento coperto di tacche chi se ne importava di uno stupido cavallo volante Cho era convinta che lui fosse stato proprio coraggioso per un attimo pensò di mostrarle casualmente la mano ferita mentre la aiutava a legare il pacchetto al gufo ma proprio in quell'istante la porta della guferia si aprì di nuovo Filci il custode entrò ansimando macchie violette chiazzavano le sue guance incavate e coperte di venuzze le mascelle gli vibravano e i sottili capelli grigi erano arruffati a quanto pareva era arrivato di corsa Mrs. Norris trotterellava le sue calcagna guardò in su verso i gufi e miagolò affamata in alto si udì un irrequieto frusciare di ali e un grosso uccello marrone fece schioccare il becco minaccioso Ah! disse Filci facendo un passo coi sui piedi piatti verso Harry le guance flosce tremanti di rabbia ho ricevuto una soffiata vuoi spedire un grosso ordine di cacca bombe Harry incrociò le braccia e scrutò il custode chi le ha detto che sto ordinando delle cacca bombe ciò spostava lo sguardo da Harry a Filci accigliata il gufo sul suo braccio stanco di leggersi su una zampa sola stridette in segno di avvertimento ma lei lo ignorò ho i miei informatori disse Filci con un sibilo compiaciuto ora consegnami la roba che stai spedendo immensamente sollevato per non aver perso tempo Harry rispose non posso è partita partita? chiese Filci la faccia deformata dalla rabbia partita ripete Harry tranquillo Filci aprì la bocca infuriato boccheggiò per qualche istante poi frugò con lo sguardo l'abito di Harry come faccio a sapere che non ce l'ha in tasca? perché l'ho visto io spedirla disse ciò arrabbiata Filci la aggredì tu l'hai visto? proprio così io l'ho visto rispose lei feroce ci fu un attimo di pausa in cui Filci e Cho si guardarono torvi poi il custode andò verso la porta trascinando i piedi si bloccò con la mano sulla maniglia e tornò a guardare Harry se sento anche solo una zaffata di cacca bomba scese le scale a tonfi Mrs. Norris gettò un'ultima occhiata di desiderio ai gufi e lo seguì Harry e Cho si guardarono grazie disse Harry non c'è di che finalmente Cho fissò il pacchetto alla zampa del gufo un po' rossa in viso non stavi ordinando delle cacca bombe vero? no rispose Harry chissà come mai ne era convinto disse portando il gufo verso la finestra Harry scrollò le spalle ne sapeva quanto lei ma stranamente la cosa non lo turbava al momento uscirono dalla guferia insieme all'inizio del corridoio che portava l'ala ovest del castello Cho disse io vado di qua beh ci vediamo in giro Harry sì ci vediamo di sorrise e se ne andò Harry continuò a camminare pervaso da una quieta euforia era riuscito a sostenere un'intera conversazione con lei senza una sola occasione di imbarazzo sei stato proprio coraggioso a tenere la testa Cho l'aveva definito coraggioso non lo odiava perché era vivo certo aveva preferito Cedric lui lo sapeva ma se solo l'avesse invitata al ballo prima di Cedric le cose sarebbero potute andare diversamente era parsa davvero dispiaciuta di aver dovuto rifiutare quando Harry l'aveva invitata giorno disse Harry allegro a Ron e Hermione unendosi al tavolo di Grifondoro nella sala grande come mai sei così contento domandò Ron sorpreso per il quidditch dopo rispose Harry con gioia tirandosi vicino un gran vassoio di uova e pancetta oh sì fece Ron posò il pezzo di pane tostato che stava mangiando e beve un lungo sorso di succo di zucca poi chiese senti non ti andrebbe di uscire un po' prima con me solo per farmi fare un po' di pratica prima degli allenamenti così posso insomma prendere un po' le misure sicuro disse Harry sinceramente non mi sembra il caso intervenne Hermione seria siete tutti e due indietro con i compiti ma si interruppe stava arrivando la posta del mattino e come al solito la gazzetta del profeta planava verso di lei nel becco di un allocco che atterrò pericolosamente vicino alla zuccheriera e tese una zampa Hermione infilò uno zellino nella borsetta di cuoio prese il quotidiano e scrutò la prima pagina con sguardo critico mentre il gufo partiva qualcosa di interessante chiese Ron Harry fece un gran sorriso sapendo che l'amico era deciso a distorgerla dall'argomento compiti no sospirò lei solo qualche sciocchezza sulla bassista dei weird sisters che si sposa Hermione aprì il giornale e vi si immerse Harry si dedicò a un'altra porzione di uova e pancetta Ron fissava le alte finestre un po' preoccupato aspettate disse Hermione all'improvviso oh no Sirius che cosa è successo chiese Harry afferrando il giornale con tanta violenza che si strappò e lui e Hermione se ne ritrovarono in mano a metà per ciascuno il ministero della magia ha ricevuto una soffiata da una fonte attendibile sul fatto che Sirius Black famigerato terrorista bla 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 al momento si nasconde a Londra lesse Hermione sulla sua metà in un sussurro angosciato Lucius Malfoy ci scommetto quello che volete mormorò Harry furioso ha riconosciuto Sirius al binario cosa? disse Ron preoccupato non avevi detto stsst lo zittirono gli altri due il ministero avverte la comunità magica che Black è molto pericoloso ha ucciso tredici persone evaso da Azgaban le solite sciocchezze concluse Hermione poi posò la sua metà del giornale e guardò Harry e Ron spaventata beh non potrà più uscire di casa ecco tutto sussurrò Silente gli aveva raccomandato di non farlo Harry guardò sconsolato la parte del profeta che aveva strappato gran parte della pagina era dedicata alla pubblicità di Madame Malkin abiti per tutte le occasioni che a quel che pareva aveva dato inizio ai saldi ehi esclamò appiattendo il foglio in modo che Hermione e Ron potessero vederlo guardate qui non ho bisogno di vestiti disse Ron no guardate questo pezzo Ron e Hermione si chinarono per leggere l'articolo era lungo pochi centimetri e sistemato proprio in fondo a una colonna era intitolato effrazione al ministero Sturgis Podmore 38 anni residente al numero 2 di Laburnum Gardens Clapham è apparso davanti al Wiesengamot con l'accusa di effrazione e tentata rapina al ministero della magia il 31 agosto Podmore è stato arrestato da Eric Munch guardiamago del ministero della magia che l'ha sorpreso nel tentativo di forzare una porta di massima sicurezza a luna di notte Podmore che si è rifiutato di parlare in propria difesa è stato condannato per entrambe le accuse e dovrà scontare sei mesi ad Azkaban Sturgis Podmore ripetè Ron scandendo le parole è quel tipo con i capelli che sembrano paglia no? fa parte del lord Ron lo citì Hermione guardandosi intorno atterrita sei mesi ad Azkaban sussurrò Henry spaventato solo per aver tentato di aprire una porta non fare lo sciocco non è solo perché ha tentato di aprire una porta che cosa accidenti ci faceva al ministero della magia a luna di notte bisbigliò Hermione credi che stesse facendo qualcosa per l'ordine chiese Ron aspettate un momento disse Henry pensieroso Sturgis doveva venire ad accompagnarci ricordate gli altri due lo guardarono sì avrebbe dovuto far parte della scorta che ci portava a King's Cross vi ricordate e Moody era arrabbiato perché non si era fatto vedere quindi non poteva essere in missione per loro no? beh forse non si aspettavano che venisse catturato disse Hermione potrebbe essere una montatura esclamò Ron non eccitato no sentite continuò abbassando di colpo la voce all'espressione minacciosa di Hermione il ministero sospettava che fosse uno della banda di Silente così non so l'hanno attirato laggiù e non stava affatto cercando di aprire una porta forse si sono solo inventati qualcosa per prenderlo Henry e Hermione rifletterono Henry la trovava un'ipotesi troppo inverosimile Hermione invece pareva piuttosto convinta sapete non ne sarei affatto sorpreso ripiegò la sua metà del giornale sopra pensiero mentre Henry posava coltello e forchetta lei parve uscire da una fantasticheria giusto bene credo che dovremmo affrontare per primo il tema per la Sprout sugli arbusti autofertilizzanti e se siamo fortunati riusciremo a cominciare con il sortilegio in animatus congurus della McGonagall prima di pranzo Henry sentì una piccola fitta al pensiero della pila di compiti che lo aspettavano di sopra ma il cielo era di un azzurro limpido che dava l'euforia e non era montato sulla sua firebolt per tutta la settimana beh possiamo farli stasera disse Ron mentre lui e Henry scendevano per i prati verso il campo di Quidditch con le scope in spalla le terribili minacce di Hermione che sarebbero stati bocciati a tutti i GUFO ancora risuonavano nelle loro orecchie e abbiamo anche domani si agita per i compiti è il suo problema ci fu una pausa e poi aggiunse in tono appena più ansioso credi che parlasse sul serio quando ha detto che non ci avrebbe lasciato copiare da lei sì rispose Henry però è importante anche questo dobbiamo allenarci se vogliamo continuare a far parte della squadra di Quidditch sì è vero disse Ron rincuorato e abbiamo un sacco di tempo mentre si avvicinavano al campo di Quidditch Henry guardò alla sua destra dove gli alberi della foresta proibita fremevano oscuri nulla si alzò in volo il cielo era vuoto a parte alcuni gufi che volteggiavano lontano attorno alla torre della guferia aveva già abbastanza preoccupazioni il cavallo volante non gli faceva alcun male e lo cacciò via dalla mente presero delle palle dall'armadio dello spogliatoio e cominciarono ad allenarsi Ron sorvegliava le tre alte porte Henry giocava da cacciatore e tentava di far passare la pluffa oltre Ron Ron era proprio bravo bloccò i tre quarti dei tiri di Henry e giocava sempre meglio via via che si allenavano dopo un paio d'ore tornarono al castello per il pranzo durante il quale Ermione annunciò senza giri di parole che li riteneva due irresponsabili poi tornarono al campo di Quidditch per i veri allenamenti tutti i loro compagni tranne Angelina erano già nello spogliatoio tutto bene Ron? chiese George con una strizzatina d'occhi sì rispose Ron che era diventato sempre più silenzioso man mano che si avvicinavano al campo pronto a farci fare brutta figura prefettuccio? domandò Fred sbucando tutto spettinato e con un ghigno malizioso dal collo della divisa da Quidditch taci mormorò Ron il volto di pietra infilando la divisa per la prima volta gli andava bene considerato che era appartenuta a Oliver Wood parecchio più largo di spalle bene tutti quanti disse Angelina arrivando già vestita dall'ufficio del capitano cominciamo Alicia e Fred potete portare la cesta delle palle? oh c'è un po' di gente là fuori a guardare ma voglio che la ignoriate d'accordo? qualcosa nel suo finto tono disinvolto suggerì a Henry che forse sapeva chi erano gli spettatori non invitati infatti uscirono dallo spogliatoio nella vivida luce solare sotto una tempesta di fischi e urla della squadra di serpeverde e di tifosi assortiti raggruppati a metà delle tribune vuote le loro voci echeggiavano forte nello stadio che cosa cavalca quel Weasley? gridò Malfoy con la sua beffarda voce strascicata chi è che ha gettato un incantesimo volante su quel vecchio ciocco muffito? Crabb, Goyle e Penzi Parkinson sghignazzarono e strillarono Ron inforcata la sua scopa decollò scalciando il suolo e Henry lo seguì guardando le sue ore orecchie che arrossivano ignorali disse accelerando per raggiungerlo vedremo chi riderà dopo che avremo giocato contro di loro questo è l'atteggiamento che voglio Henry approvò Angelina librandosi sopra di loro con la pluffa sotto braccio e rallentando per restare sospesa davanti alla sua squadra volante bene tutti quanti cominceremo con qualche passaggio per scaldarci tutti quanti per favore ehi Johnson che senso ha quella conciatura strillò Penzi Parkinson da sotto che te ne fai di tutti quei vermi che ti escono dalla testa Angelina scostò dal viso le lunghe treccine e continuò tranquillamente sparpagliatevi allora e vediamo che cosa riusciamo a fare Henry si allontanò dagli altri in retromarcia e raggiunse l'altra estremità del campo Ron si ritrasse verso la porta di fronte Angelina prese la pluffa con una mano e la scagliò forte a Fred che la passò a George che la passò a Henry che la passò a Ron che la lasciò cadere i serpeverde guidati da Malfoy esplosero in urla e scoppi di risate Ron che si era precipitato per afferrare la pluffa prima che toccasse il suolo sterzò dalla picchiata in maniera goffa e scivolò di lato sulla scopa poi tornò in quota tutto rosso Henry vide Fred e George scambiarsi uno sguardo ma stranamente nessuno dei due disse nulla cosa di cui fu loro grato passala Ron gridò Angelina come se niente fosse Ron lanciò la pluffa ad Alicia che la ripassò a Henry che la passò a George ehi Potter come va la cicatrice urlò Malfoy sicuro che non hai bisogno di un riposino deve essere vediamo un po' una settimana intera che non vai in infermeria per te un record no George passò ad Angelina lei passò indietro a Henry che non se l'aspettava ma prese la palla con la punta delle dita e la passò rapido a Ron che si tuffò e la mancò di pochi centimetri dai Ron disse Angelina seccata mentre lui si precipitava di nuovo verso terra inseguendo la pluffa stai attento sarebbe stato difficile dire se fosse più rossa la faccia di Ron o la pluffa Malfoy e il resto della sua squadra ululavano dal ridere al terzo tentativo Ron prese la pluffa forse per il sollievo la passò con tanto entusiasmo a Katie che la colpì forte in faccia scusa gemette Ron scattando in avanti per vedere se le aveva fatto male torna al tuo posto sta bene abbaiò Angelina quando passi a una compagna cerca di non ribaltarla dalla scopa d'accordo per quello ci sono i bolidi il naso di Katie sanguinava giù in basso i serpe verde battevano i piedi e sghignazzavano Fred e George volarono verso Katie ecco prendi questo le disse Fred dandole qualcosa di piccolo e viola che si era sfilato di tasca sistemerà tutto in un attimo d'accordo gridò Angelina Fred George andate a prendere le mazze e un bolide Ron vai su alle porte Harry lascia andare il boccino quando lo dico io cercheremo di segnare nelle porte di Ron naturalmente Harry filò dietro ai gemelli per andare a prendere il boccino Ron non se la sta cavando molto bene borbottò George quando i tre atterrarono vicino alla cesta delle palle e la aprirono per estrarre un bolide e il boccino è solo nervoso rispose Harry andava benone quando mi sono allenato con lui stamattina beh spero che non abbia già dato il massimo disse Fred di malumore tornarono in aria quando Angelina fischiò Harry liberò il boccino e Fred e George lasciarono il bolide da quel momento Harry quasi non si rese conto di quello che facevano gli altri il suo compito era riacchiappare la pallina dorata svolazzante che valeva centocinquanta punti per la squadra del cercatore e questo richiedeva enorme rapidità e abilità accelerò vorticando e scartando tra i cacciatori la tiepida aria autunnale che gli frustava il volto le urla remote dei serpe verde erano un ruggito insignificante nelle sue orecchie ma troppo presto un fischio lo costrinse di nuovo a fermarsi stop 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 gridò Angelina Ron non stai coprendo l'anello centrale Harry si voltò a guardare Ron che galleggiava davanti all'anello di sinistra lasciando gli altri due completamente scoperti oh mi dispiace continui a spostarti mentre guardi i cacciatori disse Angelina o stai al centro finché non devi muoverti per difendere un anello oppure gira intorno agli anelli ma non svolazzare da una parte è così che hai lasciato passare gli ultimi tre tiri mi dispiace ripete Ron il viso rosso che brillava come un faro contro il cielo azzurro vivo e Katie non puoi fare qualcosa per quel naso sta peggiorando esclamò Katie con voce confusa cercando di tamponare i fiotti di sangue con la manica Harry si voltò a guardare Fred che si tastava le tasche preoccupato lo vide estrarne qualcosa di violetto osservarlo per un istante e poi guardare Katie chiaramente orripilato beh riproviamo disse Angelina stava ignorando i serpeverde che avevano intonato grifondoro schiappe grifondoro schiappe ma c'era senza dubbio una certa rigidità nel suo modo di cavalcare la scopa questa volta volavano da meno di tre minuti quando il fischio di Angelina trillò Harry che aveva appena avvistato il boccino volticare attorno alle porte di fronte risalì decisamente afflitto e adesso che cosa c'è? chiese impaziente ad Alicia che era la più vicina Katie rispose lei Harry si voltò e vide Angelina Fred e George volare più veloci che potevano verso Katie anche Harry e Alicia sfrecciarono verso di lei era chiaro che Angelina aveva interrotto l'allenamento appena in tempo Katie era bianca come un lenzuolo tutta coperta di sangue deve andare in infermeria disse Angelina ce la portiamo noi si offrì Fred deve aver mangiato per sbaglio una vescicola sanguinolenta beh è inutile proseguire senza battitori e con un cacciatore fuori disse Angelina cupa mentre Fred e George filavano via verso il castello reggendo tra loro Katie forza andiamo a cambiarci i serpeverde continuarono a scandire i loro slogan e i grifondoro si trascinarono verso lo spogliatoio come è andato l'allenamento chiese Hermione gelida mezz'ora dopo quando Harry e Ron varcarono il buco del ritratto ed entrarono nella sala comune è stato cominciò Harry uno schifo totale concluse Ron con voce sepolcrale sprofondando in una poltrona vicino a Hermione lei guardò Ron e la sua freddezza parve sciogliersi beh per te era solo il primo disse per consolarlo ci vorrà del tempo chi ha detto che è stata colpa mia sbottò Ron nessuno rispose Hermione colta alla sprovvista credevo credevi che dovessi far schifo per forza no certo che no senti tu hai detto che era stato uno schifo e io solo vado a cominciare un po' di compiti disse Ron arrabbiato salì a passi pesanti la scala del dormitorio e sparì Hermione si rivolse a Harry ha giocato così male no mentì Harry Hermione inarcò le sopracciglia beh suppongo che avrebbe potuto giocare meglio borbottò Harry ma era solo il primo allenamento come hai detto tu ne Harry ne Ron andarono molto avanti con i compiti quella sera Harry sapeva che Ron era troppo preoccupato per come aveva giocato e lui faticava a farsi uscire dalla testa quel coro di Grifondoro schiappe passarono tutta la domenica nella sala comune sepolti nei loro libri mentre la stanza si riempiva e si svuotava era un'altra bella giornata serena e gran parte dei loro compagni di Grifondoro la passarono fuori nel parco a godersi quello che poteva essere uno degli ultimi giorni di sole dell'anno a sera Harry si sentiva come se qualcuno gli avesse fatto sbattere il cervello contro l'interno del cranio sai probabilmente dovremmo cercare di fare più compiti durante la settimana borbottò a Ron quando finalmente misero da parte il lungo tema per la McGonagall sul sortilegio inanimato scongiurus e si rivolsero tetri a quello per la professoressa sinistra sulle molte lune di Giove altrettanto lungo e difficile sicuro disse Ron strofinandosi gli occhi arrossati e gettando il quinto foglio di pergamena nel fuoco senti chiediamo a Hermione se possiamo dare un'occhiata al suo Harry la guardò era seduta con grattastinchi in grembo e chiacchierava allegramente con Ginni mentre due ferri da calza a mezz'aria davanti a lei sferruzzavano un paio di informi calzini da elfo no rispose lui lo sai che non ce lo lascerà fare e così continuarono a lavorare e il cielo diventava sempre più scuro piano piano la folla nella sala comune riprese a diradarsi alle undici e mezzo Hermione si avvicinò sbadigliando quasi finito no rispose Ron secco la luna più grande di Giove è Ganimede non Callisto disse lei indicando da sopra la spalla di Ron una riga del tema di astronomia ed è io che ha i vulcani grazie ringhiò Ron cancellando le frasi sbagliate scusa è solo che sì beh se sei venuta solo per criticare Ron non ho tempo di ascoltare una predica d'accordo Hermione ci sono dentro fino al collo qui no guarda Hermione stava indicando la finestra più vicina sia Henry che Ron si voltarono un bel allocco era fermo sul davanzale e scrutava Ron non è Hermes chiese Hermione meravigliata sì accidenti disse Ron piano gettò via la penna e si alzò come mai Persi mi scrive attraversò la stanza e aprì la finestra Hermes volò dentro atterrò sul tema di Ron e tese una zampa a cui era fissata una lettera Ron la prese e l'allocco partì subito lasciando orme d'inchiostro sul disegno della luna io è senza dubbio la scrittura di Persi disse Ron sprofondando di nuovo nella poltrona e fissando le parole sull'esterno del rotolo Ronald Weasley casa di Grifondoro Hogwarts guardò gli altri due che cosa ne pensate aprila esclamò Hermione impaziente e Henry annui Ron srotolò la pergamena e cominciò a leggere più i suoi occhi scendevano lungo il foglio più marcato diventava il suo cipiglio quando ebbe finito era disgustato gettò la lettera a Henry e Hermione che si curvarono per leggerla insieme caro Ron ho saputo solo ora niente meno che dal ministro della magia in persona che l'ha preso dalla vostra nuova insegnante la professoressa Umbridge che sei diventato prefetto di Hogwarts sono stato assai piacevolmente sorpreso da questa notizia e voglio assolutamente congratularmi con te devo ammettere che ho sempre temuto che avresti imboccato quella che potremmo definire la strada di Fred George invece che seguire le mie orme quindi puoi immaginare che cosa ho provato nel sapere che hai smesso di farti beffe dell'autorità e hai deciso di assumerti qualche vera responsabilità ma voglio offrirti qualcosa di più delle mie congratulazioni Ron voglio darti qualche consiglio per questo ti mando la lettera di notte invece che con la solita posta del mattino spero che riuscirai a leggerla lontano da sguardi indiscreti e a evitare domande imbarazzanti da qualcosa che il ministro si è lasciato sfuggire quando mi ha comunicato che ora sei un prefetto deduco che frequenti ancora molto Harry Potter devo dirti Ron che nulla potrebbe farti rischiare di perdere la tua spilla più del continuo fraternizzare con quel ragazzo sì sono certo che sarai sorpreso di sentirmelo dire e senza dubbio obieterai che Potter è sempre stato il prediletto di Silente ma mi sento in dovere di dirti che Silente potrebbe non essere preside di Hogwarts per molto tempo ancora e la gente che conta ha una visione molto diversa e probabilmente più precisa del comportamento di Potter non dirò altro qui ma se leggi la gazzetta del profeta di domani ti farai un'idea di come tira il vento e vedi se riesci a riconoscere il sottoscritto sul serio Ron spero che non vorrai condividere gli stessi difetti di Potter potrebbe essere molto dannoso per le tue prospettive e sto parlando anche della vita dopo la scuola come certo saprai visto che nostro padre l'ha accompagnato Potter è stato convocato a un'udienza disciplinare quest'estate davanti all'intero Wisen Gamot e non è uscito molto bene è stato assolto per un puro cavillo se vuoi saperlo e molte persone con cui ho parlato rimangono convinte che sia colpevole può darsi che tu abbia paura di tagliare i ponti con lui so che può essere mentalmente instabile e addirittura violento ma se ti preoccupa o se hai individuato nel suo comportamento qualcos'altro che ti turba insisto perché tu ne parli con Dolores Umbridge una donna davvero deliziosa che lo so sarà solo felice di aiutarti questo mi conduce al secondo consiglio come ho accennato prima la direzione di Silente a Hogwarts potrebbe ben presto finire la tua fedeltà a Ron non dovrebbe andare a lui ma alla scuola e al ministero sono molto dispiaciuto di sapere che finora la professoressa Umbridge incontra assai scarsa cooperazione da parte del corpo insegnanti quando invece si sforza di apportare a Hogwarts quei necessari cambiamenti che il ministero desidera così ardentemente anche se dovrebbe trovarlo più facile dalla prossima settimana di nuovo leggi la gazzetta del profeta domani dirò solo questo uno studente che ora si dimostrasse volenteroso nell'aiutare la professoressa Umbridge potrebbe essere in un'ottima posizione per diventare capo scuola entro un paio d'anni mi spiace di non essere riuscito a vederti di più durante l'estate mi addolora criticare i nostri genitori ma temo di non poter più vivere sotto il loro tetto finché continuano a frequentare la folla pericolosa che attorni a Silente se scriverai a nostra madre dille pure che un certo Sturgis Podmore che è grande amico di Silente è stato appena spedito ad Azkaban per essere entrato illegalmente nel ministero forse questo aprirà loro gli occhi sulla razza di criminali di basso rango con cui sono in confidenza al momento mi ritengo assai fortunato di essere sfuggito al marchio di promiscuità con questo genere di persone il ministro non potrebbe davvero essere più benigno con me e spero Ron che non permetterai ai legami familiari di renderti cieco davanti alla natura malaccorta delle convinzioni e delle azioni dei nostri genitori spero sinceramente che col tempo capiranno quanto si sono sbagliati e naturalmente quel giorno sarò pronto ad accettare le loro sincere scuse per favore rifletti con grandissima attenzione su quanto ti ho detto soprattutto sulla parte che riguarda Harry Potter e con gratulazioni di nuovo per essere diventato prefetto tuo fratello Percy Harry alzò lo sguardo verso Ron beh disse cercando di scherzare se vuoi che cosa rilesse la lettera di Percy oh sì tagliare i ponti con me giuro che non diventerò violento ridammela ringhiò Ron tendendo la mano e continuò Ron a scatti strappando a metà alla lettera di Percy il più grosso e la strappò in quattro idiota e la strappò in otto del mondo gettò i pezzi nel fuoco andiamo dobbiamo finire questa roba prima dell'alba disse asciutto a Harry e trasse di nuovo a sé il foglio del tema per la professoressa sinistra Hermione stava guardando Ron con una strana espressione oh datemeli qui disse all'improvviso cosa chiese Ron dateli a me gli do un'occhiata e li correggo si offrì lei sul serio oh Hermione tu ci salvi la vita disse Ron che cosa posso potete dire promettiamo di non fare mai più i compiti così in ritardo rispose lei allungando le mani per prendere i temi ma aveva l'aria divertita un milione di grazie Hermione mormorò Harry debolmente le diede il suo tema e sprofondò di nuovo nella poltrona strofinandosi gli occhi era mezzanotte passata e la sala comune era deserta a parte loro tre e grattastinchi gli unici rumori erano quelli della penna di Hermione che cancellava frasi qua e là sui loro temi e il fruscio delle pagine mentre controllava varie informazioni nei libri sparsi sul tavolo Harry era sfinito provava anche uno strano senso di nausea e di vuoto allo stomaco che niente aveva che vedere con la stanchezza e tutto con la lettera che ormai si arricciava nera nel cuore del fuoco sapeva che metà delle persone a Hogwarts lo considerava strano perfino pazzo sapeva che la gazzetta del profeta faceva maligne allusioni a lui da mesi ma vederle scritte così dalla grafia di Percy sapere che Percy consigliava a Ron di lasciarlo perdere e anche di andare a fare la spia alla Umbridge gli dava il senso della situazione come nient'altro conosceva Percy da quattro anni era stato a casa sua per le vacanze estive aveva diviso una tenda con lui alla coppa del mondo di Quidditch si era visto perfino assegnare da lui i pieni voti nella seconda prova del torneo tre maghi l'anno prima eppure ora Percy lo giudicava uno squilibrato addirittura violento con un moto di comprensione per il suo padrino Harry pensò che Sirius fosse probabilmente la sola persona davvero in grado di capire che cosa provava al momento perché si trovava nella stessa situazione quasi tutti nel mondo dei maghi lo ritenevano un pericoloso assassino e un grande sostenitore di Voldemort e lui doveva convivere con quel pregiudizio da quattordici anni Harry sbatte le palpebre aveva appena visto nel fuoco qualcosa che non avrebbe dovuto esserci era comparsa in un lampo ed era sparita subito no non poteva essere l'aveva immaginata perché stava pensando a Sirius bene ricopia questo disse Hermione a Ron spingendo verso di lui il suo tema e un foglio coperto di frasi scritte da lei e poi aggiungi questa conclusione Hermione sei proprio la persona più meravigliosa che abbia mai conosciuto rispose Ron debolmente e se sarò ancora sgarbato con te saprò che sei tornato normale concluse Hermione Harry il tuo va bene a parte questo pezzetto alla fine credo che tu debba aver frainteso la professoressa sinistra Europa è coperta di ghiaccio non di ghiaia Harry Harry era scivolato in ginocchio a carponi sul tappeto bruciacchiato e liso a scrutare dentro le fiamme Harry chiese Ron incerto cosa fai lì per terra ho appena visto la testa di Sirius nel fuoco rispose Harry lo disse piuttosto tranquillamente dopo tutto aveva visto la testa di Sirius in quello stesso fuoco l'anno prima e ci aveva anche parlato tuttavia non poteva essere certo di averla vista davvero questa volta era scomparsa così in fretta la testa di Sirius ripete Hermione intendi dire come quando voleva parlarti durante il torneo tre maghi ma adesso non lo farebbe sarebbe troppo Sirius trattenne il fiato fissando il fuoco Ron lasciò cadere la penna lì al centro delle fiamme danzanti c'era la testa di Sirius coi lunghi capelli scuri che ricadevano attorno al viso sorridente cominciavo a pensare che saresti andato a letto prima che sparissero tutti gli altri disse ho controllato ogni ora sei comparso nel fuoco ogni ora chiese Henry con una mezza risata solo per qualche secondo per vedere se c'era via libera ma se qualcuno ti avesse visto domandò Hermione preoccupata beh credo che una ragazza una del primo anno a giudicare dall'aspetto possa avermi intravisto ma non ti preoccupare aggiunse Sirius in fretta vedendo Hermione che si premeva una mano sulla bocca appena si è voltata di nuovo a guardarmi sono sparito e scommetto che ha pensato che fossi solo un ceppo dalla forma strana ma Sirius è un rischio terribile cominciò Hermione mi sembri molli disse Sirius è il solo modo che mi è venuto in mente per rispondere alla lettera di Henry senza ricorrere a un codice i codici si possono decifrare sentendo nominare la lettera di Henry sia Hermione che Ron si voltarono a fissarlo non ci hai detto che avevi scritto a Sirius protestò Hermione me ne sono dimenticato rispose Henry ed era la pura verità l'incontro con ciò nella guferia gli aveva fatto uscire di mente tutto quello che era successo prima non guardarmi così Hermione nessun altro poteva capirci qualcosa vero Sirius no era scritta molto bene confermò Sirius sorridendo comunque meglio sbrigarci prima di venire interrotti la cicatrice che cosa? cominciò Ron ma Hermione lo interruppe te lo diciamo dopo vai avanti Sirius beh so che può non essere divertente quando ti fa male ma siamo convinti che non ci sia niente di cui preoccuparsi sul serio ti ha fatto male per tutto l'anno scorso vero? sì e Silente ha detto che succedeva tutte le volte che Voldemort provava un'emozione intensa rispose Henry ignorando come al solito le smorfie di Ron e Hermione quindi forse non so era solo molto arrabbiato la sera che ho subito quella punizione beh adesso che è tornato ti farà male più spesso disse Sirius quindi non credi che c'entri il fatto che la Umbridge mi ha toccato chiese Henry ne dubito rispose Sirius la conosco di fama e sono sicuro che non è una mangiamorte è abbastanza perfida da poterlo essere osservò Henry Cupo e Ron e Hermione annuirono vigorosamente sì ma il mondo non è diviso in brava gente e mangiamorte disse Sirius con un sorriso ironico lo so che è un brutto soggetto però dovresti sentire Remus quando parla di lei Lupin la conosce chiese Henry in fretta ricordando i commenti della Umbridge sugli ibridi pericolosi durante la prima lezione no rispose Sirius ma due anni fa lei ha presentato un progetto di legge anti-lupi mannari che gli rende praticamente impossibile trovare lavoro Henry ricordò quanto più trassandato sembrava adesso Lupin e la sua avversione per la Umbridge diventò ancora più profonda che cosa ha contro i lupi mannari si infuriò Hermione paura immagino rispose Sirius sorridendo alla sua indignazione a quanto pare detesta i semi umani l'anno scorso ha anche condotto una campagna per far riunire marchiare sirene e tritoni immagina un po' perdere tempo ed energia a perseguitare i maridi quando ci sono delle nullità come Crichel a piede libero Ron rise ma Hermione parve turbata Sirius lo rimproverò sul serio se facessi un piccolo sforzo con Crichel sono sicura che reagirebbe bene dopo tutto tu sei l'unico membro della sua famiglia che gli rimane e il professor Silente ha detto allora come sono le lezioni della Umbridge la interruppe Sirius vi sta addestrando tutti a uccidere gli ibridi no rispose Henry ignorando lo sguardo offeso di Hermione per essere stata interrotta nella sua difesa di Crichel non ci permette di usare la magia non facciamo altro che leggere quello stupido libro disse Ron ah beh i conti tornano commentò Sirius le nostre informazioni dall'interno del ministero dicono che Fudge non vi vuole addestrati a combattere addestrati a combattere ripete Henry incredulo che cosa crede che facciamo qui che formiamo una specie di esercito di maghi è proprio quello di cui è convinto rispose Sirius o meglio è proprio quello che teme che faccia silente formare il suo esercito personale col quale riuscirà a impossessarsi del ministero della magia ci fu una pausa poi Ron disse è la cosa più stupida che abbia mai sentito incluse tutte le scemenze che spara quella luna Lovegood quindi ci viene impedito di imparare difesa contro le arti oscure perché Fudge ha paura che useremo gli incantesimi contro il ministero chiese Ermione furibonda già rispose Sirius Fudge è convinto che silente non si fermerà davanti a nulla per prendere il potere è sempre più ossessionato da lui è solo questione di tempo lo farà arrestare con qualche accusa falsa questo fece venire in mente a Henry la lettera di Percy sai se ci sarà qualcosa su silente sulla gazzetta del profeta di domani Percy il fratello di Ron pensa di sì non so disse Sirius non ho visto nessuno dell'ordine per tutto il fine settimana sono tutti impegnati siamo rimasti solo io e Kreacher qua giù c'era una chiara nota di amarezza nella sua voce quindi non hai notizie nemmeno di Hagrid ah fece Sirius beh doveva già essere di ritorno nessuno sa che cosa gli è successo poi vedendo i loro volti afflitti si affrettò ad aggiungere ma silente non è in pensiero quindi non agitatevi voi tre sono sicuro che Hagrid sta bene ma se doveva già essere tornato disse Hermione con una vocina angosciata madame Maxime era con lui ci siamo messi in contatto con lei e dice che si sono separati nel viaggio di ritorno ma niente lascia pensare che sia ferito o beh niente suggerisce che non sia perfettamente a posto per nulla convinti Harry Ron e Hermione si scambiarono sguardi preoccupati sentite non andate in giro a fare troppe domande su Hagrid aggiunse Sirius in fretta attirerete ancora di più l'attenzione sul fatto che non è tornato e so che silente non lo vuole Hagrid è un duro se la caverà e poiché non sembravano sollevati continuò quando è il vostro prossimo fine settimana Hogsmeade comunque stavo pensando ce la siamo cavata con il travestimento da cane alla stazione no pensavo che potrei no esclamarono Harry e Hermione in coro molto forte Sirius non hai letto la gazzetta del profeta aggiunse Hermione tesa oh quella rispose Sirius con un ghigno sono sempre lì che cercano di indovinare dove mi trovo non hanno il minimo indizio sì ma questa volta forse ce l'hanno obiettò Harry qualcosa che Malfoy ha detto in treno ci ha fatto pensare che sapesse che eri tu e suo padre era sulla banchina sai Lucius Malfoy quindi non venire qui per nessun motivo se Malfoy ti riconosce di nuovo d'accordo d'accordo ho capito Sirius sembrava profondamente dispiaciuto era solo un'idea pensavo che ti avrebbe fatto piacere stare un po' insieme certo che mi piacerebbe ma non voglio che ti spediscano di nuovo ad Azkaban disse Harry ci fu una pausa durante la quale Sirius guardò Harry dal fuoco con una ruga verticale tra gli occhi incavati sei meno simile a tuo padre di quanto pensassi concluse Glaciale il rischio sarebbe stato il pepe per James senti beh è meglio che vada sento Kreacher che scende le scale lo interruppe Sirius ma Harry era sicuro che mentisse ti scrivo per dirti un orario in cui posso tornare nel fuoco allora d'accordo se te la senti di rischiare si udì un minuscolo pop e il punto in cui la testa di Sirius era apparsa fu di nuovo fiamma guizzante l'inquisitore supremo di Hogwarts il mattino dopo si aspettavano di dover setacciare la gazzetta del profeta di Hermione per trovare l'articolo menzionato da Percy nella lettera invece il gufo postale era appena decollato dal bordo della brocchetta del latte quando Hermione sobbalzò e spiegò il giornale sul tavolo rivelando la grande fotografia di una sorridente Dolores Umbridge che sbatteva lentamente le ciglia sotto il titolo di prima pagina il ministero riforma l'istruzione Dolores Umbridge nominata primo inquisitore supremo la Umbridge inquisitore supremo chiese Harry lasciando la fetta di pane tostato mangiata a metà e che cosa vorrebbe dire Hermione lesse ad alta voce ieri sera con una mossa a sorpresa il ministero della magia ha approvato un decreto legge che gli attribuisce un controllo senza precedenti sulla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts il ministro da qualche tempo manifesta un certo disagio riguardo alle vicende di Hogwarts ha dichiarato l'assistente Percy Weasley questa è la risposta alle istanze espresse da genitori preoccupati che la scuola prenda una direzione che non approvano non è la prima volta nelle ultime settimane che il ministro Cornelius Fudge adotta nuove leggi per apportare miglioramenti alla scuola di magia lo scorso 30 agosto è stato approvato il decreto didattico numero 22 secondo il quale nel caso in cui l'attuale preside non si è in grado di presentare un candidato per un posto di docente il ministero ha facoltà di selezionare la persona più indicata è così che Dolores un'altra scuola ha ricevuto l'incarico di insegnante a Hogwarts ha dichiarato Weasley ieri sera silente non è riuscito a trovare nessuno perciò il ministro ha nominato la Umbridge che naturalmente ha ottenuto un successo immediato ha ottenuto che cosa? disse Harry a voce molto alta aspetta c'è dell'altro rispose cupa un successo immediato rivoluzionando totalmente l'insegnamento di difesa contro le arti oscure e fornendo al ministro un riscontro sul campo riguardo a ciò che succede davvero a Hogwarts è quest'ultima funzione che il ministero ha formalizzato approvando il decreto didattico numero 23 che istituisce la nuova figura di inquisitore supremo di Hogwarts è una nuova entusiasmante fase del piano ministeriale per affrontare quello che qualcuno definisce calo degli standard da Hogwarts ha dichiarato Weasley l'inquisitore avrà la facoltà di sottoporre a verifica i suoi colleghi insegnanti e assicurarsi che siano all'altezza del loro compito il posto è stato offerto alla professoressa Umbridge in aggiunta alla sua cattedra e siamo lieti di annunciare che lei ha accettato la nuova strategia del ministero ha ottenuto il favore entusiastico di genitori e studenti di Hogwarts mi sento molto più a mio agio sapendo che Silente verrà sottoposto a una giusta imparziale valutazione ha dichiarato ieri sera il signor Lucius Malfoy 41 anni dalla sua villa di campagna nel Wilshire molti di noi che abbiamo a cuore l'interesse dei nostri figli siamo preoccupati da alcune eccentriche decisioni prese da Silente negli ultimi anni e siamo felici che il ministro stia tenendo d'occhio la situazione tra queste eccentriche decisioni ci sono senza dubbio le controverse assunzioni di personale precedentemente descritte su queste pagine che hanno visto l'ingaggio del licantropo Remus Lupin del mezzo gigante Rubeus Sagrid e del visionario ex-auror Malocchio Moody secondo molte voci Albus Silente ex supremo pezzo grosso della confederazione internazionale dei maghi ed ex stregone capo del Wiesengamot non sarebbe più all'altezza del compito di gestire la prestigiosa scuola di Hogwarts ritengo che l'istituzione dell'inquisitore sia un primo passo verso la garanzia che a capo di Hogwarts ci sia un preside nel quale tutti noi possiamo riporre la nostra fiducia ha dichiarato un membro del ministero ieri sera i membri anziani del Wiesengamot Griselda Mark Banks e Tiberius Ogden hanno dato le dimissioni in segno di protesta contro l'introduzione della carica di inquisitore a Hogwarts Hogwarts è una scuola non una succursale dell'ufficio di Cornelius Fudge ha detto Madame Mark Banks questo è un ulteriore disgustoso tentativo di gettare discredito su Albus Silente per un completo approfondimento sui presunti legami di Madame Mark Banks con gruppi sovversivi di Goblin vedi a pagina 17 Hermione finì di leggere e guardò gli altri due così ora sappiamo come ci è capitata la Umbridge Fudge ha approvato un decreto didattico e ce l'ha scaricata addosso e adesso le ha dato il potere di giudicare gli altri insegnanti Hermione respirava affannosamente e i suoi occhi mandavano lampi non ci posso credere è uno scandalo lo so disse Harry si guardò la mano destra chiusa a pugno sul tavolo e vide ancora il vago contorno delle parole che la Umbridge lo aveva costretto a incidersi sulla pelle ma sul volto di Ron si stava aprendo un sorriso che cosa c'è chiesero insieme Harry e Hermione fissandolo oh non vedo l'ora di assistere all'ispezione alla McGonagall rispose allegro Ron Umbridge troverà pane per i suoi denti dai andiamo disse Hermione alzandosi se controlla la lezione di Beans è meglio non arrivare in ritardo ma la professoressa Umbridge non era presente a storia della magia che fu noiosa quanto il lunedì precedente e nemmeno nel sotterraneo di Piton nel corso delle due ore di pozioni il tema sulla pietra di luna fu restituito a Harry con una grande spigolosa D nera scarabocchiata in un angolo in alto vi ho assegnato il punteggio che avreste preso con questi lavori ai GUFO spiegò Piton con un vigno mentre passava tra gli allievi per consegnare i compiti questo dovrebbe darvi un'idea precisa di che cosa aspettarvi all'esame Piton raggiunse la cattedra e si voltò verso la classe il livello generale della prova è stato penoso se questo fosse stato l'esame la maggior parte di voi sarebbe stata bocciata confido in uno sforzo molto maggiore nel prossimo tema sulle diverse varietà di antidoti ai veleni o dovrò cominciare a dare punizioni a quei somari che hanno preso una D ghignò ancora mentre Malfoy ridacchiava e sussurrava c'è chi ha preso una D Harry si accorse che Ermione stava sbirciando il suo tema per vedere che vuoto aveva preso e lo ricacciò nella borsa il più in fretta possibile preferiva tenerselo per sé deciso a non offrire a Piton alcuna scusa per non dargli punti un'altra volta Harry lesse e rilesse ogni riga di istruzioni sulla lavagna almeno tre volte prima di metterla in pratica la sua soluzione corroborante non aveva proprio una limpida sfumatura turchese come quella di Ermione ma almeno era azzurra invece che rosa come quella di Neville e alla fine della lezione ne posò un flacone sulla cattedra di Piton con un senso misto di sfida e di sollievo beh è stata meno peggio della volta scorsa vero? disse Ermione mentre risalivano le scale fuori dall'aula sotterranea diretti alla sala d'ingresso nell'ora di planzo e nemmeno il compito è andato troppo male eh? quando né Ron né Harry risposero lei insisté insomma non mi aspettavo il massimo dei voti dato che sta giudicando secondo i livelli del GUFO ma già la sufficienza è incoraggiante a questo stadio non trovate? Harry emise un suono vacuo certo può succedere ancora di tutto fino all'esame abbiamo un sacco di tempo per migliorare ma i voti che prendiamo adesso sono una specie di punto di partenza giusto? qualcosa su cui costruire sedettero insieme al tavolo di Grifondoro ovviamente sarei stata emozionatissima di prendere una E Ermione la interruppe Ron tagliente se vuoi sapere quanto abbiamo preso chiedicelo no io non insomma se volete dirmelo ho preso S disse Ron scodellando la zuppa contenta? beh non c'è niente di cui vergognarsi intervenne Fred che era appena arrivato con George e Lee Jordan e stava prendendo posto alla destra di Harry niente di male in una vecchia sana S ma disse Ermione la S non sta per scadente esatto rispose Lee Jordan sempre meglio di una D comunque non sta per desolante Harry si sentì avvampare e simulò un piccolo attacco di tosse sul suo panino quando ne riemerse scoprì con disappunto che Ermione era ancora tutta presa dai voti del GUFO allora il massimo è E per eccezionare stava dicendo e poi c'è A no c'è O la corresse George oltre ogni previsione ho sempre pensato che Fred e io avremmo dovuto prendere O in tutto visto che già il fatto di presentarci agli esami andava oltre ogni previsione risero tutti tranne Ermione che continuò a infierire allora dopo O c'è A come accettabile ed è la sufficienza giusto? Sì disse Fred insuppò nella minestra un panino intero e lo indiottì in un solo boccone poi c'è S per scadente e Ron alzò le braccia in segno di vittoria e D per desolante e poi c'è T gli ricordò George T domandò Ermione turbata ancora peggio di D e che cosa diavolo significa T Troll rispose prontamente George Harry rise di nuovo anche se non era sicuro che George stesse scherzando immaginò di dover nascondere a Ermione di aver preso T in tutti i suoi GUFO e decise immediatamente di studiare di più avete mai avuto un'ispezione in classe finora? domandò Fred no rispose Ermione e voi? proprio adesso prima di pranzo disse George a incantesimi e com'è andata? domandarono in coro Harry e Ermione Fred si strinse nelle spalle non male la Umbridge è rimasta appostata in un angolo a prendere appunti sul suo blocco sapete com'è Flitwick l'ha trattata come un ospite sembrava non gliene importasse nulla lei non ha detto quasi niente ha fatto ad Alicia un paio di domande su come sono le lezioni di solito Alicia le ha detto che sono molto buone ed è finita lì non riesco a immaginare il vecchio Flitwick sotto verifica disse George di solito riesce a far promuovere tutti senza problemi chi avete oggi pomeriggio? domandò Fred da Harry la Trelawney una T garantita e la Umbridge beh fai il bravo ragazzo e controllati oggi disse George Angelina darà fuori di matto se perdi un altro allenamento di Quidditch ma Harry non dovete aspettare la lezione di difesa contro le arti oscure per incontrare la professoressa Umbridge era seduto molto in fondo all'aula di divinazione e stava tirando fuori il diario dei sogni quando Ron gli diede una gomitata nelle costole al solo sguardo e vide la Umbridge emergere dalla botola nel pavimento la classe che stava chiacchierando allegramente tacque all'istante al brusco calo del livello di rumore la professoressa Trelawney smise di distribuire copie dell'oracolo dei sogni e si guardò intorno buon pomeriggio professoressa Trelawney la Umbridge sorrise melenza ha ricevuto il mio biglietto presumo quello che le annunciava la data e l'ora della mia ispezione la professoressa Trelawney fece un brusco cenno di assenso e con aria assai contrariata le voltò le spalle e continuò a distribuire libri senza smettere di sorridere la Umbridge afferrò la sedia più vicina e la sistemò di fronte alla classe pochi centimetri dietro quella della Trelawney poi si sedette sfilò il blocco degli appunti dalla borsa a fiori e alzò lo sguardo in attesa dell'inizio della lezione la professoressa Trelawney si strinse negli scialli con mani leggermente tremanti e guardò gli allievi con occhi che le lenti rendevano smisurati oggi continueremo a studiare i sogni profetici disse nel coraggioso tentativo di mantenere l'abituale tono mistico nonostante l'incertezza nella voce dividetevi a coppie e interpretate le visioni notturne del compagno con l'aiuto dell'oracolo fece per tornare al suo posto vide che la professoressa Umbridge era seduta proprio lì accanto e virò subito in direzione di Parvati e Lavanda già immerse nella discussione dell'ultimo sogno di Parvati Harry aprì la sua copia dell'oracolo dei sogni guardando di sottecchi la Umbridge l'inquisitore stava già prendendo appunti dopo pochi minuti si alzò e cominciò a camminare nella scia della Tre Loney ascoltando le sue conversazioni con gli allievi e facendo domande qua e là Harry chinò rapido la testa sul libro pensa un sogno presto bisbigliò a Ron nel caso che la vecchia rospa venga da questa parte l'ultima volta l'ho fatto io protestò Ron tocca a te dimmene uno tu oh non saprei disse sconfortato Harry che non riusciva a ricordare di aver sognato alcunché negli ultimi giorni diciamo che ho sognato di affogare Piton nel mio calderone sì questo va bene Ron soffocò una risata mentre apriva il suo oracolo dei sogni bene dobbiamo aggiungere la tua età alla data del sogno poi il numero delle lettere del soggetto sarebbe annegamento calderone o Piton è uguale mettine uno qualsiasi disse Harry azzardando un'occhiata alle proprie spalle la professoressa Umbridge era accanto alla trelonei e prendeva appunti intanto che l'insegnante di divinazione interrogava Neville mi ripeti quando l'avresti sognato chiese Ron immerso nei calcoli ma non lo so ieri notte fai tu disse Harry cercando di ascoltare quello che la Umbridge diceva alla trelonei erano solo a un tavolino di distanza da lui e Ron la Umbridge stava aggiungendo un appunto sul blocco e la trelonei sembrava profondamente offesa allora chiese la Umbridge guardando la collega da quanto tempo occupa questa cattedra di preciso la professoressa trelonei le rivolse un'occhiata torva tenendo le braccia incrociate e le spalle ricurve come a proteggersi il meglio possibile dall'indegnità dell'inchiesta dopo una breve pausa durante la quale parve stabilire che la domanda non era così offensiva da poter essere ragionevolmente ignorata rispose con profondo risentimento quasi sedici anni non sono pochi commentò la Umbridge scrivendo dunque è stato il professor Silente ad assumerla esatto la Umbridge prese un altro appunto e lei è la proprio nipote della celebre veggente Cassandra trelonei si rispose la trelonei alzando appena il capo altro appunto ma credo mi corregga se sbaglio che lei sia la prima nella sua famiglia a possedere la seconda vista dai tempi di Cassandra queste cose spesso saltano tre generazioni rispose la professoressa trelonei il sorriso da rospo della professoressa Umbridge si allargò naturalmente disse con dolcezza prendendo comunque un altro appunto bene allora potrebbe predire qualcosa per me e le rivolse uno sguardo interrogativo sempre sorridendo la professoressa trelonei si irrigidì come se non credesse alle proprie orecchie non capisco disse stringendosi convulsamente uno scialle attorno al collo scarno vorrei che predicesse qualcosa per me ripetela Umbridge scandendo le parole Harry e Ron non erano più gli unici a lanciare sguardi furtivi e ad ascoltare di nascosto da dietro i libri la maggior parte della classe guardava immobile la professoressa trelonei ergersi in tutta la sua statura in un tintinnio di perline e braccialetti l'occhio interiore non vede a comando esclamò scandalizzata capisco mormorò la professoressa Umbridge prendendo ancora un altro appunto io ma ma un momento esclamò ad un tratto la professoressa trelonei nel tentativo di riprendere il suo solito tono etereo nonostante l'effetto mistico fosse un po' guastato dal fatto che la voce le tremava dalla rabbia io io credo di vedere qualcosa qualcosa che riguarda lei ecco sento qualcosa qualcosa di oscuro un grave pericolo la trelonei puntò un indice malfermo contro l'umbridge che continuò a sorridere soave con le sopracciglia inarcate io temo temo che lei sia in grave pericolo concluse in tono drammatico ci fu una pausa le sopracciglia dell'umbridge erano ancora alzate bene commentò con dolcezza scrivendo ancora se non riesce a fare di meglio voltò le spalle lasciando la professoressa trelonei dov'era con il respiro affannoso harry incrociò lo sguardo di ron e capì che stavano pensando esattamente la stessa cosa entrambi sapevano che era un impostora ma detestavano tanto la umbridge che si sentivano solidali con la professoressa trelonei finché lei non piombò su di loro qualche istante più tardi almeno allora chiese in tono insolitamente brusco afferrando con le lunghe dita il diario di harry fammi vedere e quando ebbe interpretato con voce stridula ai suoi sogni tutti anche quelli in cui mangiava del porridge chiaramente presagi di una morte raccapricciante e precoce harry si sentì assai meno comprensivo per tutto il tempo la professoressa umbridge rimase nelle vicinanze prendendo appunti al suono della campanella scese per prima la scala a pioli d'argento e quando raggiunsero l'aula di difesa contro le arti oscure dieci minuti dopo la trovarono ad aspettarli canticchiava bocca chiusa fra sé sorridendo mentre tutti tiravano fuori le loro copie di teoria della magia difensiva harry e ron raccontarono a ermione che era stata a lezione di aritmanzia quanto era successo durante divinazione ma prima che ermione potesse fare domande la umbridge li richiamò all'ordine e calò il silenzio via le macchette ingiunse con un sorriso e coloro che erano stati tanto ottimisti da estrarle le dimisero tristi in borsa poiché abbiamo finito il capitolo 1 la scorsa lezione vorrei che andaste a pagina 19 e cominciaste il capitolo 2 comuni teorie difensive e loro derivazione non ci sarà bisogno di parlare compiaciuta si sedette alla cattedra la classe emise un profondo sospiro mentre in un sol gesto andava a pagina 19 Harry si chiese a franto se nel libro ci fossero abbastanza capitoli per tenerli occupati tutto l'anno e stava per controllare l'indice quando notò che ermione aveva di nuovo la mano alzata anche la professoressa Umbridge l'aveva notato e non solo sembrava che avesse elaborato una strategia per affrontare una simile eventualità invece di fingere di non aver visto ermione si alzò e aggirò la prima fila di banchi finché non si trovò faccia a faccia con lei poi si chinò e sussurrò in modo che gli altri non sentissero che cosa c'è stavolta signorina Granger ho già letto il capitolo 2 disse ermione bene allora va ad altri ho letto anche quello ho letto tutto il libro la Umbridge sbatte le ciglia ma recuperò il controllo quasi all'istante bene allora sarei in grado di dirmi che cosa dice Slinkard sulle controfatture nel capitolo 15 dice che controfatture è un nome improprio rispose prontamente ermione dice che controfatture è solo il nome che la gente dà alle proprie fatture per renderle più accettabili la professoressa Umbridge inarcò le sopracciglia Harry vide che era impressionata a suo malgrado ma io non sono d'accordo riprese ermione le sopracciglia della Umbridge si inarcarono ancora di più e il suo sguardo si fece decisamente più freddo lei non è d'accordo infatti disse ermione che al contrario della Umbridge non stava sussurrando ma parlava con un tono limpido e chiaro attirando l'attenzione del resto della classe Slinkard non apprezza le fatture ma io ritengo che possano essere molto utili se usate per difendersi oh davvero disse la Umbridge dimenticando di sussurrare e raddrizzandosi beh temo che sia l'opinione di Slinkard da contare per la classe e non la sua signorina Granger ma cominciò ermione basta così disse la Umbridge tornò al suo posto e fronteggiò la classe tutta la gaiezza di cui aveva fatto mostra all'inizio della lezione era sparita signorina Granger ho deciso di togliere cinque punti alla casa di Grifondoro ci fu un mormorio diffuso e perché chiese con rabbia Henry non ti mischiare bisbigliò ermione concitata per aver interrotto la mia lezione con inutili considerazioni spiegò dolcemente la professoressa Umbridge io sono qui per insegnarvi a utilizzare un metodo approvato dal ministero il quale non prevede che gli studenti esprimano la loro opinione su questioni che comprendono assai poco i vostri precedenti insegnanti forse vi hanno concesso maggiori licenze ma poiché nessuno di loro avrebbe superato un'ispezione ministeriale con la sola possibile eccezione del professor Quirrell che almeno pare essersi limitato a temi appropriate alla vostra età sì Quirrell era un grande insegnante disse Henry ad alta voce peccato per quel piccolo difetto di avere lord Voldemort che gli spuntava dalla nuca l'affermazione fu seguita da uno dei silenzi più fragorosi che Henry avesse mai sentito poi ritengo che un'altra settimana di pulizione le farà bene signor Potter disse la Umbridge in tono viscido il taglio sul dorso della mano di Henry si era rimarginato a stento e il mattino dopo già sanguinava di nuovo Henry non si lamentò durante la punizione serale era deciso a non dare soddisfazione alla Umbridge scrisse e riscrisse non devo dire bugie senza che un suono uscisse dalle sue labbra anche se il taglio si faceva più profondo a ogni lettera la parte peggiore di quella seconda settimana di punizione come George aveva previsto fu la reazione di Angelina lo bloccò appena arrivò al tavolo di Grifondoro per la colazione di martedì mattina e urlò così forte che la professoressa McGonagall si alzò dal tavolo degli insegnanti e venne verso di loro signorina Johnson come osi fare un tale baccano nella sala grande cinque punti meno per Grifondoro ma professoressa si è fatto punire di nuovo che cosa significa potter chiese la McGonagall con voce tagliente voltandosi verso Harry una punizione e da chi dalla professoressa Umbridge mormorò Harry evitando gli occhi della McGonagall fiammeggianti dietro le lenti quadrate mi stai dicendo disse lei abbassando la voce perché il gruppo curioso dei Corvo Nero alle loro spalle non sentisse che dopo i miei avvertimenti di lunedì scorso hai di nuovo perso la calma durante la lezione della professoressa Umbridge si mormorò Harry al pavimento potter tu devi controllarti ti stai mettendo in guai seri altri cinque punti in meno per Grifondoro ma cosa professoressa no disse Harry furioso per l'ingiustizia sono già stato punito da lei perché ci toglie altri punti perché la punizione non sembra sortire alcun effetto su di te rispose aspra la McGonagall non un'altra parola Potter e quanto a te signorina Johnson limita le urla al campo di Quidditch o rischierai il posto di capitano la professoressa McGonagall tornò al tavolo degli insegnanti Angelina lanciò a Harry uno sguardo di profondo disgusto e si allontanò al che Harry si lasciò cadere sulla panca accanto a Ron furioso ha tolto punti a Grifondoro perché mi faccio sbrindellare la mano tutte le sere ma ti sembra giusto lo so disse Ron solidale mettendo della pancetta nel piatto di Harry è fuori di testa Hermione si limitò a sfogliare la sua gazzetta del profeta e non disse nulla secondo te la McGonagall ha ragione vero? chiese con rabbia Harry alla foto di Cornelius Fudge che le nascondeva la faccia avrei voluto che non ci togliesse dei punti ma credo che abbia ragione a dirti di non perdere la calma con la Umbridge disse la voce di Hermione mentre Fudge gesticolava con energia dalla prima pagina ovviamente impegnato in un discorso ufficiale Harry non le rivolse la parola per tutta la lezione di incantesimi ma quando entrarono nell'aula di trasfigurazione dimenticò di essere arrabbiato con lei la professoressa Umbridge e il suo blocco per gli appunti erano su una sedia nell'angolo e quella sola vista cancellò il ricordo della colazione ottimo sussurrò Ron mentre sedevano ai soliti posti ora l'Umbridge avrà il fatto suo la professoressa McGonagall entrò nell'aula con passo deciso senza mostrare di aver notato la presenza dell'Umbridge basta così disse e il silenzio fu istantaneo Finnegan vuoi venire qui e distribuire i compiti Brown prendi questa scatola di topi non essere sciocca ragazza non ti faranno niente danni uno per ciascuno fece la professoressa Umbridge con la stessa tossetta sciocca che aveva usato per interrompere Silente la prima sera la McGonagall la ignorò Simus restituì il compito a Harry che lo prese senza alzare lo sguardo e vide con sollievo che era riuscito a prendere A bene ascoltate tutti Dean Thomas se fai di nuovo quella cosa al topo ti metto in punizione siete riusciti quasi tutti a far evanescere le lumache e anche coloro che hanno lasciato indietro un certo quantitativo di guscio hanno afferrato l'essenza dell'incantesimo oggi ci tossì la professoressa Umbridge sì disse la McGonagall voltandosi le sopracciglia così vicine che sembravano formare un'unica linea severa mi stavo chiedendo professoressa se avesse ricevuto il mio biglietto con la data e l'ora dell'ispe certo che sì o le avrei chiesto che cosa ci fa nella mia classe rispose la professoressa McGonagall voltando con decisione le spalle alla Umbridge molti studenti si scambiarono sguardi di gioia stavo dicendo oggi ci eserciteremo sulla sparizione nel complesso più difficile del topo ora l'incantesimo evanescente mi domando disse la professoressa McGonagall con rabbia gelida voltandosi verso la Umbridge come pretende di farsi un'idea dei miei abituali metodi di insegnamento se continua a interrompermi vede di regola non permetto a nessuno di parlare mentre parlo io per la professoressa Umbridge fu come ricevere uno schiaffo in piena faccia non disse nulla ma lisciò la pergamena sul blocco e cominciò a scrivere furiosamente con somma non curanza la professoressa McGonagall si rivolse di nuovo alla classe come dicevo quanto più è complesso l'animale da far sparire tanto più difficile diventa l'incantesimo evanescente la lumaca in quanto invertebrato non pone problemi particolari il topo in quanto mammifero rappresenta una sfida più ardua quindi questa non è magia che si possa eseguire con il pensiero rivolto alla cena allora conoscete l'incantesimo vediamo che cosa sapete fare e fa la predica a me perché perdo la calma con la Umbridge mormorò Harry a Ron ma sorrideva la sua rabbia contro la McGonagall era svanita la Umbridge non seguì la McGonagall in giro per l'aula come aveva fatto con la Trelawney forse capì che la McGonagall non gliel'avrebbe permesso tuttavia prese molti più appunti seduta nel suo angolo e quando la McGonagall annunciò la fine della lezione si alzò con aria lugubre beh è un buon inizio disse Ron sollevando una lunga coda di topo che si agitava e rimettendola nella scatola con cui la Wanda stava passando mentre uscivano dall'aula Harry vide che la professoressa Umbridge si avvicinava alla cattedra diede di gomito a Ron che a sua volta diede di gomito a Hermione e tutti e tre rimasero indietro per origliare da quanto tempo insegna a Hogwarts domandò la Umbridge 39 anni il prossimo dicembre rispose brusca la professoressa McGonagall chiudendo con uno scatto la sua borsa la Umbridge prese un appunto molto bene disse riceverai i risultati della mia ispezione tra dieci giorni non vedo l'ora rispose la McGonagall in tono indifferente avviandosi alla porta sbrigatevi voi tre aggiunse facendo cenno a Harry Ron e Hermione perché la precedessero Harry non poté fare a meno di rivolgerle un vago sorriso e avrebbe potuto giurare che era stato ricambiato era convinto che non avrebbe rivisto la Umbridge fino a sera per la punizione ma si sbagliava quando si avviarono verso la foresta per cura delle creature magiche trovarono lei e il suo blocco per gli appunti ad attenderli accanto alla professoressa Grabley Plank di solito lei non tiene questo corso esatto? le sentì chiedere Harry mentre si avvicinavano al tavolo sul quale gli asticelli razzolavano a caccia di onischi come rametti viventi esatto rispose la professoressa Grabley Plank dondolandosi sui talloni le mani dietro la schiena sono la supplente del professor Hagrid Harry, Ron e Hermione si scambiarono un'occhiata a disagio Malfoy stava confabulando con Krabbe Coyle di sicuro non avrebbe resistito all'opportunità di raccontare storie su Hagrid a un membro del ministero mmmm mugolò la professoressa Umbridge abbassando la voce anche se Harry riusciva ancora a sentirla chiaramente mi stavo chiedendo il preside sembra stranamente rirottante a darmi informazioni in merito può dirmi lei qual è la causa della lunga assenza del professor Hagrid? Harry vide che Malfoy alzava la testa con avida curiosità temo di no rispose evasiva la grabbly plank non ne so molto più di lei ho ricevuto un gufo da silente che mi chiedeva se avevo voglia di fare un paio di settimane di supplenza ho accettato è tutto quello che so bene posso cominciare allora? la prego concesse la Umbridge scrivendo durante questa lezione la Umbridge adottò una tattica diversa e si aggirò tra gli allievi interrogandoli sulle creature magiche la maggior parte rispose correttamente e Harry si sentì un po' più sollevato almeno la classe non tradiva Hagrid in generale disse la professoressa Umbridge tornando accanto alla grabbly plank dopo un lungo colloquio con Dean Thomas lei in quanto membro temporaneo del personale da esterna possiamo dire come trova Hogwarts ritiene di ricevere un sostegno sufficiente da parte della direzione della scuola oh sì silente è un ottimo preside rispose con calore la professoressa grabbly plank si sono molto contenta di come vengono gestite le cose proprio contenta con un'espressione di educata incredulità la Umbridge prese un breve appunto e proseguì e qual è il programma che ha intenzione di svolgere quest'anno posto naturalmente che il professore Hagrid non ritorni studieremo le creature che capitano più spesso nelle prove del GUFO spiegò la professoressa grabbly plank non resta molto da fare hanno già studiato unicorni e snasi credo che faremo porlock e nizzle impareranno a distinguere i croup e gli narl ecco lei ha l'aria di sapere quello che fa in ogni caso osservò la professoressa Umbridge tracciando un vistoso segno di spunta sul blocco a Harry non piacque l'enfasi che pose su lei e gli piacque ancora meno che rivolgesse la domanda seguente a Goyle ho sentito dire che qualcuno si è fatto male durante una lezione è vero Goyle fece un sorriso stupido Malfoy si affrettò a rispondere sì io disse ho ricevuto una zappata da un ipogrifo un ipogrifo chiese la Umbridge scrivendo freneticamente solo perché è troppo stupido per ascoltare quello che dice Hagrid sbottò Harry con rabbia Ron e Hermione emisero un gemito la Umbridge si voltò lentamente verso Harry un'altra sera di punizione direi mormorò bene grazie molte professoressa Grabliplank credo di avere tutto quello che mi serve riceverai i risultati dell'ispezione tra dieci giorni perfetto rispose la Grabliplank e la Umbridge si avviò sul prato verso il castello era quasi mezzanotte quando Harry uscì dall'ufficio della Umbridge quella sera la sua mano sanguinava così copiosamente che macchiò la sciarpa in cui l'aveva avvolta era convinto di trovare la sala comune vuota al suo ritorno ma Ron e Hermione erano rimasti alzati ad aspettarlo fu contento di vederli soprattutto perché Hermione sembrava più disposta alla solidarietà che alla critica ecco disse preoccupata spingendo verso di lui una piccola ciotola piena di liquido giallo mettici dentro la mano è una soluzione di tentacoli di pulvincoli filtrati in salamoia dovrebbe farti bene Harry immerse la mano insanguinata e dolorante nella ciotola e provò una meravigliosa sensazione di sollievo Grattastinchi gli si strusciò contro le gambe facendo le fusa poi gli saltò in grembo e si acciambellò grazie disse accarezzando il gatto tra le orecchie con la mano sinistra io sono sempre convinto che dovresti protestare dichiarò Ron a bassa voce no replicò Harry in tono piatto la McGonagall darebbe di matto se sapesse sì probabilmente sì disse Harry e quanto pensi che ci metterebbe la Umbridge a far passare un altro decreto per cui chiunque critichi l'inquisitore supremo viene licenziato all'istante Ron aprì la bocca per ribattere ma non emise alcun suono e dopo un momento la richiusi sconfitto è una donna tremenda disse Ermione con voce flebile tremenda sai stavo dicendo a Ron quando sei arrivato dobbiamo fare qualcosa io ho suggerito il veleno borbottò cupo Ron no intendo qualcosa per il fatto che è una pessima insegnante e che da lei non impareremo nulla sulla difesa disse Ermione e che cosa possiamo fare domandò Ron sbadigliando è troppo tardi no il posto ce l'ha e nessuno glielo toglie garantisce Fudge beh azzardò Ermione ci stavo pensando oggi lanciò a Harry un'occhiata nervosa e proseguì pensavo forse è ora che che cominciamo a fare da soli fare da soli cosa chiese Harry in tono sospettoso la mano ancora immersa nella soluzione di tentacoli di purvincoli sì imparare da soli la difesa contro le arti oscure rispose Ermione scordatelo gemette Ron puoi darci altro lavoro ti rendi conto che Harry e io siamo di nuovo indietro con i compiti ed è solo la seconda settimana ma questo è molto più importante dei compiti esclamò Ermione Harry e Ron sgranarono gli occhi non pensavo che nell'universo ci fosse qualcosa di più importante dei compiti disse Ron non fare lo scemo lo rimbeccò Ermione e Harry notò con un cupo presentimento che il suo volto era illuminato dallo stesso fervore di quando parlava del crepa la questione è prepararci come ha detto Harry nella prima lezione della Umbridge per quello che ci aspetta là fuori essere sicuri di saperci difendere se non impariamo nulla per un anno intero non possiamo fare molto da soli disse Ron scoraggiato voglio dire sì possiamo andare in biblioteca a cercare le fatture ed esercitarci immagino sono d'accordo abbiamo superato lo stadio in cui possiamo imparare solo dai libri convenne Ermione abbiamo bisogno di un insegnante uno vero che ci mostri come usare gli incantesimi e ci correga se sbagliamo se stai parlando di Lupin cominciò Erry no non sto parlando di Lupin è troppo occupato con l'ordine e comunque possiamo vederlo al massimo nei fine settimana a Hogsmeade e non è abbastanza allora chi disse Erry aggrottando la fronte Ermione emise un profondo sospiro non è chiaro disse sto parlando di te Erry ci fu un momento di silenzio una lieve brezza notturna scosse appena il vetro della finestra alle spalle di Ron e il fuoco tremolò me in che senso disse Erry sto parlando di te che ci insegni difesa contro le arti oscure Erry la fissò poi si voltò verso Ron pronto a scambiare con lui una di quelle occhiate esasperate che spesso condividevano quando Ermione elaborava progetti inverosimili come il crepa ma con sua profonda costellazione invece Ron non sembrava esasperato aveva la fronte leggermente aggrottata e stava riflettendo infine disse è un'idea cosa è un'idea chiese Erry tu rispose Ron tu che ci insegni come si fa ma Erry sorrideva convinto che quei due lo stessero prendendo in giro ma io non sono un insegnante non posso Erry tu sei il migliore del nostro anno in difesa contro le arti oscure disse Ermione io fece Erry con un sorriso sempre più ampio ma no tu mi hai superato in tutti i test veramente no disse Ermione con disinvoltura tu mi hai battuto al terzo anno l'unico in cui abbiamo fatto l'esame con un professore competente ma io non sto parlando di voti Erry pensa a quel che hai fatto in che senso sai non sono sicuro di volere un insegnante così scemo disse ronna Ermione con un sorrisetto si rivolse a Erry vediamo cominciò imitando Goyle che si concentrava primo anno hai salvato la pietra filosofale dalle mani di tu sai chi ma quella è stata fortuna disse Erry non bravura il secondo anno lo interruppe Ron hai ucciso il basilisco e distrutto Riddle sì ma se non fosse arrivato Fox il terzo anno proseguì Ron a voce ancora più alta hai battuto un centinaio di dissennatori in un colpo solo lo sai che è stato un caso se la gira tempo non avesse l'anno scorso continuò Ron quasi urlando hai battuto tu sai chi un'altra volta ascoltatemi bene esclamò Erry quasi arrabbiato perché Ron e Ermione sorridevano entrambi ascoltatemi d'accordo a dirlo così sembra grandioso ma è stata tutta fortuna io non ho mai saputo che cosa stavo facendo non ho mai avuto un piano ho solo fatto quello che mi passava per la testa e quasi sempre sono stato aiutato Ron e Ermione sorridevano ancora Erry sentì montare la collera non sapeva nemmeno perché fosse così infuriato non fate quella faccia come se la sapeste più lunga di me io c'ero capito gridò accalorato io so che cosa è successo va bene e me la sono cavata non perché ero bravo in difesa contro le arti oscure me la sono cavata perché perché mi è arrivato un aiuto al momento giusto o perché ho indovinato ma sono andato alla cieca non avevo la minima idea di quello che facevo piantatela di ridere la ciotola di essenza di pur vincolo cadde a terra e si ruppe Erry si ritrovò in piedi anche se non ricordava di essersi alzato grattastinchi schizzò via sotto un divano il sorriso di lonna Ermione era svanito voi non sapete che cosa vuol dire voi nessuno di voi ha mai dovuto affrontare niente del genere pensate che basti imparare a memoria un paio di incantesimi e buttarli lì addosso come si fa in classe invece non c'è nulla fra te e la tua morte tranne il il cervello o il fegato o quello che è come fai a ragionare quando sai che tra un nanosecondo sarai assassinato o torturato o vedrai morire i tuoi amici non ce l'hanno mai insegnato in classe ad affrontare una cosa come questa e voi due ve ne state lì come se io fossi ancora vivo perché sono in gamba mentre Digori è stato uno stupido ha sbagliato tutto non lo capite poteva capitare a me e sarebbe capitato se Voldemort non avesse avuto bisogno di me non stavamo dicendo niente del genere Harry ribatte Ron sballordito non diremmo mai niente su Digori noi non hai frainteso disarmato guardò Hermione che aveva un'espressione ferita Harry disse lei timidamente ma non vedi è per questo che abbiamo bisogno di te dobbiamo sapere che cosa vuol dire davvero affrontarlo affrontare Voldemort era la prima volta che pronunciava il nome di Voldemort e fu questo più di ogni altra cosa a calmare Harry con il respiro ancora affannato ricadde sulla poltrona rendendosi conto che la mano continuava a pulsargli terribilmente avrebbe tanto voluto non aver rotto la ciotola di essenza di pur vincolo allora pensaci disse piano Hermione per favore Harry non trovò niente da dire già si vergognava della sua sfuriata annui astento cosciente di quello che stava accettando di fare Hermione si alzò beh io vado a letto disse con voce che si sforzava di essere naturale notte anche Ron si era alzato vieni chiese a disagio sì rispose Harry fra un minuto ripulisco qui e arrivo indicò la ciotola rotta sul pavimento Ron annui e se ne andò reparo mormorò Harry puntando la bacchetta contro i frammenti di porcellana quelli si riavvicinarono in un baleno e la ciotola tornò come nuova ma non c'era modo di far tornare l'essenza di pur vincolo all'improvviso Harry si sentì così stanco che fu tentato di sprofondare di nuovo nella poltrona e dormire lì ma si costrinse ad alzarsi e seguire Ron di sopra la sua notte inquieta fu costellata di sogni di lunghi corridoi e porte chiuse a chiave e il mattino dopo si svegliò con la cicatrice che bruciava di nuovo grazie a tutti